doldeimus excel presenta dracula di bram stalker versione integrale buon ascolto capitolo primo dal diario di jonathan arker 3 maggio bistrita lasciata monaco le 20 35 del primo maggio arrivato a vienna la mattina seguente di buon ora arrivo previsto per le 6 e 46 ma il treno aveva un'ora di ritardo budapest sembra un posto meraviglioso dallo scorcio che ne ho avuto dal treno e da quel poco che ho potuto passeggiare per le strade avevo paura ad allontanarmi troppo dalla stazione dato che eravamo arrivati tardi e che saremmo ripartiti il più possibile in orario l'impressione che ne ho avuto è che si stesse lasciando l'occidente per entrare nell'oriente il più occidentale tra gli splendidi ponti del danubio che qui è di nobile ampiezza e profondità ci introduce alle tradizioni dell'impero turco siamo partiti abbastanza in orario e giunti a clausenburg dopo il tramonto qui ho trascorso la notte all'hotel royal per pranzo o meglio per cena ho mangiato un pollo cucinato al peperoncino molto buono ma metteva una sete ricordarsi farsi dare la ricetta per mina ho domandato al cameriere il quale ha detto che si chiamava paprika handle e che trattandosi di un piatto nazionale potevo trovarlo in tutti i carpazzi ho scoperto che la mia infarinatura di tedesco è davvero molto utile da queste parti non so come me la sarei cavata altrimenti avendo avuto del tempo a disposizione a londra era andato al british museum e avevo fatto delle ricerche nella biblioteca tra i libri e le carte geografiche della transilvania mi era parso che qualche conoscenza del paese non avrebbe mancato di avere una certa importanza dovendo trattare con un nobile del luogo scopro che il distretto da lui menzionato si trova nella parte più orientale del paese proprio al confine di tre stati la transilvania la moldavia e la bucovina nel centro dei carpazzi una delle regioni più selvagge e meno conosciute d'europa non mi è riuscito di scovare nessuna carta né testo che desse l'esatta ubicazione di castel dracula dato che non ci sono ancora mappe del paese che si possano paragonare alle nostre carte topografiche militari ma ho scoperto che bistrita la stazione di posta citata dal conte dracula è una cittadina piuttosto nota inserisco qui qualche appunto che potrà contribuire a rinfrescarmi da memoria quando racconterò dei miei viaggi a mina tra la popolazione della transilvania si trovano quattro nazionalità distinte a sud i sassoni e mescolati a loro i valacchi discendenti dei daci a ovest i maggiari e a nord e est gli zecheli mi dirigo fra questi che sostengono di discendere da attila e dagli unni potrebbe essere vero perché quando i maggiari conquistarono il paese nell'undicesimo secolo trovarono che vi si erano già insediati gli unni ho letto che ogni possibile superstizione è annidata nel ferro di cavallo dei carpazzi come se fosse il centro di un qualche vortice dell'immaginazione se così è il mio soggiorno potrà rivelarsi assai interessante ricordarsi devo chiedere al conte tutte le informazioni in merito non ho dormito bene anche se il letto era piuttosto comodo perché ho fatto ogni sorta di strani sogni per tutta la notte un cane ha ululato sotto la mia finestra e questo potrebbe avere inciso o forse è stata la paprika tanto che ho dovuto bere tutta l'acqua della caraffa e aveva ancora sete verso mattina mi ha svegliato un bussare insistente alla porta quindi credo che a quel punto dovevo essere profondamente addormentato per colazione ho mangiato dell'altra paprika e una specie di porridge di farina di mais che chiamano mamaliga e melanzane ripiene di carne macinata e speziata un piatto squisito che chiamano impletata ricordarsi farsi dare anche questa ricetta ho dovuto affrettare la colazione perché il treno partiva poco prima delle 8 ossia sarebbe dovuto partire perché dopo essere corso alla stazione alle 7 30 ho dovuto aspettare per più di un'ora in carrozza prima che cominciasse a muoversi ho come la sensazione che più si vada verso est meno puntuali siano i treni chissà in cina per tutto il giorno ho avuto l'impressione che stessimo attraversando un paese ricco di ogni bellezza di quando in quando si vedevano cittadine o castelli arroccati su alture scoscese come quelle che illuminano gli antichi messali altre volte correvamo lungo fiumi e riuscelli che a giudicare dagli ampi argini di pietra su entrambe le sponde sembravano soggetti a grandi piene ci vuole molta acqua e impetuosa per spazzare via la vegetazione dai margini di un fiume in ogni stazione c'erano gruppi di persone a volte una folla abbigliati nelle fogge più varie alcuni erano vestiti come i cittadini da noi o come quelli che ho visto attraversando la francia e la germania giacche corte cappelli tondi e pantaloni fatti in casa ma altri erano molto pittoreschi le donne erano carine se non le si guardava da vicino ma erano goffe intorno alla vita avevano tutte ampie maniche bianche di un tipo o dell'altro e per la più parte portavano delle grandi cinture con molte strisce di qualcosa che svolazzava come degli abiti da balletto ma naturalmente sotto c'erano le sottane i figuri più strani che abbiamo visto erano gli slovacchi più barbari degli altri con grandi cappelli da mandriani larghi pantaloni bianco sporco camice di lino bianco ed enormi cinturoni di cuoio alti quasi un piede tempestati di borchi ed ottone portavano stivali alti con i pantaloni ficcati dentro e avevano i capelli neri e lunghi baffoni neri sono molto pittoreschi ma hanno un'aria niente affatto simpatica sul palcoscenico li si prenderebbe subito per una banda di briganti levantini mi dicono però che siano innocui e piuttosto incapaci di farsi valere il crepuscolo cedeva ormai al buio quando siamo arrivati a bistrita che è una cittadina molto antica e interessante trovandosi praticamente al confine perché da lì il passo borgo porta nella bucovina non ha avuto vita facile e indubbiamente ne porta i segni 50 anni fa c'è stata una serie di grandi incendi che per ben cinque volte hanno avuto conseguenze disastrose all'inizio del diciassettesimo secolo ha subito un assedio di tre settimane e in 13.000 hanno perso la vita alle vittime della guerra si sono aggiunte quelle della carestia e delle epidemie il conte dracula mi aveva indirizzato all'hotel golden crown che ho scoperto con grande piacere essere assolutamente antiquato perché come naturale volevo conoscere per quanto fosse possibile le usanze del paese evidentemente mi aspettavano perché non appena mi sono avvicinato alla porta mi sono trovato davanti una donna anziana dall'aspetto gioviale nel solito costume contadino sotto gonna bianca con un lungo grembiule doppio davanti e dietro di una stoffa colorata fin troppo aderente per essere pudica quando mi sono avvicinato ha fatto un inchino e ha detto siete la inglese sì ho risposto jonathan arker ha sorriso e ha detto qualcosa a un vecchio in maniche di camicia bianca che l'aveva seguita alla porta il vecchio si è allontanato ma è tornato immediatamente con una lettera amico mio benvenuto nei carpazzi vi attendo con ansia dormite bene questa notte la corriera per la bucovina partirà domani alle tre del pomeriggio vi è stato riservato un posto al passo borgo vi aspetterà la mia carrozza per portarvi a me confido che il viaggio da londra sia stato felice e che apprezzerete il soggiorno nella mia bella terra il vostro amico dracula 4 maggio ho scoperto che l'albergatore aveva ricevuto una lettera del conte in cui gli si chiedeva di assicurarmi il posto migliore sulla corriera ma quando l'ho interrogato sui dettagli mi è parso un po' reticente e ha fatto finta di non comprendere il mio tedesco il che non poteva essere vero perché fino a quel momento l'aveva capito alla perfezione o almeno aveva risposto puntualmente alle mie domande con la moglie la donna anziana che mi aveva accolto si sono scambiati uno sguardo spaventato lui ha borbottato che il denaro era arrivato per posta e che non sapeva altro quando gli ho chiesto se conosceva il conte dracula e se mi poteva dire qualcosa del suo castello si sono fatti tutti e due il segno della croce dicendo che non ne sapevano niente di niente e si sono rifiutati di aggiungere altro era così vicino il momento della partenza che non ho avuto tempo di chiedere informazioni a qualcun altro ma la cosa mi è parsa molto misteriosa e niente affatto rassicurante stavo quasi per lasciare l'albergo quando la donna è venuta in camera e mi ha detto istericamente dovete proprio andare o giovane her dovete andare era in uno stato di tale agitazione che sembrava aver dimenticato quel po di tedesco che sapeva e lo mescolava con una lingua che non conosco riuscivo a malapena a seguirla e solo a forza di domande quando le ho detto che dovevo assolutamente partire subito e che avevo affari importanti di cui occuparmi mi ha chiesto di nuovo sapete che giorno è oggi le ho risposto che era il 4 maggio ha scosso la testa e ha ripetuto oh sì lo so lo so ma sapete che giorno è oggi e dato che le ho detto che non capivo che cosa volesse dire ha proseguito è la vigilia di san giorgio non sapete che oggi al tocco della mezzanotte si scateneranno tutte le forze del male che esistono al mondo sapete dove state andando e verso cosa era in un tale stato di angoscia che ho cercato di confortarla ma inutilmente infine si è inginocchiata e mi ha implorato di non andare o almeno di aspettare un giorno o due prima di partire era tutto molto ridicolo ma non mi sentivo a mio agio comunque c'erano gli affari di cui occuparsi e non potevo permettere che alcunché interferisse così ho cercato di farla alzare e le ho detto con tutta la serietà possibile che la ringraziavo ma che il mio dovere era tassativo e che dovevo assolutamente partire al che si è alzata si è asciugata le lacrime e togliendosi il crocefisso che portava al collo me l'ha offerto non sapevo cosa fare perché da buon anglicano mi hanno insegnato a considerare queste cose come una sorta di idolatria eppure sembrava così scortese respingere una vecchietta animata di buone intenzioni e in un tale stato d'animo deve aver colto l'espressione del dubbio sul mio viso perché mi ha messo il rosario al collo dicendo per amore di vostra madre ed è uscita dalla stanza sto scrivendo questa parte del diario mentre aspetto la corriera che ovviamente è in ritardo e ho ancora il crocifisso al collo se sia colpa delle paure di quella donna o delle molte tradizioni lugubri del luogo o del crocifisso stesso non lo so ma non mi sento sereno come al solito se questo diario dovesse raggiungere mina prima di me che le porti il mio dio ecco la corriera 5 maggio al castello il grigiore del mattino è scomparso e il sole è alto sull'orizzonte lontano che pare frastagliato non saprei dire se dagli alberi o dalle montagne perché è così distante che le cose piccole e le grandi si confondono non ho voglia di dormire e dato che nessuno verrà a disturbarmi prima del risveglio scriverò fino a che non arriva il sonno ci sono così tante stranezze da segnalare e perché chi mi legge non immagini che abbia fatto una cena troppo abbondante prima di partire da bistrita permettetemi di scrivere esattamente in che cosa è consistito il pasto ho mangiato quella che qui chiamano la bistecca del tagliaborse pezzetti di pancetta affumicata cipolla e manzo spruzzati di pepe rosso e infilati sugli spiedini poi arrostiti sul fuoco proprio come si fa a londra con la carne di cavallo il vino era un golden medias che lascia uno strano pizzicorino sulla lingua per nulla sgradevole ne ho bevuti soltanto un paio di bicchieri e null'altro quando sono salito sulla corriera il cocchiere non era ancora montato e l'ho visto confabulare con la padrona della locanda parlavano sicuramente di me perché di quando in quando mi gettavano un'occhiata e alcune delle persone che sedevano sulla panca accanto alla porta una panca che chiamano con un termine che significa passaparola si alzavano per ascoltare e poi mi guardavano i più con compatimento ho sentito ripetere diverse volte alcune parole parole strane perché nel gruppo c'erano persone di nazionalità diversa così senza dire nulla ho estratto dalla borsa il mio dizionario poliglotta e l'ho consultato devo dire che la cosa non mi ha rallegrato perché fra loro ho trovato ordog satana pokol inferno stregoica strega o stregone vrolok e vlcoslac che significano la stessa cosa l'una in slovacco e l'altra in serbo e cioè lupo mannaro vampiro ricordarsi devo chiedere al conte di queste superstizioni quando siamo partiti la folla intorno alla porta della locanda che a quel punto aveva raggiunto dimensioni considerevoli si è fatta il segno della croce puntando due dita nella mia direzione con qualche difficoltà sono riuscito a farmi dire da un compagno di viaggio che cosa significasse da prima non voleva rispondermi ma poi venendo a sapere che ero inglese mi ha spiegato che era un incantesimo o uno scongiuro contro il malocchio non mi ha fatto grande piacere essendo in partenza per un luogo ignoto dove mi aspetta uno sconosciuto ma sembravano tutti così gentili e così dispiaciuti e così partecipi che non ho potuto fare a meno di commuovermi non dimenticherò mai l'ultimo scorcio del cortile della locanda e del suo pittoresco gruppo di persone che si segnavano intorno alla grande volta con lo sfondo lussoreggiante di oleandri e aranci raccolti al centro del cortile in grandi mastelli poi il nostro postiglione i cui ampi calzoni di tela li chiamano gozza scendevano a coprire l'intero posto a cassetta ha schioccato la grande frusta su quattro cavalli imbrigliati l'uno a fianco all'altro e il nostro viaggio è incominciato la bellezza del panorama che attraversavamo mi ha fatto presto dimenticare ogni ricordo di quei lugubri timori ma forse se avessi compreso la lingua o piuttosto le lingue dei miei compagni di viaggio non sarei riuscito a lasciarmeli facilmente alle spalle di fronte a noi si estendeva una verde terra sinuosa piena di boschi e foreste qui e là si ergeva un'altura più ripida sulla quale troneggiava un ciuffo d'alberi o una fattoria con il frontale spoglio affacciato sulla strada tutto intorno una sorprendente dovizia di alberi in fiore meli prugni peri ciliegi e superandoli scorgevo il tappeto d'erba cosparso di petali caduti come tanti lustrini la strada correva tra le verdi colline di quella che qui chiamano la mittenland snodandosi intorno a una curva erbosa o nascosta alle viste delle ultime propaggini dei boschi di conifere che di quando in quando percorrevano i crinali come lingue di fuoco la strada era accidentata eppure sembravamo volarci sopra in preda una furia febbrile non riuscivo a comprendere la ragione di tale fretta ma il postiglione era evidentemente deciso a raggiungere borgo prund senza frapporre indugi mi hanno detto che d'estate la strada è tenuta in condizioni eccellenti ma che non era ancora stata riparata dopo le nevicade invernali se questo era vero si discosta dalle altre strade dei carpazzi che per antica tradizione non vanno mai tenute troppo in ordine in passato gli hospadar non le riparavano per non indurre i turchi a pensare che si stessero preparando a ricevere truppe straniere affrettando così una guerra sempre sul punto di scoppiare oltre alle rigogliose e tondeggianti colline della mittenland si ergevano imponenti pendii di foreste che conducevano fino ai picchi dei carpazzi torreggiavano alla nostra destra e a sinistra e il sole del meriggio li illuminava evocando i magnifici colori di questa splendida catena azzurri intensi e viola nelle ombre delle vette verdi e bruni dove l'erba si mescolava alla pietra e una prospettiva infinita di rocce frastagliate e aguzzi di rupi che si perdeva in lontananza dove le cime innevate si ergevano maestose qui e là si aprivano nel fianco della montagna profonde crepe nelle quali ai raggi del sole calante distinguevamo il bagliore bianco di una cascata uno dei miei compagni mi ha toccato il gomito quando all'uscita della curva alla base di una collina ci si è aperta la vista di un nobile picco innevato che per la tortuosità del cammino pareva sorgere proprio davanti a noi guardate il trono di dio e si è fatto devotamente il segno della croce a mano a mano che proseguivamo lungo l'interminabile strada sarpeggiante alle nostre spalle il sole continuava a scendere e le oscurità pareva ancora più fonda per il contrasto con la cima innevata illuminata dal tramonto di un rosa freddo e delicato di tanto in tanto incontravamo cechi e slovacchi in abiti pittoreschi ma ho notato che il gozzo era dolorosamente prevalente sul ciglio della strada c'erano molte croci e quando le passavamo tutti i miei compagni di viaggio si segnavano qua e là si vedevano un contadino o una contadina inginocchiati davanti a un'edicola che non si voltavano neppure al nostro passaggio ma sembravano rapiti in preghiera privati d'occhi d'orecchi per il mondo esterno molte cose mi erano nuove le biche di fieno tra gli alberi e qui e là splendide macchie di betulle i cui fusti lucevano come argento tra il verde delicato delle foglie talvolta incontravamo un carro a pianale quel carro tipico con le lunghe vertebre serpentine pensate per adattarsi alle esperità del terreno su ognuno sedevano gruppi di contadini che rientravano a casa tutti con le giacche di montone bianche per i ciechi e colorate per gli slavacchi i quali portavano a modi lancia i lunghi bastoni con l'ascia in punta col calare della sera ha cominciato a fare molto freddo e il crepuscolo che avanzava sembrava affondere in un'unica bruma caliginosa le macchie degli alberi le querce i faggi i pini per quanto nelle valli che scendevano profonde tra gli speroni delle colline mentre salivamo verso il passo gli abiti scuri si stagliavano qui e là contro lo sfondo delle ultime nevi talvolta quando la strada tagliava le pinete che nell'oscurità sembravano richiudersi sopra di noi grandi masse di grigiore disseminate qua e là fra gli alberi creavano un effetto particolarmente fatale e solenne che alimentava i pensieri e le cupe fantasie nata in precedenza quella sera quando il tramonto aveva conferito uno strano rilievo alle nubi spettrali che sui carpazzi sembravano muoversi incessantemente fra le valli a volte le colline erano così erte che nonostante la fretta del postiglione i cavalli procedevano a rilento volevo scendere per accompagnarli come facciamo da noi ma il cocchiere non ne ha voluto sapere no no ha detto non si può andare a piedi da queste parti i cani sono troppo feroci e poi ha aggiunto quello che evidentemente intendeva essere uno scherzo macabro perché si è guardato intorno per cogliere il sorriso d'approvazione degli altri probabilmente ne vedrete fin troppe prima di andare a dormire l'unica fermata che ha fatto è stata per accendere i fanali quando il buio è sceso c'è stato un po di concitazione fra i passeggeri che continuavano a rivolgersi a lui uno dopo l'altro come se volessero spingerlo ad andare ancora più in fretta spronava impietosamente i cavalli con la lunga frusta e con urla di incoraggiamento li esortava sforzi maggiori poi nell'oscurità ho intravisto una sorta di chiazza di luce grigiastra davanti a noi come se tra le colline si aprisse una fenditura l'eccitazione dei passeggeri è aumentata la corriera impazzita rollava sulle grandi molle di cuoio onneggiando come una barca su un mare in tempesta ero costretto ad aggrapparmi la strada si è fatta più pianeggiante e pareva di volare quindi mi è sembrato che le montagne si stringessero intorno a noi aggrottandosi minacciose stavamo arrivando al passo borgo a uno a uno molti passeggeri mi hanno offerto un dono insistendo perché lo accettassi con una serietà che non ammetteva rifiuti erano doni bizzarri e vari ma ognuno mi era stato dato in buona fede con una parola gentile una benedizione e quella strana mescolanza di gesti impregnati di paura che avevo visto davanti all'albergo di bistrita il segno della croce e lo scongiuro contro il malocchio poi mentre volavamo lungo la strada il postiglione si è teso in avanti e sui due lati della carrozza altrettanto hanno fatto i passeggeri allungando il collo a scrutare l'oscurità era evidente che stava succedendo qualcosa di molto eccitante o almeno si aspettavano che succedesse ma per quanto abbia fatto domande a ogni passeggero nessuno mi ha fornito la minima spiegazione questo stato d'agitazione è proseguito per un po infine abbiamo visto il passo che si apriva a oriente sulle nostre teste si agitavano nere nubi e nell'aria c'era quel senso pesante oppressivo che precede il tuono sembrava che la catena montuosa avesse separato due atmosfere e noi fossimo entrati in quella tempestosa a questo punto anch'io cercavo con gli occhi il mezzo di trasporto che mi avrebbe condotto dal conte da un attimo all'altro mi aspettavo di vedere il guizzo di una lampada nell'oscurità ma era tutto buio l'unica luce proveniva dai raggi tremoli dei nostri fanali in cui saliva la nuvola bianca di vapore generato dai nostri cavalli spinti allo stremo davanti a noi vedevamo ora la bianca strada sabbiosa ma non c'era nessuna traccia di veicolo i passeggeri si sono abbandonati ai sedili con un sospiro di sollievo che sembrava deridere la mia delusione stavo già pensando che cosa fosse meglio fare quando il postiglione consultando l'orologio ha detto qualcosa agli altri che a malapena sono riuscito a udire tanto era sommesso il tono della sua voce mi è parso che dicesse un'ora di anticipo poi rivolgendosi a me ha detto in un tedesco peggiore del mio non c'è carrozza qui dopo tutto nessuno aspetta l'air verrà ora in bucovina e tornerà domani o il giorno dopo meglio il giorno dopo mentre parlava i cavalli si sono messi a nitrire a sbuffare e a scalpitare nervosi tanto che il postiglione ha dovuto trattenerli poi tra un coro di grida da parte dei contedini e un segnarsi generale ci ha raggiunti un calesse tirato da quattro cavalli accostato e si è fermato al fianco della corriera alla luce dei nostri fanali i cui racci cadevano sui cavalli ho notato che si trattava di animali splendidi neri come il carbone li guidava un uomo alto con una lunga barba scura e un grande cappello nero che sembrava nascondergli il viso alla nostra vista mentre si voltava verso di noi ho scorto lo scintillio degli occhi molto accesi che parevano rossi alla luce dei fanali ha detto al postiglione siete in anticipo questa sera amico mio l'uomo ha balbettato in risposta l'erre inglese era di fretta al che lo sconosciuto ha replicato per questo immagino gli avete consigliato di proseguire fino in bucovina no non mi potete ingannare amico mio io so troppe cose e i miei cavalli sono veloci parlando ha sorriso e la luce dei fanali è caduta sulla bocca dura con labbra molto rosse e denti aguzzi bianchi come l'avorio un mio compagno di viaggio ha sussurrato a un altro il verso della lenore di burger poiché i morti viaggiano veloci lo strano corriere ha evidentemente udito le parole perché ha alzato lo sguardo con il lampo di un sorriso il passeggero ha distolto il viso puntando allo stesso tempo due dita e facendoci il segno della croce datemi il bagaglio dell'erre ha detto il cocchiere e con estrema lacrità le mie valigie sono state passate e sistemate nel calesse quindi sono sceso dalla corriera e dato che il calesse era alato il cocchiere mi ha teso la mano stringendomi il braccio in una morsa d'acciaio la sua forza doveva essere prodigiosa senza una parola ha scosso le redini i cavalli hanno girato e ci siamo diretti verso il buio del passo volgendomi ho visto il vapore dei cavalli della corriera alla luce dei fanali e stagliate contro di esso le figure di quelli che erano stati i miei compagni di viaggio che si facevano il segno della croce poi il postiglione ha schioccato la frusta e richiamato i cavalli che sono partiti alla volta della bucovina quando li ho visti scomparire nell'oscurità ho provato un brivido strano e un sentimento di solitudine si è impadronito di me ma mi è stata gettata una mantella sulle spalle e una coperta da viaggio sulle ginocchia mentre il cocchiere diceva in perfetto tedesco la notte è gelida mein heart e il conte mio padrone mi ha ordinato di avere la massima cura di voi c'è una fiaschetta di slivovitz sotto il sedile se doveste sentirne la necessità non ho bevuto ma era comunque un conforto sapere che c'era mi sentivo un po strano e non poco spaventato credo che se ci fosse stata un'alternativa l'avrei colta invece di proseguire quel viaggio ignoto nella notte la vettura ha proseguito di gran carriera lungo la strada poi abbiamo fatto un giro completo abbiamo preso un'altra strada di vita mi pareva che si stesse percorrendo il medesimo tragitto più e più volte così ho preso mentalmente nota di un punto cruciale ho scoperto che era proprio così avrei voluto chiedere al cocchiere quale ne fosse la ragione ma avevo paura di farlo poiché pensavo che nella posizione in cui mi trovavo qualsiasi protesta non avrebbe avuto il benché minimo effetto nel caso ci fosse stata l'intenzione di procrastinare a un certo punto però dato che ero curioso di sapere quanto tempo fosse passato ho acceso un fiammifero e alla sua fiamma ho controllato l'orologio mancavano pochi minuti alla mezzanotte questo mi ha procurato un certo turbamento in quanto la superstizione che comunemente si accompagna allo scoccare della mezzanotte era intensificata dalle mie esperienze recenti ho atteso con uno sgradevole senso di sospensione allora un cane ha cominciato a ululare da qualche parte in una fattoria lungo la strada un lamento lungo angoscioso che pareva dettato dalla paura il richiamo è stato raccolto da un altro cane e poi da un altro e da un altro ancora finché trasportato dal vento che ora aspirava lieve attraverso il passo si è elevato un latrare selvaggio che pareva provenire dall'intero paese dai confini estremi a cui perveniva l'immaginazione attraverso la tenebra della notte al primo ululato i cavalli si sono impennati e hanno cominciato a retrocedere ma il cucchiere ha parlato loro in tono di conforto e si sono calmati tuttavia tremavano e sudavano come scampate un'improvvisa paura poi in lontananza dalle montagne a destra e a sinistra della carrozza si è elevato un ululato più forte e più acuto l'urlo dei lupi che ha sconvolto i cavalli e me allo stesso modo perché ho pensato di saltar giù dal calesse e correre via mentre loro indietreggiavano e impennavano come impazziti sicché il cucchiere ha dovuto usare tutta la sua forza per trattenerli nel giro di pochi minuti però le mie orecchie si sono abituate all'ululare e i cavalli si sono acquietati così che il cucchiere è potuto scendere davanti a loro li ha accarezzati e tranquillizzati e ha bisbigliato loro qualcosa negli orecchi come ho visto fare ai domatori e con effetto straordinario perché grazie alle sue carezze si sono fatti di nuovo docili pur continuando a tremare il cucchiere è risalito e scuotendo le redini è partito di gran carriera questa volta giunti fino in fondo al passo ha improvvisamente svoltato per una stradina stretta che sbucava sulla destra presto ci siamo trovati contornati da alberi che in alcuni punti si chinavano sulla strada a formare una galleria e di nuovo grandi rocce aggrottate ci osservavano con sfrontatezza da entrambi i lati anche se ci trovavamo in un luogo riparato sentivamo alzarsi il vento che gemeva e soffiava fra le rocce e i rami degli alberi cozzavano l'uno contro l'altro al nostro passaggio si è fatto sempre più freddo ed è cominciata a cadere una neve fine come cibria e presto ci siamo trovati coperti con tutto ciò che ci circondava da una coltra bianca il vento impetuoso portava ancora all'ullulare dei cani anche se si faceva sempre più debole a mano a mano che procedevamo il latrato dei lupi pareva sempre più vicino come se ci stessero circondando da ogni lato mi è presa una terribile paura e i cavalli condividevano il mio terrore al cocchiere non era minimamente turbato continuava a girare il capo a destra e a manca eppure io non riuscivo a scorgere nulla nell'oscurità d'un tratto lontano alla nostra sinistra ho notato il debole bagliore di una fiamma azzurra il cocchiere la scorta nello stesso istante ha immediatamente fermato i cavalli e con un salto è scomparso nel buio non sapevo che fare tanto più che l'ullulato dei lupi si avvicinava ma mentre mi interrogavo così è ricomparso il cocchiere e senza una parola si è seduto al suo posto e il viaggio è ripreso credo di essermi addormentato e di aver continuato a sognare l'accaduto perché sembrava ripetersi all'infinito e ora a ripensarci mi pare un incubo terribile una volta la fiamma è apparsa così vicino alla strada che pur nell'oscurità sono riuscito a osservare i movimenti del cocchiere si è diretto rapidamente verso la fiamma azzurra doveva essere molto tenue perché non sembrava affatto illuminare il luogo circostante e prendendo alcune pietre le ha disposte in un certo modo a un certo punto si è prodotto uno strano effetto ottico pur trovandosi fra me e la fiamma non la ostruiva infatti riuscivo a coglierne ugualmente il pallore spettrale la cosa mi ha sorpreso ma l'effetto è stato solo momentaneo e ne ho dedotto che a furia di sforzarsi nell'oscurità gli occhi mi avevano ingannato poi per un tratto non ci sono state più fiamme azzurre e abbiamo continuato a correre nel buio circondati dall'unulato dei lupi che parevano seguirci in cerchio infine è arrivato un momento in cui il cocchiere si è allontanato più di ogni altra volta e durante la sua assenza i cavalli si sono messi a tremare più che mai e a sbuffare e anitrire impauriti non riuscivo a vederne la causa perché l'ululato dei lupi era cessato del tutto ma proprio in quel momento la luna veleggiando tra le nubi nere è apparsa dietro la cresta frastagliata di uno strappiombo coperto di pini e alla sua luce ho visto intorno a noi un cerchio di lupi con i denti bianchi e le lingue rosse penzolanti le lunghe membra muscolose e il pelo ispido nel silenzio opprimente che li circondava erano cento volte più terribili di quando ululavano quanto a me ero paralizzato dalla paura è solo quando un uomo si trova faccia a faccia con tali orrori che ne può comprendere la vera portata improvvisamente i lupi hanno preso a ululare come se il chiaro di luna avesse su di loro un effetto particolare i cavalli impennavano e arretravano guardandosi intorno disperati roteando gli occhi in un modo pietoso a vedersi ma l'anello vivente di terrore li circondava da ogni lato ed erano costretti a rimanervi dentro ho lanciato un grido al cocchiere perché mi sembrava che l'unica nostra possibilità fosse di spezzare quell'anello consentendogli di avvicinarsi gridavo e battevo contro il fianco del calesse sperando che il rumore spaventasse i lupi da quella parte così da dare al cocchiere la possibilità di raggiungere il veicolo come sia arrivato non lo so ma ho sentito alzarsi la sua voce in tono imperioso e cercando con lo sguardo quel suono l'ho visto in mezzo alla strada ha aperto le lunghe braccia come voler spazzare via qualche ostacolo impalpabile e i lupi sono arretrati sempre di più proprio in quel momento una nuvola plumbe ha coperto il volto della luna e siamo ripiombati nell'oscurità quando sono tornato a vedere il cocchiere stava montando sul calesse e i lupi erano scomparsi tutto ciò era così strano sconcertante che una terribile paura mi ha salito e temevo di parlare o di muovermi mentre proseguivamo nell'oscurità quasi totale il tempo sembrava interminabile perché le nuvole in movimento oscuravano la luna continuavamo a salire con tratti occasionali di rapida discesa d'un tratto mi sono reso conto che il cocchiere stava arrestando i cavalli nel cortile di un vasto castello in rovina dalle cui alte finestre non filtrava alcun raggio di luce e i cui bastioni diroccati si profilavano frastagliati contro il cielo illuminato dalla luna capitolo 2 dal diario di jonathan arker continuazione 5 maggio dovevo essermi assopito perché se fossi stato completamente sveglio avrei di certo notato l'approssimarsi di un posto così singolare nella penombra il cortile pareva di proporzioni considerevoli e dato che si aprivano svariati passaggi scuri sotto i grandi archi a tutto sesto sembrava forse più grande di quanto non sia in realtà non sono ancora riuscito a vederlo alla luce del giorno quando il calesse si è fermato il cocchiere è saltato a terra e mi ha teso la mano per aiutarmi a scendere ancora una volta non ho potuto fare a meno di notare la sua forza prodigiosa la sua mano sembrava una morsa d'acciaio che volendo avrebbe potuto stritolare la mia poi ha preso le valigie e le ha posate accanto a un grande portone antico trapunto di borchie di ferro e affondato in un portale aggettante di pietra massiccia pur nella luce fioca mi sono reso conto che la pietra era abbondantemente scolpita ma che gli intarsi erano consumati dagli anni e dalle intemperie intanto il cocchiere era saltato a cassetta e scuoteva le redini i cavalli sono partiti e il calesse è scomparso nel buio di un andito sono rimasto lì fermo in silenzio non sapevo cosa fare non c'era segno di campanella o di battente ed era improbabile che la mia voce potesse filtrare attraverso quelle mura torve e quelle finestre cieche l'attesa mi è parsa interminabile e mi sono sentito assalire da dubbi e paure in che posto ero finito e in mezzo a che gente in quale nefasta avventura mi era imbarcato era forse questo un episodio abituale della vita del praticante di uno studio legale inviato a discutere con uno straniero l'acquisto di una proprietà a londra praticante a mina non piacerebbe questa definizione procuratore legale piuttosto perché poco prima di lasciare londra ho saputo che l'esame è andato bene e sono un procuratore a tutti gli effetti ho cominciato a stropicciarmi gli occhi e a darmi pizzicotti per accertarmi di essere sveglio sembrava un terribile incubo e aspettavo di svegliarmi da un momento all'altro ritrovandomi a casa con l'alba che a fatica si insinuava dalle finestre come mi era capitato di quando in quando dopo una lunga giornata di troppo lavoro ma la carne rispondeva ai pizzicotti e gli occhi non si lasciavano ingannare ero proprio sveglio e mi trovavo nei carpazzi potevo soltanto pazientare e attendere che si facesse mattino appena arrivato a questa conclusione ho udito un passo pesante che si avvicinava al di là del portone e attraverso le fessure ho visto il bagliore di un lume che si appressava quindi rumore di catene e sferragliare di pesanti chiavistelli tirati una chiave ha girato nella toppa con un cigolio stridulo di un lungo disuso il portone si è spalancato all'interno c'era un vecchio alto sbarbato ma con lunghi baffi bianchi vestito di nero dalla testa ai piedi senza il minimo filo di colore in mano teneva un'antica lampada d'argento in cui la fiamma ardeva senza tubo o globo di sorta gettando lunghe ombre tremule mentre oscillava nella corrente del portone aperto il vecchio mi ha invitato a entrare con un gesto cortese della mano destra dicendomi in un inglese eccellente ma dallo strano accento benvenuto nella mia casa entrate liberamente di vostra spontanea volontà non ha fatto cenno di venirmi incontro ma è rimasto immobile come una statua come se quel gesto di benvenuto l'avesse pietrificato l'istante in cui ho varcato la soglia però si è mosso impulsivamente verso di me estendendo la mano afferrato la mia con una forza che mi ha fatto sussultare effetto non mitigato dal fatto che sembrava fredda come il ghiaccio più la mano di un morto che di un vivo di nuovo ha detto benvenuto nella mia casa entrate liberamente uscitene sano e salvo e lasciate un po' della felicità che portate la forza della sua stretta era simile a quella del cocchiere che non avevo visto in volto e per un attimo mi sono chiesto se non stessi parlando alla stessa persona quindi per accertarmene ho detto con fare interrogativo il conte dracula si è inchinato cerimoniosamente mentre mi rispondeva sono dracula e vi do il benvenuto mister harker nella mia casa entrate l'aria della notte è celida e avrete bisogno di mangiare e di riposare mentre parlava appeso la lampada a un braccio del muro poi è uscito ha preso i miei bagagli e li ha portati dentro prima che riuscisse impedirglielo ho protestato ma lui ha insistito no signore siete mio ospite è tardi e la servitù non è disponibile lasciate che mi occupi personalmente di voi si è ostinato a portare le mie valigie lungo il corridoio e poi su per un grande scalone a spirale e lungo un ampio corridoio sul cui pavimento di pietra echeggiavano pesanti i nostri passi alla fine di questo corridoio ha spalancato una porta massiccia e con gioia ho scorto dentro la stanza ben illuminata una tavola imbandita per la cena e un maestoso caminetto in cui ardeva crepitando un vivido fuoco di ceppi il conte si è arrestato ha posato i miei bagagli chiuso la porta e attraversando la stanza ne ha aperta un'altra che dava su una cameretta ottagonale illuminata da una sola lampada e apparentemente priva di qualsiasi finestra oltrepassando questa ha aperto un'ennesima porta e mi ha fatto segno di entrare è stata una vista gradita poiché si trattava di un'ampia camera da letto ben illuminata e riscaldata da un robusto fuoco di ciocchi che saliva ruggendo per l'ampio camino il conte stesso ha portato dentro il mio bagaglio e si è ritirato dicendo prima di chiudere la porta dopo questo viaggio avrete bisogno di rinfrescarvi alla toletta confido che troverete tutto ciò che desiderate quando siete pronto venite nell'altra stanza dove troverete la cena pronta la luce e il calore insieme alla cortesa accoglienza del conte sembravano aver dissipato ogni mio dubbio e paura avendo riacquistato la mia normale sensibilità ho scoperto di essere affamato così dopo una frettolosa toletta sono andato nell'altra stanza ho trovato la cena già servita il padrone di casa appoggiato alla cornice di pietra del grande camino ha indicato la tavola con un elegante cenno della mano e ha detto vi prego sedete e servitevi di ciò che vi aggrada sono certo che mi scuserete se non mi unisco a voi ma ho già pranzato e non cenno mai a quest'ora gli ho porto la lettera sigillata che mister hawkins mi aveva affidato la aperta e la letta con aria grave poi con un sorriso accattivante me la data da leggere un passo in particolare mi ha dato un fremito di piacere mi rincresce che un attacco di gotta infermità di cui soffro cronicamente mi impedisca qualsiasi viaggio nel prossimo futuro ma sono lieto di dire che sono in grado di potervi inviare un degno sostituto una persona in cui ripongo la massima fiducia è un giovane pieno d'energia e di un talento peculiare e di disposizione assai leale è discreto e riservato ed è cresciuto al mio servizio durante il soggiorno resterà a vostra completa disposizione ed eseguirà integralmente le vostre istruzioni il conte in persona si è fatto avanti a scoperchiare un piatto e io mi sono avventato su un eccellente pollo arrosto in questa è consistita la mia cena insieme a del formaggio un'insalata e una bottiglia di vecchio tocai di cui ho bevuto due bicchieri mentre mangiavo il conto mi ha rivolto tante domande sul viaggio e a poco a poco gli ho raccontato tutte le esperienze affrontate a questo punto terminata la cena avevo seguito l'invito del padrone di casa avvicinandomi una sedia al fuoco per fumare il sigaro che mi aveva offerto scusandosi nel contempo perché non fumava ho avuto l'opportunità di osservarlo meglio scoprendo che la sua fisionomia era assai marcata un volto aquilino decisamente aquilino un naso sottile dal ponte alto e dalle narici inusualmente arcuate una fronte alta e arrotondata e capelli radi sulle tempie ma volti altrove le sopracciglia erano molto spesse quasi si congiungevano sul naso e i peli erano cespugliosi e parevano arricciarsi tanto erano abbondanti la bocca per quel che potevo scorgere sotto i fitti baffi era tesa e aveva un taglio crudele con denti bianchi particolarmente aguzzi che spuntavano dalle labbra di un rosso acceso segno di straordinaria vitalità in un uomo così avanti negli anni per il resto aveva orecchie pallide ed estremamente appuntite il mento ampio e forte e le straordinario pallore fino a quel momento avevo osservato alla luce del fuoco il dorso delle sue mani poggiate sulle ginocchia e mi erano parse piuttosto bianche ed eleganti ma ora vedendole da vicino ho notato che erano alquanto grossolane larghe con le dita tozze strano a dirsi aveva dei peli nel centro del palmo le unghie erano lunghe fini e accuminate quando il conte mi si è avvicinato e mi ha sfiorato con le mani non ho potuto reprimere un brivido può essere di peso dall'alito fedido ma mi è preso un orribile senso di nausea che per quanto mi sforzassi non sono riuscito a nascondere il conte avendolo evidentemente notato si è ritratto e con una specie di sorriso bieco che scopriva ancora più i denti prominenti si è risieduto al posto vicino al fuoco per un po siamo rimasti entrambi in silenzio e quando ho rivolto lo sguardo alla finestra ho visto la prima tenue pennellata dell'alba che soproggiungeva sembrava che su tutto si fosse posata una strana immobilità ma tendendo l'orecchio ho sentito l'ululato di molti lupi provenire come dal fondo della valle gli occhi del conte hanno avuto un lampo quando mi ha detto ascoltate i figli della notte che musica la loro allora vedendo forse sul mio viso un'espressione strana ha aggiunto ah signore voi che abitate le città non potete comprendere i sentimenti del cacciatore quindi si è alzato e ha detto ma sarete stanco la vostra camera da letto è pronta e domani potete dormire finché vorrete io devo assentarmi fino al pomeriggio quindi dormite bene e sognate bene con un inchino mi ha aperto la porta della stanza ottagonale e sono entrato nella mia camera mi trovo in un mare di stupore dubito temo penso a cose strane che non oso confessare neppure alla mia anima che dio mi protegga se non altro per l'amore dei miei cari 7 maggio è di nuovo mattina presto ma ho riposato e trascorso piacevolmente le ultime 24 ore ieri ho dormito fino a tardi e mi sono svegliato da solo dopo essermi vestito sono andato nella stanza in cui avevamo cenato e ho trovato pronta una colazione fredda con il caffè mantenuto caldo in un bricco poggiato sul focolare sul tavolo c'era un biglietto su cui era scritto mi devo assentare per qualche tempo non mi attendete di così mi sono messo a tavola e ho gustato un lauto pasto terminata la colazione ho cercato il campanello per comunicare alla servitù che avevo finito ma non sono riuscito a trovarlo ci sono delle strane carenze in questa casa considerando le straordinarie dimostrazioni di ricchezza che mi circondano il servizio da tavola è d'oro e di fattura così squisita che deve valere una fortuna i tendaggi le tappezzerie delle poltrone e dei divani il mio baldacchino sono dei tessuti più belli e costosi e dovevano avere un valore immenso quando li hanno fatti perché sono vecchi di secoli ancorché in condizioni eccellenti ho visto qualcosa del genere a hampton court ma la stoffa era lisa sfilacciata e divorata dalle tarme eppure non c'era uno specchio in nessuna stanza neppure uno specchio da toletta sul mio tavolino tanto che ho dovuto prendere lo specchietto da barba dalla valigia per potermi radere e pettinare non ho ancora visto un servitore né udito un rumore nei pressi del castello che non fosse l'ululato dei lupi quando ho finito il pasto che non so se chiamare colazione o pranzo perché dovevano essere tra le 5 e le 6 ho cercato qualcosa da leggere giacché non volevo aggirarmi per il castello senza prima chiederne il permesso al conte non c'era assolutamente nulla nella stanza né libri né giornali e neppure carta e penna così ho aperto un'altra porta e ho trovato una sorta di biblioteca ho provato anche la porta di fronte alla mia ma era chiusa chiave nella biblioteca ho trovato con mio grande piacere un gran numero di libri inglesi interi scaffali e volumi rilegati di riviste e giornali il tavolo al centro era coperto di riviste e di giornali inglesi per quanto non troppo recenti i libri erano d'argomento assai vario storia geografia politica economia botanica geologia diritto tutti relativi all'inghilterra e ai costumi inglesi c'erano perfino testi di consultazione come la guida di londra i classici libri rilegati in rosso con l'elenco di tutti gli impiegati statali in servizio o in pensione e quelli in blu del parlamento inglese l'almanacco white taker gli annuari dell'esercito e della marina e qui mi si è allargato il cuore l'albo degli avvocati mentre guardavo i libri si è aperta la porta ed è entrato il conte mi ha salutato affabilmente dicendo che sperava che avessi riposato bene e poi ha aggiunto sono contento che siate riuscito a trovare la biblioteca perché sono certo che contiene molte cose di vostro interesse questi e ha appoggiato la mano su alcuni libri sono stati buoni amici per me e per diversi anni da quando ho avuto l'idea di andare a londra mi hanno offerto tante e tante ore piacevoli grazie a loro ho conosciuto la vostra grande inghilterra e conoscerla vuol dire amarla anello a passeggiare per le strade affollate della possente londra trovarmi nel centro del vortice febbrile dell'umanità condividerne la vita i cambiamenti la morte tutto ciò che la rende tale ma ahimè per ora conosco la vostra lingua solo attraverso i libri chiedo a voi amico mio se vi pare che la sappia parlare conte ho detto conoscete parlate l'inglese perfettamente si è inchinato con solennità vi ringrazio buon amico per la vostra stima così generosa ma io temo di avere appena intrapreso la strada che intendo percorrere è vero conosco la grammatica e i vocaboli ma non so ancora pronunciarli la vostra pronuncia è davvero eccellente ho risposto non è così ha replicato so che se mi muovessi e parlassi nella vostra londra a nessuno sfuggirebbe che sono uno straniero e questo non mi basta qui sono un nobile sono un boiardo la gente comune mi conosce come signore e padrone ma uno straniero in terra straniera non è nessuno la gente non lo conosce e non si può avere a cuore ciò che non si conosce io mi accontento di essere come gli altri affinché nessuno si fermi se mi vede o smetta di parlare se ho dalle mie parole per dire a uno straniero da così tanto tempo sono signore che vorrei continuare a esserlo o che almeno nessuno mi fosse padrone siete venuto da me non soltanto come incaricato del mio amico peter hawkins di exeter per dirmi quanto c'è da sapere sulla mia nuova proprietà di londra spero vi vogliate fermare qui con me per qualche tempo così che conversando io possa imparare l'intonazione inglese anzi vorrei che mi diceste quando parlando commette un errore anche il più piccolo sbaglio mi dispiace essermi dovuto sentare tanto a lungo oggi ma so che perdonerete chi ha così tanti affari importanti di cui occuparsi naturalmente gli ho assicurato in ogni modo la mia disponibilità e gli ho chiesto se potevo entrare in quella stanza quando lo desideravo lui ha risposto certamente e ha aggiunto potete andare dove vi pare nel castello tranne che nelle stanze chiusa chiave dove naturalmente non desidererete entrare c'è una ragione per cui ogni cosa è come è e se voi poteste vedere con i miei occhi e conoscere con la mia cognizione probabilmente comprendereste meglio gli ho detto che ne ero certo e allora lui ha continuato siamo in transilvania e la transilvania non è l'inghilterra le nostre usanze non sono le vostre e dovete trovare strane molte cose per quello che mi avete raccontato delle vostre esperienze quaggiù avete già avuto a che fare con le peculiarità di questo luogo questo ha portato a una lunga conversazione e dato che era evidente che voleva chiacchierare se non altro per il gusto di parlare gli ho fatto molte domande su cose che mi erano accadute o che avevo notato a volte eludeva il soggetto o cambiava argomento fingendo di non aver capito ma di solito rispondeva con assoluta franchezza le mie domande poi col passare dei minuti essendomi fatto un poco più audace gli ho domandato delle strane cose della notte precedente perché il cocchiere si fosse avventurato nei posti dove avevamo visto le fiamme azzurre per esempio era forse vero che segnavano i luoghi in cui era nascosto l'oro era credenza diffusa e ha spiegato che in una particolare notte dell'anno la notte scorsa appunto quando si suppone che gli spiriti maligni siano liberi di agire senza restrizione alcuna brilli una fiamma azzurra sopra il luogo in cui è stato nascosto un tesoro sul fatto che sia stato nascosto un tesoro nella regione che avete attraversato la notte scorsa ha continuato non possono esservi dubbi perché quel territorio è stato conteso nei secoli dai balacchi dai sassoni e dai turchi non c'è praticamente un palmo di terra in questa regione che non sia stato arricchito dal sangue degli uomini patrioti o invasori in passato ci sono stati anni turbolenti in cui gli austriaci e gli ungheresi giungevano a orde i patrioti gli si facevano incontro uomini e donne perfino vecchi e bambini e attendevano il loro arrivo sulle rupi sopra i valichi da dove potevano riversare su di loro distruttive valanghe artificiali quando l'invasore trionfava trovava ben poco poiché quello che c'era era stato nascosto nel suolo benevolo ma come può essere rimasto così a lungo celato ho detto quando ci sono segni così sicuri della sua presenza se solo gli uomini si prendessero la briga di guardare il conte ha sorriso e le labbra scoprendo le gengive hanno messo in mostra quegli strani canini lunghi e aguzzi ha risposto perché il contadino ha un cuore codardo e stolto quelle fiamme appaiono in una notte soltanto e quella notte nessun uomo di queste terre uscirebbe mai dalla porta se solo lo può evitare e anche se uscisse caro signore non saprebbe che fare neppure il contadino di cui mi avete parlato quello che ha rimarcato il punto della fiamma saprebbe ritrovarlo alla luce del giorno neppure voi oserei scommettere sareste in grado di ritrovare quei posti vero in questo devo darvi ragione ho detto ne so quanto un morto su dove mettermi a cercarli e poi siamo passati ad altri argomenti venite ha detto infine raccontatemi di londra e della casa che mi avete procacciato scusandomi per la mia negligenza sono andato in camera a prendere le carte nella borsa mentre le riordinavo ho udito il tintinio di porcellane e argenti nella stanza vicina e attraversandola ho notato che la tavola era stata sparecchiata e il lume acceso poiché a quell'ora sarà fatto buio fondo anche nello studio o biblioteca che dir si voglia erano state accese le lampade e ho trovato il conte disteso sul divano immerso nella lettura fra tutti i libri mondo dell'orario ferroviario inglese quando sono entrato ha liberato il tavolo dai libri e dai giornali e ho preso in esame con lui progetti atti e cifre di ogni sorta gli interessava ogni dettaglio e mi ha posto una meriade di domande sul posto ed intorni evidentemente aveva studiato in precedenza tutto ciò che era riuscito a trovare sul quartiere perché alla fine era chiaro che ne sapeva molto più di me quando gliel'ho fatto notare ha replicato ma amico mio non è forse necessario che sappia tutto questo una volta lì sarò da solo e il mio amico archer jonathan no scusate è usanza del mio paese anteporre il patronomico il mio amico jonathan archer non sarà accanto a me per correggermi e aiutarmi sarà exiter a miglia di distanza probabilmente assorbito dalle carte legali insieme all'altro mio amico peter hawkins dunque abbiamo analizzato puntualmente ogni aspetto dell'acquisto della proprietà di porflit una volta riferiti gli fatti apposta la sua firma sui documenti necessari e scritta la lettera da legare alle carte indirizzata mister hawkins mi ha chiesto come fossi riuscito a trovare un posto così appropriato gli ho letto gli appunti che avevo preso al tempo e che trascrivo qui a parflit in una stradina secondaria ho trovato proprio il posto che sembra rispondere ai requisiti e dove un cartello logoro annuncia la messa in vendita è circondato da un alto muro di antica fattura costruito con grosse pietre che da molti anni non viene riparato i cancelli chiusi sono di vecchia quercia pesante e di ferro consumato dalla ruggine la proprietà si chiama carfax indubbiamente una commutazione dell'antico catrafax dato che la casa equandrangolare risposta secondo i punti cardinali consta in tutto in una ventina di acri circondati dal solido muro di pietra di cui sopra contiene molti alberi che la rendono qui e là un po tetra e c'è uno stagno profondo e scuro un laghetto evidentemente alimentato da qualche sorgente dato che l'acqua è limpida ed effluisce in un livello di discrete proporzioni la casa è molto grande ed è stata costruita in epoche diverse a cui si può risalire fino direi al medioevo poiché una parte è fatta di pietre di enorme spessore con poche finestre disposte in alto e chiuse da pesanti aste di ferro sembra essere parte di un torrione ed è accanto a un'antica cappella o una chiesa non sono riuscito a entrarvi non avendo la chiave della porta d'accesso dall'interno della casa ma con la mia macchina fotografica lo ritratto da varie angolature la casa è stata aggiunta a questa parte ma in modo alquanto disorganico e posso solo dare una stima approssimativa delle dimensioni che debbono essere ragguardevoli ci sono poche abitazioni nelle vicinanze una di queste è una grande costruzione recentemente ampliata e trasformata in manicomio ma non è visibile dalla proprietà quando ho finito ha detto sono contento che sia vecchia e grande io stesso provengo da una famiglia antica e vivere in una casa nuova mi ucciderebbe non si può rendere abitabile una casa in un giorno e dopo tutto non ci vogliono poi tanti giorni per fare un secolo mi riempie di gioia anche il fatto che ci sia una cappella dei tempi passati a noi nobili della Transilvania non piace pensare che le nostre ossa riposino fra quelle dei comuni mortali non cerco allegrezza né letizia né la luminosa volutà del sole e delle acque chiare che tanto piacciono ai giovani e agli spensierati non sono più giovane e il mio cuore dopo gravosi anni di lutto per i miei morti non è incline all'allegria inoltre le mura del mio castello sono diroccate molte sono le ombre e il vento soffia freddo fra le merlature e i battenti amo la semi oscurità e le ombre e restare solo con i miei pensieri quando è possibile per qualche ragione le sue parole non sembravano accordarsi alla sua espressione oppure erano i tratti del volto a rendere il suo sorriso maligno e saturnino di lì a poco con una scusa mi ha lasciato chiedendomi di radunare le mie carte si è assentato per qualche tempo e io ho cominciato a guardare alcuni dei libri che avevo intorno uno di questi era un atlante ovviamente aperto la pagina dell'inghilterra come se la carta geografica fosse stata a lungo consultata osservandolo ho notato alcuni luoghi segnati con dei circoletti e guardandolo da vicino ho notato che uno indicava i soborchi orientali di londra per l'esattezza dove si trovava la sua nuova proprietà e gli altri due erano exeter e whitby sulla costa dello yorkshire il conte è tornato quasi un'ora dopo ha detto ancora immerso nei libri bene ma non dovete lavorare sempre venite mi hanno informato che la cena è pronta mi ha preso per un braccio e siamo andati nella stanza accanto dove ho trovato un pasto eccellente servito in tavola il conte si è di nuovo scusato poiché aveva pranzato prima di rientrare ma si è seduto come la sera precedente a chiacchierare mentre io mangiavo dopo cena ho fumato come la sera prima e il conte è rimasto con me a parlare e a farmi domande su ogni possibile argomento per ore e ore mi pareva che si stesse facendo davvero tardi ma non ho detto niente perché mi sentivo in dovere di assecondare in ogni maniera i desideri del padrone di casa non avevo sonno giacché il lungo riposo della notte precedente mi aveva ristorato ma non ho potuto fare a meno di provare quel gelo che ci assale con l'approssimarsi dell'alba simile in modo al volgere della marea dicono che le persone prossime alla morte di solito ospirano al giungere dell'alba o al mutare della marea chiunque stanco ma costretto a rimanere al suo posto abbia avvertito questa variazione d'atmosfera non stenterà a crederlo tutto un tratto abbiamo sentito il canto del gallo salire lancinante e sovrannaturale nell'area limpida del mattino il conte dracula balzando in piedi ha detto si è fatto di nuovo mattino è imperdonabile che vi abbia tenuto sveglio fino a quest'ora dovete rendere meno interessante la vostra conversazione sull'amata inghilterra il mio nuovo paese sicché non dimentichi che il tempo vola e con un inchino garbato mi ha lasciato in gran fretta sono andato in camera e ho aperto le cortine ma c'era poco da vedere la mia finestra da sul cortile e vedevo soltanto il grigio caldo del cielo che schiariva così ho richiuso le tende e ho scritto di questa giornata 8 maggio avevo cominciato a temere di dilungarmi troppo nello scrivere questo diario ma ora sono contento di essere stato così dettagliato sin dal principio perché c'è qualcosa di così strano in questo posto e in tutto quello che lo riguarda che non posso fare a meno di sentirmi a disagio vorrei trovarmi al sicuro fuori di qui o non essere mai venuto forse sto pagando lo scotto di questa strana esistenza notturna magari fosse solo quello se ci fosse qualcuno cui parlare potrei sopportarlo ma non c'è nessuno ho solo il conte con cui comunicare e lui ho paura di essere l'unica anima viva in questo luogo sarà meglio che sia prosaico per quanto i fatti lo permettono mi aiuterà a sopportare tutto questo e bisogna che non dia troppo spazio l'immaginazione altrimenti sono perduto racconterò subito in quale situazione mi trovo o penso di trovarmi dopo essermi coricato ho dormito soltanto qualche ora e poi sentendo che non riuscivo a riprendere sonno mi sono alzato avevo appeso lo specchietto da barba vicino alla finestra e avevo appena cominciato a radermi d'un tratto ho sentito una mano sulla spalla e ho sentito la voce del conte che diceva buongiorno ho sussultato sorpreso di non averlo scorto visto che lo specchio rifletteva tutta la stanza dietro di me in quel sussulto mi sono fatto un taglietto ma sul momento non me ne sono reso conto dopo aver risposto al saluto del conte mi sono voltato di nuovo verso lo specchio per capire come potevo essermi sbagliato ma questa volta non c'era possibilità d'errore l'uomo era vicino a me e lo vedevo con la coda dell'occhio ma non si rifletteva nello specchio si vedeva tutta la stanza alle mie spalle ma nessun segno di un uomo che non fossi io era una cosa davvero sorprendente e andava ad aggiungersi a molte altre stranezze aumentando quella vaga sensazione di disagio che provavo sempre vicino al conte ma in quell'istante ho notato che dal taglietto era uscito un po di sangue lungo il mento ho posato il rasoio e mi sono voltato appena alla ricerca di un ciarotto quando il conte ha visto la mia faccia negli occhi gli si è acceso una sorta di furia demoniaca e con un gesto improvviso ha cercato di afferrarmi alla gola mi sono tirato indietro e la sua mano ha sfiorato i grani del rosario questo ha operato un cambiamento subitaneo in lui e la furia è sparita con tanta rapidità che quasi dubitavo di averla davvero vista state attento ha detto state attento a non tagliarvi in questo paese è più pericoloso di quanto non crediate poi afferrando lo specchio ha continuato è tutta colpa di questo malaugurato oggetto questo orribile gingillo della vanità umana disfiamocene e aprendo la pesante finestra con uno strattone della sua terribile mano ha lanciato lo specchio che si è infranto in mille pezzi sul selciato del cortile poi se n'è andato senza una parola è davvero seccante perché non so proprio come farò radarmi adesso se non guardandomi sulla cassa dell'orologio o sul fondo della bacinella che per fortuna è di metallo quando sono entrato in sala da pranzo la colazione era pronta ma non sono riuscito a trovare il conte così ho mangiato da solo è strano ma non ho ancora visto il conte né mangiare né bere deve essere davvero un uomo eccentrico dopo colazione ho esplorato un po il castello sono andato sulle scale e ho trovato una stanza che guarda a sud la vista era magnifica e da quel punto potevo goderne pienamente il castello si trova sull'orlo di un terribile precipizio una pietra che cadesse da quella finestra precipiterebbe per almeno 300 metri senza toccare nulla fin dove può arrivare lo sguardo non si vede che un mare di cime d'alberi verdi e qualche profonda fenditura dove si apre una voragine qui e là si scorgono i nastri d'argento dei fiumi sarpeggiare nelle gole profonde che attraversano le foreste ma non sono nello stato d'animo di descrivere la bellezza perché dopo aver osservato il panorama ho proseguito l'esplorazione porte 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 dovunque e tutte chiuse e sbarrate a parte le finestre nelle mura del castello non esiste una via d'uscita il castello è una vera prigione e io ne sono prigioniero capitolo 3 quando ho capito di essere prigioniero sono stato assalito da una sorta di furia selvaggia mi sono precipitato su e giù per le scale provando ad aprire ogni porta e guardando da ogni finestra che riuscivo a trovare ma ben presto la consapevolezza della mia impotenza ha superato tutti gli altri sentimenti a ripensarci dopo qualche ora devo essere impazzito perché mi sono comportato come un topo in quando però ho avuto la consapevolezza di essere impotente mi sono seduto con tranquillità la tranquillità con cui ho sempre fatto tutto nella vita e ho cominciato a pensare a che cosa fosse meglio fare ci sto ancora pensando e per il momento non ho raggiunto nessuna conclusione definitiva di una sola cosa sono certo che non è utile comunicare le mie idee al conte lui sa che sono prigioniero e dato che ciò è opera sua e che indubbiamente avrà le sue ragioni per farlo finirebbe solo per ingannarmi se gli confidassi la mia conoscenza dei fatti per quel che vedo ora l'unico piano è di tenere per me ciò che so e che temo e gli occhi ben aperti lo so o le mie paure mi stanno ingannando come succede ai bambini oppure mi trovo in una situazione disperata e in questo caso ho bisogno ora e in futuro di tutta la mia lucidità per cavarmela ero appena arrivato a questa conclusione quando ho udito chiudersi il portone di sotto e ho capito che il conte era di ritorno non è venuto subito in biblioteca così sono rientrato cauto nella mia stanza e l'ho trovato intento a rifarmi il letto una cosa strana che ha confermato quanto ho pensato finora non ci sono servitori nella casa quando più tardi attraverso le fessure dei cardini l'ho visto preparare la tavola nella sala da pranzo ne sono stato certo poiché se si occupa personalmente di queste umili faccende è prova certa che nessun altro le possa svolgere questo mi ha spaventato perché se non c'è nessun altro nel castello deve essere stato il conte stesso a guidare il calesse che mi ha portato qui è un pensiero terribile perché se è così come ha potuto controllare i lupi semplicemente alzando la mano in silenzio perché tutta la gente abistrita e sulla corriera aveva una grande paura per me perché regalarmi il crocifisso l'aglio la rosa canina il sorbo sia benedetta quell'ottima donna che mi ha messo al collo il crocifisso perché mi dà forza e conforto ogni volta che lo tocco è strano che qualche cosa di cui mi hanno insegnato a considerare idolatria mi sia di aiuto in un momento di solitudine e difficoltà ci sarà qualcosa nell'essenza dell'oggetto stesso oppure è un mezzo, un aiuto tangibile per evocare ricordi di empatia e conforto quando avrò tempo dovrò esaminarne la questione e venirne a capo intanto devo scoprire tutto quello che posso sul conte Dracula perché potrà aiutarmi a comprendere questa sera se riesco a orientare la conversazione in quella direzione potrebbe parlare di sé devo stare molto attento però a non destare i suoi sospetti mezzanotte ho chiacchierato a lungo con il conte gli ho fatto qualche domanda sulla storia della Transilvania e l'argomento l'ha alquanto infervorato parlando dei fatti e delle persone e delle battaglie in particolare sembrava che fosse stato presente a tutte in seguito ho motivato questo atteggiamento dicendo che per un boiardo l'orgoglio della casata e del nome è il suo stesso orgoglio la loro gloria è la sua gloria il loro fato il suo fato quando parlava della casata diceva sempre noi e parlava al plurale come un re vorrei poter registrare tutto quello che ha detto esattamente come lo ha detto perché per me è stato estremamente affascinante sembrava percorrere l'intera storia del paese parlandosi è esaltato e camminava avanti e indietro nella stanza lisciandosi i grandi baffi bianchi e afferrando tutto quello su cui metteva mano come se lo volesse stritolare a viva forza c'è una cosa fra quelle che ha detto che voglio riportare con la massima esattezza possibile perché racconta a modo suo la storia della sua stirpe noi zecheli abbiamo diritto di essere orgogliosi perché nelle nostre vene scorre il sangue di molte razze coraggiose che hanno lottato come leoni per il predominio qui nel vertice delle razze europee la tribù degli ugri ha portato dall'islanda lo spirito guerresco di torre di odino e lo spirito che i loro versi kir hanno dimostrato con feroce intento sulle coste d'europa sì e dell'asia e dell'africa finché i popoli si sono convinti che fossero giunti i lupi mannari stessi quando arrivarono qui trovarono gli unni la cui furia marziale era dilagata sulla terra come una fiamma vivente finché i popoli moribondi si convinsero che nelle loro vene scorreva il sangue delle antiche streghe che espulse dalla scizia si erano accoppiate con i demoni del deserto folli folli quale demone o quale strega fu mai grande quanto Attila il cui sangue scorre in queste vene ha alzato le braccia meraviglia forse che fossimo una stirpe conquistatrice che fossimo superbi quando i maggiari i lombardi gli avari i bulgari o i turchi si riversarono migliaia sulle nostre frontiere noi li rispongessimo è forse strano che quando Harpad e le sue legioni seminarono la distruzione nella patria ungherese trovarono noi ad attenderli alla frontiera strano che l'onfong lalas si fermasse lì e quando la marea ungherese si spostò a est i maggiari vittoriosi acclamarono la propria parentela con gli zecheli affidando a loro la protezione del confine con la terra dei turchi nei secoli e oltre poiché come dicono i turchi l'acqua dorme ma il nemico veglia delle quattro nazioni chi ha ricevuto con maggiore orgoglio la spada insanguinata chi è accorso con maggiore prontezza sotto lo stendardo del re al grido di battaglia quando è stato sanato il grande disonore della mia nazione la vergogna del kosovo quando le bandiere dei valacchi e dei maggiari sono state emmainate davanti a quelli della mezzaluna chi se non uno della mia stirpe in qualità di voivoda ha attraversato il danubio e sconfitto i turchi sul loro stesso suolo un dracula naturalmente grande calamità fu che l'indegno suo fratello morto il voivoda abbia venduto il suo popolo ai turchi trascinando su di loro l'infamia della schiavitù non è stato questo dracula ispirare quell'altro della sua stirpe che in epoca successiva più e più volte attraversò con le sue forze il grande fiume nella terra dei turchi quello che sconfitto tornò ancora e ancora e ancora a costo di attraversare da solo il campo di battaglia insanguinato su cui giacevano trucidate le sue truppe sapendo che solo lui avrebbe potuto infine trionfare dissero che pensava solo se bah a che servono i contadini senza un capo dove finirebbe la guerra senza un cervello e un cuore a condurla ancora una volta quando dopo la battaglia di moax abbiamo rovesciato il gioco ungherese noi del sangue dei dracula eravamo tra i condottieri perché il nostro spirito non poteva tollerare la mancanza di libertà ah giovane signore gli zecheli e i dracula quale cuore sangue cervello e spada di quella stirpe possono vantarsi di successi che quelle muffe di nome come Asburgo e Romanov non raggiungeranno mai i giorni guerreschi sono finiti il sangue è cosa troppo preziosa in questi giorni di pace disonorevole e delle glorie delle grandi razze non restano che i racconti si era a questo punto sul far del mattino e siamo andati a letto ricordarsi questo diario assomiglia terribilmente all'incipit delle mille e una notte perché ogni cosa si deve interrompere al canto del gallo oppure sembra allo spettro del padre di Amleto 12 maggio lasciate che cominci con i fatti fatti nudi scarni verificati da libri e cifre e sui quali non possono esservi dubbi non debbo confonderli con le esperienze che dovranno basarsi sulle mie osservazioni o sui ricordi che ne conservo ieri sera quando il conte è uscito dalla sua stanza ha cominciato a farmi delle domande su questioni legali e sul modo di condurre un certo tipo di affari avevo trascorso una giornata noiosa sui libri e solo per tenere la mente occupata avevo ripassato alcune delle cose che mi erano state chieste all'esame della Lincoln Zinn c'era un certo metodo negli interrogativi del conte così cercherò di trascriverli con ordine chissà che questa nozione non mi torni utile in futuro per prima cosa mi ha chiesto se in Inghilterra è possibile avere due legali o più gli ho detto che poteva averne una dozzina se lo desiderava ma che non sarebbe stato saggio avere più di un legale impegnato in una transazione dato che solo uno per volta potrebbe agire e che mutare questa cosa sarebbe andato contro l'interesse del cliente sembrava aver compreso perfettamente e ha proseguito chiedendo se ci sarebbe stata qualche difficoltà pratica ad avere per esempio una persona che si occupava delle operazioni bancarie e un'altra che provvedeva alle spedizioni nel caso ci fosse stato bisogno di un aiuto locale in una zona lontana dalla sede del legale che si occupava delle questioni bancarie gli ho chiesto di spiegarsi meglio perché non volevo correre il rischio di dargli informazioni errate così ha detto vi illustrerò il nostro comune amico mister Peter Hawkins da sotto l'ombra della vostra bella cattedrale di Exeter che è distante da Londra acquista per cortese tramite vostro la mia casa di Londra bene concedetemi di dire ora con franchezza affinché non troviate strano che mi sia affidato ai servizi di qualcuno così lontano da Londra invece che a un residente della città che il motivo per cui l'ho fatto è che non volevo venisse servito a alcun interesse locale che non fosse il mio e dato che un residente di Londra avrebbe potuto forse avere qualche mira di vantaggio personale o a favore di un amico così mi sono allontanato per cercare un agente che dedicasse a me soltanto le sue fatiche ora supponiamo che io visti i miei molti affari decida di inviare delle merci diciamo a Newcastle o a Durham o a Harwich o Dover non sarebbe più semplice se affidassi queste incombenze a qualcuno che vive in quei porti gli ho risposto che senz'altro sarebbe stato più semplice ma che i legali hanno un sistema di collegamenti reciproci affinché quando è necessario venga svolto localmente su istruzione di qualsiasi altro legale sicché il cliente affidandosi a un unico legale vede soddisfatti i suoi desideri senza altro disturbo ma ha detto io potrei comunque agire secondo la mia volontà non è così naturalmente ho risposto e spesso gli uomini d'affari lo fanno poiché non vogliono che una singola persona sia a conoscenza di tutto quello che concerne le loro faccende bene ha detto e poi ha continuato a fare domande sui mezzi di consegna e i moduli necessari e su ogni sorta di difficoltà che potrebbero insorgere ma che con lungimiranza si sarebbero potute evitare gli ho spiegato tutte queste cose al meglio delle mie possibilità e indubbiamente mi ha lasciato con l'impressione che sarebbe stato uno splendido procuratore perché non c'era nulla a cui non pensasse o che non prevedesse per un uomo che non era mai stato in Inghilterra e che evidentemente non aveva lavorato molto nel mondo degli affari la sua conoscenza e il suo acume erano straordinari una volta avuto soddisfazione su tutti i punti di cui aveva parlato avendoli io verificati sui libri a disposizione si è alzato all'improvviso dicendo da quella prima lettera avete più scritto al nostro amico mister Peter Hawkins o a qualcun altro gli ho risposto con un po' di amarezza in cuore che non l'avevo fatto perché non avevo ancora avuto alcuna opportunità di inviare una lettera a chi che sia dunque scrivete ora mio giovane amico ha replicato posandomi una mano pesante sulla spalla scrivete al nostro amico e a chi volete e dite per favore che vi fermerete da me per un mese a partire da oggi volete che mi fermi tanto a lungo ho chiesto poiché mi si è raggelato il cuore al pensiero lo desidero molto anzi non accetterò rifiuti quando il vostro padrone o datore di lavoro se preferite si è impegnato a mandarmi qualcuno in sua vece era convenuto di tener conto solo delle mie necessità io non ho posto limiti non è così che cosa potevo fare se non sottomettermi si trattava degli interessi di mister Hawkins e non dei miei ed era a lui che dovevo pensare non a me e inoltre mentre il conte Dracula parlava qualcosa nei suoi occhi e nel suo apportamento mi ha ricordato che ero prigioniero e che al di là dei miei desideri non avevo scelta il conte ha letto nella mia remissività la sua vittoria e sul mio viso preoccupato il suo predominio e ha cominciato a usarli entrambi ma nel suo modo mellifluo e accattivante vi prego mio giovane buon amico di non parlare d'altro che di lavoro nelle vostre lettere i vostri amici saranno indubbiamente felici di sapere che state bene e che non vedete l'ora di tornare a casa non è così parlando mi apporto tre fogli di carta da lettere e tre buste erano di sottilissima carta per posta estera e osservandole per poi guardare lui col suo sorriso tranquillo e i canini aguzzi che poggiavano sul labbro inferiore senza bisogno che parlasse ho capito che avrei fatto meglio a stare attento a ciò che scrivevo perché lui avrebbe potuto leggerlo così ho deciso che per ora avrei inviato soltanto messaggi formali ma avrei poi scritto in segreto a Mr. Hawkins e anche a Mina perché a lei potevo stenografare e il conte non sarebbe stato in grado di decifrare il messaggio se l'avesse visto una volta composte le mie due lettere mi sono seduto tranquillo a leggere un libro mentre il conte scriveva a svariati biglietti consultando durante la stesura alcuni libri che aveva sul tavolo poi ha preso le mie due lettere e le ha messe con le sue riponendo l'occorrente per scrivere dopodiché nell'istante stesso in cui si è chiuso la porta alle spalle mi sono sporto a guardare le lettere che erano a faccia in giù sul tavolo non ho provato alcun senso di colpa a farlo poiché date le circostanze mi è parso di dover proteggermi in ogni modo possibile una lettera era indirizzata a Samuel F. Billington numero 7 The Crescent Whitby un'altra a Herr Lautner Varna la terza a Coutsen Co Londra e la quarta a Herren Blockstock e Bill Royt banchieri Budapest la seconda e la quarta non erano sigillate stavo per guardarle quando ho visto muoversi la maniglia mi sono appoggiato allo schienale della sedia avendo avuto appena il tempo di rimetterle nella posizione in cui si trovavano e di riprendere in mano il mio libro prima che il conte entrasse nella stanza con un'altra lettera in mano ha preso quelle che erano sul tavolo e le ha affrancate con cura poi si è rivolto a me confido che mi perdonerete ma ho molto lavoro da fare in privato questa sera spero che troverete tutto di vostro gradimento sulla porta si è voltato e dopo un attimo di pausa ha detto permettetevi di darvi un consiglio mio giovane e caro amico anzi permettetemi di mettervi seriamente in guardia se doveste lasciare queste stanze non addormentatevi assolutamente mai in qualsiasi altra parte del castello è antico e ha molti ricordi e riserva brutti sogni a chi dorme imprudentemente vi ho avvisato se dovesse prendervi il sonno ora o in qualsiasi momento o se lo sentiste arrivare affrettatevi a tornare in camera vostra e così il vostro riposo sarà al sicuro ma se non starete attento allora e ha concluso il discorso con un gesto raccapricciante facendo segno di lavarsene le mani ho capito perfettamente l'unico dubbio che ho è se esista un sogno che possa essere più terribile di questa orribile innaturale rete di tenebra e mistero che sembra si stia chiudendo intorno a me più tardi ribadisco le ultime parole scritte ma questa volta non possono esserci dubbi a riguardo non avrò paura di dormire in un posto dove non ci sia lui ho sistemato il crocifisso sulla testiera del letto immagino che così il mio riposo sarà libero da sogni e lì rimarrà quando se n'è andato sono tornato nella mia stanza dopo qualche tempo non udendo alcun rumore sono uscito per salire la scala di pietra da dove posso guardare verso sud paragonata all'angusta oscurità del cortile e ancorché mi fosse inaccessibile c'era un senso di libertà in quell'ampia distesa davanti a questa vista mi sono davvero sentito in prigione e mi è parso di avere bisogno di una boccata d'aria fresca per quanto fosse notte questa esistenza notturna comincia a pesarmi mi distrugge i nervi sobbalzo alla vista della mia ombra sono preda di ogni sorta di orribili fantasticerie dio solo sa se la mia terribile paura non ha sufficiente fondamento in questo posto maledetto ho osservato l'incantevole distesa immersa nella luce dolce e gialla della luna tanto che pareva facesse giorno le colline lontane si risolvevano nella luce delicata come le valli e le gole nell'oscurità vellutata tanta bellezza sembrava rallegrarmi c'era pace e sollievo in ogni mio respiro mentre mi sporgevo dalla finestra lo sguardo è stato colpito da qualcosa che si muoveva un piano sotto di me un po' a sinistra dove per l'ordine delle stanze dovevano trovarsi le finestre della camera del conte la finestra davanti alla quale mi trovavo era alta e profonda incastonata fra colonne di pietra corrose dal tempo ma ancora integre mi sono nascosto dietro una colonna e sono stato a guardare ho visto la testa del conte uscire dalla finestra non ne ho visto il volto ma l'ho riconosciuto dal collo e dai movimenti della schiena e delle braccia in ogni caso non avrei potuto confondermi sulle mani che avevo avuto così tante opportunità di studiare da prima ero interessato e anche un po' divertito poiché è incredibile quanto poco basti a interessare e divertire un prigioniero ma i miei sentimenti sono mutati in repulsione e terrore quando ho visto l'intera figura emergere dalla finestra e mettersi a strisciare giù per il muro del castello su quello spaventoso abisso a faccia in giù con il mantello che gli si piegava intorno come un grande paio d'ali da prima non riuscivo a credere ai miei occhi ho pensato si trattasse di uno scherzo dovuto al chiaro di luna uno strano gioco di ombre ma ho continuato a guardare e non poteva trattarsi di un'illusione ottica ho visto le dita delle mani e dei piedi aggrapparsi agli spigoli delle pietre dove il peso degli anni aveva corroso la malta e usare così ogni sporgenza e asperità per scendere con notevole velocità proprio come la lucertola si muove su un muro che razza d'uomo è questo o che razza di creatura sotto sembianze d'uomo sento che l'orrore di questo posto terribile mi sta sopraffacendo ho paura una paura otroce e non ho scampo sono circondato da orrori che non oso neppure immaginare 15 maggio ho visto un'altra volta il conte uscire a mo' di lucertola scendeva in diagonale per più di 30 metri tendendo molto a sinistra e sparito in un pertugio o una finestra quando è scomparsa la testa mi sono sporto per cercare di vedere meglio ma inutilmente la distanza era troppa per permettere una buona visuale sapevo che ora doveva aver lasciato il castello e ho pensato di sfruttare l'occasione per esplorare più di quanto abbia osato finora sono tornato alla stanza ho preso una lampada e poi ho provato ad aprire tutte le porte come mi aspettavo erano tutte sbarrate e i chiavistelli relativamente recenti ma ho sceso le scale di pietra e sono arrivato all'atrio in cui ero entrato la prima sera ho scoperto di poter aprire i chiavistelli con facilità e sciogliere i catenacci ma il portone era chiuso a chiave e la chiave non c'era sarà nella stanza del conte devo stare allerta nel caso la sua porta resti aperta così potrò prenderla e fuggire ho proseguito nella mia esplorazione delle varie scale e corridoi e ho provato ad aprire ogni porta che si presentava un paio di stanzette accanto all'atrio erano aperte ma in esse non c'era altro da vedere che vecchi mobili tarlati coperti dalla polvere degli anni infine tuttavia ho trovato una porta in cima alla scala che pur parendo sbarrata cedeva un poco alla pressione ho provato a spingere con più forza e ho scoperto che non era chiusa ma che opponeva resistenza perché i cardini avevano ceduto e l'uscio pesante poggiava a terra ecco un'opportunità che forse non si sarebbe mai più ripresentata così mi sono appoggiato con tutto il mio peso e dopo molti sforzi l'ho spinta indietro quel tanto che mi permetteva di entrare mi trovavo ora in un'ala del castello più a destra delle stanze che conoscevo e un piano sotto capivo dalle finestre che le stanze di quell'appartamento si trovavano sul lato sud del castello mentre le finestre dell'ultima stanza davano sia sud sia ovest da entrambi i versanti c'era un tremendo precipizio il castello era costruito sull'angolo di una grande roccia sicché tre lati erano praticamente inespugnabili e qui dove fionde archi e colubrine non potevano arrivare erano state aperte delle grandi finestre assicurando di conseguenza una luce e un agio impossibili in una posizione da custodire a ovest c'era una grande vallata e in lontananza si levavano i picchi frastagliati delle fortezze montuose picco dopo picco la roccia strapiombo era disseminata di sorbi e di pruni le cui radici si abbarbicavano alle crepe alle fenditure e alle scanalature delle pietre questa parte del castello evidentemente era stata adibita da appartamento delle signore nel passato perché il mobiglio aveva l'aria più confortevole di quello che avevo visto le finestre non avevano tende e i raggi gialli della luna passando attraverso i vetri a diamante permettevano di scorgere perfino i colori addolcendo la cortina di polvere che copriva ogni cosa nascondendo in parte i danni del tempo e delle tarme la mia lampada sembrava quasi inutile alla luce della luna ma ero contento di averla con me poiché quel luogo trassudava una tale spaventosa solitudine che mi raggelava il cuore e scuoteva i nervi tuttavia era pur sempre meglio che vivere da solo nelle stanze che la presenza del conte mi rendeva odiosa e dopo aver tentato di controllare un poco i nervi ho scoperto di provare una dolce sensazione di calma eccomi seduto a un tavolino di quercia dove forse nei tempi andati qualche dama si è seduta a scrivere fra molti pensieri e rossori una lettera d'amore dall'ortografia incerta intento a stenografare nel mio diario tutto quello che è successo da quando l'ho chiuso l'ultima volta mi trovo nel pieno del progredito diciannovesimo secolo eppure se i sensi non mi ingannano i secoli antichi avevano e hanno poteri che la sola modernità non è in grado di sopprimere più tardi la mattina del 16 maggio che Dio mi conservi il senno perché a questo sono giunto la sicurezza e la garanzia di tale protezione sono cose del passato finché vivrò qui posso sperare in una sola cosa di non diventare pazzo se veramente non lo sono già se sono sano di mente allora c'è da impazzire a pensare che tra tutte le cose perverse in agguato in questo orribile posto il conte è la meno spaventosa che solo in lui posso cercare protezione anche se soltanto per lo spazio di tempo in cui servirò il suo scopo buon Dio Dio di misericordia aiutami a conservare la calma perché al di fuori di essa mi attende la follia incomincio a vedere sotto nuova luce cose che prima mi lasciavano perplesso fino ad ora non avevo mai capito cosa intendesse Shakespeare quando fa dire ad Amleto le mie tavolette presto le mie tavolette occorre che io scriva tutto questo eccetera perché ora avendo la sensazione che il cervello sia uscito di quadro o che abbia subito un colpo da cui non potrà riprendersi è al mio diario che mi rivolgo in cerca di quiete l'abitudine di registrare accuratamente l'accaduto mi aiuterà a trovare la calma l'avvertimento misterioso del conte mi aveva spaventato sul momento mi spaventa ancora di più adesso che ci penso perché in futuro avrà un potere tremendo su di me avrò paura di dubitare di ciò che dice dopo aver scritto il diario e fortunatamente riposto libro e penna in tasca cominciavo ad avere sonno ho ripensato all'avvertimento del conte ma mi sono preso il piacere di disobbedirgli la sonnolenza mi aveva invaso e con essa quell'ostinazione che sempre la precede il dolce chiaro della luna dava pace e la grande vista di fuori comunicava un senso di libertà che mi confortava ho deciso di non tornare per la notte alle stanze infestate dall'oscurità ma di dormire lì dove nei tempi andati le dame sedevano a cantare e conducevano dolci esistenze mentre i loro petti gentili piangevano di uomini lontani nella mischia di guerre spietate ho trascinato un grande divano dall'angolo in cui si trovava in modo da potermi godere la bella vista a est e a sud e incurante della polvere mi sono disteso per dormire suppongo di essermi addormentato spero che sia così ma temo di no perché tutto quello che è seguito era straordinariamente reale così reale che adesso seduto nella piena luce del mattino non riesco assolutamente a credere che si sia trattato di un sogno non ero solo la stanza era la stessa per nulla diversa da quando vi ero entrato sul pavimento nel chiaro della luna lucente vedevo le impronte dei miei piedi laddove avevo disturbato il lungo accumularsi della polvere dinanzi a me illuminate dalla luna c'erano tre giovani donne signore nell'abito e nei modi nel momento in cui le ho viste ho pensato di stare sognando perché pur avendo la luna alle spalle non proiettavano alcuna ombra sul pavimento si sono avvicinate a me e mi hanno guardato per un po' e poi si sono messe a bisbigliare fra loro due erano brune e avevano lo stesso naso aquilino del conte e grandi occhi penetranti che sembravano quasi rossi al contrasto con la pallida luna l'altra era di carnagione chiarissima con una massa di capelli d'oro e gli occhi come due zaffiri mi pareva di conoscere quel volto e lo collegavo a qualche paura provata nei sogni ma in quel momento non riuscivo a ricordare dove e come tutte e tre avevano denti bianchissimi che brillavano come perle contro il rosso rubino delle labbra voluttuose c'era qualcosa in loro che metteva disagio una bramosia e al tempo stesso una paura mortale ho provato in cuore il desiderio perverso che mi baciassero con quelle labbra rosse non è bene che scriva questo un giorno potrebbe finire sotto gli occhi di mina e causarle dolore ma è la verità sussurravano tra loro e poi hanno riso tutte e tre una risata argentina musicale madura come un suono che non avrebbe mai potuto provenire dalla morbidezza di labbra umane assomigliava all'intollerabile dolcezza tintinnante di un'armonica a bicchieri suonata da una mano esperta la bionda ha scosso il capo civettuola e le altre due l'hanno incoraggiata una ha detto vai sei la prima e noi ti seguiremo tocca a te cominciare l'altra ha aggiunto è giovane è forte ci saranno baci per tutte e tre stavo immobile a guardare da sotto le ciglia in un'agonia di deliziosa attesa la bionda è venuta avanti e si è chinata su di me finché non mi sono sentito sfiorare dal suo fiato era dolce in un certo senso dolce come il miele e dava ai nervi lo stesso fremito della sua voce ma aveva un retrogusto amaro di un amaro ripugnante come quello che si avverte nell'odore del sangue avevo paura di aprire gli occhi ma guardavo e vedevo perfettamente di sotto le ciglia la ragazza si è inginocchiata e chinata su di me con avidità c'era in lei una voluttà deliberata al tempo stesso eccitante e repulsiva mentre inarcava il collo e si leccava le labbra come un animale finché ho visto il rosso scarlatto brillare umido alla luce della luna come la lingua che leccava i denti appuntiti la sua testa si abbassava sempre di più le sue labbra si allontanavano dalla bocca e dal mento e sembravano pronte ad attaccarsi alla mia gola poi si è fermata e l'ho sentita schioccare la lingua mentre si leccava i denti e le labbra e ho avvertito il suo fiato caldo sul collo quindi la pelle della gola ha cominciato a fremere come fa la carne quando si avvicina una mano a solleticarla sentivo il tocco leggero e palpitante delle sue labbra sulla pelle ipersensibile della gola e il tocco duro di due denti aguzzi che l'hanno toccata e si sono fermati ho chiuso gli occhi in un'estasi languida attendendo attendendo con il cuore in tumulto ma in quell'istante un'altra sensazione mi ha attraversato veloce come un lampo ero consapevole della presenza del conte della sua persona avvolta in una tempesta di furia mentre gli occhi si aprivano involontariamente l'ho visto afferrare il collo sottile della donna bionda con la sua mano forte e con una potenza immane chirarlo indietro gli occhi azzurri di lei trasfigurati dal furore i denti bianchi stretti in una morsa di rabbia e le guance chiare accese dalla passione ma il conte non avrei mai immaginato una collera e una furia simili neppure tra i demoni degli inferi i suoi occhi ardevano letteralmente c'era in loro una livida luce rossa come se dietro le pupille ardessero le fiamme dell'inferno la faccia aveva un pallore mortale e le rughe che la segnavano erano tese come fili metallici le sopracciglia spesse che si univano sul naso ora parevano una sbarra di metallo bianco incandescente con un gesto feroce del braccio ha scagliato la donna lontano da sé e poi ha fatto cenno alle altre di allontanarsi lo stesso gesto imperioso che gli avevo visto fare con i lupi con una voce che per quanto poco più di un bisbiglio pareva tagliare l'aria ed eccheggiare nella stanza ha detto come osate toccarlo voi come osate posare su di lui il vostro sguardo quando ve l'ho proibito indietro tutte quante quest'uomo mi appartiene attenta a non avvicinarlo o dovrete vedervela con me la donna bionda con una risata di ribaldacivetteria gli ha risposto tu tu non hai mai amato non ami mai tu a ciò si è unita la risata delle altre donne e udire quella risata dura priva di allegria e di anima che è risuonata nella stanza quasi mi ha fatto perdere i sensi sembrava un'allegria da demoni allora il conte si è voltato e dopo avermi guardato in viso attentamente ha mormorato sì anch'io suo amare voi stesse ne avete avuto la prova in passato non è così bene ora vi prometto che quando avrò finito con lui lo bacerete a volontà ora andate andate devo svegliarlo perché c'è del lavoro da sbrigare e non avremo nulla questa notte ha detto una di loro con una risata fonda indicando il sacco che il conte aveva gettato a terra e che si muoveva come se dentro ci fosse una creatura vivente per tutta risposta il conte ha annuito una delle donne ha fatto un balzo avanti e ha aperto il sacco se le orecchie non mi hanno ingannato c'è stato un rantolo e un lamento come di un bimbo semissoffocato le donne si sono strette intorno al sacco e mentre le guardavo paralizzato dall'orrore sono scomparse e con loro il sacco raccrapricciante vicino non c'era nessuna porta e non avrebbero potuto superarmi senza che le notassi si sono semplicemente dissolte nei raggi della luna e hanno attraversato la finestra perché per un attimo prima che sparissero del tutto ho visto là fuori le loro forme vaghe indistinte poi l'orrore mi ha sopraffatto e sono sprofondato nell'incoscienza capitolo 4 Diario di Jonathan Arker Continuazione Mi sono svegliato nel mio letto se non è stato un sogno mi ci deve aver portato il conte ho cercato di trovare una risposta ma non sono riuscito a giungere a una conclusione inequivocabile c'erano senza dubbio alcuni piccoli indizi come il fatto che i miei vestiti non erano piegati e sistemati come faccio d'abitudine l'orologio non era stato caricato cosa che faccio rigorosamente come ultimo gesto prima di addormentarmi e molti altri dettagli simili ma queste non sono prove perché potrebbero dimostrare che la mia mente non si trovava nel suo solito stato e che per un motivo o per l'altro dovevo essere molto turbato devo cercare delle prove certe di una cosa sono contento se è stato il conte a portarmi qui e a svestirmi deve averlo fatto in fretta perché le mie tasche sono ancora intatte sono sicuro che per lui il diario sarebbe stato un mistero impenetrabile ma l'avrebbe preso oppure distrutto mentre mi guardo intorno questa stanza che un tempo suscitava in me tanta paura ora è una sorta di rifugio perché nulla può essere più spaventoso di quelle orribili donne che volevano che vogliono succhiarmi il sangue 18 maggio sono tornato a vedere la stanza alla luce del giorno perché devo sapere la verità quando sono arrivato alla porta in cima alle scale l'ho trovata chiusa era stata spinta con tanta forza contro lo stipite da scheggiarne il legno ho notato che il chiavistello non era stato tirato ma la porta è bloccata dall'interno ho paura che non si sia trattato di un sogno e devo agire di conseguenza 19 maggio sono davvero in trappola ieri notte il conto mi ha chiesto con la voce più soave di scrivere tre lettere una dicendo di aver quasi terminato il mio lavoro e che nel giro di pochi giorni sarei ripartito un'altra che sarei partito il mattino seguente la data della lettera e la terza che avevo lasciato il castello ed era arrivato bistrita mi sarei ribellato volentieri ma mi è parso che nello stato attuale delle cose sarebbe stata una follia litigare apertamente con il conte mentre mi trovo totalmente in suo potere e rifiutare sarebbe equivalso a provocare i suoi sospetti e aizzare la sua collera sa che io so troppo e che non devo vivere perché costituirei un pericolo per lui e la mia unica possibilità consiste nel guadagnare tempo potrebbe succedere qualcosa che mi offra l'opportunità di fuggire ho visto crescere nei suoi occhi una traccia dell'ira così evidente quando ha scagliato lontano da sé la donna bionda mi ha spiegato che il servizio postale era lento e incerto e che scrivendo fin d'ora avrei tranquillizzato i miei amici mi ha assicurato con grande enfasi che avrebbe ritardato la spedizione delle ultime lettere trattenendole a bistrita fino al momento opportuno nel caso si fosse verificata l'eventualità di un prolungamento del mio soggiorno e dunque oppormi avrebbe creato nuovi sospetti quindi ho finto di essere d'accordo con lui e gli ho chiesto quali date avrei dovuto mettere sulle lettere ha fatto un breve calcolo e poi mi ha detto la prima dovrebbe essere il 12 giugno la seconda il 19 giugno e la terza il 29 giugno adesso so quanto mi resta da vivere che Dio mi aiuti 28 maggio c'è una possibilità di fuga o almeno di poter mandare mia notizia a casa è arrivata al castello una banda di zigani si sono accampati nel cortile gli zigani sono zingari nel mio libro ho trovato notizie su di loro sono indigeni di questa parte del mondo benché alleati di tutti gli zingari della terra ce ne sono migliaia in Ungheria e in Transilvania e vivono praticamente fuori da ogni legge di regola si affigliano a un grande nobile o boiardo e prendono il suo nome sono intrepidi e irreligiosi se si esclude la superstizione e parlano soltanto i diversi dialetti romeni scriverò delle lettere a casa e cercherò di farle spedire ho già parlato con loro dalla finestra per fare conoscenza si sono tolti il cappello hanno fatto un inchino e molti altri segni che però non sono riuscito a capire più di quanto non capisca la loro lingua ho scritto le lettere quella di Mina è stenografata e a Mr. Hawkins ho semplicemente chiesto di mettersi in contatto con lei a lei ho spiegato la mia situazione senza gli orrori che posso soltanto congetturare se le dovessi aprire il mio cuore la sconvolgerei e la spaventerei a morte se le lettere non riuscissero a partire almeno il conte non potrà conoscere il mio segreto né quanto so davvero ho consegnato le lettere le ho gettate attraverso le sbarre della finestra insieme a una moneta d'oro e a gesti ho cercato di spiegare che la volevo spedire l'uomo che le ha raccolte se le è strette al cuore ha fatto un inchino e le ha messe nel cappello non potevo fare altro sono tornato alla chitichella nello studio e ho cominciato a leggere dato che il conte non arrivava ho scritto queste pagine è venuto il conte si è seduto accanto a me e con la voce più melliflua mentre apriva due lettere ha detto uno zigano mi ha dato queste non so da dove provengono ma naturalmente me ne occuperò guardate un po' una è vostra diretta al mio amico Peter Hawkins l'altra e qui aprendo la busta ha notato gli strani simboli e un'ombra scura gli è salita in volto e negli occhi è apparso un lampo di luce maligne l'altra è cosa vile un oltraggio all'amicizia e all'ospitalità non è firmata bene non può interessarci è imperturbabile ha avvicinato lettera e busta alla fiamma della lampada e le ha bruciate poi ha proseguito manderò senz'altro la lettera a Hawkins visto che è vostra le vostre lettere sono sacre per me mi perdonerete amico se non sapendolo ho infranto il sigillo non volete richiuderla mi ha dato la lettera e con un cortese inchino mi apporto una busta pulita non potevo fare altro che riscrivere l'indirizzo e dargli la lettera in silenzio quando è uscito dalla stanza ho udito la chiave girare appieno nella toppa un minuto dopo ho provato ad aprire ed era sbarrata quando un'ora o due dopo il conte è entrato silenziosamente nella stanza il suo ingresso mi ha svegliato poiché mi ero addormentato sul divano era molto cortese e allegro nei modi e vedendo che avevo dormito ha detto allora amico mio siete stanco andate a letto è il miglior riposo questa sera non avrò il piacere della vostra conversazione visto che ci sono tante cose di cui devo occuparmi ma voi andate a dormire vi prego sono andato nella mia camera e mi sono coricato e strano a dirsi non ho fatto sogni la disperazione ha i suoi momenti di bonaccia 31 maggio questa mattina al risveglio ho pensato di prendere della carta e delle buste dalla borsa e tenerle in tasca così da poter scrivere se per caso mi fosse presentata l'opportunità ma ecco un'altra sorpresa un altro colpo era sparito anche il più piccolo pezzetto di carta insieme a tutti i miei appunti in memoranda sulle ferrovie e il viaggio le lettere di credito tutto quello che avrebbe potuto essermi utile una volta fuori dal castello mi sono seduto a riflettere un po' e poi mi è venuta un'idea e sono andato a controllare il mio baule e l'armadio in cui avevo riposto i vestiti l'abito da viaggio era sparito così come il cappotto e la coperta e di loro non era rimasta traccia tutto ciò aveva l'aria di una macchinazione scellerata 17 giugno questa mattina mentre sedevo sull'orlo del letto all'ambiccarmi il cervello ho udito schioccare le fruste e un raschiare di zoccoli sul sentiero pietroso oltre il cortile con gioia mi sono affrettato alla finestra e ho visto entrare nel cortile due grandi carri tirati ognuno da otto cavalli massicci e alla testa di ogni pariglia uno slovacco col suo ampio cappello la cintura tempestata di borchio d'ottone la sudice a pelle di pecora e gli stivaloni in mano avevano i lunghi bastoni sono corso alla porta con l'intenzione di scendere di cercare di raggiungerli attraverso l'atrio principale pensando che forse il portone fosse stato aperto per loro un altro colpo la porta era sprangata dall'esterno allora sono corso alla finestra e li ho chiamati a gran voce mi hanno guardato con aria ebete puntando il dito verso di me e proprio allora è uscito l'etman degli zigani e vedendo che indicavano la mia finestra ha detto qualcosa che li ha fatti ritare da quel momento nessuno sforzo nessun grido patetico nessuna supplica straziante riuscita ad attirare la loro attenzione mi ignoravano ostinatamente i carri contenevano delle grandi casse quadrate con maniglia di corda robusta erano evidentemente vuote stando all'agio con cui gli slovacchi le maneggiavano e al rumore che producevano quando venivano spostate bruscamente dopo averle scaricate tutte ammonticchiandone in un angolo del cortile gli slovacchi hanno preso del denaro dagli zigani e sputandoci sopra per accattivarsi la sorte si sono diretti pigramente verso i rispettivi cavalli poco dopo ho udito lo schiocco delle loro fruste svanire in lontananza 24 giugno prima dell'alba la notte scorsa il conte mi ha lasciato presto e si è chiuso nella sua stanza appena trovato il coraggio sono salito per la scala chiocciola e ho guardato dalla finestra che si affaccia sud volevo tenere d'occhio il conte perché c'è qualcosa nell'aria gli zigani si sono accampati da qualche parte del castello e stanno facendo non so quale lavoro lo so perché di quando in quando sento il rumore attutito dalla distanza di picconi e pale e di qualsiasi cosa si tratti deve essere in funzione di qualche scelleratezza ero alla finestra da poco meno di mezz'ora quando ho visto uscire qualcosa dalla finestra del conte mi sono tirato indietro e osservando con attenzione ho visto emergere l'intera figura dell'uomo è stato un nuovo colpo per me scoprire che indossava gli abiti che avevo indossato durante il viaggio e in spalla aveva il terribile sacco che avevo visto portare via dalle donne non potevano esserci dubbi su quello di cui andava in cerca e con i miei abiti addosso per giunta questo dunque era il suo nuovo infame disegno farà in modo di farsi vedere dagli altri così sicché da una parte lascerà le prove della mia presenza a impostare le lettere nella città e nei villaggi e dall'altra ogni infamia che commetterà sarà attribuita a me dalla gente del luogo mi fa infuriare l'idea che questo possa accadere proprio quando io sono chiuso quassù come un vero prigioniero ma senza la protezione della legge che è diritto e consolazione perfino per un criminale pensavo di stare in guardia ad attendere il ritorno del conte e sono rimasto a lungo caparbiamente alla finestra poi ho notato che c'erano dei curiosi puntolini che fluttuavano alla luce di un raggio di luna sembravano minuscoli granelli di polvere che volteggiavano e si aggrumavano in forme nebulose li osservavo con un senso di sollievo e a poco a poco una sorta di calma si è impadronita di me mi sono appoggiato al vano della finestra così da poter godere meglio di quelle pirouette aereiformi qualcosa mi ha fatto trasalire un ululato di cani profondo e penoso che giungeva da un punto lontano della valle nascosto alla mia vista sembrava risuonare più forte le mie orecchie e il pulviscolo pareva assumere nuove forme mentre danzava al chiaro di luna mi sono trovato a lottare per destarmi a un qualche richiamo del mio istinto anzi era la mia anima stessa che lottava mentre i miei sensi ottenebrati si sforzavano di rispondere all'appello mi stavano ipnotizzando il pulviscolo danzava sempre più velocemente i raggi di luna sembravano fremere mentre mi passavano accanto prima di perdersi nella massa oscura della notte le particelle si agglomeravano in forme sempre più grandi finché mi è parso che prendessero l'apparenza di vaghi fantasmi allora mi sono scosso completamente sveglio e nel pieno possesso delle mie facoltà sono corso via urlando le figure chimeriche che si facevano sempre più corporee ai raggi della luna erano le tre donne spettrali alle quali ero condannato sono scappato e mi sono sentito un poco più al sicuro nella mia stanza dove non penetrava il chiaro di luna e la lampada ardeva vivace passato un paio d'ore ho udito dell'agitazione nella stanza del conte una sorta di gemito acuto subito zittito e quindi silenzio un silenzio profondo e terribile che mi ha raggelato col cuore in tumulto ho provato ad aprire la porta ma ero rinchiuso nella mia prigione e non potevo fare nulla mi sono seduto e ho pianto poi ho sentito un suono nel cortile esterno il grido lacerante di una donna sono corso alla finestra e spalancandola ho guardato di tra le sbarre c'era effettivamente una donna con i capelli scarmigliati le mani strette sul cuore come se fosse sfinita dalla corsa stava appoggiata a un angolo del cancello quando ho visto la mia faccia alla finestra si è gettata in avanti e con voce carica di minaccia ha gridato mostro ridammi il mio bambino si è buttata in ginocchio e alzando le mani al cielo ha gridato le stesse parole in toni che mi straziavano il cuore poi ha preso a strapparsi i capelli e battersi il petto e si è abbandonata a tutte le violenze di una smisurata emozione infine si è scagliata in avanti e per quanto non potessi vederla la sentivo battere le mani nude contro il portone da qualche parte in alto probabilmente dalla torre ho sentito la voce del conte lanciare un richiamo con quel suo bisbiglio aspro e metallico a quella chiamata sembrava rispondere da ogni dove l'ululato dei lupi pochi minuti dopo un branco di lupi ha invaso il cortile dell'ampio ingresso come l'acqua di una diga improvvisamente aperta dalla donna non è giunto neppure un grido e l'ululato dei lupi non è durato che un attimo dopo poco si sono allontanati a uno a uno leccandosi le labbra non potevo provare pietà per lei perché sapevo adesso che cosa era accaduto al suo bambino e per lei era meglio essere morta che cosa devo fare che cosa posso fare come posso sfuggire da questo gioco di oscurità sconforto e paura 25 giugno mattina nessuno se non dopo un'intera notte di sofferenze può sapere quanto può essere dolce e caro al cuore e agli occhi il mattino quando il sole è salito in alto fino a toccare la cima del grande cancello di fronte alla mia finestra mi è parso che su quel punto si fosse posata la colomba dell'arca la paura mi ha abbandonato come un mantello vaporoso dissolto dal calore devo fare qualcosa finché la luce del giorno mi dà coraggio la notte scorsa è stata spedita una delle mie lettere post datate la prima della serie fatale che dovrà cancellare dalla terra ogni traccia della mia esistenza non devo pensarci ma muovermi è sempre accaduto di notte che io fosse insidiato o minacciato o messo in situazione di pericolo o di paura non ho ancora visto il conto alla luce del giorno può forse essere che lui dorma quando gli altri vegliano sì che possa essere sveglio quando gli altri dormono se solo riuscissi a entrare nella sua stanza ma non c'è possibilità la porta è sempre chiusa a chiave niente da fare invece c'è un modo se si ha il coraggio di intraprenderlo dove è passato il suo corpo non potrà forse passare quello di un altro l'ho visto con i miei occhi strisciare fuori perché non dovrei imitarlo entrando nella sua finestra è un tentativo disperato ma la mia situazione è ancora più disperata correrò il rischio alla peggio non può esserci che la morte e la morte di un uomo non è la morte di un vitello e il temuto al di là potrebbe essermi ancora accessibile che Dio mi aiuti nell'impresa addio mina se dovessi fallire addio mio amico fedele padre putativo addio a tutti e ancora un addio a mina più tardi lo stesso giorno ho fatto il tentativo e con l'aiuto di Dio sono tornato sano e salvo in questa camera devo annotare con ordine tutti i dettagli prima che il coraggio mi abbandonasse sono andato senza esitazione alla finestra del lato sud e sono uscito sullo stretto cornicione di pietra che percorre l'edificio su quel lato le pietre sono grandi e tagliate erozamente e la malta che le unisce è stata erosa dallo scorrere del tempo mi sono tolto gli stivali e mi sono avventurato su quella via disperata ho guardato in giù una volta per accertarmi che la vista improvvisa di quel vuoto spaventoso non mi avrebbe travolto ma dopo ho distolto accuratamente lo sguardo conoscevo bene la direzione e la distanza che mi separava dalla finestra del conte e mi sono mosso verso di essa come potevo sfruttando ogni appiglio non ho provato vertigini forse ero troppo esaltato e mi è parso ridicolmente breve il tempo necessario a giungere sul davanzale della finestra dove ho cercato di alzare il vetro a ghigliottina era al colmo dell'agitazione però quando mi sono piegato e sono scivolato dentro i piedi in avanti mi sono guardato intorno alla ricerca del conte ma con sorpresa e sollievo ho scoperto che la stanza era vuota lo scarso mobilio consisteva di strane cose che sembravano non essere mai state usate i mobili avevano un po' lo stile della stanza nell'ala sud ed erano coperti di polvere ho cercato la chiave ma non era nella serratura e non sono riuscito a trovarla da nessuna parte l'unica cosa che ho trovato è stata un mucchio d'oro in un angolo oro di ogni nazionalità monete romane inglesi austriache ungheresi greche e turche coperte da un velo di polvere come se fossero state a lungo sepolte non ho notato nessuna moneta che avesse meno di 300 anni c'erano anche catene e ornamenti alcuni di questi incastonati di gioielli ma tutti vecchi e macchiati su un lato della stanza c'era una porta pesante ho cercato di aprirla dato che non trovando la chiave della stanza né la chiave del portone di sotto che era l'oggetto principale della mia ricerca dovevo continuare la mia esplorazione altrimenti tutti i miei sforzi sarebbero stati vani era aperta e attraverso un passaggio di pietra portava una ripida scala a chiocciola sono sceso attento dove mettevo i piedi perché la scala era buia illuminata soltanto dalle feritoie aperte nello spessore del muro in fondo c'era una galleria scura attraverso cui giungeva un odore nausabondo e mortifero l'odore di terra vecchia appena smossa mentre percorrevo il passaggio l'odore si faceva più forte e vicino infine ho spalancato una porta socchiusa e mi sono ritrovato nella vecchia cappella in rovina che evidentemente veniva usata da cimitero il tetto era a pezzi e in due punti c'erano delle scale che portavano a delle cripte ma il suolo era stato scavato di recente e le grandi casse di legno che avevano portato gli slovacchi erano state riempite di terra non c'era nessuno in giro e ho cercato un'ulteriore via di uscita ma non ce n'erano allora ho esaminato con attenzione ogni centimetro di terreno per non lasciarmi sfuggire alcuna possibilità sono perfino sceso nelle cripte dove la luce faticava a penetrare anche se farlo ha gettato la mia anima nel terrore sono entrato in due di queste senza trovare nulla a parte frammenti di vecchie casse da morto e pile di polvere nella terza invece ho fatto una scoperta lì in una delle grandi casse ce n'erano una cinquantina in tutto su un mucchio di terra appena smossa giaceva il conte era morto o addormentato non saprei dire perché aveva gli occhi aperti e fissi ma non erano vitri come quelli dei cadaveri e dalle guance pur nel loro pallore traspariva il calore della vita e le labbra erano rosse come sempre però non c'era segno di movimento né polso né respiro né battito del cuore mi sono chinato su di lui alla ricerca di un segno di vita ma in vano non poteva essere coricato lì da molto tempo perché l'odore di terra sarebbe scomparso nel giro di poche ore a lato della cassa c'era il coperchio forato qui e là ho pensato che forse portava le chiavi con sé ma mentre mi sono accinto a cercarle ho visto gli occhi morti e in loro per quanto fossero morti un tale sguardo d'odio seppure inconsapevole di me o della mia presenza che sono scappato via e lasciando la camera del conte attraverso la finestra mi sono arrampicato sul muro del castello tornato nella mia stanza mi sono seduto ansimante sul letto e ho cercato di pensare 29 giugno oggi è la data della mia ultima lettera e il conte si è premurato di provarne la genuinità infatti l'ho visto uscire dal castello attraverso la solita finestra con i miei abiti addosso mentre stava scendendo lungo il muro a mo' di lucertola avrei voluto avere una pistola o qualche altra arma letale per distruggerlo ma ho paura che nessuna arma forgiata da mano umana avrebbe alcun effetto su di lui non osavo aspettare di vederlo rientrare perché avevo paura di vedere quelle strane sorelle sono tornato nella biblioteca e lì ho letto finché mi sono addormentato mi ha svegliato il conte che guardandomi con l'espressione più torva che un uomo possa avere mi ha detto domani amico mio dobbiamo separarci voi tornate alla vostra bella Inghilterra e io ho un'impresa che potrebbe concludersi con la possibilità che noi due non ci si incontri mai più la vostra lettera diretta a casa è stata inviata domani non sarò qui ma tutto sarà pronto per il viaggio di mattina arriveranno gli zigani che hanno del lavoro da fare e anche qualche slovacco quando se ne saranno andati la mia carrozza verrà a prendervi e vi porterà al passo borgo dove prenderete la diligenza che dalla bucovina va abistrita ma io spero di vedervi ancora a Castel Dracula sospettavo di lui ed ero determinato a mettere alla prova la sua sincerità sincerità sembra una profanazione scrivere questa parola in rapporto a un simile mostro così ho chiesto di punto in bianco perché non posso partire stanotte perché il mio cucchiere e i cavalli sono fuori per un'incompensa ma andrai volentieri a piedi voglio andare via immediatamente ha sorriso un sorriso così dolce mellifluo diabolico che sapevo esserci qualche trucco dietro a tanta dolcezza ha detto e il vostro bagaglio non ha importanza posso mandarlo a prendere un'altra volta il conte si è alzato e ha detto con una tale cortesia che non credevo ai miei occhi tanto pareva reale voi inglesi avete un detto che mi sta particolarmente a cuore dato che il suo spirito è ciò che guida i nostri boiardi benvenuto sia l'ospite che affretta il suo commiato venite con me mio giovane caro amico non trascorrerete neppure un'ora nella mia casa contro la vostra volontà per quanto mi addolori la vostra partenza e il vostro improvviso desiderio di andarvene venite con solenne gravità mi ha preceduto con la lampada per le scale e lungo il corridoio di un tratto si è fermato udite l'ululato di molti lupi si è levato da presso sembrava quasi che il suono fosse nato all'alzarsi della sua mano come la musica di una grande orchestra sembrava levarsi dalla bacchetta del direttore dopo una brevissima pausa si è diretto con solennità alla porta ha tirato i poderosi chiavistelli liberato i pesanti catenacci e ha cominciato ad aprirla con mia grande sorpresa ho visto che non era chiusa sospettoso mi sono guardato intorno ma non sono riuscito a vedere chiavi di alcun genere mentre la porta cominciava ad aprirsi l'ululato dei lupi si faceva più forte e feroce dalla porta semiaperta entravano le fauci rosse con i denti pronti a mordere e le zampe dagli artigli smussati che spiccavano il salto ho capito allora che lottare col conte in quel momento era inutile con simili alleati al suo comando non c'era nulla che io potessi fare ma la porta continuava lentamente ad aprirsi e vi si frapponeva solo il corpo del conte d'un tratto ho capito che forse quello era il momento e il mezzo che avrebbe messo fine al mio destino sarei finito in balia dei lupi e su mia stessa istigazione c'era una malignità diabolica in quest'idea che ben si confaceva alla statura del conte e come ultima risorsa ho esclamato chiudete la porta aspetterò fino al mattino e ho nascosto il viso tra le mani per occultare le mie lacrime di amara delusione con un ampio gesto del suo braccio possente il conte ha chiuso la porta e i grossi catenacci sono tornati rumorosamente al loro posto riechieggiando nell'atrio in silenzio siamo tornati alla biblioteca e dopo un minuto due sono andato nella mia camera l'ultima cosa che ho visto fare al conte è stata lanciarmi un bacio con la mano negli occhi aveva una rossa luce di trionfo e un sorriso di cui giuda nell'inferno potrebbe andare fiero una volta nella mia stanza e sul punto di coricarmi mi è parso di udire un bisbiglio alla mia porta così mi sono avvicinato ad ascoltare se le mie orecchie non mi hanno ingannato ho udito la voce del conte indietro indietro tornate al vostro posto non è ancora giunto il vostro momento aspettate abbiate pazienza domani notte sarà vostro è seguito un gorgoglio di risate lievi dolci e in un impeto di rabbia ho aperto la porta e ho visto le tre terribili donne leccarsi le labbra alla mia comparsa sono scoppiata in una risata raccapricciante e sono corse via sono tornato nella mia stanza e mi sono gettato in ginocchio sono dunque così vicino alla fine domani domani signore aiutami e aiutami ai cari 30 giugno queste possono essere le ultime parole che scriverò nel diario ho dormito ho dormito fino a poco prima dell'alba e quando mi sono svegliato mi sono inginocchiato perché ho deciso che se verrà la morte dovrà trovarmi pronto finalmente ho sentito quel sottile cambiamento nell'aria e ho saputo che era giunto il mattino poi è arrivato l'atteso canto del gallo e mi sono sentito al sicuro con un cuore lieto ho aperto la porta e sono corso lungo il corridoio avevo visto che il portone non era chiuso a chiave e dunque potevo fuggire con mani tremanti dall'emozione ho sciolto i catenacci e aperto i chiavistelli ma il portone non si muoveva mi ha assalito la disperazione ho tirato e tirato e ho scosso finché la porta per quanto massiccia tremava sui cardini ho visto la serratura bloccata era stata chiusa chiave dopo che avevo lasciato il conte allora sono stato preso dal folle desiderio di procurarmi la chiave a ogni costo e ho deciso seduta stante di scalare nuovamente il muro per introdurmi nella stanza del conte forse mi avrebbe ucciso ma la morte ora mi sembrava il male minore senza esitazione sono corso alla finestra a est e sono sceso lungo il muro come prima entrando nella stanza del conte era vuota come mi aspettavo che fosse non ho visto la chiave da nessuna parte ma c'era sempre il mucchio d'oro sono uscito dalla porta sull'angolo e sono sceso per la scala a chiocciola e lungo il passaggio buio per la vecchia cappella sapevo bene dove trovare il mostro che cercavo la grande cassa era nel medesimo posto accanto al muro e il coperchio era appoggiato sopra non chiuso ma i chiodi erano già pronti per essere martellati nella loro sede sapevo di dover frugare il corpo alla ricerca della chiave quindi ho tolto il coperchio e l'ho appoggiato contro il muro poi ho visto qualcosa che ha riempito la mia anima di orrore il conte giaceva nella cassa ma pareva che la giovinezza gli fosse stata in parte restituita i capelli e i baffi bianchi erano diventati di un grigio ferro scuro le guance erano più piene e la pelle bianca sembrava coprire un fondo di rosso rubino la bocca era più rossa che mai perché sulle labbra c'erano gocce di sangue fresco che scendevano dagli angoli della bocca lungo il mento e il collo perfino gli occhi profondi e fiammeggianti sembravano incastonati tra la carne gonfia le palpebre e le borse di sotto erano tume fatte sembrava che l'orribile creatura fosse rimpinzata di sangue giaceva come una lurida sanguisuga esausto nella sua sazietà sono rabbrividito mentre mi chinavo a toccarlo e tutti i sensi si rivoltavano a quel contatto ma dovevo cercare altrimenti ero perduto la notte seguente avrebbe potuto vedere il mio corpo trasformato in un banchetto per quelle tre orribili donne ho frugato tutto il corpo ma non ho trovato traccia della chiave allora mi sono fermato e ho guardato il conte sulla faccia enfia c'era un sorriso beffardo che mi faceva impazzire questo era l'essere che stava aiutando a trasferirsi a Londra dove forse nei secoli a venire avrebbe potuto assaziare la sua brama di sangue con i suoi milioni di abitanti creando un nuovo cerchio di semi demoni in continua espansione che si sarebbero ingrassati a spese degli inermi il solo pensiero mi faceva impazzire mi è preso un terribile desiderio di liberare il mondo da un tale mostro non avevo portata di mano un'arma letale ma ho afferrato una pala che gli uomini avevano usato per riempire le casse e levandola in alto ho colpito con la lama l'odiato volto ma mentre colpivo la testa si è voltata e gli occhi si sono posati su di me con lo scintillio di un orrido basilisco la vista mi ha quasi paralizzato la pala mi si è rigirata di piatto in mano procurando solo un taglio profondo sulla fronte la pala mi è caduta di mano di traverso sulla cassa e mentre la tiravo via il bordo della lama si è impigliato in quello del coperchio che è ricaduto nascondendo l'orrenda cosa ai miei occhi l'ultima visione che ne ho avuto è stata quella di una faccia gonfia macchiata di sangue e fissa in un sogghigno malvagio che non avrebbe sfigurato nell'inferno più profondo ho pensato intensamente a quale avrebbe potuto essere la mia prossima mossa ma il mio cervello sembrava essere in fiamme ho atteso sentendo crescere in me un sentimento di disperazione durante l'attesa ho udito in lontananza una canzone zingaresca cantata da voci allegre che si avvicinavano e tra le note della canzone un rumore di ruote pesanti e lo schioccare delle fruste stavano arrivando gli zigani e gli slovacchi di cui aveva parlato il conte con un'ultima occhiata tutto intorno e alla cassa che conteneva il vile corpo sono scappato nella stanza del conte determinato a correre fuori non appena avessero aperto la porta ascoltavo tendendo le orecchie e ho udito lo sferragliare della chiave nella grande serratura e l'aprirsi del portone doveva esserci un altro accesso o qualcuno aveva la chiave di una delle porte quindi ho sentito lo scalpiccio di molti piedi allontanarsi in un passaggio che ne rimandava l'eco sonoro mi sono voltato per correre di nuovo nella cripta e trovare forse un nuovo ingresso ma in quel momento è giunto quello che pareva un forte colpo di vento e la porta della scala a chiocciola si è chiusa con uno schiocco che ha sollevato la polvere dell'architrave quando sono corso ad aprirla l'ho trovata irrimediabilmente chiusa ero nuovamente prigioniero e la rete del destino mi si chiudeva intorno sempre più stretta mentre scrivo arriva dal passaggio di sotto il rumore di molti passi e quello di pesi spostati e poggiati senza dubbio le casse con tutto il loro carico di terra sento che martellano stanno chiudendo la cassa ora sento dei passi pesanti per correre l'atrio seguiti da molti altri più pigri la porta è chiusa e il catenaccio stride la chiave gira nella top sento ritirare la chiave poi si apre e si richiude un'altra porta sento lo sferragliare dei chiavistelli udite fragore di ruote nel cortile e lungo il sentiero pietroso lo schioccare delle fruste e il coro degli zigani che si allontanano sono solo nel castello con quelle donne orribili puah mina è una donna e non ha niente in comune quelle sono diavoli dell'inferno non resterò solo con loro cercherò di scalare il muro del castello più lontano di quanto non abbia tentato finora prenderò dell'oro con me nel caso mi possa servire in seguito forse troverò un modo per sfuggire a questo luogo ripilante e poi verso casa sul treno più veloce e più vicino via da questo luogo maledetto da questa terra maledetta dove ancora camminano con piedi terreni il diavolo e i suoi figli meglio affidarsi alla misericordia di Dio che a questi mostri e il precipizio è ripido e profondo ai suoi piedi un uomo può dormire dormire da uomo addio a tutti mina capitolo 5 lettera di miss mina murray a miss lucy western 9 maggio mia carissima lucy perdona il gran ritardo con cui ti scrivo ma sono stata letteralmente assorbita dal lavoro la vita di una maestra può essere faticosa muoio dalla voglia di trovarmi assieme a te al mare dove potremmo chiacchierare in tutta libertà e costruire i nostri bei castelli in aria negli ultimi tempi mi sto dando un gran da fare perché voglio tenermi al passo con gli studi di jonathan in più mi esercito nella stenografia con molta assiduità quando saremo sposati desidero potergli essere d'aiuto e se saprò stenografare con sufficiente abilità potrò adoperare quel sistema per mettere su carta ciò che lui dice e poi trascriverlo a macchina altra attività in cui faccio del mio meglio per impratichirmi a volte ci scriviamo lettere stenografate e jonathan fa uso della stenografia anche per compilare il diario dei suoi viaggi all'estero quando sarò lì da te voglio tenere anch'io un diario scritto in quel modo e non parlo di uno di quei quadernetti da due pagine la settimana più un angolino appena per la domenica ma di un diario come si deve da annotare ogni volta che ne sento l'ispirazione suppongo che gli altri non lo troveranno troppo interessante ma del resto non è a loro che è rivolto potrei anche mostrarlo a jonathan un giorno all'altro sempre che vi fosse qualcosa che valga la pena di condividere ma resterebbe innanzitutto un eserciziario proverò a imitare quel che vedo fare alle giornaliste intervistare, descrivere, cercare di rammentare le conversazioni mi è stato detto che con un po' di pratica è possibile ricordare tutto quel che accade o che si sente durante il giorno ma staremo a vedere ti darò ogni ragguaglio sui miei piccoli progetti quando ci incontreremo ho appena ricevuto da jonathan poche righe frettolose spidite dalla transilvania lui sta bene e sarà di ritorno fra una settimana circa non vedo l'ora di sentire quel che avrà da raccontare deve essere talmente bello visitare paesi che non si conoscono chissà se ci capiterà mai a me e jonathan intendo di vederli insieme sta suonando la campanella delle dieci a presto tua affezionata mina post scrittum nella prossima lettera raccontami tutte le novità non mi dici nulla da tanto tempo girano certe voci soprattutto a proposito di un uomo alto bello e riccioluto lettera di lucy westenra a mina morray 17 cutham street mercoledì mia carissima mina devo dire che mi fai un gravissimo torto ad accusarmi di trascuratezza nel tenere la corrispondenza ti ho scritto ben due volte da quando ci siamo separate e la tua ultima lettera non era che la seconda e poi non ho niente da dirti davvero nulla che tu possa trovare interessante la città è molto piacevole in questo periodo e siamo spesso in giro per gallerie e a passeggiare nel parco a piedi o in carrozza per quanto riguarda l'uomo alto e riccioluto suppongo che si tratti del mio accompagnatore all'ultimo concerto a quanto pare qualcuno ha messo in giro delle fanfaluche era mister holmwood viene spesso a trovarci e lui e la mamma vanno molto d'accordo hanno così tante cose in comune di cui discorrere qualche tempo fa abbiamo incontrato un uomo che sembrerebbe fatto apposta per te se non fossi già fidanzata con jonathan è un ottimo partito bello facoltoso e di buona famiglia è un medico sai è intelligentissimo pensa solamente 29 anni e già gestisce un immenso manicomio è tutto sotto la sua responsabilità mister holmwood me lo ha presentato dopodiché lui è venuto a farci visita e da allora ritorna spesso credo sia uno degli uomini più determinati che abbia mai incontrato e al tempo stesso uno dei più calmi parrebbe assolutamente imperturbabile posso solo immaginare quale incredibile potere debba avere sui suoi pazienti ha la bizzarra abitudine di guardare le persone dritte in viso come se cercasse di leggerne i pensieri ci prova di continuo anche con me ma ho la presunzione di credere che ha trovato pane per i suoi denti è lo specchio rivelarmelo tu provi mai a leggere il tuo viso beh io sì e ti posso assicurare che non è un cattivo esercizio e che non è semplice come potrebbe immaginare chi non l'ha mai tentato lui sostiene che gli fornisco l'occasione per uno studio psicologico degno di nota e in tutta umiltà penso che abbia ragione come sai non nutro nell'abbigliamento interesse sufficiente a descrivertene le nuove mode gli abiti sono una scrocciatura un'altra parola sconveniente lo so ma non ha importanza Arthur la usa ogni giorno ecco è tutto Mina ci siamo confidate ai nostri segretici da quando eravamo bambine abbiamo dormito insieme e mangiato insieme e riso e pianto insieme e ora ti ho detto tutto eppure voglio dirti di più oh Mina non lo indovini io l'amo arrossisco solo nel scrivere queste parole perché sebbene pensi che anche lui mi ami non me l'ha mai detto esplicitamente ma io oh Mina io lo amo lo amo lo amo ecco mi fa bene dirlo vorrei che fossimo insieme mia cara seduta in desabillée accanto al fuoco come eravamo solite fare e vorrei provare a spiegarti quel che provo non so come mi riesca di scrivere queste cose benché destinate a te ho paura di smettere forse dovrei strappare la lettera eppure non voglio smettere voglio a tutti i costi raccontarti ogni cosa rispondimi subito e fammi sapere che cosa ne pensi Mina devo andare buonanotte ricordami nelle tue orazioni e Mina prega per la mia felicità Lucy Postcritum non occorre che ti dica che è un segreto ancora buonanotte Lucy lettera di Lucy Westenra a Mina Murray 24 maggio mia carissima Mina grazie grazie e ancora grazie per la tua dolcissima lettera è stato meraviglioso poterti raccontare i fatti e incontrare la tua comprensione mia cara piove sempre sul bagnato quanto dicono il vero i proverbi di una volta eccomi qui vent'anni a settembre e neppure una proposta di matrimonio fino a oggi non una vera proposta almeno e oggi ne ho ricevute tre riesci a immaginarlo tre dichiarazioni in un solo giorno non è terribile sono dispiaciuta seriamente profondamente dispiaciuta per gli altri due poveretti oh Mina sono così felice che non so raccapezzarmene non dir nulla alle ragazze o altrimenti chissà che razza di idee astruse si mettono in testa pronte magari a ritenersi umiliate e svilite se fin dal primo giorno del loro rientro a casa non ne ricevono almeno sei certe ragazze sono così vanesie tu ed io Mina carissima che siamo fidanzate in procinto di calarci sobriamente nel ruolo delle vecchie signore maritate possiamo disprezzare la vanità beh bisogna che ti racconti dei tre ma tu tesoro devi mantenere il segreto con tutti a eccezione naturalmente di Jonathan a lui lo dirai proprio come io se fossi al posto tuo di certo lo direi ad Arthur una donna dovrebbe dire tutto al proprio marito non lo credi anche tu mia cara io debbo essere onesta agli uomini piace che le donne perlomeno le loro mogli siano leali quanto lo sono loro stessi e le donne ahimè non sono sempre oneste come dovrebbero dunque mia cara il numero uno è arrivato subito prima di pranzo ti ho parlato di lui il dottor John Seward l'uomo del manicomio quello con la mascella volitiva e la fronte spaziosa esteriormente pareva molto distaccato ma era comunque nervoso evidentemente si era preparato fin nel più piccolo dettaglio ed era chiaro che sapeva tutto a memoria ciò nonostante ci è mancato poco che si sedesse sul suo cappello di seta cosa che difficilmente gli uomini fanno quando sono davvero distaccati e poi per mostrarsi a suo agio continuava a giocherellare con un bistori in una maniera che mi faceva venire voglia di urlare mi ha parlato Mina con grande franchezza mi ha fatto sapere quanto tenesse a me a dispetto della nostra limitata frequentazione e come sarebbe stata la sua vita se mi avesse avuto al suo fianco ad aiutarlo e a incoraggiarlo stava per dirmi quanto sarebbe stato infelice se io non avessi provato nulla per lui ma quando mi ha vista piangere si è accusato di essere un brutto e mi ha garantito che non avrebbe aggravato le mie pene poi si è interrotto e mi ha chiesto se avrei potuto amarlo col tempo e quando ho scosso la testa le sue mani hanno preso a tremare e con qualche esitazione mi ha domandato se il mio cuore era già di qualcun altro me l'ha chiesto nel migliore dei modi ha detto che non voleva estorcermi alcuna confidenza ma soltanto saperlo perché se il cuore di una donna è libero un uomo può nutrire qualche speranza e a quel punto Mina ho sentito che avevo il dovere di rivelargli che sì qualcuno c'era non ho dovuto aggiungere altro che subito si è alzato in piedi e con aria estremamente forte e grave ha preso entrambe le mie mani fra le sue e ha detto che mi augurava ogni felicità e che se mai avessi avuto bisogno di un amico dovevo considerarlo come uno dei più fedeli oh Mina cara non riesco a smettere di piangere devi scusarmi se questa lettera sarà tutta imbrattata che ti si chieda la mano è una gran bella cosa niente da obiettare ma non è affatto piacevole quando ti tocca vedere un poveretto che indubbiamente ti ama sinceramente andarsene con l'aria affranta e sapere che per quanto ne possa dire lì per lì stai uscendo dalla sua vita per sempre amica mia devo fermarmi qui per il momento troppa è la tristezza che provo benché sia tanto felice Sera Arthur se n'è appena andato e io mi sento più sollevata di quando ho interrotto questa lettera dunque posso continuare a raccontarti della giornata allora mia cara il numero 2 è arrivato dopo pranzo è un tizio così simpatico un americano del Texas e ha l'aria talmente giovane e ingenua che pare quasi impossibile che sia stato in così tanti posti e abbia avuto tutte quelle avventure capisco la povera Desdemona nel cui orecchio si è riversato un simile flusso di parole pericolose per quanto ad opera di un moro probabilmente noi donne siamo tante tremebonde da credere che un uomo possa salvarci dalle nostre paure e così lo sposiamo ora so che cosa farei se fossi un uomo e volessi indurre una ragazza ad amarmi e invece no non lo so perché c'era Mr. Morris che raccontava una storia dopo l'altra e Arthur nessuna eppure ma sto correndo troppo carissima quando è arrivato Mr. Quincy P. Morris ero sola un uomo a quanto pare sa sempre quando trovare una ragazza da sola o forse no perché Arthur l'ha cercata per due volte l'occasione buona e io ho fatto del mio meglio per aiutarlo non mi vergogno d'ammetterlo ormai devo premettere che Mr. Morris non usa sempre quella parlata americana voglio dire che non lo fa mai con gli estranei o comunque in loro presenza perché è un uomo davvero ben educato e dai modi ineccepibili tuttavia ha scoperto che mi divertiva sentirlo parlare in quell'americano colorito e così ogni volta che ero nei paraggi e non c'era nessuno che potesse restarne scandalizzato diceva cose davvero buffe ho il sospetto mia cara che si inventi tutto quanto perché quel che racconta si adatta sempre perfettamente alle circostanze del momento ma è così che va con lo slang non saprei dire se deciderò mai di adoperarlo non so se ad Arthur piaccia visto che dalla sua bocca non l'ho mai udito bene Mr. Morris si è seduto accanto a me ostentando l'aria più felice e spensierata del mondo ma a me non è sfuggito che in realtà era molto nervoso mi ha preso la mano e con la massima dolcezza ha detto signorina Lucy lo so che non sono neanche degno di allacciarvi le fibbie delle scarpine ma mi sa che se aspettate di trovarne uno che lo sia andate a finire come le sette ragazzotte che reggevano le lampade che ne direste invece di attaccare la carrozza insieme a me e in tiro due andarcene passo passo per tutta la strada sino in fondo beh parola mia si mostrava così allegro e scherzoso che rifiutarlo mi è sembrato un gioco da ragazzi a paragone di quello che mi era costato col povero dottor Seward perciò nel tono più lieve possibile gli ho detto che attaccar carrozze non era il mio forte e quanto al tiro a due mi attirava ancora meno allora lui ha risposto che aveva parlato con troppa leggerezza e che si augurava di non aver commesso un errore nel tenere un simile comportamento in occasione per lui tanto importante e decisiva mi pregava di perdonarlo si era fatto tutto serio mentre lo diceva e devo ammettere che mi ha trasmesso un po' di quel sentimento anche se lo so mina mi giudicherai una civetta allo stesso tempo non potevo evitare di provare una specie di esultanza al pensiero che si trattava della seconda dichiarazione della giornata e a quel punto mia cara prima che potessi dire una sola parola eccolo inondarmi di un vero torrente di perfetto linguaggio amoroso deponendo cuore e anima ai miei piedi pareva così sincero che mai più penserò che un uomo debba essere sempre burlone e mai schietto soltanto perché gli capita di essere allegro di tanto in tanto suppongo che qualcosa nell'espressione del mio viso l'abbia frenato perché si è interrotto all'improvviso e con una specie di virile fervore che se solo fossi stata libera me lo avrebbe fatto amare ha detto Lucy voi siete una ragazza dal cuore onesto lo so non sarei qui a parlarvi come vi sto parlando se non vi reputassi fatta di una lega pura sin nel fondo della vostra anima ditemi allora davvero uomo a suo pari c'è qualcun altro a cui tenete perché se è così dalla mia bocca non uscirà più un solo fiato a importunarvi ma rimarrò per voi se me lo concederete il più fedele degli amici carissima Mina perché gli uomini sono così nobili mentre noi donne siamo così indegne e io che quasi mi prendevo gioco di questo vero e magnanimo gentiluomo sono scoppiata in lacrime temo mia cara che questa lettera dovrà parerti un gran fradiciume sotto ogni punto di vista e mi sono sentita davvero malissimo perché mai una ragazza non può sposare tre uomini diversi o tutti quelli che desidera e risparmiarsi tanti tormenti ma questa è un'eresia lo so e non devo pronunciarla sono fiera di dire che pur piangendo sono riuscita a guardare a Mr. Morris dritto in quei suoi occhi impavidi e senza mezzi termini rivelargli sì qualcuno che amo c'è anche se a tutt'oggi lui non mi ha neppure detto che mi ama ho avuto ragione a parlargli con tanta franchezza perché una luce nuova si è accesa sul suo volto e protese le mani per afferrare le mie o forse sono stata io a infilarle tra le sue ha detto con voce accorata ecco la mia giovane coraggiosa molto meglio arrivare tardi nella corsa per conquistare il vostro cuore che giungere in tempo per quello di qualunque altra ragazza del mondo non piangete mia cara se è per me che lo fate sappiate che sono un osso duro io la mia schiena non si piega e quanto a quell'altro tizio beh se non sa dove si trova la sua felicità sarà meglio che lo scopra in fretta o altrimenti dovrà fare conti con me piccola mia la vostra onestà il vostro ardimento mi hanno trasformato in un amico per voi cosa ben più rara di un innamorato di certo più disinteressata ora mia cara mi aspetta una bella passeggiata solitaria da qui al giorno del giudizio non volete darmi un bacio servirà a tenere lontane le tenebre ora e per sempre potete farlo sapete se lo desiderate perché quell'altro bravo uomo deve essere un bravo uomo mia cara e un uomo a modo o voi non potreste amarlo non si è ancora dichiarato queste parole mi hanno davvero conquistata Mina perché era talmente dolce e coraggioso da parte sua e così nobile anche nei confronti di un rivale non ti pare per non parlare della sua tristezza quindi mi sono chinata verso di lui e l'ho baciato e lui sempre tenendo le mie mani fra le sue si è alzato e guardandomi dritta in faccia dovevo essere avvampata ha detto piccola mia vi tengo la mano e voi mi avete baciato e se queste cose non ci rendono amici mi chiedo cos'altro potrebbe vi ringrazio vi ringrazio per la vostra dolce onestà nei miei riguardi e con ciò vi saluto mi ha stretto la mano e toccandosi il cappello ha lasciato la stanza senza mai voltarsi indietro non una lacrima non un tremito non un'esitazione e io giù a piangere come una bambina oh perché un uomo come quello deve toccare l'infelicità quando in giro ci sono frotte di ragazze che sarebbero ben contente di baciare la terra su cui passa so che io lo sarei se fossi libera è solo che non voglio essere libera mia cara tutto ciò mi ha davvero prostrata e sento che in questo momento non posso parlare di felicità non subito dopo averti riferito di questi eventi né desidero parlarti del numero tre finché tutto non finisce bene la tua sempre affezionata Lucy post scrittum oh a proposito del numero tre non occorre che ti dica del numero tre non è vero e poi è stato tutto così confuso mi è parso forse trascorso appena un istante dal momento in cui entrava nella mia stanza e quello in cui le sue braccia mi circondavano e lui mi baciava sono molto molto felice e non so che cosa posso aver fatto per meritare tanto in futuro devo solo cercare di dimostrare a Dio tutta la mia gratitudine per la sua immensa bontà nell'inviarmi un simile amante marito e amico a presto diario del dottor Seward su fonografo 25 aprile bassa marea dell'appetito oggi non posso mangiare non riesco a dormire e allora ripiego sul diario sin dal rifiuto di ieri provo come un senso di vuoto niente al mondo pare di importanza sufficiente da valere lo sforzo poiché so che la sola cura possibile in questo genere di cose è il lavoro sono sceso giù fra i pazienti ne ho già scelto uno che mi ha già fornito occasione per uno studio di grande interesse è così bizzarro che sono deciso a comprenderlo meglio che posso oggi mi è parso di avvicinarmi come mai prima d'ora al nocciolo del suo mistero l'ho interrogato più in dettaglio di quanto avessi mai fatto con l'obiettivo di penetrare appieno le componenti della sua allucinazione nella mia maniera di farlo c'è stata ora me ne avvedo una certa crudeltà sembrava che lo volessi inchiudare alla sua stessa follia una cosa che con i pazienti tendo a evitare come la porta dell'inferno ricordarsi ma in quali circostanze non eviterei le profondità dell'inferno omnia rome venali assunta l'inferno ha il suo prezzo nel caso che vi sia qualcosa dietro a quest'istinto potrà essere prezioso individuarlo accuratamente in seguito pertanto sarà meglio che cominci subito a operare in questa direzione ecco R. M. Renfield di anni 59 temperamento sanguigno grande forza fisica morbosamente eccitabile periodi di depressione sfocianti in qualche fissazione che non mi riesce ad identificare presumo che il temperamento sanguigno in sé unitamente all'influsso dell'alterazione mentale diano per risultato un quadro clinico ben delineato uomo potenzialmente pericoloso anzi con tutta probabilità pericoloso se esente da egoismo negli uomini egoisti la cautela è un'armatura tanto sicura per i loro nemici quanto per loro stessi a questo riguardo ritengo che nei soggetti in cui l'ego è il punto fisso la forza centripeta è in equilibrio con quella centrifuga ma quando il dovere, un ideale o simili sono il punto fisso allora la seconda forza è preeminente e solo il caso fortuito o una serie di casi la possono riequilibrare lettera di queens p morris al nobile arthur holmwood 25 maggio Mio caro Hart ci siamo raccontati aneddoti davanti a un falò nelle praterie e curati a vicenda le ferite riportate durante il tentato sbarco alle marchesi e abbiamo brindato la nostra salute sulle coste di Titicaca altri aneddoti restano da raccontare altre ferite da curare e un nuovo brindisi ci attende che ne diresti di farlo domani sera al mio accampamento non esito a chiedertelo perché so che una certa signora sarà impegnata a una certa cena e tu ti ritroverai libero solo un'altra persona sarà presente il nostro antico compagno dei tempi della Corea Jack Seward ci sarà anche lui poiché entrambi vogliamo versare le nostre lacrime su un bicchiere di vino e con l'augurio di ogni bene bere alla salute dell'uomo più fortunato di tutto il vasto mondo colui che ha conquistato il cuore più nobile mai creato da Dio e il più degno di essere conquistato ti promettiamo un benvenuto caloroso e un'accoglienza fraterna e un brindisi sincero quanto la tua mano destra entrambi ci impegniamo a ricondurti a casa qualora dovessi esagerare nel levare il calice a un certo paio d'occhi non mancare tuo come sempre e per sempre Quincy P. Morris telegramma di Arthur Holmwood a Quincy P. Morris 26 maggio Sarò dei vostri come sempre porto messaggi che vi faranno fischiare le orecchie Capitolo 6 Dal diario di Mina Murray 24 luglio 24 luglio Whitby Lucy è venuta a prendermi alla stazione più carina e amabile che mai e mi ha condotto la casa al crescent in cui alloggiano è un posto incantevole è un posto incantevole un fiumiciattolo l'esc percorre una profonda vallata che approssimandosi alla foce si fa più ariosa la sovrasta un imponente viadotto sorretto da alti piloni attraverso i quali il panorama appare più remoto di quanto non sia la valle è meravigliosamente verdeggiante e così scoscesa che ciascun versante dà direttamente sull'altro a meno che non ci si spinga sul bordo abbastanza da poter guardare il fondo valle le case della vecchia città sul versante opposto al nostro hanno tutte il tetto rosso e in qualche modo paiono impilate una sull'altra come nei quadri di Norimberga proprio sopra la città si ergono le rovine dell'abbazia di Whitby un tempo saccheggiata dai danesi scelta come ambientazione per alcune parti del Marmion quella in cui la ragazza viene murata viva è un rudere maestoso di immense dimensioni e pieno di scorci bellissimi e romantici una leggenda vuole che a una delle sue finestre sia possibile scorgere una dama in bianco fra l'abbazia e la città c'è un'altra chiesa sede parrocchiale circondata da un ampio camposanto fitto di lapidi si tratta a mio giudizio del punto più bello di Whitby perché si affaccia direttamente sulla città e offre una visuale perfetta del porticciolo e di tutta la baia fino al punto in cui il promontorio noto come Kettleness si tuffa nel mare tanto Ertha è la scarpata che discende sul porto da aver causato il crollo di una parte della riva così che alcune delle tombe sono andate perdute in un punto poi il margine in muratura dei sepolcri strapiomba direttamente su un sentiero sabbioso che corre molto più in basso vi sono camminamenti fiancheggiati da panche per tutto il camposanto la gente vi si reca e resta là seduta per tutto il giorno a godersi la vista spettacolare e la piacevole brezza conto di venirci anch'io assai spesso a lavorare anzi lo sto già facendo scrivo col quaderno sulle ginocchia e intanto ascolto la conversazione di tre anziani signori seduti accanto a me sembrano non avere altro da fare da mattina a sera che starsene qui a chiacchierare il porto si stende sotto di me con una lunga parete in granito che sul lato più distante si protende verso il mare e giunta all'estremità curva all'infuori e nel mezzo c'è un faro un poderoso frangiflutti lo protegge verso l'esterno sul lato più vicino l'argine crea un gomito di inclinazione inversa alla cui estremità sorge un altro faro fra i due moli l'accesso al porticciolo è garantito da una stretta apertura che poi si allarga bruscamente è un bel posto con l'alta marea ma quando la marea è bassa si riduce a una distesa di secche e tutto quel che resta è l'esiguo corso dell'esc serpeggiante fra banchi di sabbia intercalati da spuntoni di roccia fuori dal porto su questo lato per circa mezzo miglio si estende una grande scogliera il cui fronte a guzzo si diparte direttamente dal retro del faro meridionale in fondo si trova una boa con una campana che si mette a suonare in caso di tempesta propagando nel vento un suono lugubre da queste parti c'è una leggenda secondo la quale quando una nave fa naufragio in mare aperto risuonano le campane bisogna che ne domandia il vecchio eccolo che viene da questa parte è un curioso vecchietto deve essere tremendamente in là con gli anni perché ha la faccia tutta rugosa e rattrappita come la corteccia di un albero racconta di essere quasi centenario e di aver fatto il marinaio sui pescherecci groellandesi ai tempi della battaglia di vaterlo sospetto che sia una persona alquanto scettica perché quando gli ho chiesto delle campane in mare e della dama bianca ha risposto assai bruscamente io non starei ad arrovellarmi con queste storie signorina tutte faccende dei tempi andati badate non dico che non sono mai successe dico solo che appartengono a un altro tempo funzionano benone per gitanti, vacanzieri e tutti quelli che gironzolano da queste parti ma non per una signorina in gamba come voi quei turistucoli di York e di Leeds che stanno sempre a ingozzarsi di arringa fumicate a bere tè e a comprare pezzi di vetro spacciati per giaietto quelli sì che se le ingollano certe panzane anzi mi chiedo che si prenderebbe la briga di raccontagliali a quelle neppure i giornali che pure sono zeppi di bubole ho pensato che quel bravuomo poteva essere una miniera di informazioni interessanti così gli ho chiesto se non gli dispiacesse raccontarmi qualcosa a proposito della caccia alla balena stavo giusto per cominciare quando l'orologio ha battuto le sei e lui levandosi faticosamente in piedi ha detto adesso devo filare a casa signorina a mia nipote non piace starsene ad aspettare quando è pronta la cena e a me ci vuole un bel pezzo per farmi tutta la strada passì in passetto una tomba dopo l'altra senza contare che a quest'ora il mio stomaco piange si è allontanato con passo incerto e l'ho visto affrettarsi alla bella e meglio giù per i gradini sono questi una grande attrazione del luogo partendo dalla città conducono fin su alla chiesa e ce ne sono centinaia non conosco il numero esatto acchiocciolati su se stessi a formare una morbida curva la pendenza poi è così dolce che un cavallo potrebbe agevolmente percorrerli tanto in salita quanto in discesa ritengo che in origine debbano aver avuto qualcosa a che fare con l'abbazia prenderò anch'io la via di casa Lucy è uscita insieme alla madre siccome si trattava soltanto di visite di cortesia ho deciso di non andare con loro ma a quest'ora saranno ritornate primo agosto sono venuta quassù con Lucy un'oretta fa e qui abbiamo avuto una conversazione estremamente interessante con il mio vecchio amico e gli altri due che lo accompagnano sempre è evidente che tra loro è il ser oracle della situazione e non mi stupirei se ai suoi tempi avesse avuto aria da dittatore non la dà mai vinta a nessuno e non fa che contraddire tutti quanti se non riesce a mettere gli altri a tacere con il ragionamento allora li sbeffeggia e poi prende il loro silenzio per un assenso Lucy era incantevole nel suo fresco abito di cotone bianco e ha preso un bel colorito da quando è qui ho notato che i vecchietti non hanno perso tempo a sederle accanto non appena lei ha preso posto è talmente dolce con le persone anziane penso che in un battibaleno si siano tutti innamorati di lei perfino il mio vecchio ne è rimasto stregato e ha evitato di contraddirla rifacendosi però su di me sono riuscito a riportarlo sul tema delle leggende e lui subito si è lanciato in una specie di sermone ora provo a richiamarlo alla mente e a trascriverlo sono solo frottole un bel mucchio di frottole con tutta la coda ecco che cosa sono e nient'altro questa caterva di maledizioni e fantasmucoli e apparizioni e spiritelli e spauracchi e compagnia bella ve lo dico io che è buona solo per far piagnucolare i marmocchi e le donnette svampite a quello è buona bolle di sapone ecco che cosa sono guardatevi intorno dove vi pare a voi tutte queste pietre tutte a darsi un grande affare per tenersi sulla testa qui già c'è il corpo di qua sacro alla memoria di là e invece ce n'è quasi una metà che non c'è un bel niente dentro e se guardiamo alla memoria poi è tenuta più in gran conto una presa di tabacco altro che sacra frottole dappertutto nient'altro che frottole di una risma o dell'altra oh mister swales non direte sul serio non potranno essere tutte fasulle quelle lapidi sono solo chiacchiere ce ne sarà magari qualcuna che non è completamente falsa se non fosse che ritocca la gente per farla meglio di com'era guardate quella laggiù l'ultima dopo la salita leggetela su ci sono andata e l'oletta edward spenslough capitano di marina assassinato dai pirati a largo delle coste di andres aprile 1854 età anni 30 quando sono tornato indietro mister swales ha ripreso e chi l'avrebbe riportato a casa mi chiedo io e seppellito qui assassinato a largo delle coste di andres e secondo voi il suo corpo starebbe qui sotto a voi vi pare che tutti questi quando suona la campana del giudizio universale si mettono le gambe in spalla e piombano qui a Whitby io ho i miei dubbi date retta a me quel giorno sarà tutto un unico sgomitare e spintonare eppure ho detto non posso darvi completamente ragione perché voi partite dal presupposto che tutti i malcapitati o i loro spiriti saranno costretti a portare con sé i rispettivi cippi funebri nel giorno del giudizio pensate che sarà davvero necessario? beh a che cos'altro servirebbero quei pezzi di pietra? ditemelo voi signorina per compiacere i parenti immagino per compiacere i parenti immaginate e questa frase l'ha pronunciata con profondo disprezzo e che piacere volete che gli dia i parenti quando sanno che quelle lapidi sono piene di menzogne e che non ce n'è uno qui che non sappia che sono menzogne ha indicato una lapida ai nostri piedi poggiata a terra come un lastrone a fungere da base per la panca su cui ci sedevamo leggete che cosa si inventa questa pietra ha detto le lettere erano capovolte rispetto dove sedevo io ma Lucy vi si trovava di fronte e si è chinata in avanti per esporre ad alta voce sacra alla memoria di George Cannon morto nella speranza di una gloriosa ressurrezione il 29 di luglio del 1873 cadendo dal dirupo di Ketelness questo tumulo è stato eretto da una madre affranta al figlio teneramente amato il solo figlio di una madre vedova in tutta sincerità signor Swales non ci vedo nulla di divertente e il commento è stato espresso con estrema serietà e con una certa severità non ci vedete niente di divertente ma perché voi non sapete che la madre affranta era una megera e che lo odiava proprio perché era storpio un vero sgorbio e lui le rendeva pan per focaccia al punto che è arrivato a suicidarsi per non farle incassare i soldi di un'assicurazione sulla vita che lei gli aveva intestato si è fatto saltare il cervello con un vecchio moschetto che tenevano per scacciare i corbi ma quella volta non è servito a mandar via i corbi che anzi li ha tirati lì eppure le mosche ma su di lui altro che cadere dal dirupo e per la faccenda della speranza in una gloriosa risurrezione beh l'ho sentito più di una volta con queste mie orecchie dire che a lui gli andava benone di finire l'inferno perché sua madre era così devota che era più che sicura di volarsene in paradiso e lui mica voleva marcire dove stava lei allora giratela pure come volete ma questa pietra e così dicendo vi ha picchiato sopra col suo bastone non è forse un gran mucchio di bugie e pensate quanto si sbellicherà dal riso l'arcangelo Gabriele quando Giordi se ne arriverà tutto ansimante su per le verdi distese con la lapida in bilico sulla gobba chiedendo che sia presa come prova non sapevo che cosa dire ma Lucy alzandosi in piedi ha cambiato argomento oh perché ci avete raccontato questa storia è la mia panchina preferita e non me ne voglio separare e ora scopro che mi tocca sedere sulla tomba di un suicida non vi capiterà niente di male carina e il povero Giordi sarà contento di avere una damigella tanto fine seduta in grembo a voi non farà alcun male per la miseria io mi ci siedo da vent'anni e non mi è mai successo un bel niente non è di quelli che stanno sotto che dovete mettervi paura che poi magari manco ci sono conservate la paura per quando vedrete tutte queste pietre scappare a gambe levate lasciando questo posto nudo come un campo di stoppie ah ecco che batte l'ora me ne devo andare i miei omaggi signore e via zoppicando Lucy e io siamo rimaste lì sedute ancora un poco e tanto era bello ciò che ci stava di fronte che per tutto il tempo ci siamo tenute per mano lei mi ha raccontato ancora una volta di Arthur e del loro prossimo matrimonio il che mi ha procurato una fitta di malinconia perché da un mese intero non ho notizie di Jonathan stesso giorno sono salita quassù da sola perché mi sento molto triste nessuna lettera per me mi auguro che questo non significhi che è accaduto qualcosa Jonathan l'orologio ha appena battuto le nove vedo le luci sparse per tutta la città qualche volta disposte in fila là dove c'è una via altre volte isolate tutte risalgono il corso dell'esc e scompaiono alla curva della vallata alla mia sinistra la visuale impedita dalla sagoma nera del tetto della vecchia casa tigua l'abbazia sento il belato delle pecore e degli agnelli sui prati dietro di me lontani mentre dalla stradina acciottolata che corre più in basso mi giunge il rumore di zoccoli di un mulo che la risale la banda sul molo sta strimpellando allegramente uno stridulo valsar e più in là lungo la banchina si sta svolgendo in una viuzza laterale una riunione dell'esercito della salvezza nessuna delle due bande riesce a udire l'altra ma da quassù io vedo e sento entrambe mi chiedo dove sia Jonathan e se stia pensando a me vorrei che fosse qui dal diario del dottor Seward 5 giugno il caso Renfield si fa più interessante a mano a mano che mi avvicino a comprendere il soggetto certe sue caratteristiche sono ampiamente sviluppate egoismo segretezza determinazione se solo arrivassi a capire a quale obiettivo tende quest'ultima il soggetto sembra avere un suo preciso proposito anche se non sono in grado di dire quale sia la qualità che lo riscatta è quella dell'amore per gli animali per quanto a dire il vero la peculiarità di certi suoi aspetti a volte mi fa pensare che si tratti unicamente di una forma di crudeltà abnorme i suoi beniamini sono delle specie più insolite il passatempo preferito del momento è catturare mosche è giunto a possederne una tale quantità che mi sono visto costretto a fargli le mie rimostranze con mio grande stupore non è a reagito con un accesso di furia come mi aspettavo ma ha preso la cosa con pacata serietà ci ha pensato su per un momento e poi ha detto mi darete tre giorni me ne libererò naturalmente ho risposto che andava bene bisogna che lo sorvegli 18 giugno ha ora rivolto la sua attenzione ai ragni e ne tiene alcuni grossi esemplari in una scatola li nutre di continuo con le mosche il cui numero si è sensibilmente ridotto benché gli abbia dovuto destinare metà del suo cibo ad attrarne di nuove dall'esterno della stanza 1 luglio i ragni stanno ormai diventando un problema proprio come lo erano state le mosche e oggi gli ho chiesto che deve liberarsene si è molto raddristato nel sentirlo così ho aggiunto che perlomeno deve ridurne il numero a questo ha consentito di buon grado e gli ho concesso lo stesso tempo della volta precedente per operare lo sfoltimento mentre ero con lui sono stato colto da profondo disgusto quando un orribile moscone azzurro rigonfio dei resti di qualche carogna è volato nella stanza e lui catturatolo esultante l'ha trattenuto per qualche momento fra l'indice e il pollice e poi prima che potesse rendermi conto di che cosa stava per fare se l'ha infilato in bocca e l'ha mangiato l'ho severamente rimproverato per il gesto ma lui ha ribattuto in tutta tranquillità che era buonissimo e faceva un gran bene era vita vita ricca di energia e gli dava la vita mi sta nascendo un'idea benché ancora embrionale devo badare a come si libera dei ragni è chiaro che la sua mente soffre di turbe profonde perché possiede un piccolo taccuino sul quale annota di continuo qualcosa pagine intere zeppe di numeri di norma cifre singole sommate a gruppi i cui totali vengono nuovamente sommati in altri gruppi quelli che i contabili definiscono riporti 8 luglio c'è metodo nella sua follia e l'idea embrionale che si è formata nella mia mente sta prendendo corpo presto sarà un'idea compiuta e a quel punto oh inconscio lavoro cerebrale dovrai cedere il passo al tuo conscio fratello ho mantenuto le distanze del mio amico per alcuni giorni così da poter rendermi conto di eventuali mutamenti tutto è rimasto com'era tranne che si è separato da alcuni dei suoi animaletti e li ha sostituiti con uno nuovo in un modo o nell'altro è riuscito a procurarsi un passaro e l'ha già parzialmente addomesticato il suo metodo deve essere semplice visto che la scorta di ragni non ha perso tempo a diminuire quelli che restano tuttavia sono ben pasciuti perché lui continua ad attirare all'interno le mosche tentandole col proprio cibo 19 luglio stiamo facendo progressi il mio amico possiede adesso un'intera colonia di passari mentre mosche e ragni sono quasi esauriti quando sono arrivato mi è corso incontro e ha detto di volermi chiedere un grande favore un grande grandissimo favore e nel parlare mi saltellava intorno facendomi le feste come un cane gli ho chiesto in cosa consistesse e lui in una sorta di raptus estatico dalla voce e del portamento ha risposto un gattino un piccolo e grazioso gattino dolce e giocherellone che possa giocarci istruire e nutrire 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 la richiesta non mi ha colto di sorpresa poiché avevo notato come i suoi animali continuassero a crescere in dimensione e vivacità ma non desideravo che la bella famigliola di Passarotti finisse allo stesso modo delle mosche e dei ragni così ho risposto che avrei visto cosa potevo fare e gli ho chiesto se non preferisse avere un gatto adulto piuttosto che un cucciolo l'ha tradito lo zelo con cui ha risposto oh sì mi piacerebbe un gatto ho chiesto un gattino solo per timore che un adulto me l'avreste rifiutato nessuno potrebbe negarmi un gattino non è vero ho scosso la testa e gli ho detto che per il momento temevo che non fosse possibile ma che ad ogni modo ci avrei pensato su la sua espressione si è fatta cupa un segnale di pericolo poiché vi scorgeva un feroce sguardo obliquo che suggeriva morte il soggetto è un potenziale manioco omicida terrò sotto osservazione questa sua nuova bramosia e così ne saprò di più ore 22 sono andato nuovamente da lui e l'ho trovato seduto in un angolo a meditare quando sono entrato si è gettato ai miei piedi e in ginocchio mi ha implorato di lasciargli tenere un gatto perché la sua salvezza dipende da questo io però sono rimasto fermo sulle mie posizioni e gli ho detto che non può averlo al che si è alzato senza una parola e mordendosi le dita è ritornato nell'angolo in cui l'avevo trovato entrando tornerò da lui domani mattina presto 20 luglio sono passato da Renfield molto presto prima che l'inserviente cominciasse il suo giro era già sveglio e canticchiava un motivetto frattanto spargeva sul davanzale lo zucchero che aveva tenuto da parte stava chiaramente dando avvio un'altra volta la sua caccia alle mosche e lo faceva in allegria e letizia mi sono guardato intorno in cerca degli uccelli e non vedendone alcuno gli ho chiesto dove fossero senza voltarsi ha risposto che erano tutti volati via in giro per la stanza c'erano alcune piume e sul suo cuscino una goccia di sangue non ho detto niente ma uscendo ho avvertito sorvegliante di segnalarmi qualunque eventuale stranezza dovesse riguardare il paziente nel corso della giornata ore 11 l'inserviente è appena venuto a riferirmi che Renfield ha avuto una forte indisposizione di stomaco e ha vomitato una grande quantità di piume la mia opinione dottore ha detto è che si è mangiato gli uccelli li ha presi e se li ha mangiati crudi come erano ore 23 ho dato a Renfield un potente sedativo per la notte sufficiente a far dormire perfino un soggetto come lui e gli ho sfilato il taccuino per dargli un'occhiata il pensiero che da qualche tempo mi frulla per la testa è ormai definito e la teoria che ne consegue comprovata il mio maniaco omicida è di una specie particolare dovrò inventare una nuova classificazione per lui lo definirò maniaco zoofago mangiatore di esseri viventi ciò che desidera è assorbire il maggior numero possibile di vite e si è disposto per seguire l'obiettivo in modo cumulativo ha dato molte mosche a un solo ragno e molti ragni a un uccello dopodiché avrebbe voluto un gatto a cui somministrare molti uccelli quali sarebbero stati i passi successivi varrebbe quasi la pena di completare l'esperimento si potrebbe fare se solo ve ne fosse una ragione sufficiente gli uomini si sono sempre fatti beffe della vivisezione eppure guardiamo nei risultati oggi perché non far progredire la scienza nel suo aspetto più arduo e cruciale la conoscenza del cervello se solo potessi carpire il segreto di una simile mente se possedessi la chiave per penetrare le fantasie anche di un unico squilibrato potrei far toccare al ramo della scienza di cui mi occupo vette mai raggiunte a paragone delle quali perfino la fisiologia di Burdon Sanderson o la conoscenza celebrale di Ferriè sarebbero qui squiglie se solo ve ne fosse una ragione sufficiente non devo pensarci troppo o potrei lasciarmi tentare una ragione sufficiente potrebbe far pendere la bilancia dalla mia parte perché non è detto che non abbia anch'io a livello congenito un cervello eccezionale come ragionava bene quell'uomo è tipico dei pazzi nell'ambito della loro deviazione mi chiedo quante vite a suo giudizio valgono un uomo e se questo ne valga una sola ha chiuso il conto con assoluta precisione e oggi ha incominciato una nuova registrazione quanti di noi aprono una diversa partita ad ogni nuovo giorno della vita a me pare solo ieri che la mia intera esistenza sia conclusa insieme alla nuova speranza che nutrivo e che davvero io abbia avviato un nuovo calcolo così sarà fino a quando il grande computista non tirerà le somme e chiuderà il mio conto con un saldo a debito o a credito oh Lucy Lucy non posso essere in collera con te né posso avercela col mio amico la cui felicità ti appartiene no devo solo continuare ad attendere senza speranza e lavorare 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 se solo potessi avere una ragione tanto forte quanto quella di questo mio povero amico pazzo una buona ragione disinteressata che mi inducesse a lavorare questa sì che sarebbe felicità dal diario di Mina Murray 26 luglio sono in ansia ed esprimere qui ciò che provo serve ad acquietarmi è come bisbigliare al proprio orecchio e ascoltare al tempo stesso in più i simboli stenografici rendono il processo diverso da quello della normale scrittura sono in pena sia per Lucy che per Jonathan di lui non avevo notizie da lungo tempo ed ero molto preoccupata ma ieri il caro Mr. Hawkins che è sempre tanto gentile mi ha spedito una sua lettera gli avevo scritto chiedendogli se avesse qualche notizia e lui ha risposto di aver appena ricevuto la missiva che mi allegava si tratta di un'unica riga datata a Castel Dracula e annuncia un imminente ritorno a casa non è da Jonathan non capisco e la cosa mi rende inquieta Lucy poi benché stia benissimo ha da poco ripreso l'antica abitudine di camminare nel sonno sua madre me ne ha parlato e insieme abbiamo stabilito di chiudere la chiave della porta della nostra camera ogni notte Mrs. Wensterra è convinta che i sonnambuli scelgano sempre i tetti delle case e il margine delle scogliere e che poi improvvisamente risvegliati ne precipitino con un urlo di disperazione che riecheggia per ogni dove poverina è naturale che sia in ansia per Lucy tanto più che a quanto mi racconta anche suo marito il padre di Lucy aveva la stessa abitudine soleva alzarsi di notte vestirsi e uscire a meno che non lo si fermasse Lucy si sposerà in autunno ed è già impegnata nei preparativi per gli abiti e l'arreddamento della casa la capisco perché faccio anch'io lo stesso con la differenza che Jonathan ed io cominceremo la nostra nuova vita con semplicità e avremo il nostro da fare per mettere insieme il pranzo con la cena Mr. Holmwood vale a dire il nobile Hartum Holmwood unico figlio di Lord Godalming sarà qui molto presto non appena potrà lasciare la città dal momento che suo padre non si sente troppo bene e penso che la cara Lucy stia contando i minuti che la separano dal suo arrivo desidera condurlo fino alla panchina del cimitero che dà sulla scogliera e da lì mostragli la bellezza di Whitby arrivo perfino a ipotizzare che si è l'attesa a causarle quel disturbo starà benissimo quando lui arriverà 27 luglio nessuna notizia di Jonathan provo per lui una grande apprensione anche se non so bene perché comunque vorrei tanto che scrivesse fosse anche una sola riga Lucy deambula nel sonno più che mai e ogni notte vengo svegliata dai suoi movimenti per la stanza fortunatamente il clima è così caldo che non rischia di prendersi un malanno ciò non di meno l'ansia e i continui risvegli cominciano a produrre i loro effetti su di me rendendomi a mia volta sempre più agitata e insonne grazie a Dio la salute di Lucy resiste bene Mr. Holmwood ha dovuto improvvisamente recarsi a ringhe per vedere suo padre gravemente malato Lucy scalpita per quest'ulteriore rinvio ma l'aspetto non ne risente è ora leggermente più in carne e le sue guance sono di un rosato incantevole ha perso anche l'aria anemica di un tempo prego solo che duri 3 agosto un'altra settimana è passata senza notizie di Jonathan neppure tramite Mr. Hawkins con il quale sono in contatto oh speriamo che non sia malato nel caso però avrebbe certamente scritto rileggo la sua ultima lettera e c'è qualcosa che non mi convince non sembrano le sue parole eppure la grafia lo è su questo non c'è dubbio Lucy non ha avuto molti episodi di sonnambulismo la settimana passata però la vedo stranamente cogita bonda e non riesco a spiegarmelo perfino mentre dorme sembra sorvegliarmi più volte prova ad aprire la porta ritrovandola chiusa si mette a vagare per la stanza in cerca della chiave 6 agosto altri tre giorni e ancora niente questa attesa si sta facendo insostenibile se solo sapessi a quale indirizzo scrivere o dove recarmi mi sentirei il cuore più leggero ma da quell'ultima lettera nessuno ho più ricevuto una sola parola da Jonathan posso solo pregare il Dio affinché mi doni la pazienza Lucy è più eccitabile che mai ma per il resto sta bene la scorsa notte il tempo era minaccioso e i pescatori dicono che sta per arrivare una tempesta devo prestarvi attenzione e cercare di imparare a riconoscere le avvisaglie del maltempo oggi è una giornata grigia e il sole proprio ora mentre scrivo si nasconde dietro a spesse nuvole alte sopra il cielo di Ketelnes tutto è dello stesso colore tranne l'erba verde che spicca come smeraldo oggi è una giornata grigia e il sole proprio ora mentre scrivo si nasconde dietro a spesse nuvole alte nel cielo sopra Ketelnes tutto è dello stesso colore tranne l'erba verde che spicca come smeraldo grigia e le rocce sul terreno grigia e le nubi accese di sole ai bordi più remoti e sospese su un mare grigio in cui lingue di sabbia si insinuano come dita grigie tutto è vastità le nuvole sono abbarbicate l'uno all'altra come rocce gigantesche e dall'acqua si leva un mughio basso e profondo che pare un presagio di sventura le barche dei pescatori si affrettano verso casa e approssimandosi al porto si alzano e ricadono nella risacca inclinandosi fino agli ombrinali ma ecco venire il vecchio mister Swales punta diritto verso di me e da come si leva il cappello capisco che ha intenzione di parlare mi ha molto colpita il cambiamento del povero vecchio appena si è seduto accanto a me in tono assai gentile ha detto voglio dirvi una parola signorina vedevo che era in difficoltà così ho preso la sua vecchia mano rugosa nella mia e gli ho chiesto di parlare liberamente e lui lasciando che gli tenessi la mano ha proseguito temo mia cara di avervi messo una gran paura con tutte le cose brutte che vi ho raccontato ma non dicevo sul serio voglio che ve ne ricordiate quando non ci sarò più noi vecchi ribambiti che abbiamo già un piede nella fossa a noi non ci piace punto di stare a pensarci e non vogliamo metterci paura ed è per quello che ho cominciato a sbertucciare tutta la faccenda che così il cuore mi si fa un po' più leggero ma come è vero che Dio vi ama signorina io non ho paura di morire neanche per sogno è solo che ne farei volentieri a meno se potessi la mia ora deve essere alle porte ormai perché sono vecchio e cent'anni sono più di quanto chiunque si può aspettare e io ci sono tanto da presso che la vecchia tuttossa sta già arrottando la falce ecco lo vedete mica posso togliermi il vizio di lamentarmi le ganasce si muovono per conto loro come sono abituate uno di questi giorni l'angelo della morte mi suonerà la sua tromba ma niente lacrime cara signorina non vi rattristate per me se anche dovesse arrivare questa notte stessa non mi rifiuterei di rispondere alla sua chiamata perché la vita dopo tutto non è altro che un'attesa per qualche cosa d'altro da quello che si fa di qua e la morte è l'unica certezza su cui abbiamo il sacrosanto diritto di contare ma io ho il cuore in pace perché sta già venendo da me mia cara e in fretta anche magari proprio mentre stiamo qui a guardare avanti e a chiederci quando arriverà magari se ne viene giusto con quel vento là sul mare che si porta presso perdite e rovina e grande dolore ed esolazione guardate guardate c'è qualcosa in quel vento e nel boato che l'accompagna quella cosa ha il suono il volto il sapore l'odore della morte è nell'aria la sento arrivare oh Dio fa che io risponda con gioia quando sarà il mio momento ha sollevato le braccia al cielo con devozione e si è levato il cappello la sua bocca si muoveva come se stesse pregando dopo alcuni minuti di silenzio si è alzato in piedi mi ha stretto la mano e dopo avermi rivolto le sue benedizioni e il suo saluto se ne è andato torterellando il tutto mi ha commossa e turbata alquanto sono stata ben contenta all'arrivo della guardia costiera con il suo cannocchiale sotto il braccio si è fermato a conversare con me come d'abitudine ma per tutto il tempo non ha mai distolto lo sguardo da una strana nave che aveva avvistato non riesco ad individuarla ha detto a giudicare da qui sembra russa ma sta sbandando da una parte dall'altra in modo molto strano non ha neppure il barlume di una rotta pare che veda propinquarsi la tempesta ma non riesca a decidere se puntare a nord in mare aperto oppure se rifugiarsi qui ecco un'altra volta vira senza cognizione come se non seguisse la mano che regga il timone cambia direzione a ogni soffio del vento avremo senz'altro sue notizie prima di domani capitolo 7 stralcio da De Deligraf dell'8 agosto incollato sul diario di Mina Murray dal nostro corrispondente Whitby una delle tempeste più violente e improvvise di cui gli annali conservino traccia si è da poco abbattuta in questo luogo con conseguenze uniche e stupefacenti il clima era lievemente affoso ma nulla di insolito nel mese d'agosto il cielo è stato insolitamente terzo fino al pomeriggio prima che il sole sprofondasse dietro la massa scura di Ketelnes fieramente stagliata per traverso contro l'orizzonte occidentale la sua traiettoria discendente ha intercettato miriadi di nuvole accese di ogni colore della sera e qui e là masse non grandi ma di un nero apparentemente assoluto d'ogni forma che spiccavano come enormi silhouette più di un capitano ha deciso immantinente che la sua bagnarola o la sua carretta del mare come sogliono definire i vari tipi di imbarcazione sarebbe rimasta in porto fino a che la burrasca non fosse passata il vento si è fermato del tutto durante la serata e a mezzanotte regnava una calma assoluta un caldo soffocante e quella tensione soverchiante che all'avvicinarsi del tuono affligge le persone di natura sensibile poche luci si scorgevano in mare perché perfino i vaporetti da cabottaggio che di norma pennellano la costa così da presso si tenevano ben a largo e in vista non rimaneva che qualche peschereccio l'unica imbarcazione a catturare lo sguardo era una goletta straniera con tutte le vele spiegate apparentemente diretta a ovest la stoltezza o l'ignoranza dei suoi ufficiali di bordo è stata prolifica materia di conversazione per tutto il tempo in cui il veliero è rimasto visibile e non pochi sforzi sono stati compiuti per segnalare loro la necessità di ridurre le vele in previsione del pericolo prima che la notte calasse del tutto l'imbarcazione è stata vista rollare dolcemente nel movimento ondulatorio del mare gonfio con le vele flosce che sbattacchiavano pigramente poco prima delle dieci l'immobilità dell'aria si è fatta davvero oppressiva ed è calato un silenzio tanto profondo che ogni belato di pecora dall'entroterra o abbagliare di cane dalla città si udiva distintamente e la banda sul molo con le sue vivaci arie francesi era come una nota stonata nel grande silenzio armonico della natura subito dopo mezzanotte dal mare si è elevato uno strano rumore e in alto nel cielo l'aria ha cominciato a propagare un misterioso boato fievole e profondo poi senza altri preavvisi è scoppiata la tempesta con una rapidità che sul momento è parsa incredibile e anche ora rimane impossibile da concepire ogni sembianza della natura si è trasfigurata in un sol colpo le onde hanno preso a gonfiarsi con furia crescente ciascuna superando in altezza la precedente sino a che il mare un olio fino fino a pochi momenti prima si è trasformato in un mostro ruggente e famelico cavalloni dalla cresta bianca si sono scagliati furibondi sul bagnasciuga arrampicandosi poi sugli spuntoni di roccia altri si sono abbattuti sui moli sferzando con la loro spuma le lanterne dei fari svettanti al termine di ciascuna delle due banchine del porto di Whitby il vento rombava come tuono e soffiava con tale impeto che solo a stento uomini anche robusti riuscivano a reggersi in piedi o a serrare la presa sui montanti di ferro è stato dunque necessario sgomberare entrambi i moli dalla folla di spettatori o altrimenti le fatalità durante la notte si sarebbero moltiplicate in misura incontrollabile ad accrescere le difficoltà e i pericoli del momento dal mare sono giunti sulla costa certi banchi di nebbia nuvole bianche e madide che vagavano spettrali tanto umide e fredde da far pensare senza grande sforzo di immaginazione che gli spiriti stessi dei caduti in mare stessero sfiorando i fratelli ancora viventi con dita viscide di morte e in molti sono rabbrividiti al passaggio di quella voluta di bruma questa di tanto si diradava e allora il mare diventava visibile per un certo tratto al bagliore dei lampi o raffitti e rapidi seguiti da scrosci di tuono tanto improvvisi che il cielo intero pareva tremare sotto le scosse propagate da ogni passo della tempesta alcune delle scene così palesate sono risultate di grandiosità incommensurabile e di avvincente interesse il mare innalzatosi al livello di un monte lanciava verso il cielo ad ogni ondata imponenti masse di schiuma bianca che la burrasca pareva addentare e catapultare nello spazio qui e là un peschereccio con la vela ridotta a brandelli correva l'impazzata davanti alla tromba d'aria sporadicamente le ali bianche di un uccello marino strattonato dalla tempesta di lì a breve il faro ha individuato a una certa distanza una goletta con tutte le vele spiegate apparentemente lo stesso vascello avvistato in precedenza nella serata a quel punto il vento aveva piegato verso est e fra gli osservatori sulla scogliera è corso un brivido non appena ci si è resi conto del terribile pericolo al quale la nave era ora esposta fra essa e il porto si stendeva la grande piattaforma rocciosa sulla quale a così tante imbarcazioni in buon arnese è capitato di incagliarsi e con il vento che soffiava da quella direzione sarebbe stato quasi impossibile che riuscisse a imboccare l'ingresso al porto era ormai quasi l'ora dell'alta marea ma i flutti erano tanto imponenti che ritirandosi quasi scoprivano il fondo in prossimità della riva e la goletta con le vele spiegate correva tale velocità che nelle parole di un vecchio lupo di mare doveva pur approdare da qualche parte fosse anche solo all'inferno poi dal mare è giunto un altro banco di nebbia più fitto dei precedenti una massa di vapore che pareva chiudersi su tutte le cose come un grigio sudario lasciando agli uomini il solo senso dell'udito giacché il ruggito della tempesta il fragore del tuono e il mugghio dei potenti marosi giungevano attraverso quell'umido obnubilamento più sonori che mai i raggi del faro erano tenuti fissi sull'imbocco del porto in cima al molo oest dove ci si aspettava lo schianto e l'attesa toglieva il fiato il vento è improvvisamente virato verso nord est e quel che restava della foschia si è dissolto nelle raffiche e a quel punto mirabile dictu fra le banchine balzando di flutto in flutto nella sua inarrestabile corsa ecco sfrecciare davanti all'uragano la strana goletta con le vele spiegate e raggiungere la salvezza del porto il faro l'ha seguita e un brivido è corso fra quanti l'hanno veduta perché legato al timone c'era un cadavere con la testa ciondolante che ondeggiava orribilmente ad ogni movimento della nave nessun'altra figura si scorgeva sul ponte e un gran timore è calato sui presenti quando è divenuto chiaro che la nave come per miracolo aveva trovato il porto da sé e senza altra guida che quella di un morto ad ogni modo tutto ha avuto luogo in assai minor tempo di quello che occorre per scrivere queste parole la goletta non ha rallentato ma attraversando tutta l'ansa a gran velocità è andata a incagliarsi su quella produberanza di sabbia e ghiaia che le molte maree e i molti uragani hanno accumulato nell'angolo sud-est del molo sporgente sotto l'Eastcliff noto da quelle parti come il Tate Hill Pier c'è stato come ovvio un cozzo magistrale quando il vascello è andato ad arenarsi sul monticello di sabbia ogni albero corda o straglio ha avvertito il contraccolpo e parte dell'attrezzatura è frenata sul suolo ma stranezza delle stranezze nel momento preciso dell'impatto un cane mastodontico è saltato sul ponte dalla stiva quasi fosse stato sbalzato dall'urto e continuando a correre dalla prua si è catapultato sulla battigia puntando diritto alla ripida scogliera dove il cimitero sorge tanto a picco sulla stradicciola per il molo est il cane è scomparso nell'oscurità apparentemente ancora più intensa oltre i confini della zona delimitata dal raggio del faro si dà il caso che in quel momento non ci fosse nessuno sul Tate Hill Pier perché tutti coloro la cui casa sorge nelle immediate vicinanze si trovavano a letto oppure sulle alture circostanti ragion per cui il guardacosta è stato in servizio sul lato orientale del porto che subito è a corso sul piccolo molo è stato il primo a salire a bordo gli operatori del faro dopo aver battuto l'ingresso del porto senza scorgere alcunché hanno deviato il fascio di luce sul relitto e lì l'hanno lasciato il guardacoste si è precipitato a poppa e giunto di fianco al timone si è chinato a eseminarlo per poi ritrarsi subito come in preda a una violenta emozione quando sono arrivato ho trovato già radunato sul molo un capanello di persone alle quali il guardacosta e la polizia impedivano l'accesso a bordo per gentile intercessione del comandante della capitaneria di porto in qualità di vostro corrispondente mi è stato consentito di salire sul ponte e sono stato così fra i pochi ad avere l'avventura di vedere il marinaio morto mentre era ancora legato al timone non c'è da stupirsi che il guardacoste fosse sorpreso o addirittura spaventato poiché una visione del genere non può offrirsi di frequente l'uomo era assicurato soltanto per le mani legate una sull'altra a un raggio del timone fra il palmo e il legno al quale deriva si trovava un crocifisso e il rosario al quale esso era fissato passava intorno a entrambi i polsi e alla ruota stessa il tutto era tenuto insieme da corde forse in un primo tempo il malcapitato era seduto ma le stratte e le tirate delle vele avevano smosso la ruota sballottando il corpo avanti e indietro per cui le corde con le quali era abbinto gli erano penetrate nella carne fino all'osso è stato stilato un rapporto dettagliato della situazione e un medico giunto sul posto subito dopo di me dopo aver eseguito gli opportuni rilievi ha dichiarato che l'uomo doveva essere deceduto da circa due giorni in tasca aveva una bottiglia accuratamente tappata priva di qualunque contenuto fatto salvo un rotolino di carta poi rivelatosi essere un'aggiunta al giornale di bordo il guardacoste ha affermato che l'uomo doveva essersi legato da sé stringendo i nodi con i denti il fatto che sia stato lui il primo a salire a bordo potrà evitare future complicazioni presso il tribunale marittimo i guardacoste non possono infatti rivendicare alcun diritto su quanto recuperato in un naufragio diritto che spetta invece al primo civile che metta piede sul relitto inutile dire che il timoniere defunto è stato devotamente rimosso dal posto dove è rimasto a compiere il suo dovere con onore fino alla morte una tenacia nobile quanto quella del giovane Casabianca e trasportato all'obitorio in attesa dell'autopsia l'improvvisa tempesta sta ora passando e la sua furia si va placando la gente scioglie i capannelli per tornare alle proprie case e il cielo sopra le brughiere dello Yorkshire comincia a rosseggiare prima della prossima edizione invierò ulteriori dettagli a proposito della nave ora incagliata che tanto miracolosamente ha trovato la via di accesso al porto nel bel mezzo della burrasca Whitby 9 agosto il seguito dello strano arrivo del relitto nella tempesta la notte scorsa è quasi più stupefacente del fatto in sé è emerso che la goletta è russa di Varna e si chiama Demeter è quasi interamente zavorrata di sabbia argentifera e per il resto ha solo un piccolo carico un certo numero di grosse casse di legno piene di terriccio la merce è stata consegnata a un legale di Whitby il quale stamane è salito a bordo e ha preso possesso di quanto affidatogli per parte sua il console russo agendo in rappresentanza del noleggiatore ha preso formalmente possesso della nave pagando ogni dazio e tutto quanto è dovuto qui oggi non si parla d'altro che dello strano evento grande interesse ha poi suscitato la questione del cane saltato a terra al momento dell'approdo di fortuna è possibile che spaventato si sia diretto verso la brughiera e che là si stia ancora nascondendo in preda al terrore questa mattina di buon'ora un grosso cane un mastino bastardo di proprietà di un mercante di carbone residente nei pressi del Teitel Pier è stato trovato morto nel vicolo davanti al cortile del padrone aveva avuto un combattimento ed è evidente che ha dovuto vedersela con un avversario spietato visto che la sua gola era squarciata e il ventre aperto in due come da un artiglio efferato più tardi per gentile concessione dell'ispettore della camera di commercio ho avuto il permesso di dare un'occhiata al giornale di bordo del Demeter aggiornato fino a tre giorni fa ma privo di informazioni di particolare rilevanza fatta eccezione per alcuni fatti riguardanti uomini dispersi l'interesse maggiore tuttavia è rivestito dal foglietto di carta trovato nella bottiglia che proprio oggi è stato esibito all'inchiesta e mai mi è capitato di imbattermi in una storia più incredibile di quella che emerge dalle due fonti messe assieme dal momento che non c'è ragione per mantenerla segreta ho ottenuto il permesso di divulgarla e di conseguenza ve ne invia una trascrizione non omettendo altro che alcuni dettagli tecnici come certi aspetti della navigazione o il nome del commissario di bordo sembrerebbe proprio che il capitano sia stato colto da un attacco di follia ancora prima di aver preso il largo e che le sue condizioni siano andate sempre peggiorando nel corso della traversata naturalmente le mie affermazioni debbono essere prese cum grano salis dal momento che sto scrivendo sotto la dettatura di un impiegato del consolato russo che data la ristrettezza di tempo ha gentilmente accettato di tradurre per me giornale di bordo del Demeter da Varna a Whitby scritto 18 luglio cose stranissime stanno capitando per cui d'ora in avanti e fino allo sbarco ne terrò nota scrupolosamente il 6 luglio finito di caricare sabbia argentifera e casse di terra salpati a mezzogiorno vento da est fresco equipaggio cinque marinai due ufficiali in seconda secondo e nostromo il cuoco e io capitano l'11 luglio all'alba entrati nel bosforo ricevuti a bordo ufficiali dalla dogana turca Bakshish tutto in regola ripartiti ore 4 del pomeriggio il 12 luglio passati Dardanelli altri doganieri e battello squadra di vigilanza altro Bakshish ispezioni dei doganieri meticolose ma rapide ci volevano fuori al più presto all'imbrunire passaggio nell'arcipelago il 13 luglio superato capo Matapan ciurma insoddisfatta per qualcosa sembravano spaventati ma non volevano parlare il 14 luglio molto preoccupato per l'equipaggio tutti uomini a posto che hanno già navigato con me nostromo non ha potuto appurare cosa non va gli hanno detto solo che c'era qualcosa e si sono fatti il segno della croce il secondo si è arrabbiato con uno di loro e quel giorno l'ha colpito prevista reazione violenta ma non è successo nulla il 16 luglio il secondo ha riferito in mattinata che un marinaio Petrovski era scomparso non ha saputo spiegarlo aveva fatto la guardia a bordo come la notte prima sostituito da Abramov ma mai tornato alla cucetta uomini più scoraggiati che mai tutti hanno detto che si aspettavano una cosa del genere ma parte che c'era qualcosa a bordo altro non hanno voluto aggiungere secondo sempre più impaziente con loro temo si preparino disordini il 17 luglio ieri uno degli uomini Olgaren venuto nella mia cabina e in preda al panico confidato che pensava esserci strano uomo a bordo riferito che nel suo turno di guardia stava riparato dietro la tuga per sfuggire al temporale quando visto un uomo alto e magro nessuna somiglianza con alcun membro dell'equipaggio salire scaletta di boccaporto attraversare ponte verso prua e sparire l'ha seguito con cautela ma giunto a prora trovato nessuno e boccaporti tutti chiusi era in preda panico da superstizione e temo che la paura possa diffondersi per scongiurare il pericolo oggi stesso farò perquisire l'intera nave da cima a fondo più tardi stesso giorno radunata tutta la ciurma e detto loro che siccome erano convinti che ci fosse qualcosa sulla nave avremmo perquisito da cima a fondo secondo incollera ha detto che era un'assurdità e che piegarsi a idee tanto assurde avrebbe demoralizzato gli uomini ha detto che ci avrebbe pensato lui a tenere a bada gli uomini a suon di frustate gli ho lasciato il timone mentre gli altri mettendosi al traverso cominciavano ricerca accuratissima con lanterne nessun angolo è rimasto inesplorato essendoci soltanto le grosse casse di legno non restavano anfratti dove un uomo potesse nascondersi ciurma molto sollevata al termine della ricerca tutti ritornati al lavoro di buona lena secondo indispettito ma non ha detto nulla 18-22 luglio cattive condizioni meteorologiche ultimi tre giorni tutti i marinai impegnati con le vele non c'è stato tempo per preoccuparsi sembrano aver dimenticato la paura secondo di nuovo allegro tutto in perfetto accordo elogiati gli uomini per come hanno agito nella burrasca passata a Gibilterra ed emersi nello stretto tutto bene 24 luglio la nave sembra perseguitata dal destino con già un marinaio in meno e accesso nel golfo di Biscaglia con burrasca imminente ieri notte ne abbiamo perso un altro scomparso come il primo ha smontato dal turno di guardia e non si è più visto uomini in preda al panico mandato un portavoce per chiedermi turni di guardia coppie hanno paura a rimanere soli secondo infuriato temo problemi perché sia lui che la ciurma potrebbero reagire con violenza 28 luglio quattro giorni di inferno sballottati da una specie di maelstrom vento di burrasca nessuno ha dormito uomini sfiniti difficile coprire turni di guardia nessuno in grado di proseguire nostromo si è offerto di stare al timone e fare la guardia contemporaneamente per lasciare all'equipaggio un paio di ore di sonno vento in calare mare ancora terrificante ma si sente di meno perché la nave è più stabile 29 luglio altra tragedia turno di guardia singolo ieri notte perché ciurma troppo stanca per farlo doppio quando la sentinella di guardia del mattino è salita sul ponte per dare il cambio non ha trovato nessuno tranne timoniere lanciato grido di allarme tutti sul ponte ricerca minuzione ma infruttuosa ora perduto nostromo e ciurma nel panico secondo e io concordato di girare armati d'ora in poi e prestare attenzione a ogni più piccolo segnale 30 luglio ieri notte grazie al cielo ci avviciniamo all'Inghilterra tempo buono ve le spiegate a fine giornata esausto dormito sodo svegliato da secondo che riferisce scomparsa di entrambe le sentinelle e del timoniere rimasti solo sottoscritto secondo e due marinai a gestire la nave primo agosto due giorni di nebbia e neanche una vela avvistata avevo sperato una volta entrati nella manica poter inviare richiesta di aiuto o trovare ricovero non disponendo uomini sufficienti a manovrare le vele necessario navigare sopra avvento non oso ammainarle perché non sarebbe possibile essarle di nuovo sembriamo andare alla deriva verso sorte terribile secondo ora più demoralizzato di ogni altro membro dell'equipaggio sua natura tenace far aver agito dall'interno contro di lui marinai ormai al di là della paura rassegnati al peggio lavorano con alacrità e pazienza loro russi lui romeno 2 agosto mezzanotte svegliato dopo pochi minuti di sonno da un grido apparentemente fuori dal mio portello visto nulla nella nebbia ha corso sul ponte incappato nel secondo dice aver udito un grido ed essersi precipitato ma nessuna traccia della sentinella di guardia un altro in meno Dio ci aiuti secondo dice che dobbiamo aver passato stretto di Dover perché diradandosi per un momento la nebbia ha intravisto North Forland proprio mentre udiva il grido se è così ora ci troviamo nel mare del nord e solo Dio può guidarci nella bruma che pare avanzare verso di noi e Dio sembra averci abbandonato 3 agosto a mezzanotte è salito a dare il cambio all'uomo al timone ma non ho trovato nessuno vento teso nave procedendo sopra vento non strauzzava non ho osato abbandonare postazione così per chiamare il secondo ho urlato dopo pochi secondi è comparso sul ponte in maglia e mutande aveva occhi stralunati aria stravolta e temo fortemente che abbia perso il senno si è avvicinato e con voce roca mi ha sussurrato all'orecchio come se temesse che l'aria stessa potesse sentire quell'essere è qui ora so chi è nel turno di guardia ieri notte l'ho visto simile a un uomo alto e magro pallido come uno spettro era a prua guardava il mare gli sono strisciato alle spalle e gli ho fatto assaggiare il mio coltello ma la lama l'ha attraversato come fosse aria e parlando ha estratto l'arma e l'ha agitata selvaggiamente nel vuoto poi ha proseguito ma è qui e lo troverò forse nella stiva in una di quelle casse ora le schiodo una a una e controllo pensate voi al timone e con un'occhiata da ammonimento e l'indice sulle labbra è sceso da basso si levava vento irregolare e non potevo lasciare la ruota l'ho visto uscire sul ponte ancora una volta con la cassetta degli attrezzi e una lanterna e poi calarsi per il boccaporto di prua è pazzo pazzo e in preda al delirio impossibile cercare di fermarlo non può nemmeno scalfirle quelle casse sui documenti risultano contenere argilla e forzarle sarà del tutto inutile così resto qui a badare al timone e scrivere questi appunti posso solo sperare in dio e aspettare che la nebbia si diradi quindi se non riuscirò a far rotta verso al porto con favore del vento taglierò le sartie getterò l'ancora e manderò richieste di soccorso oramai è quasi finita proprio quando cominciavo a sperare che il secondo sarebbe risalito in coperta più calmo perché l'ho udito picchiare contro qualcosa giù nella stiva il lavoro potrebbe fargli bene dal boccaporto è giunto un improvviso grido di terrore che mi ha raggelato il sangue ed ecco il secondo schizzare sul ponte come sparato da un'arma da fuoco un pazzo furioso occhi fuori dalle orbite e viso stravolto dal terrore salvatemi salvatemi ha urlato e poi ha rivolto lo sguardo alla cortina di nebbia l'orrore si è trasformato in disperazione e con voce ferma ha detto fareste meglio a venire anche voi capitano prima che sia troppo tardi lui è qui ora conosco il segreto il mare mi salverà da lui altro non conta prima che potessi dire una parola o farmi avanti per bloccarlo è balzato sul parapetto e di sua volontà si è gettato in mare penso di conoscerlo anch'io ora il segreto è stato questo folle a eliminare i membri dell'equipaggio uno dopo l'altro e ora li ha seguiti egli stesso che dio mi aiuti come farò mai a dar conto di tutti questi orrori quando arriverò al porto se arriverò al porto ci arriverò mai 4 agosto ancora neppia che il sole nascente non riesce a penetrare so che è l'alba perché sono un marinaio altrimenti non potrei non osavo scendere sotto coperta non osavo lasciare il timone così sono rimasto qui tutta la notte e nell'oscurità l'ho visto lui dio mi perdoni ma il secondo ha avuto ragione a gettarsi in mare meglio morire da uomo a una morte da marinaio nel blu delle acque nessuno può avere alcunché da obiettare ma io sono il capitano e non posso abbandonare la nave però riuscirò a farla in barba quel demone o mostro che sia perché quando le forze cominceranno a venirmi meno mi legherò le mani alla ruota e ad esse legherò anche ciò che lui quell'essere non osa toccare e a quel punto che il vento sia favorevole o contrario avrò salva l'anima e il mio onore di capitano mi sento sempre più debole e la notte si avvicina se dovesse riuscire a guardarmi in faccia ancora una volta potrei non avere il tempo di agire qualora naufragassimo forse questa bottiglia verrebbe ritrovata e chi la trova potrebbe capire in caso contrario beh almeno tutti sapranno che ho tenuto fede alla mia missione Dio la Vergine Benedetta e tutti i santi aiutino una povera anima ignorante a cercare di compiere il suo dovere naturalmente il verdetto è stato di non luogo a procedere non ci sono prove da addurre e se quell'uomo abbia o meno commesso gli omicidi ormai nessuno potrà dirlo la gente del posto quasi all'unanimità considera il capitano semplicemente un eroe e per lui saranno organizzate pubbliche esecue è già stato disposto che il suo corpo venga tradotto con una processione di barche per un tratto lungo il corso dell'esc poi portato indietro fino al Taitil Pier e su per i gradini dell'abbazia e là in cima nel cimitero sulla scogliera verrà sepolto i proprietari di più di cento barchi si sono già messi in lista per seguire la salma fino alla tomba nessuna traccia si è più trovata del grosso cane il che ha provocato generale accoramento perché dato lo stato in cui versa l'opinione pubblica sono propenso a credere che sarebbe stato adottato dalla municipalità cittadina domani avranno luogo i funerali e così si concluderà questo ennesimo enigma del mare dal diario di Mina Murray 8 agosto Lucy ha avuto una notte molto inquieta e neppure io sono riuscito a dormire la tempesta è stata spaventosa e il rombo assordante che produceva insinuandosi fra i comignoli mi faceva rabbrividire ogni boato sibilante pareva il colpo di un cannone in lontananza stranamente Lucy non si è svegliata però per due volte si è alzata e vestita fortunatamente in entrambi i casi mi sono destata in tempo per riuscire a svestirla senza svegliarla e a rimetterla a letto è una cosa oltremodo insolita questo sonnambulismo perché basta che la sua volontà incontri un qualunque ostacolo fisico che subito l'intenzione ammesso che ve ne sia una si dissolve e lei ritorna quasi inavvertitamente ai gesti di tutti i giorni questa mattina ci siamo alzate presto e siamo scese al porto per vedere se fosse accaduto qualcosa durante la notte c'erano poche persone in giro e benché splendesse il sole e l'aria fosse fresca e pulita i grandi flutti minacciosi che parevano neri per il contrasto con la schiuma nivea che li sovrastava si inserivano a forza entro la stretta imboccatura del porto come un prepotente che si faccia strada fra la folla ho provato una sensazione di sollievo al pensiero che jonathan non si trovasse per mare la notte scorsa bensì sulla terraferma ma ahimè è davvero sulla terraferma o piuttosto per mare dove si trova ora e in quali condizioni mi coglio un'ansia terribile per il suo stato se solo sapessi che cosa fare se solo potessi fare qualcosa 10 agosto quest'oggi i funerali del povero capitano di marina sono stati assai commoventi non pareva mancare alcuna delle imbarcazioni del porto e il ferretro è stato portato a spalla dai loro capitani per tutto il tragitto dal Teitel Pier al cimitero Lucy è venuta con me e di buon'ora ci siamo recate alla nostra solita panchina mentre il corteo di barche risaliva il fiume fino al viadotto e ritornava indietro da lassù la vista è stupenda e abbiamo potuto seguire la processione quasi per intero il poveretto è stato deposto per l'ultimo riposo proprio accanto alla nostra panchina così quando è venuto il momento vi siamo salita in piedi e abbiamo visto tutto la povera Lucy pareva molto turbata per tutto il tempo è stata inquieta e a disagio e non posso fare a meno di pensare che comincia a risentire dei suoi sogni notturni cosa ancora più strana si rifiuta di ammettere che vi sia qualcosa che non va o magari pur riconoscendolo lei stessa non ne comprende la ragione c'è ad ogni modo un motivo di inquietitudine ulteriore perché quel povero vecchio Mr. Swales stamane è stato trovato morto sulla nostra panchina col collo spezzato a detta del dottore deve essere caduto all'indietro sul sedile per effetto di un forte spavento perché sul suo viso era disegnato un'espressione di paura e orrore che così hanno detto li ha fatti rabbrividire povero vecchietto forse i suoi occhi agonizzanti hanno scorto la morte in persona Lucy è così dolce e sensibile che viene toccata più di altri da simili accadimenti proprio ora è rimasta sconvolta da un episodio di poco conto al quale io pur amando molto gli animali a mia volta non ho prestato troppa attenzione uno degli uomini che spesso sale quassù per sorvegliare le barche era seguito dal suo cane quella bestia lo accompagna in ogni occasione sono due tipi miti cane e padrone e mai che abbia sentito l'uomo inveire o l'animale abbaiare durante il servizio funebre però il cane non voleva stare a ascoltare il richiamo del padrone che stava sulla panchina insieme a noi ma si teneva a qualche metro di distanza continuando a latrare e ululare l'uomo gli ha parlato prima dolcemente poi bruscamente e infine con ira ma quello non voleva saperne né di avvicinarsi né di piantarla con quel baccano pareva rabbioso con gli occhi accesi di un guizzo selvaggio e il peloritto come una coda di un gatto sul sentiero di guerra alla fine anche l'uomo si è infuriato ed è saltato giù dalla panchina per prendere a calci il cane poi afferratolo per la collottola l'ha trascinato per un tratto e quasi scaraventato sulla pietra tombale che fungia da base per la panchina nell'istante in cui ha toccato la lastra la povera creatura si è zittita e ha cominciato a tremare tutta non ha cercato di scappare ma invece si è accucciata tremando e rannicchiandosi il suo stato di terrore faceva tanta compassione che in vano ho provato a consolarla anche Lucy era colma di pietà ma non ha neppure tentato di toccare il cane limitandosi a guardarlo con occhi pieni di dolore temo molto che la sua natura sia eccessivamente sensibile perché possa passare indenne fra le insidie del mondo sognerà ogni cosa questa notte ne sono certa l'intero svolgersi degli eventi la nave guidata in porto da un cadavere la postura di quest'ultimo legato al timone con rosario crocefisso la commovente cerimonia funebre il cane ora rabbioso ora terrorizzato tutto questo fornirà materia ai suoi sogni penso che per lei sarà meglio andare a letto solo quando sarà molto stanca perciò la condurrò per una lunga passeggiata attraverso le scogliere fino alla baia di Robin Hood e ritorno a quel punto non dovrebbe più essere troppo propensa al sonnambulismo capitolo 8 dal diario di Mina Murray stesso giorno ore 11 di sera oh quanto sono stanca se non avessi deciso di fare di questo diario un dovere stanotte non l'avrei neppure aperto abbiamo fatto una magnifica passeggiata Lucy dopo un po' era di nuovo di umore lieto probabilmente grazie a certe mucche dolcissime che ci sono venute incontro in un campo vicino al faro e sfiorandoci col muso ci hanno fatto prendere un bello spavento si direbbe che abbiamo dimenticato ogni cosa a parte naturalmente la paura per la nostra inculumità e che questo abbia dato un colpo di spugna a tutto il resto consentendoci di ricominciare da capo ora Lucy dorme e respira piano le sue guance sono più colorite del solito e che aria dolce se Mr. Olmood si è innamorato di lei soltanto incontrandola in salotto mi chiedo che cosa direbbe se potesse vederla ora alcune delle autrici che si rivolgono alla donna moderna prima o poi tireranno fuori l'idea che a uomini e donne dovrebbe essere consentito di vedersi dormire prima di formulare o accettare proposte di matrimonio ma probabilmente la donna moderna del futuro non si contenterà di accettare vorrà essere lei stessa a fare la proposta e staremo a vedere come se la caverà mi pare un pensiero consolante sono felice stasera perché la cara Lucy sembra star meglio credo proprio che abbia voltato pagina e che si sia lasciata alle spalle ogni problema di sonnambulismo potrei essere perfettamente felice se solo sapessi di Jonathan che Dio lo benedica e lo protegga 11 agosto 3 del mattino rieccomi al diario niente sonno ormai perciò tanto vale che scriva sono troppo agitata per dormire che avventura che esperienza angosciante appena chiuso il diario mi sono addormentata all'improvviso mi sono trovata completamente sveglia e oppressa da un tremendo senso di paura e circondata da un'impressione che definirei di vuoto mi sono messa a sedere la camera era buia per cui non potevo vedere il letto di Lucy alla cieca ho attraversato la stanza e l'ho tastato era vuoto ho acceso un fiammifero e ho scoperto che in camera non c'era la porta era chiusa ma non a chiave come invece l'avevo lasciata non avevo il coraggio di svegliare sua madre che di recente è stata più male del solito perciò mi sono gettata un indumento sulle spalle e mi sono accinta a uscire per cercarla mentre lasciavo la camera mi è venuto in mente che gli abiti che aveva indossato potevano fornirmi qualche indizio sulle sue intenzioni di sonnambula vestaglia da notte avrebbe significato casa abito da passeggio fuori vestaglia e abito erano entrambi al loro posto grazie a Dio mi son detta non può essere lontana perché non porta altro che la camicia da notte sono corsa al piano di sotto e ho controllato il salotto niente poi ho guardato in tutte le altre stanze accessibili della casa con un crescente timore a gelarmi il cuore infine sono giunta alla porta d'ingresso e l'ho trovata aperta non spalancata ma la serratura non era scattata la gente di casa va da sempre a chiudere la chiave ogni notte per cui ho temuto che Lucy fosse uscita così come si trovava non c'era tempo per pensare a cosa potesse essere accaduto una prensione vaga e permeante oscurava tutti i dettagli ho afferrato un grosso scialle pesante e sono corsa fuori l'orologio batteva luna e al crescent non si scorgeva anima viva di corsa ho costeggiato la North Terras ma non ho visto traccia della figura bianca che mi aspettavo di incontrare giunta sul bordo del Westcliffe sopra il molo ho lanciato lo sguardo oltre il porto verso l'Estcliffe non so se nella speranza o piuttosto nel timore di avvistare Lucy seduta sulla nostra panchina preferita c'era una luna piena luminosa con massicce nubi neri in movimento che sfrecciando nel cielo calavano lo scenario in un fuggente diorama di luci e chiaroscuri per alcuni momenti non sono riuscita a vedere nulla perché l'ombra proiettata da una nuvola oscurava la chiesa di San Mary e tutta l'area circostante poi a mano a mano che la nuvola si spostava le rovine dell'abbazia tornavano in vista e mentre il fronte di una stretta striscia di luce netta quanto la lama di una spada procedeva in avanti anche la chiesa e il camposanto poco a poco diventavano visibili quale che fosse la mia aspettativa non è andata delusa perché là sul nostro sedile preferito la luce argente della luna ha investito una latte a figura semireclinata la nube seguente è giunta troppo presto perché potessi vedere appieno già che l'ombra è tornata a soffocare il raggio quasi immediatamente mi è parso tuttavia che dietro alla panchina dove la figura bianca risplendeva chinata su di essa ci fosse una sagoma nera che cosa fosse se bestia o cristiano non avrei saputo dire né ho atteso di poter dare un'altra occhiata ma subito mi sono precipitata giù per i rifi di gradini che conducono al molo poi dritto attraverso il mercato del pesce e oltre al ponte unica via per raggiungere l'esclif la città pareva morta neppure un'anima all'orizzonte e me ne sono rallegrata perché nelle condizioni in cui versava Lucy non desideravo testimoni tempo e distanza parevano infiniti e mentre arrancavo su per gli interminabili scalini dell'abbazia avevo le ginocchia tremanti e il respiro sempre più affannoso probabilmente andavo veloce eppure mi sentivo i piedi più pesanti del piombo come se ogni mia giuntura fosse arrugginita arrivata quasi in cima ho visto la panchina e la figura bianca essendo ormai abbastanza vicina da individuarla anche nei momenti d'ombra c'era indubbiamente una cosa lunga e nera che si chinava sulla figura bianca parzialmente adagiata all'indietro piena di spavento ho urlato Lucy Lucy e quella cosa ha sollevato la testa e da dove mi trovavo ho intravisto un volto pallidissimo e un paio di incandescenti occhi rossi Lucy non ha accennato risposte e io mi sono messa a correre verso l'entrata del cimitero nell'accedervi la chiesa è venuta a trovarsi fra me e la panchina e per un istante l'ho persa di vista quando ho recuperato la visuale la nuvola era passata e la luna brillava tanto accesa da offrirmi una perfetta visione di Lucy abbandonata sul sedile con la testa reclinata sullo schienale era completamente sola e non c'era traccia di alcun essere vivente nei paraggi chinandomi su di lei ho notato che era ancora addormentata aveva le labbra socchiuse e respirava non i suoi soliti respiri regolari ma piuttosto lunghi ansiti affannosi come se ad ognuno dovesse lottare per dare aria ai polmoni mentre mi avvicinavo nel sonno ha sollevato la mano e si è stretta il colletto della camicia da notte intorno alla gola allo stesso tempo è stata percorsa da un piccolo brivido come se avvertisse il freddo le ho gettato lo scialle caldo sulle spalle e ne ho chiusi i lembi avvolgendogli al collo perché temevo che il gelo dell'aria notturna potesse esserle fatale svestita come era non osavo svegliarla all'improvviso così per poter avere le mani libere e sorreggerla le ho fissato lo scialle all'altezza della gola con una grossa spilla ma l'agitazione deve avermi resa maldestra e in un modo o nell'altro devo averla appunta o pizzicata perché più volte a mano a mano che il suo respiro tornava normale si è portata la mano alla gola con un gemito dopo averla ben coperta le ho infilato ai piedi le mie scarpe e quindi con ogni cautela ho cominciato a svegliarla da prima non mostrava alcuna reazione ma poi a poco a poco il suo sonno si è fatto sempre più agitato fra gemiti e occasionali sospiri infine poiché il tempo scorreva rapido e per mille ragioni desideravo riportarla a casa quanto prima ho preso a scuoterla più energicamente sino a che ha finito con l'aprire gli occhi e svegliarsi non è parsa sorpresa di vedermi visto che come ovvio non si era resa conto immediatamente di dove si trovasse Lucy si sveglia sempre con molto garbo e perfino in questa occasione con il corpo certamente intirizzito per il freddo e la mente sgomenta nel risvegliarsi seminuda in un cimitero di notte ha conservato la sua grazia tremando un poco si è aggrappata a me e quando le ho detto di seguirmi immediatamente a casa si è alzata senza dire una parola con l'obbedienza di una bambina procedevamo sulla ghiaia e i piedi mi dolevano Lucy si è accorta della mia smorfia di dolore così si è fermata e ha insistito perché mi riprendessi le scarpe ma io non ho voluto tuttavia raggiunto il sentiero esterno al cimitero dove residuo della tempesta c'era una pozzanghera mi sono inzaccherate i piedi di fango strofinandoli uno sull'altro di modo che nessuno eventualmente incontrato sulla via del ritorno dovesse notare che ero scalza la fortuna ci ha aiutate e siamo arrivate a casa senza imbatterci in anima viva una volta abbiamo visto un uomo all'apparenza non troppo sobrio che passava in una via di fronte a noi ma ci siamo nascosti in un portone sino a quando non si è infilato in uno di quei varchi che si incontrano da queste parti quei vicoletti stretti e ripidi che gli scozzesi chiamano winds per tutto il tempo il mio cuore ha continuato a battere tanto forte che più volte ho creduto di svenire ero piena d'ansia per Lucy e non solo per la sua salute e il pericolo che la permanenza all'adviaccio poteva causarle ma anche per la sua reputazione nel caso che la vicenda fosse venuta a galla dopo essere rientrate ed esserci lavate i piedi e aver detto una preghiera di ringraziamento l'ho messa a letto prima che il sonno ci prendesse lei mi ha chiesto implorato quasi di non dire una parola a nessuno neppure a sua madre di quell'avventura notturna a tutta prima ho esitato a prometterglielo ma poi ripensando allo stato di salute di sua madre e all'agitazione in cui una simile informazione l'avrebbe gettata e pensando anche a come una storia del genere avrebbe potuto essere distorta anzi lo sarebbe stata senz'altro qualora fosse emersa ho reputato fosse più saggio accettare spero di aver fatto bene ho chiuso la porta e mi sono legata la chiave al polso nella speranza di non essere più disturbata Lucy dorme profondamente l'albeggiare lancia i suoi riflessi in alto sopra il mare laggiù stesso giorno mezzodì va tutto bene Lucy è dormito fino a quando non l'ho svegliata e sembra non averne pure cambiato lato non pare risentire dell'avventura della notte al contrario le ha fatto bene perché questa mattina ha un'aria più sana di quanto non abbia da settimane mi è spiaciuto constatare che a causa delle mie maldestre manovre con la spilla le ho fatto male a dire il vero avrebbe anche potuto essere una cosa seria perché la pelle sulla gola è perforata devo averle preso una piega della pelle passandola da parte a parte perché ho lasciato due puntini rossi come punture di spillo e sul colletto della camicia da notte c'era una goccia di sangue quando me ne sono scusata con lei rammaricandomene si è messa a ridere e mi ha consolata assicurandomi che non sentiva nulla per fortuna la ferita è così piccola che non dovrebbe lasciare cicatrice stesso giorno notte abbiamo passato una giornata incantevole l'aria era tersa il sole splendente e c'era un bel venticello fresco siamo andate nel bosco di Mulgrave a consumare il pranzo mrs. Wensterna in carrozza seguendo la strada e io e Lucy a piedi lungo il sentiero che costeggia la scogliera ricongiungendoci con lei al cancello provavo una certa tristezza perché non potevo d'immaginare l'assoluta felicità che avrei provato se Jonathan fosse stato con me ma insomma devo solo essere paziente in serata abbiamo fatto una passeggiata fino alla terrazza del casino per ascoltare un po' di buona musica di Spore e McKenzie e poi subito a letto Lucy sembra più quieta di quanto non sia da un po' di tempo in qua e si è addormentata immediatamente chiuderò a chiave la porta e metterò al sicuro la chiave nel posto di ieri anche se penso che stanotte non ci saranno problemi 12 agosto mi sbagliavo perché per due volte nella notte sono stata svegliata da Lucy che cercava di uscire pur continuando a dormire è sembrata spazientita nel trovare la porta chiusa ed è tornata a letto quasi protestando all'alba mi sono svegliata e ho sentito gli uccellini cinguettare fuori dalla finestra anche Lucy si è svegliata e con piacere ho constatato che aveva un aspetto migliore della mattina precedente con tutta l'allegrezza di un tempo che si direbbe recuperata è venuta ad accoccolarsi accanto a me e mi ha parlato di Arthur io le ho detto quanto sia in ansia per Jonathan e lei ha provato a consolarmi beh almeno in parte ci è riuscita perché la solidarietà pur non potendo mutare i fatti può renderli più sopportabili 13 agosto un'altra giornata tranquilla e poi a letto con la chiave legata al polso come le notti passate ancora una volta mi sono svegliata nel cuore della notte e ho trovato Lucy seduta sul letto addormentata che indicava la finestra in silenzio mi sono alzata e scostando le tende ho guardato fuori c'era un chiaro di luna brillante e un morbido effetto di luce che si diffondeva sul mare e nel cielo fusi in un solo grande mistero silenzioso era di una bellezza ineffabile fra me e la luna avanti e indietro in un vortice di cerchi concentrici svolazzava un grosso pipistrello una o due volte si è davvero fatto vicino ma poi probabilmente spaventato dalla mia presenza si è allontanato in direzione dell'abbazia sorvolando il porto quando mi sono ritratta dalla finestra Lucy si era già rimessa a letto e dormiva quieta non si è più mossa per tutta la notte 14 agosto sull'Eascliff a leggere e a scrivere tutto il giorno a quanto pare Lucy si è appassionata al luogo tanto quanto me ed è difficile convincerla ad allontanarsene quando giunge l'ora di tornare a casa per il pranzo o il tè pomeridiano o la cena questo pomeriggio se ne è uscita con una strana osservazione stavamo rincasando per cena e arrivate in cima ai gradini che salgono dal molo occidentale ci siamo fermate per dare un'occhiata al panorama come d'abitudine il sole del tramonto basso nel cielo stava proprio in quel momento scomparendo dietro a Cattleness la luce rossa si proiettava sull'Eascliff e la vecchia abbazia inondando ogni cosa di un barlume rosato per un po' siamo rimaste in silenzio e improvvisamente Lucy ha mormorato come fra sé e sé ancora quegli occhi rossi sono proprio gli stessi la frase suonava talmente strana priva com'era di riferimenti che mi ha fatto sobbalzare mi sono voltata appena tanto da poter guardare Lucy senza dare l'impressione di fissarla e ho notato che si trovava in uno stato di dormiveglia con una bizzarra espressione sul viso che non riuscivo a decifrare così non ho detto nulla ma mi sono limitato a seguire la linea del suo sguardo a quanto pareva lo stava indirizzando alla nostra panchina sulla quale era seduta una figura scura solitaria ne sono rimasta anch'io un po' turbata perché per un attimo è parso che lo sconosciuto avesse grandi occhi simili a fiamma viva ma a una seconda occhiata l'illusione ottica si è dissolta il rosso chiarore del sole riverberava sulle vetrate della chiesa di San Mary dietro al nostro sedile e mentre il sole si inabbissava i mutamenti nella rifrazione e nei riflessi facevano sembrare che la luce si muovesse ho richiamato l'attenzione di Lucy su quell'effetto particolare e lei è ritornata in sé come un sussulto ma la tristezza sul suo viso è rimasta forse pensava alla terribile notte trascorsa lassù non ne facciamo mai parola quindi anche questa volta non ho detto nulla e siamo ritornate a casa per la cena Lucy aveva male al capo ed è andata a letto presto dopo averla vista addormentata sono uscita a fare una passeggiatina per conto mio colma di una dolce malinconia perché il mio pensiero era rivolto a Jonathan ho costeggiato le scogliere verso ovest tornando a casa sotto un chiaro di luna splendente così splendente da rendere ogni cosa perfettamente visibile perfino la facciata del nostro lato del crescent che pure si trovava in ombra in quel momento ho sollevato lo sguardo sulla nostra finestra e ho scorso la testa di Lucy che dall'assù sporgeva pensando che stesse cercando me ho aperto il fazzoletto e l'ho agitato nella sua direzione non ha fatto cenni di risposta né alcun altro movimento proprio in quello la luna si è inerpicata oltre l'angolo dell'edificio e la sua luce ha investito la finestra ed ecco stagliarsi chiaramente la figura di Lucy con la testa reclinata di fianco sul davanzale e gli occhi chiusi dormiva profondamente e accanto a lei appollaiato sul davanzale c'era qualcosa di simile a un uccello di notevoli dimensioni ho avuto paura che potesse prendersi un malanno così sono corsa di sopra ma quando sono entrata nella stanza lei stava già facendo ritorno nel suo letto sempre immersa nel sonno e respirava affannosamente si teneva la mano sulla gola come per proteggerla dal freddo senza svegliarla le ho rimboccato ben bene le coperte quindi mi sono accertata che la porta fosse chiusa a chiave e la finestra serrata ha l'aria così dolce nel sonno e tuttavia è più pallida del solito e sotto gli occhi ha un'espressione tirata e macilenta che non mi piace affatto temo che qualcosa la tormenti se solo potessi scoprire di cosa si tratta 15 agosto alzata più tardi del solito Lucy era languida e affaticata e ha continuato a dormire anche dopo che ci era stata data la sveglia a colazione abbiamo avuto una bella sorpresa il padre di Arthur sta meglio e vuole che il matrimonio si faccia al più presto Lucy è colma di gioia composta e sua madre è lieta e dispiaciuta allo stesso tempo col passare delle ore me ne ha rivelata la causa la dolora dover perdere la sua Lucy ma la rallegra che presto ci sarà qualcuno a proteggerla povera cara dolce signora mi ha confidato di essere condannata non l'ha detto Lucy e mi ha fatto promettere di mantenere il segreto ma il dottore le ha annunciato che in capo a pochi mesi dovrà morire perché il suo cuore va indebolendosi sempre di più in qualunque momento perfino ora un colpo improvviso le sarebbe certamente fatale abbiamo fatto bene a tacerle del terribile episodio di sonnambulismo notturno di Lucy 17 agosto niente diario per due giorni interi non ho avuto la forza di scrivere un velo d'ombra incombe sulla nostra felicità nessuna notizia di Jonathan e Lucy sembra farsi sempre più debole mentre le ore di sua madre volgono alla fine non comprendo questo deperimento di Lucy mangia di gusto dorme bene si gode l'aria fresca eppure il colorito abbandona senza sosta le sue guance e di giorno in giorno si fa più languida spossata di notte la sento rantolare come se avesse fame d'aria continuo a legarmi al polso la chiave della porta prima di dormire però lei si alza e vaga per la stanza e va a sedersi davanti alla finestra aperta la scorsa notte svegliandomi l'ho trovata protesa nel vuoto allora ho cercato di svegliarla ma senza successo era come svenuta quando poi sono riuscita a farla rinvenire le gambe non le reggevano e fra un ansito e l'altro ogni volta più lungo e doloroso ha cominciato a piangere sommessamente quando le ho chiesto come fosse venuta a trovarsi alla finestra ha scosso la testa e si è voltata dall'altra parte spero davvero che il suo male non dipenda da quella sventurata puntura con la spilla proprio adesso mentre dormiva le ho dato un'occhiata al collo e ho notato che le minuscole ferite non sembrano guarire sono ancora aperte e anzi perfino più grandi di prima e i labbi tendono ora al bianco sono come piccole macchioline bianche con un puntino rosso nel centro se non guariscono entro uno o due giorni insisterò affinché la veda un dottore lettera della ditta Carter Patterson & Co Londra ai signori Samuel F. Billington e figlio Whitby 17 agosto gentili signori con la presente ci pregiamo di inviarvi fattura delle merci spedite a mezzo Great Northern Railway le stesse vanno consegnate a Carfax nei pressi di Perflate non appena giunte allo scalomerci di King's Cross al momento la casa è disabitata ma clusa alla presente troverete una copia delle chiavi ciascuna delle quali debitamente etichettata vi preghiamo di depositare le casse incluse nella partita in numero di 50 colli nell'edificio parzialmente diroccato che forma parte integrante della casa ed è contrassegnato sulla legata piantina con la lettera A il vostro spedizioniere potrà agevolmente riconoscere il luogo perché si tratta dell'antica cappella annessa alla proprietà la merce partirà questa sera con il treno delle 21 e 30 e l'arrivo a King's Cross è previsto per le 16 e 30 di domani pomeriggio poiché il nostro cliente desidera che la consegna sia effettuata al più presto possibile vi saremo grati se vorrete fare in modo che il personale incaricato si trovi alla stazione all'ora indicata e proceda in mantenente a recapitare la merce a destinazione al fine di evitare qualunque eventuale ritardo dovuto all'espletamento di pratiche di routine quali il pagamento presso i vostri uffici in allegato alla presente vi trasmettiamo assegno da 10 sterline di cui vi preghiamo di voler accusare ricevuta qualora l'importo dovesse risultare inferiore potrete restituire l'eccedenza se fosse invece superiore provvederemo immediatamente a inviarvi assegno per la differenza non appena ricevuta né comunicazione da parte vostra terminato il lavoro le chiavi andranno lasciate nell'ingresso principale della casa dove il proprietario potrà recuperarle non appena vi farà ingresso per mezzo del duplicato in suo possesso vi preghiamo di non ritenere che le nostre pressioni affinché procediate con la massima solerzia eccedano i limiti dei buoni rapporti d'affari l'occasione ci è gradita per porgervi distinti saluti Samuel F. Billington e figlio Lettera della ditta Carter, Patterson & Co. Londra ai signori Samuel F. Billington e figlio Whitby 21 agosto Egregi signori con la presente accusiamo ricevuta di 10 sterline e accludiamo assegno per una sterline 17 centesimi importo in eccesso come risulta dalla distinta allegata la merce è stata consegnata in precisa ottemperanza alle vostre istruzioni e le chiavi sono state lasciate in un pacco nell'ingresso principale come da voi indicato con i nostri migliori saluti per Carter, Patterson & Co. Dal diario di Mina Murray 18 agosto Sono felice quest'oggi e scrivo seduta sulla panchina del Camposanto Lucy è migliorata moltissimo la notte scorsa ha dormito bene fino al mattino e non mi ha disturbata neppure una volta pare proprio che le rose stiano rifiorendo sulle sue guance anche se purtroppo è ancora pallida e ha l'aria esausta se avesse una forma di animia lo capirei e invece no è di ottimo umore e piena di vita e allegria tutta quella morbosa reticenza sembra superata e mi ha appena ricordato come se ve ne fosse bisogno di quella notte e di come sia stato proprio qui su questa panchina che l'ho trovata addormentata nel rammentarlo ha battuto scherzosamente il tacco dello stivaletto sulla lastra di pietra e ha detto i miei poveri piedini non facevano tanto baccano allora secondo me il vecchio mister swales pace all'anima sua avrebbe sentenziato che era perché non volevo svegliare giordi visto che era in una disposizione comunicativa le ho chiesto se quella notte fosse immersa nei sogni prima che mi rispondesse sulla sua fronte si è disegnata quella dolce espressione corrucciata che Arthur è da lei che ho preso l'abitudine di chiamarlo così dice di amare tanto e devo dire che la cosa non mi meraviglia poi ha proseguito con aria assorta come se stesse cercando di richiamare quei fatti alla mente non era proprio un sogno sembrava tutto reale l'unica cosa che desideravo era essere qui in questo punto non ne so dire la ragione perché avevo paura di qualcosa ma cosa fosse non saprei ricordo eppure dovevo essermi addormentata di aver oltrepassato vie e attraversato il ponte un pesce ha fatto un balzo fuori dall'acqua proprio mentre passavo e mi sono chinata per guardarlo e mentre salivo i gradini ho sentito un gran numero di cani ululare pareva che in tutta la città non ci fossero altro che cani ululanti poi ho il vago ricordo di un essere alto e scuro con gli occhi di brace proprio come quello che abbiamo veduto al tramonto e tutto intorno a me qualcosa di dolcissimo e allo stesso tempo molto amaro e poi mi è parso di inabissarmi in profonde acque verdi e c'era un canto nelle mie orecchie come si dice accada a chi sta annegando e a quel punto ho avuto l'impressione che ogni cosa mi abbandonasse la mia stessa anima è parsa uscire dal corpo e fluttuare nell'aria mi sembra perfino di ricordare che in un'occasione il faro ovest si è venuto a trovarsi sotto di me e poi un sentimento tormentoso mi ha pervasa come se fossi finita in mezzo a un terremoto e sono tornata in me per accorgermi che eri tu che mi scuotevi il corpo ti ho vista farlo ancora prima di sentirmelo addosso quindi ha cominciato a ridere la cosa mi appariva inspiegabile e sono rimasta in ascolto col fiato sospeso non mi piaceva affatto e ho pensato che fosse meglio evitare alla sua mente di soffermarsi troppo a lungo sulla questione così l'ho condotta su altri argomenti e Lucy è tornata quella di un tempo quando siamo rincasate la brezza fresca l'aveva rinfrancata e le sue guance pallide avevano preso un po' di colore la madre se n'era allegrata nel vederla e tutti insieme abbiamo trascorso una serata di perfetta letizia 19 agosto gioia 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 anche se non solo gioia notizie di Jonathan finalmente il povero caro è stato malato per questo non scriveva non ho più paura di pensarlo o dirlo ora che so Mr. Hawkins mi ha inoltrato la sua lettera e me ne ha scritta una a sua volta oh con quanta cortesia è deciso che io parta domenica e raggiunga Jonathan per assisterlo se necessario e per ricondurlo a casa Mr. Hawkins sostiene che non sarebbe male se ci sposassimo laggiù ho pianto sulla lettera della buona sorella al punto che ne sento l'umidità qui sul petto dove ora la stringo è di Jonathan e deve stare sul mio cuore perché è lì che sta il mio amore il viaggio è stabilito il bagaglio è pronto porterò un solo cambio d'abito Lucy trasferirà il mio baule a Londra e là lo custodirà fino a quando non manderò a prenderlo perché potrebbe essere che ma non devo scrivere altro bisogna che prima lo dica a Jonathan mio marito la lettera che lui ha visto e toccato dovrà essere il mio conforto finché non ci riuniremo lettera di Suora Agata ospedale di San Giuseppe e Santa Maria Budapest a Miss Wilhelmina Morray 12 agosto Gentile Signorina le scrivo per desiderio di Mr. Jonathan Hacker il quale non è abbastanza in forza per farlo da sé per quanto stia facendo ottimi progressi grazie a Dio e San Giuseppe e Santa Maria è affidato alle nostre cure da circa sei settimane a causa di una violenta febbre cerebrale che l'ha colpito desidera che vi esprima il suo amore e che vi faccia sapere che con lo stesso giro di posta scriverò per suo conto anche a Mr. Peter Hawkins di Exeter per porgergli i suoi rispetti e per comunicargli che è spiacente per il ritardo ma il lavoro affitato gli è stato portato a termine Mr. Hacker avrà bisogno di alcune settimane di riposo sulle colline ma poi ritornerà desidera che vi comunichi che non ha con sé denaro sufficiente e che vorrebbe poter pagare la sua permanenza qui di modo che altri bisognosi di lui non vengano a mancare del necessario aiuto con la più sincera simpatia e ogni benedizione Suor Agatha Post Scrittum poiché il paziente si è attormentato ne approfitto per riaprire questa lettera e darvi qualche altra notizia mi ha detto tutto di voi e del fatto che a breve sarete sua moglie la mia benedizione a entrambi a sentire il dottore ha avuto un trauma spaventoso e nel suo delirio farneticava di cose tremende lupi e veleno e sangue demoni e fantasmi e altro ancora che non oso ripetere siate sempre cauta con lui in modo che nulla possa ravvivare questi orrori nella sua mente per lungo tempo a venire le tracce di una malattia del genere non scompaiono facilmente avremmo dovuto scrivere molto tempo fa ma nulla sapevamo dei suoi amici e addosso non gli abbiamo trovato alcun indizio comprensibile è giunto qui col treno da Clausenburg e il capo stazione ha riferito alla guardia di aver visto precipitarsi in stazione urlando che voleva un biglietto per tornare a casa intuendo dal suo atteggiamento violento che doveva trattarsi di un inglese gli hanno dato un biglietto per la destinazione più lontana lungo il percorso del treno in quella direzione state tranquilla che è ben assistito ha saputo conquistarsi l'affetto di tutti qui con i suoi modi gentili e amabili sta davvero migliorando e sono certa che in capo a poche settimane sarà completamente ristabilito ma ciò nonostante siate prudente con lui prego Dio San Giuseppe e Santa Maria affinché conceda a entrambi voi molti molti anni di felicità dal diario del dottor Seward 19 agosto strano e intempestivo mutamento in Relfield ieri sera intorno alle 8 ha cominciato ad agitarsi e ad annusare l'aria come fa il cane quando punta l'inserviente è rimasto colpito dal suo atteggiamento e conoscendo il mio interesse per il caso l'ha incoraggiato a parlare di norma è rispettoso con lui a volte perfino servile ma in questa occasione a quanto mi riferisce l'inserviente si è mostrato alquanto insolente in nessun modo ha voluto accondiscendere a parlargli non faceva a che ripetere non voglio parlarvi voi non contate niente adesso e il signore padrone è vicino l'inserviente pensa si tratti di una forma di mania religiosa che si sia impossessata di lui all'improvviso se così fosse dobbiamo stare allerta perché un uomo della sua forza affetto da manie omicide e al tempo stesso religiose può essere molto pericoloso la combinazione è micidiale alle nove l'ho visitato di persona il suo atteggiamento nei miei confronti è stato pari a quello dell'inserviente nel suo stato di esaltazione e godistica la differenza fra me e l'inserviente doveva sembrargli ben poca cosa sembra proprio si tratti di mania religiosa e presto crederà di essere dio queste distinzioni infinitesimali fra un essere umano e un altro sono irrisorie per una creatura onnipotente come si tradiscono facilmente questi pazzi il vero dio si dà cura del passero che cade ma il dio creato dalla vanità umana non scorge differenza fra l'aquila e il passero oh se solo gli uomini sapessero per mezz'ora o più l'agitazione di Renfield ha continuato a crescere io fingevo di non guardarlo e invece lo tenevo sotto stretta osservazione all'improvviso nei suoi occhi è comparso quello sguardo furtivo che in un folle sempre accompagna il sorgere di un'idea e con esso quei movimenti circospetti del capo e delle spalle che gli infermieri di un manicomio imparano a riconoscere così bene si è fatto perfettamente tranquillo e con aria rassegnata si è andato a sedere sulla sponda del letto guardando in aria con occhi spenti ho deciso di scoprire se quell'apatia fosse reale o fittizia e ho cercato di indurlo a parlare dei suoi animali un argomento che non ha mai mancato di risvegliare la sua attenzione da prima non ha dato risposta ma alla fine è sbottato con stizza che vadano tutte al diavolo non me ne importa un accidenti di loro come? ho detto non vorrete dirmi che non vi importa dei ragni i ragni sono al momento il suo passatempo preferito e il quadernetto si va riempendo di colonne fitte e di cifre piccolissime al che lui ha risposto enigmaticamente le damigelle di nozze rallegrano gli occhi di chi attende la venuta della sposa ma quando essa si appressa allora le damigelle cessano di risplendere ad occhi già sazi non ha voluto spiegarsi ma è rimasto ostinatamente seduto sul letto per tutto il tempo che sono rimasto da lui sono sfinito questa sera e giù di corda non posso far altro che pensare a Lucy e a come le cose avrebbero potuto andare diversamente se non riesco subito a prendere sonno allora Cloraglio il moderno Morfeo devo stare attento a non farla diventare una dipendenza però no questa sera non lo prendo ho pensato a Lucy e non intendo disonorarla mescolando le due cose piuttosto se così dovrà essere passerò la notte in bianco sono lieto di aver preso quella decisione e ancora più di averla mantenuta continuavo a rigirarmi nel letto e avevo sentito l'orologio battere due soli colpi quando è arrivato il sorvegliante notturno mandato su dalla corsia per dirmi che Renfield era scappato mi sono gettato qualche abito addosso e sono corso giù immediatamente il mio paziente è un individuo troppo pericoloso per poter vagare liberamente quelle sue idee potrebbero prendere una brutta piega in presenza di estranei l'inserviente mi stava aspettando ha dichiarato di averlo visto non più di dieci minuti prima apparentemente addormentato nel suo letto guardando dalla feritoia nell'uscio la sua attenzione era stata poi richiamata dal rumore di una finestra che veniva forzata tornato indietro a gran velocità aveva avuto appena il tempo di vedere i suoi piedi che scomparivano oltre la finestra e mi aveva subito mandato a chiamare il paziente non portava altro che un pigiama da notte e non poteva essere lontano e l'inserviente aveva ritenuto più utile osservare i suoi movimenti piuttosto che seguirne le orme perché prima di poter lasciare l'edificio attraverso l'uscio ne avrebbe certamente perduto le tracce si tratta di un uomo massiccio e non sarebbe riuscito ad attraversare la finestra ma io sono più esile e così con il suo aiuto sono uscito per quell'apertura però con i piedi in avanti e poiché ci troviamo a poca altezza dal suolo sono atterrato indenne l'inserviente mi ha detto che Renfield era andato a sinistra e poi sempre dritto così ho cominciato a correre a perdifiato superando la cinta di alberi ho visto una figura bianca scalare l'alto muro che separa il nostro terreno da quello della casa deserta immediatamente sono corso indietro e ho detto al sorvegliante notturno di radunare tre o quattro uomini a seguirmi subito nel giardino di Carfax nel caso in cui il nostro amico diventasse pericoloso quindi mi sono munito di scala e scavalcando il muro mi sono lasciato cadere sull'altro lato sono riuscito a intravedere la sagoma di Renfield che proprio in quel momento scompariva dietro l'angolo della casa e mi sono lanciato all'inseguimento l'ho trovato sul lato più remoto della casa schiacciato contro la vecchia porta di quercia borchiata di ferro della cappella stava parlando apparentemente con qualcuno ma ho avuto paura di avvicinarmi abbastanza da sentire quel che diceva per timore di spaventarlo e farlo scappare dare la caccia a un nugolo di api migranti non è nulla a paragone di inseguire un pazzo seminudo colto da raptus di fuggire ad ogni modo pochi minuti più tardi mi sono reso conto che non prestava alcuna attenzione a ciò che gli capitava intorno e così mi sono azzardato ad avvicinarmi un poco tanto più che nel frattempo i miei uomini avevano scavalcato il muro e lo stavano cerchiando gli ho sentito dire sono qui per eseguire i vostri comandi padrone io sono il vostro schiavo e voi non potrete che ricompensarmi a dovere per la mia fedeltà vi ho adorato a lungo mentre eravate lontano ora che siete vicino attendo i vostri comandi e voi non vi dimenticherete di me non è vero caro padrone quando distribuirete i vostri doni resta un vecchio mendicante egoista pensa ai pani e ai pesci persino quando crede di trovarsi al suo reale cospetto le sue manie formano una combinazione sorprendente quando ci siamo stretti su di lui ha lottato come una tigre è incredibilmente forte e più simile a una bestia selvaggia che a un uomo mai avevo visto un pazzo in preda a un simile parossismo d'ira e mai spero di rivederlo dobbiamo ringraziare di aver scoperto in tempo fino a che punto si possono spingere la sua forza e la sua pericolosità con un vigore e una determinazione simili avrebbe potuto fare un vero sfacelo prima di essere rinchiuso ora comunque è al sicuro neppure jack shepherd in persona potrebbe liberarsi dalla camicia di forza che lo immobilizza e per di più è incatenato alla parete della camera imbottita a tratti le sue urla sono tremende ma ancor più mortali sono i silenzi che le seguono perché ogni contorsione ognuno dei suoi movimenti è carico di volontà omicida proprio ora per la prima volta ha pronunciato parole coerenti sarò paziente padrone ecco che viene 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 ho seguito il suo suggerimento e me ne sono venuto via anch'io ero troppo in subbuglio per dormire ma il diario mi ha tranquillizzato e credo che questa notte riuscirò a dormire un po' capitolo 9 lettera di mina murray a lucy western budapest 24 agosto mia carissima Lucy so che sarei ansiosa di sapere tutto quello che è capitato da quando ci siamo separata alla stazione ferroviaria di Whitby ecco mia cara sono arrivata bene a Hull e ho preso il vaporetto fino ad Hamburgo da dove ho proseguito col treno sin qui ho la sensazione di ricordare poco o nulla del viaggio tranne la consapevolezza di recarmi da Jonathan e della necessità di dormire il più possibile giacché avrei dovuto essere in forze per assisterlo ho trovato il mio adorato talmente magro e pallido e che aria debole ogni determinazione è fuggita dai suoi cari occhi e la quieta dignità che gli si leggeva in volto e di cui tanto ti avevo parlato è del tutto scomparsa non è che l'ombra di se stesso e non ricorda nulla di ciò che gli è accaduto da molto tempo a questa parte o così vuole che io creda e mai gli rivolgerò domande in merito ha avuto un trauma terribile e temo che se provasse a richiamarlo alla mente il suo povero cervello ne sarebbe messo dura prova suo ragata che è una brava persona e un'infermiera nata mi dice che è stato preda di orribili farneticazioni mentre giaceva privo di conoscenza avrei voluto che me ne riferisse il contenuto ma lei non ha fatto altro che farsi il segno della croce e ripetere che non l'avrebbe mai rivelato che i deliri di un malato sono segreti di Dio e che mai a un'infermiera in virtù del proprio operato capita di udirli deve in ogni modo onorare la fiducia riposta in lei è un'anima buona e candida e il giorno successivo vedendomi angosciata ha ripreso l'argomento e dopo aver ribadito che non avrebbe mai potuto far parola dei deliri del mio povero amato ha aggiunto però questo posso dirvelo mia cara che non si tratta di malefatte da lui commesse in prima persona e voi come sua futura sposa non avete motivo di preoccuparvi lui non ha dimenticato né voi né tutto ciò che vi deve il suo terrore era legato a grandi cose terribili delle quali nessun mortale può parlare credo che quell'anima pia pensasse che io fossi gelosa e temessi che il mio amato si fosse innamorato di un'altra ragazza l'idea che io possa essere gelosa di jonathan eppure mia cara lascia che te lo confessi a mezza voce ho sentito un brivido di gioia percorrermi il corpo quando ho saputo che nessun'altra donna era la causa dei suoi problemi in questo momento sono seduta al suo capezzale da dove posso vedere il suo viso mentre dorme si sta svegliando appena sveglio mi ha chiesto della sua giacca perché voleva prendere qualcosa dalla tasca e io l'ho chiesta a sua ragata la quale ha portato tutte le sue cose fra di esse ho notato il suo tacquino e stavo per chiedergli di lasciarmi ci dare un'occhiata perché sapevo che lì avrei potuto trovare la chiave delle sue pene ma suppongo che debba aver letto nei miei occhi ciò che desideravo perché subito mi ha mandata accanto alla finestra dicendo che desiderava restare da solo per un momento poi mi ha richiamata e quando mi sono avvicinata lui teneva la mano sopra il tacquino e con grande solennità mi ha detto Wilhelmina dal che ho capito che era tremendamente serio perché non mi ha mai più chiamata così dal giorno in cui mi ha chiesto di sposarlo tu conosci mia cara le mie idee a proposito della fiducia fra marito e moglie non dovrebbero esserci segreti nulla di nascosto io ho subito un grande trauma e quando provo a ripensarci mi sento la testa girare vorticosamente e non so più dire se sia stato tutto vero o soltanto il sogno di un folle tu sai che ho sofferto di febbre cerebrale e in pratica questo significa essere pazzi il segreto è qui dentro e io non voglio conoscerlo voglio che la mia vita ricominci da questo punto con il nostro matrimonio perché cara Lucy abbiamo deciso di sposarci non appena siano espletate le formalità sei disposta Wilhelmina a condividere la mia ignoranza qui c'è il quaderno prendilo e conservalo leggilo se credi ma fa che io non sappia mai a meno si intende che un dovere solenne mi investa costringendomi a riandare con la mente a quelle ore amare che sveglio o dormiente sano o pazzo che fossi ho qui registrato esausto è ricaduto sui cuscini e io ho riposto il tacquino sotto il suo guanciale e l'ho baciato ho chiesto di pregare di fare in modo che il nostro matrimonio sia celebrato questo pomeriggio e sto aspettando la sua risposta è arrivata e mi ha detto che è stato convocato il cappellano della chiesa missionaria inglese ci sposeremo fra un'ora o comunque non appena Jonathan si sveglia il momento è venuto e passato mi sento molto compresa nel mio ruolo ma tanto tanto felice Jonathan si è svegliato che l'ora era da poco trascorsa e tutto era pronto si è messo a sedere nel letto sorretto dai cuscini e ha pronunciato il suo sì con forza e senza esitazioni io invece non riuscivo quasi a parlare avevo il cuore gonfio che perfino quella parola minacciava di soffocarmi le care sorelle sono state tanto gentili con l'aiuto di Dio mai e poi mai dimenticherò loro o le grandi e dolcissime responsabilità che mi sono assunta devo dirti del mio regalo di nozze quando il cappellano e le sorelle mi hanno lasciata sola con mio marito oh Lucy è la prima volta che scrivo queste parole quando mi hanno lasciata sola con mio marito ho estratto il quaderno da sotto il cuscino e l'ho avvolto in un foglio di carta bianca e legato con un pezzetto di fiocco azzurro che tenevo intorno al collo e ne ho sigillato il nodo con la cera lacca adoperando il mio anello nuziale come sigillo poi vi ho deposto un bacio e l'ho mostrato a mio marito dicendogli che l'avrei tenuto così di modo che per tutta la nostra vita sarebbe rimasto un segno visibile e tangibile della fiducia che riponiamo l'uno nell'altra e che mai l'avrei aperto se non fosse per il suo bene o per un qualche dovere superiore allora lui mi ha preso la mano e Lucy era la prima volta che prendeva la mano di sua moglie e ha detto che quella era per lui la cosa più cara era in tutto il vasto mondo e che se necessario avrebbe riattraversato tutto il suo passato pur di meritarsela di certo intendeva dire una parte del suo passato ma la percezione del tempo gli sfugge ancora e non mi sorprenderei se in questa prima fase gli capitasse di confondere non solo i mesi ma anche gli anni bene mia cara che cosa potevo rispondergli tutto ciò che ho potuto dirgli è stato che ero la donna più felice di tutto quanto il mondo e che non avevo nulla da donargli eccetto me stessa la mia vita e la mia promessa e che con queste cose si accompagnava il mio amore e il mio dovere per tutti i giorni della mia vita e carissima quando mi ha baciata attirandomi a sé con le sue povere mani spossate è stato come un giuramento solenne scambiato fra noi Lucy cara sai perché ti racconto tutto questo non è soltanto perché mi dà tanta dolcezza ma anche perché tu mi sei stata e mi sei molto cara ho avuto il privilegio di esserti amica e guida quando uscita dai banchi di scuola ti preparavi alla vita del mondo ora desidero che tu veda e attraverso gli occhi di una moglie davvero felice fin dove mi ha condotta il dovere di modo che anche tu nella tua vita di donna sposata possa essere perfettamente felice come lo sono io mia cara che la tua vita con l'aiuto di Dio Onnipotente possa attuarsi come promette una lunga giornata di sole senza venti sferzanti nessun obbligo tralasciato nessuno spazio per la sfiducia non posso augurarti l'assenza di dolore poiché essa non può mai esistere ma spero con tutto il cuore che tu possa sempre essere felice come io lo sono ora arrivederci amica mia spedisco subito questa lettera e forse ti riscriverò presto bisogna che mi fermi perché Jonathan si sta svegliando devo occuparmi di mio marito con eterno affetto Mina Harker Lettera di Lucy Westenra a Mina Murray Whitby 30 agosto mia carissima Mina oceani di amore e milioni di baci e che presto tu possa essere di nuovo a casa insieme a tuo marito mi piacerebbe che fossi già qui per trascorrere del tempo con noi quest'aria frizzante rinfrancherebbe Jonathan in men che non si dica con me ha funzionato ho l'appetito di un cormorano mi sento piena di vita e dormo bene sarai felice di sapere che ho smesso definitivamente di camminare nel sonno deve essere una settimana che non mi alzo dal letto ossia di notte una volta coricata Arthur dice che sto ingrassando a proposito ho dimenticato di dirti che Arthur è qui facciamo passeggiate e giri in carrozza e a cavallo e uscita in canoa e partita a tennis tutto quanto insieme e io lo amo più che mai lui sostiene di amarmi ancora di più ma io ne dubito perché all'inizio diceva che mai avrebbe potuto amarmi più di così ma è una sciocchezza eccolo che mi chiama per ora devo lasciarti con affetto Lucy post scrittum la mamma ti manda i suoi saluti sembra stare meglio povera cara post post scrittum ci sposeremo il 28 settembre dal diario del dottor Seward 20 agosto il caso Renfield si fa ancora più interessante si è calmato al punto che ora a tratti la sua passione cessa del tutto durante la prima settimana seguente alla crisi ha manifestato una condizione di perenne aggressività poi una notte mentre saliva la luna si è fatto quieto e ha preso a mormorare fra sé e sé adesso posso aspettare adesso posso aspettare l'inserviente è venuto a riferirmelo così in tutta fretta sono sceso a dargli un'occhiata era ancora costretto dalla camicia di forza e rinchiuso nella cella imbottita ma dal suo viso era scomparsa l'espressione disorientata di poco prima e negli occhi era riapparsa un po' della mellifluità supplichevole servile quasi di un tempo la sua attuale condizione mi soddisfaceva e perciò ho dato ordini che fosse liberato gli inservienti esitavano ma alla fine mi hanno accontentato senza protestare il paziente strano dirsi ha mostrato una prontezza di spirito tale d'accorgersi immediatamente della loro diffidenza infatti mi si è avvicinato e senza smettere di rivolgere loro occhiate furtive ha bisbigliato pensano che possa farvi del male pensate un po' io che faccio del male a voi che idioti in qualche modo era confortante scoprire che per quanto solo nella mente di questo povero folle ero disassociato dagli altri ma in ogni modo non riesco a seguire il suo pensiero devo ritenere di avere qualcosa in comune con lui ragion per cui ci troviamo per così dire nella stessa barca oppure giudica ciò che ha da guadagnare da me tanto splendido che il mio benessere gli è necessario dovrò scoprirlo in seguito questa notte non vuole parlare perfino l'offerta di un gattino o addirittura di un gatto adesso lo lascia indifferente si limita a ripetere non ho niente a che a spartire coi gatti ora ho cose più importanti a cui pensare e posso aspettare posso aspettare dopo un po' me ne sono andato l'inserviente mi dice che è rimasto tranquillo fino a pochi momenti prima dell'alba dopodiché ha cominciato a diventare inquieto e via via sempre più violento fino a quando in ultimo è caduto preda di un parossismo che l'ha lasciato esausto tanto da farlo scivolare in una specie di coma da tre notti accade la stessa cosa violento per tutto il giorno poi tranquillo dal sorgere della luna alla luce del giorno se solo scoprissi qualche indizio per far luce sul suo caso sembra quasi che su di lui agisca un influsso che va e viene certo ottima idea questa notte opporremo l'intelligenza sana a quella malata Renfield è già scappato senza il nostro aiuto questa notte fuggirà con esso gli daremo un'opportunità e disporremo gli uomini a seguirlo in caso di bisogno 23 agosto l'inatteso succede sempre certo che di israeli sapeva bene come vanno le cose della vita il nostro uccello trovato la gabbia aperta non ha voluto volare per cui tutti i nostri astuti preparativi sono stati in vano tuttavia una cosa l'abbiamo dimostrata che le sue fasi di quiete durano un tempo ragionevole in futuro potremo liberarlo dalle costrizioni per alcune ore ogni giorno all'inserviente di notte non ho dato altre disposizioni che di chiuderlo nella cella imbottita quando è ancora calmo e fino a un'ora prima dell'alba il corpo del poveretto almeno ne trarrà giovamento anche se la mente non potrà apprezzarlo per dinci un'altra volta all'inatteso mi chiamano il paziente è scappato di nuovo più tardi ancora una notte di avventura astutamente Renfield ha atteso che l'inserviente entrasse nella sua camera per l'ispezione quindi gli è sfrecciato accanto schivandolo e si è precipitato giù per il corridoio ho ordinato gli inservienti di seguirlo è penetrato di nuovo nel parco della casa deserta e l'abbiamo trovato nello stesso posto schiacciato contro il portone della vecchia cappella nel vedermi è montato su tutte le furie e se gli inservienti non l'avessero bloccato in tempo avrebbe cercato di uccidermi mentre lo tenevamo fermo è successa una cosa strana all'improvviso ha raddoppiato i suoi sforzi e altrettanto all'improvviso si è acquietato istintivamente mi sono guardato intorno ma non ho visto nulla poi ho intercettato lo sguardo del paziente e l'ho seguito ma sulla sua traiettoria nel cielo rischiarato dalla luna non ho individuato altro che un grosso pipistrello nel cui volo silenzioso verso occidente c'era un chedi spettrale i pipistrelli di solito si muovono in volute circolari e sbattendo le ali ma questo pareva procedere diritto come se sapesse dov'era diretto o avesse una sua intenzione prestabilita il paziente si faceva più calmo a ogni istante e di lì a breve ha detto non occorre che mi leghiate vengo da me senza difficoltà siamo ritornati indietro sento che c'è qualcosa di minaccioso nella sua calma e non dimenticherò questa notte dal diario di Lucy Westerra Hillingham 24 agosto devo imitare Mina e prendere nota di tutto questo così potremo fare delle lunghe chiacchierate quando ci incontreremo chissà quando sarà vorrei che fosse di nuovo con me perché mi sento tanto infelice la scorsa notte mi è parso di sognare un'altra volta proprio come quando ero Whitby forse è colpa del cambiamento d'aria o forse è il ritorno a casa tutto è buio e spaventoso intorno a me perché non mi ricordo di nulla però sono pervasa da una paura vaga e mi sento tanto debole e spossata quando Arthur è venuto per colazione è parso molto preoccupato nel vedermi io non ho avuto la forza di provare a mostrarmi allegra forse potrei dormire nella camera della mamma questa notte cercherò di inventarmi un pretesto 25 agosto un'altra nottataccia mamma non ha voluto accogliere la mia proposta neppure lei sembra stare troppo bene e senza dubbio teme che mi preoccupi ho provato a rimanere sveglia e per un poco ci sono riuscita ma i dodici rintocchi dell'orologio mi hanno riscossa dalla dormiveglia segno che mi stavo addormentando c'era una specie di raschio o forse un battito d'aria alla finestra ma non ci ho badato e poiché non ricordo altro devo essermi addormentata di nuovo brutti sogni vorrei potermene rammentare stamani sono tremendamente debole ho il viso pallido come un fantasma e mi fa male la gola devo aver qualcosa che non va ai polmoni perché ho l'impressione che mi manchi l'aria proverò a tirarmi un po' su prima che arrivi Arthur altrimenti so che si affliggerà nel vedermi in questo stato lettera di Hartum Holmwood al dottor Seward Hotel Albemarle 31 agosto mio caro Jack voglio che tu mi faccia un favore Lucy è ammalata non che abbia un disturbo in particolare però ha un aspetto terribile e peggiora di giorno in giorno ho provato a chiedergliene la causa non oso domandare alla madre perché mettere in ansia quella povera donna riguardo alle condizioni della figlia potrebbe esserle fatale nel suo stato attuale di salute Mrs. Westerna mi ha confidato che il suo destino è segnato a causa di una malattia cardiaca anche se la povera Lucy non ne sa ancora nulla sono certo che qualcosa sta logorando la mente della mia beneamata il solo pensiero minaccia di farmi perdere di farmi perdere la ragione e guardarla mi procura una fitta di angoscia le ho detto che ti avrei chiesto di visitarla e anche se all'inizio si è rifiutata e io ne conosco la ragione mio buon amico alla fine ha consentito sarà un compito doloroso per te vecchio amico mio lo so ma è per il suo bene e io non devo esitare a chiedere né tu ad agire verrai a pranzo a Dillingham domani alle due così da non suscitare alcun sospetto in Mrs. Western e dopo pranzo Lucy troverà un pretesto per restare sola con te io verrò per il tè e potremo andarcene insieme sono molto in ansia e vorrei conferire con te in privato al più presto non appena l'avrai visitata non mancare Arthur telegramma di Arthur Holwood a Seward primo settembre richiamato capezzale di mio padre peggiorato segue lettera attendo scritto dettagliato per posta questa sera stessa a ring telegrafa se occorre lettera del dottor Seward ad Arthur Holwood 2 settembre mio caro vecchio amico in merito alla salute di Mrs. Western mi affretto a farti sapere che non vi è a mio giudizio alcun disturbo funzionale né altra malattia a me nota allo stesso tempo però non sono per nulla soddisfatto del suo aspetto è penosamente cambiata dall'ultima volta che l'ho vista naturalmente devi tener conto del fatto che non ho avuto l'opportunità di eseguire una visita approfondita quanto avrei desiderato è la nostra stessa amicizia a creare quei piccoli ostacoli che neppure la scienza medica o l'abitudine riescono a sormontare è meglio che ti racconti esattamente che cosa è accaduto lasciando che sia tu entro certi limiti a trarre le debite conclusioni quindi ti dirò ciò che ho fatto e che mi propongo di fare ho trovato Miss Western di buon umore almeno in apparenza sua madre era lì presente e in capo a pochi secondi mi sono fatto l'idea che la signorina stesse facendo tutto il possibile per ingannarla ed evitare così di metterla in ansia senza dubbio intuisce seppure non lo sa per certo quanto sia necessaria la cautela abbiamo pranzato in tre e poiché tutti ci sforzavamo di essere allegri fra noi come per ricompensarci delle fatiche è nato un po' di autentico buon umore poi Miss Western è andata a riposare e io e Lucy siamo rimasti soli ci siamo diretti verso il suo salottino e finché non vi siamo giunti poiché la servitù andava e veniva la sua giovialità è perdurata ma la porta si era appena chiusa che già la maschera le cadeva dal viso e lei si lasciava andare su una sedia con un gran sospiro nascondendosi nel contempo gli occhi con la mano quando ho visto che l'euforia l'aveva abbandonata ho subito approfittato della sua reazione per fare una diagnosi ma lei con fare suave mi ha detto se sapeste quanto detesto parlare di me le ho quindi ricordato che la confidenza fatta a un dottore è sacra ma che tu eri terribilmente in ansia per la sua salute e lei cogliendo al volo il significato delle mie parole ha risolto in un attimo la questione potete dire ad Arthur qualunque cosa desideriate di me non mi curo ma di lui soltanto quindi non ho remore ho visto subito che era carente di sangue ma non riuscivo a individuare i segnali tipici dell'anemia e il caso ha voluto che potesse analizzare la vera composizione del suo sangue perché nell'aprire una finestra che non voleva sbloccarsi un listello ha ceduto e il vetro rompendosi le ha ferito lievemente la mano una cosa da nulla in sé ma mi ha dato il pretesto per raccogliere alcune gocce di sangue e analizzarle gli esami evidenziano valori perfettamente nella norma e mi inducono a ipotizzare un eccellente stato di salute per il resto sono lieto di poter dire che le sue condizioni fisiche non destano preoccupazioni eppur la causa deve pur risiedere da qualche parte e la mia conclusione è che l'origine debba essere mentale la paziente lamenta periodiche difficoltà respiratorie e un sonno pesante quasi letargico popolato di sogni che la spaventano ma dei quali non ricorda nulla riferisce che da bambina soffriva di sonnambulismo e che mentre era a Whitby l'antica abitudine è riapparsa e che una volta è uscita di notte e ha raggiunto l'Eascliff dove Miss Murray l'ha poi trovata tuttavia mi assicura che ultimamente non si sono verificati altri episodi io ne dubito e così ho fatto l'unica cosa che mi paresse opportuna ho scritto al mio vecchio amico e maestro il professor Van Helsing di Amsterdam che è fra i maggiori esperti mondiali di malattie oscure gli ho chiesto di venire e poiché mi hai detto che intendi sostenere tutte le spese gli ho fatto il tuo nome e l'ho messo a parte della tua relazione con Miss Western tutto ciò mio caro amico in osservanza dei tuoi desideri perché sono estremamente felice e onorato di poter far tutto quanto in mio potere per il bene di lei so che dal canto suo Van Helsing per ragioni personali è disposto a fare qualunque cosa per me e quindi quali che siano le ragioni che lo spingono a venire dovremo inchinarci al suo volere è un uomo apparentemente autoritario ma è solo perché sa di che cosa sta parlando meglio di chiunque altro è un filosofo e un metafisico nonché uno degli scienziati più all'avanguardia del nostro tempo e in più lo ritengo dotato di una mente assolutamente aperta tutto ciò unito a nervi d'acciaio un temperamento di ghiaccio un'indomita volontà autocontrollo e tolleranza potenziata al punto da non essere più semplici virtù ma vere benedizioni e il cuore più onesto e generoso che si possa immaginare questo è il corredo col quale affronta la nobile opera che ha intrapreso in favore del genere umano un'opera sia teorica che pratica perché le sue vedute sono ampie quanto la sua onnicomprensiva solidarietà ti rendo partecipe di questi fatti affinché tu sappia donde nasce la mia fiducia in lui gli ho chiesto di venire subito domani vedrò di nuovo Miss Western dovrà raggiungermi ai grandi magazzini di modo che il ripetersi di una mia visita a distanza troppo ravvicinata non debba allarmare sua madre il tuo amico devoto John Seward lettera di Abraham Van Helsing dottore in medicina dottore in filosofia dottore in letteratura eccetera eccetera al dottor Seward 2 settembre Mio buon amico ho appena ricevuto la vostra lettera e subito vengo a voi per buona fortuna posso partire immediatamente senza fare torto a quelli che hanno fiducia in me ma se la fortuna fosse contraria allora sarebbe peggio per chi si affida a me perché io fado dal mio amico quando lui chiama per aiutare le persone che gli stanno a cuore dovete dire al vostro amico che quella volta quando tanto rapidamente avete succhiato dalla mia ferita il veleno della cancrena provocata dal coltello che l'altro nostro amico troppo nervoso lasciava cadere poi avete fatto per lui ora che bisogna dei miei servizi più di quello che tutta la sua grande ricchezza può fare ma è piacere in più fare qualcosa per lui che è amico vostro ed è alla vostra chiamata che rispondo hanno dunque una camera per me al Grand Eastern Hotel così che io possa alloggiare nelle vicinanze e prego fate in modo che possiamo vedere la giovane signora non troppo tardi domani perché è probabile che io debba far ritorno qui la notte stessa ma se occorrerà potrò ritornare fra tre giorni e anche fermarmi più tempo se c'è bisogno fino ad allora arrivederci mio amico John Van Helsing lettera del dottor Seward a Dartum Holmwood 3 settembre Mio caro Art Van Helsing è venuto e andato mi ha accompagnato a Hillingham e l'ha giunti abbiamo scoperto che grazie alla discrezione di Lucy la madre era andata fuori per pranzo e dunque eravamo soli Van Helsing ha visitato la paziente con grande cura dovrà riferirmene e così io a te perché naturalmente non sono stato presente per tutto il tempo temo che sia molto preoccupato ma dice che ci deve riflettere quando gli ho detto della nostra amicizia e della fiducia che ha riposto in me per questa faccenda lui ha risposto dovete dirgli tutto quello che pensate ditegli anche quello che penso io se lo desiderate sempre che potete indovinarlo no non sto scherzando questo non è uno scherzo ma una questione di vita e di morte e forse di più vedendolo così serio gli ho chiesto che cosa intendesse dire questo accadeva dopo che eravamo rientrati in città mentre lui beveva una tazza di tè prima di fare ritorno ad Amsterdam non ha voluto dirmi altro ma tu non devi andartene a male Art perché proprio questa sua reticenza significa che tutte le facoltà di cui dispone sono già al lavoro per il bene di Lucy parlerà con chiarezza quando verrà il momento non dubitare così gli ho detto che ti avrei inviato un semplice resoconto della nostra visita proprio come farei se dovessi scrivere un articolo specialistico per il Daily Telegraph lui non sembrava prestarmi molta attenzione e infatti ha replicato con un commento sullo smog di Londra trovandolo migliorato dai tempi in cui lui era studente qui se riuscirà a completarlo dovrei avere il suo referto per domani in tutti i casi riceverò almeno una lettera bene veniamo alla visita Lucy era più allegra del giorno in cui l'avevo esaminata e il suo aspetto era senz'altro migliorato aveva perduto parte di quell'aria spettrale che tanto ti sgomenta e il respiro era normale è stata molto gentile col professore come suo solito e ha fatto il possibile per farlo sentire a suo agio ma era evidente che le costava un grande sforzo credo che anche Van Helsing se ne sia accorto perché sotto le sue folte sopracciglia ho visto passare lo stesso sguardo fulmineo che ricordavo dai tempi andati poi ha cominciato a chiacchierare di ogni cosa tranne che dei presenti o di malattie e con una tale maestria che davanti ai miei occhi la finta briosità della povera Lucy si è convertita in realtà quindi senza mutamenti apparenti ha portato discretamente alla conversazione sulle ragioni della sua visita osservando amabilmente mia cara giovane signorina è un grande piacere per me perché voi siete molto amata e questo è davvero mia cara anche se vedessi in voi quello che io non vedo mi avevano detto che eravate di morale basso e di un pallore spettrale allora io dico loro puh e così dicendo mi ha schioccato le dita in faccia per poi proseguire ma voi e io mostreremo loro quanto si sbagliano come può lui e ha puntato il dito verso di me ripetendo lo stesso sguardo e lo stesso gesto che già una volta aveva adoperato per addittarmi alla sua classe in una certa occasione che non si stanca mai di rammentarmi sapere qualcosa di una giovane signora lui ha i suoi pazzi per giocare e per riportare loro alla felicità e a quelli che li amano è grande lavoro però ah che soddisfazione poter dare tanta felicità ma le giovani signore lui non ha moglie né figlia e i giovani non raccontano sé ai giovani ma ai vecchi come me che hanno conosciuto così tanti dolori e le cause che li cenerano perciò mia cara ora lo mandiamo a fumare una sicaretta in giardino e intanto scambiamo una piccola chiacchierata fra noi senza farmelo ripetere due volte sono uscito e oggi ronzolato l'intorno fino a quando il professore si è affacciato alla finestra e mi ha invitato a rientrare aveva l'area ma ha detto ho fatto una visita accurata ma non c'è origine funzionale con voi concordo che molto sangue è andato perduto sangue che c'era e ora non c'è più ma le condizioni di lei non sono niente affatto anemiche le ho chiesto di mandarmi la sua governante così che io possa farle alcune domande e non mi capiti di perdere qualche informazione ma so bene cosa dirà eppure la causa c'è c'è sempre una causa per tutto devo fare rientro a casa e pensare voi mandatemi un telegramma ogni giorno e se ci sarà ragione tornerò la malattia perché se non va tutto bene c'è malattia è di interesse per me ed interesse è anche la dolce fanciulla mi affascina e per lei se non per la malattia tornerò come ti ho detto non ha voluto aggiungere una parola di più neppure quando siamo rimasti soli e così Art ora sai tutto quello che so io resterò all'Ert mi auguro che il tuo povero padre si stia rimettendo in forze deve essere una cosa terribile per te mio caro vecchio amico trovarti così diviso fra due persone a te tanto care conosco il tuo senso del dovere filiale e fai bene a onorarlo se ve ne sarà la necessità sarò io a fartelo sapere di modo che tu possa venire da lus immediatamente quindi non stare troppo in ansia a meno di ricevere altre notizie dal diario del dottor seward 4 settembre il paziente zoofago continua a tenere vivo il nostro interesse di recente ha avuto una sola crisi e si è verificata ieri alla solita ora appena prima dei rintocchi di mezzodì ha cominciato a farsi inquieto l'inserviente conosceva i sintomi e ha subito chiesto rinforzi fortunatamente gli uomini sono accorsi senza indugi e sono arrivati appena in tempo perché allo scoccare di mezzogiorno è diventato così violento che ci è voluta tutta la loro forza per trattenerlo nel giro di 5 minuti però ha iniziato il processo inverso diventando sempre più quieto fino a sprofondare in una sorta di melanconia stato in cui versa tuttora l'inserviente mi riferisce che durante la fase parrossistica le sue grida erano davvero agghiaccianti in effetti ho dovuto darmi un gran da fare entrando in reparto per rassicurare quei pazienti che ne erano rimasti spaventati del resto non occorre che mi sforzi a immaginarne gli effetti giacché quelle grida hanno turbato anche me benché mi ritrovassi a una certa distanza ora al manicomio è passata l'ora del pranzo e il mio paziente se ne sta ancora rannicchiato in un angolo a rimuginare con un'espressione spenta torva e offesa che sembra un indizio più che un chiaro segnale non mi riesce ad interpretarla più tardi un altro mutamento nel mio paziente alle 5 l'ho guardato dalla feritoia e l'ho trovato all'apparenza felice e contento come una volta era intento da chiappar mosche e a mangiarsele e teneva il conto delle prede praticando delle incisioni con l'unghia sul telaio della porta fra un bordo dell'imbottitura e l'altro quando mi ha visto si è avvicinato e mi ha porto le sue scuse per la pessima condotta tenuta e con fare estremamente dimesso e servile mi ha chiesto di essere ricondotto alla sua stanza e di poter riavere il tacquino ho pensato fosse meglio accontentarlo per cui ora è nuovamente in camera sua e con la finestra aperta tutto lo zucchero per il suo tè è sparso sul davanzale e questo gli frutta un grosso bottino in mosche lui però non le mangia ma le ripone in una scatola come faceva un tempo e già sta ispezionando ogni angolo della camera in cerca di un ragno ho provato a farlo parlare degli ultimi giorni perché ogni indizio che mi aiuti a comprendere i suoi pensieri mi sarebbe stato di immenso aiuto ma lui non ha colto il mio stimolo anzi per alcuni momenti è parso tristissimo e con voce che pareva giungere da lontano come rivolgendosi a se stesso più che a me ha detto è tutto finito tutto finito mi ha abbandonato ormai non c'è speranza per me a meno che non me ne occupi io stesso quindi rivolgendosi a me con fare risoluto ha detto dottore sarebbe così buono da farmi avere un pochino di zucchero in più credo che mi farebbe bene anche alle mosche ho chiesto sì anche alle mosche piace e a me piacciono le mosche ergo a me piace lo zucchero e pensare che c'è gente tanto ignorante da credere che i pazzi non ragionino gliene ho fatto avere una doppia razione e quando l'ho lasciato pareva l'uomo più felice del mondo se solo riuscissi a penetrare la sua mente mezzanotte un altro cambiamento ero stato in visita da Miss Westerra che ho trovato molto migliorata ed ero appena ritornato e in piedi al cancello dell'istituto rimiravo il tramonto quando l'ho sentito di nuovo urlare poiché la sua camera dà su questo lato dell'edificio questa volta l'ho udito più distintamente che al mattino è stato un colpo per me venire strappato alla splendida bellezza velata di un tramonto londinese e ritrovarmi immerso nel cupo rigore del mio freddo edificio di pietra sono arrivato da lui proprio mentre il sole stava calando e dalla sua finestra ho visto il disco rosso eclissarsi a mano a mano che scendeva la frenesia del paziente si placava e nel momento esatto in cui si è inabissato Renfield è scivolato dalle mani che lo sorreggevano e come una massa inerte è caduto a terra sono davvero portentose tuttavia le capacità di recupero psichico dei malati di mente perché in capo a pochi minuti era già tranquillamente in piedi e si guardava intorno ho fatto segno agli inservienti di non tenerlo perché ero ansioso di vedere che cosa avrebbe fatto senza esitazioni Renfield si è diretto verso la finestra e ha spazzato via i granelli di zucchero quindi ha afferrato la scatola delle mosche ne ha svuotato il contenuto all'esterno e l'ha gettata via infine ha richiuso la finestra e riattraversando la stanza è venuto a sedersi sul suo letto tutto ciò mi ha sorpreso e dunque gli ho domandato non ne tenete più di mosche? no ha risposto sono stufo di tutte quelle porcherie senza dubbio è un caso incredibilmente interessante che cosa darei per poter cogliere almeno un barlume del funzionamento di quella mente o dell'origine delle sue subitane e passioni basta un indizio potrebbe anche esserci dopo tutto sempre che si riuscisse a scoprire perché oggi le crisi si sono presentate a mezzogiorno in punto e al tramonto e se fosse che in certe fasi del giorno il sole esercita un influsso negativo che ha effetto su determinate nature proprio come su altre a volte la luna staremo a vedere capitolo 10 lettera del dottor Seward all'onorevole Arthur Holmwood 6 settembre mio caro Art le notizie che ho da darti oggi non sono troppo buone stamani Lucy era un po' peggiorata ne è scaturita però una conseguenza positiva Mrs. Westenra era naturalmente in ansia per lei e mi ha richiesto una consulenza professionale non mi sono lasciato sfuggire l'occasione e le ho detto che il mio vecchio maestro Van Helsing il grande specialista stava venendo a stare da me per un po' e che avrei affidato Lucy alle sue cure oltre che alle mie così ora possiamo andare e venire senza allarmarla più del necessario perché un trauma significherebbe per lei morte sicura e questo avrebbe una grave ricaduta su Lucy nelle delicate condizioni in cui già versa siamo circondati dalle difficoltà povero vecchio mio tutti noi ma con l'aiuto di Dio riusciremo a superarla nel migliore dei modi in caso di necessità ti scriverò senz'altro pertanto se non ricevi mie notizie puoi dare per scontato che è solo perché ne sono in attesa a mia volta frettolosamente tuo John Seward dal diario del dottor Seward 7 settembre la prima cosa che Van Helsing mi ha detto quando ci siamo incontrati in Liverpool Street è stata avete detto niente al nostro giovane amico l'innamorato di lei? no ho risposto aspettavo di avervi parlato come vi dicevo nel telegramma vi ho scritto una lettera dicendogli soltanto che eravate in arrivo visto che Miss Westenra non stava troppo bene e che in caso di bisogno gliel'avrei fatto sapere giusto amico mio ha detto più che giusto meglio che lui ancora non sappia forse non saprà mai ma se il caso lo richiederà allora dovrà sapere tutto e mio buon amico John lasciate che io vi metta in guardia voi trattate con i pazzi tutti gli uomini sono pazzi in un modo o nell'altro e la stessa discrezione che usate con i vostri pazzi è giusto che usiate anche con i pazzi di Dio cioè il resto del mondo voi non dite ai vostri pazzi che cosa fate né perché lo fate voi non dite a loro che cosa pensate perciò conservate la conoscenza nel posto che è suo dove può stare più tranquilla tranquilla la può raccogliere intorno a sé altra conoscenza e proliferare voi e io per il momento conserveremo quel che sappiamo qui e qui mi ha toccato sul cuore e sulla fronte e poi ha ripetuto lo stesso gesto su di sé al momento io ho pensieri miei più avanti ve li sfelerò perché non ora ho chiesto potrebbe essere d'aiuto potremmo arrivare una decisione si è fermato e mi ha guardato poi ha detto amico Joe quando il grano è alto ma non ha raggiunto il momento che diventa maturo fin tanto che il latte di sua madre terra è in lui e la luce del sole non ha ancora cominciato a dipingerlo del suo oro il contadino prende la spiga e frega fra le mani grozze e soffia via la loppa verde e dice ecco è buon grano farà buon raccolto quando verrà il momento non riuscivo a comprendere il nesso e glielo ho detto per tutta risposta si è proteso verso di me e mi ha ferrato l'orecchio per poi tirarmelo scherzosamente come era solito fare tanto tempo fa a lezione e ha detto il buon contadino può dire così perché sa ma non sapeva prima di quel momento eppure non si trova mai il contadino a sradicare le pianticelle di grano per essere sicuro che crescano questo fa bene per i bambini che giocano a fare i contadini ma non per quelli per cui è l'attività della loro vita capito adesso amico John io ho seminato il grano e la natura ha il suo lavoro da portare avanti per farlo germogliare e se germoglia allora bene è una promessa e dunque io aspetto finché la spiga cominci a confiare si è interrotto intuendo evidentemente che avevo capito poi ha ripreso e questa volta con grande serietà sempre siete stato uno studente scrupoloso e il vostro campionario delle casistiche era immancabilmente più vasto di tutti gli altri allora eravate solo studente ora siete anche maestro e io confido che le buone abitudini non vi abbiano abbandonato ricordate amico mio che la conoscenza è più forte della memoria ed è errore affidarsi alla più tevole anche se non avete mantenuto la giusta prassi del passato lasciate che fidica che questo della nostra cara signorina è un caso che può darsi e badate bene che dico può darsi sia di tale interesse per noi e per altri che tutto il resto può valere come un soldo bucato come dicono qui da voi allora prendete nota di questo niente è troppo piccolo il mio consiglio per voi è che dovete registrare ogni cosa anche i dubbi e le supposizioni dopo può essere di interesse per voi vedere quanto sono vicine alla verità le vostre congetture impariamo dai fallimenti non dai successi quando ho descritto i sintomi di Lucy gli stessi di prima ma infinitamente più marcati ha assunto un'espressione grave ma non ha detto nulla ha portato con sé una borsa con molti strumenti e medicine lo spaventoso armamentario del nostro benefico mestiere come li aveva definiti una volta in una lezione l'equipaggiamento di un professore nell'arte del risanare Mrs. West Terna ci è venuta incontro nell'ingresso era allarmata ma non tanto quanto mi sarei atteso da lei la natura in uno dei suoi momenti di clemenza ha stabilito che perfino la morte avesse un antidoto al suo terrore qui in caso in cui qualsiasi trauma sarebbe fatale la natura umana ha previsto che per un motivo o per l'altro le cose che non sono personali perfino i terribili cambiamenti nella figlia a cui è tanto affezionata sembrano non toccarla è un po' come quando madre natura raccoglie intorno al corpo estraneo una guaina di tessuto insensibile per proteggere dal male ciò che diversamente patirebbe del contatto se questo è un egoismo preordinato allora dovremmo fermarci un attimo prima di condannare chiunque per il vizio dell'egoismo per il quale ci possono essere radici più profonde di quelle che conosciamo ho usato la mia conoscenza di questa fase della patologia psichica per imporle la regola che non doveva essere presente al cospetto di Lucy o pensare alla sua malattia più di quanto non fosse strettamente necessario Mrs. Westerna ha prontamente accondisceso con tanta prontezza appunto che vi ho scorto di nuovo la mano della natura in lotta per la vita Van Helsing e io siamo stati condotti in camera di Lucy se ieri ero stato scioccato a vederla oggi sono addirittura inorridito aveva un pallore spettrale gessoso il colore sembrava aver abbandonato perfino le labbra e le gengive e le ossa del viso sporgevano spigolose il respiro era doloroso a vedersi e udirsi il volto di Van Helsing si è irrigidito come marmo e le sopracciglia si sono strette fino quasi a convergere sul ponte del naso Lucy era immobile e non sembrava avere forza sufficienza per parlare così per un poco siamo rimasti tutti in silenzio poi Van Helsing mi ha fatto un segno e siamo usciti in punta di piedi dalla stanza appena chiusa la porta alle spalle si è diretto verso la stanza vicina che era aperta mi ha tirato velocemente dentro con lui e ha chiuso l'uscio mio Dio ha detto è terribile non c'è tempo da perdere morirà perché non ha abbastanza sangue per mantenere il cuore in azione bisogna farle immediatamente una trasfusione voi o io sono più giovane e più forte professore devo essere io a darlo allora preparatevi immediatamente porto su la mia borsa sono pronto all'evenienza sono sceso con lui e mentre scendevamo hanno bussato quando siamo giunti in ingresso la cameriera aveva appena aperto la porta e Arthur stava entrando di fretta mi è corso incontro sussurrando apprensivo Jack ero così in ansia ho letto fra le righe della tua lettera ed è stata un'agonia papà stava meglio così sono corso qui a rendermi conto di persona quel gentiluomo non è forse il dottor Van Helsing vi sono così grato di essere venuto signore quando il professore ha visto Arthur a tutta prima è stato infastidito dall'interruzione in quel momento particolare ma poi notandone le proporzioni robuste e riconoscendo la virilità forte e giovane che emanava da lui gli sono brillati gli occhi senza frapporre tempo porgendogli la mano gli ha detto con espressione grave signore siete arrivato in tempo siete l'innamorato della nostra cara signorina sta male molto molto male no figliolo non fate così perché Arthur era impallidito e si era seduto sul punto di svenire dovete aiutarla voi potete fare più di tutti i viventi e il coraggio è il vostro migliore alleato che cosa devo fare ha chiesto Arthur con voce roca ditemi e lo farò la mia vita le appartiene e darei fino all'ultima goccia di sangue che ho in corpo per lei il professore ha un forte senso dell'umorismo e per la sua consuetudine che ho letto con lui ne ho riconosciuto una traccia nella risposta mio giovane signore non vi chiedo così tanto non l'ultima che cosa devo fare c'era il fuoco nei suoi occhi e le sue narici dilatate fremevano di determinazione Van Helsing gli ha dato una pacca sulla spalla finite ha detto siete un uomo e un uomo è quello di cui abbiamo bisogno siete meglio di me e meglio del mio amico John Arthur aveva un'espressione sgomenta e il professore ha continuato a spiegare in modo gentile la giovane signorina sta male molto male ha bisogno di sangue e sangue deve avere o morirà il mio amico John e io ci siamo consultati e stiamo per effettuare quella che chiamiamo una trasfusione di sangue trasferire dalle vene piene alle vene vuote che anelano di riceverlo doveva dare il suo sangue John che è più giovane e più forte di me qui Arthur mi ha preso la mano e la stretta con forza in silenzio ma ora voi siete qui e siete meglio di noi vecchi o giovani che ci affatichiamo nel mondo del pensiero i nostri nervi non sono così calmi e il nostro sangue non è così limpido come il vostro Arthur si è rivolto a lui dicendo se solo sapeste quanto volentieri morirei per lei capireste si è bloccato con la voce strozzata bravo ragazzo ha detto Van Helsing fa non molto sarete contento di aver fatto tutto per quella che amate finite adesso e state zitto la abacerete una volta prima di farlo ma poi dovrete andarvene e dovete farlo appena ve lo dico non dite neanche una parola a madame conoscete la sua situazione non ci deve essere nessun trauma e sapere qualcosa di questo lo sarebbe finite siamo saliti tutti in camera di Lucy Arthur è rimasto fuori come gli è stato richiesto Lucy ha voltato la testa per guardarci ma non ha detto nulla non era addormentata ma era troppo debole per quello sforzo parlava con gli occhi e questo bastava Van Helsing ha preso alcune cose nella sua borsa e le ha sistemate sul tavolino fuori dalla vista poi ha preparato un narcotico e avvicinandosi al letto ha detto allegro ecco signorinetta la vostra medicina bevetela tutta da brava bambina ecco vi tiro su così che trangugiarla è facile sì con sforzo era riuscito a berlo mi sono sorpreso a vedere quanto tempo impiegava la droga a fare effetto questo segnalava la gravità della sua debolezza il tempo sembrava eterno finché il sonno ha cominciato a pesarle sulle palpebre infine il narcotico ha manifestato la sua potenza e Lucy è caduta in un sonno profondo quando il professore è stato soddisfatto del risultato ha fatto entrare Arthur nella stanza e gli ha chiesto di togliersi la giacca quindi ha aggiunto potete darle quel bacetto mentre io avvicino il tavolo amico John aiutatemi così non l'abbiamo guardato mentre si chinava su di lei Van Helsing mi ha detto è così giovane e forte e di sangue così puro che non abbiamo bisogno di defibrinarlo quindi con rapidità e metodo perfetto Van Helsing ha eseguito l'operazione mentre la trasfusione aveva luogo sembrava che tornasse sulle guance di Lucy qualcosa che assomigliava alla vita e attraverso il pallore che lo invadeva il volto di Arthur sembrava splendere di gioia dopo poco ho cominciato a preoccuparmi perché per quanto fosse un uomo forte la perdita di sangue stava indebolendo Arthur mi dava l'idea della prova a cui era stato sottoposto il sistema di Lucy se ciò che indeboliva Arthur riusciva solo in parte a rafforzare lei la faccia del professore era tesa stava in piedi orologio alla mano fissando ora la paziente ora Arthur udivo i battiti del mio cuore poco dopo il professore ha detto a bassa voce fermo un attimo basta così occupatevi di lui io penso a lei quando tutto è finito ho visto quanto fosse indebolito Arthur ho medicato la ferita e l'ho preso per il braccio per portarlo via quando Van Helsing ha detto senza voltarsi quasi avesse gli occhi sulle nuca il coraccioso innamorato merita un altro bacio credo che avrà fra un minuto avendo terminato l'operazione ha sistemato il cuscino dietro la testa della paziente mentre faceva questo il sottile nastro di belluto nero che Lucy portava sempre intorno al collo con l'antica spilla di diamanti dono del fidanzato si è sollevato un po' mostrando un segno rosso sulla gola Arthur non l'ha notato ma ha udito il sibilo di una forte inalazione che è uno dei modi in cui Van Helsing tradisce l'emozione non ha commentato al momento ma si è rivolto a me dicendo portate di sotto il nostro giovane e coraccioso innamorato dategli del porto e fatelo coricare per un poco poi deve andare a casa a riposare dormire molto e mangiare molto che possa riformare quello che ha dato al suo amore non deve stare qui aspettate un momento penso di poter dire signore che siete in ansia di sapere il risultato allora portate con voi il pensiero che l'operazione è riuscita in tutti gli aspetti le avete salvato la vita questa volta e potete andare a casa con mente leggera che è stato fatto tutto il possibile le racconterò tutto quando starà bene non vi amerà di meno per quello che avete fatto arrivederci quando arthur se n'è andato sono tornato nella stanza lucy dormiva dolcemente ma il respiro era più forte vedevo il movimento delle coperte sul suo petto accanto al letto sedeva van helsing che la osservava attentamente il nastro di velluto copriva di nuovo il segno rosso a bassa voce ho chiesto al professore che ne pensate di quel segno e voi cosa ne pensate non l'ho ancora visto ho risposto e poi ho cominciato a sciogliere il nastro proprio sopra la giugolare esterna c'erano due punture non grandi ma che non avevano un aspetto sano non c'era segno di malattia ma i contorni erano bianchi e frastagliati come se fossero stati mordicchiati ho pensato immediatamente che questa ferita o quel che era potesse essere il mezzo della perdita di sangue ma ho abbandonato subito l'idea perché non era possibile tutto il letto sarebbe stato zuppo del sangue che la ragazza deve aver perso a giudicare dal pallore che aveva prima della trasfusione ebbene ha detto Van Helsing ebbene ho risposto non so che dire il professore si è alzato devo tornare ad Amsterdam questa sera ha detto lì ci sono libri e cose di cui ho bisogno dovete restare qui tutta la notte e non perderà mai di vista devo far venire un'infermiera siamo noi gli infermieri migliori voi e Dio voi starete di guardia tutta la notte controllerete che le diano da mangiare e che niente la disturbi dovete stare sveglio tutta la notte più tardi dormiremo voi e Dio tornerò appena possibile e allora possiamo cominciare possiamo cominciare ho domandato che intendete dire filtremo ha risposto correndo via è tornato un istante dopo e ha sporto la testa dalla porta dicendo con un dito alzato in segno di ammonimento ricordatevi che siete responsabili di lei se la lasciate e le succede qualcosa di male non dormirete tranquillo in futuro dal diario del dottor Seward continuazione 8 settembre ho vegliato tutta la notte con Lucy l'effetto dell'oppiaceo è finito intorno al tramonto e si è svegliata spontaneamente sembrava una persona diversa da quella che era prima dell'operazione era di buon umore e piena di allegra vivacità ma vedevo i segni dell'assoluta prostrazione che aveva subito quando ho detto a Mrs. Westerra che il dottor Van Helsing mi aveva ordinato di vegliare Lucy ha fatto capire che le pareva un'idea assurda sottolineando la forza che la figlia aveva riacquistato e l'umore eccellente ma sono stato irremovibile e mi sono preparato alla lunga veglia sono entrato dopo che la cameriera l'aveva preparata per la notte avevo cenato e mi sono seduto accanto al suo letto Lucy non ha sollevato alcuna obiezione anzi mi esprimeva gratitudine ogni volta che i nostri sguardi si incontravano dopo diverso tempo mi è parso che Lucy fosse sul punto di addormentarsi ma con uno sforzo ha scosso via la sonnolenza la scena si è ripetuta diverse volte sempre con maggior sforzo e pause più brevi fra un episodio e l'altro era chiaro che non voleva addormentarsi ho affrontato l'argomento non volete dormire no ho paura avete paura di dormire perché è la benedizione a cui tutti aneliamo oh non siete come me se il sonno è presagio dell'orrore presagio dell'orrore che cosa intendete dire non lo so non lo so ed è per questo che è così terribile tutta questa debolezza mi viene nel sonno tanto che il solo pensiero mi spaventa ma mia cara ragazza questa notte potete dormire ci sono io a vegliarvi e posso promettervi che non vi succederà nulla oh mi posso fidare di voi ho colto l'opportunità e le ho detto vi prometto che se mi accorgerò che fate brutti sogni vi sveglierò immediatamente davvero lo farete davvero come siete buono con me allora dormirò e con queste parole ha emesso un sospiro profondo ed è ricaduta sul cuscino addormentata l'ho vegliata tutta la notte non si è mai mossa ha continuato a dormire un sonno profondo tranquillo vitale salutare le labbra erano socchiuse e il petto si alzava e si abbassava con la regolarità di un pendolo sul viso c'era un sorriso ed era evidente che non giungeva alcun incubo a turbare la pace della sua mente al mattino è arrivata la cameriera l'ho lasciata alle sue cure e sono tornato a casa perché ero preoccupato per diverse cose ho mandato un breve telegramma a Van Helsing e ad Arthur raccontando loro gli eccellenti risultati dell'operazione il mio lavoro con i molti arretrati mi ha occupato tutta la giornata ed era buio quando sono riuscito ad avere informazioni sullo stato del mio paziente zoofago il rapporto era buono era stato tranquillo il giorno e la notte scorsi mentre ero a pranzo è arrivato un telegramma di Van Helsing da Amsterdam mi suggeriva di andare a Hillingham questa sera perché avrei potuto essere d'aiuto diceva che sarebbe partito con il postale della notte e che mi avrebbe raggiunto il mattino seguente 9 settembre sono arrivato a Hillingham piuttosto esausto in due notti non ero praticamente riuscito a chiudere occhio il mio cervello cominciava a sentire quell'ottundimento che segna l'esaurimento cerebrale Lucy era in piedi e di umore allegro quando mi ha stretto la mano mi ha guardato dritto in faccia dicendo questa sera non resterete seduto a vegliarmi siete esausto io sto di nuovo bene davvero e se qualcuno deve stare sveglio sarò io a vegliarvi non ho voluto discutere ma sono andato a cenare Lucy mi ha accompagnato e ravvivato dalla sua affascinante presenza ho fatto un pasto squisito accompagnato da un paio di bicchieri di porto eccellente poi Lucy mi ha portato di sopra e mi ha indicato una stanza accanto alla sua dove c'era un bel fuoco acceso ora dovete stare qui ha detto terrò questa porta aperta e anche la mia potete sdraiarvi sul divano perché so che nulla indurrebbe uno di voi dottori a coricarsi in un letto quando c'è una paziente all'orizzonte se ho bisogno di qualcosa vi chiamerò e voi potrete venire immediatamente non ho potuto fare altro che a consentire perché ero stanco morto e non sarei riuscito a vegliare neanche se avessi voluto così dopo che Lucy mi ha rinnovato la promessa di chiamarmi in caso di necessità mi sono disteso sul divano e ho dimenticato tutto e tutti dal diario di Lucy Westenra 9 settembre sono così felice stanotte sono stata così infelicemente debole che essere in grado di pensare e di muovermi è come sentire il sole sulla pelle dopo innumerevoli giorni di vento dell'est e cielo d'acciaio mi sembra che Arthur mi sia tanto tanto vicino mi pare di sentire il calore della sua presenza intorno a me suppongo dipenda dal fatto che la malattia e la debolezza sono cose egoistiche che ci inducono a concentrare il nostro sguardo interiore e la nostra empatia soltanto su noi stessi mentre la salute e la forza danno briglia sciolta all'amore e con i pensieri e i sentimenti può scorazzare dove vuole io so dove sono i miei pensieri se solo lo sapesse Arthur mio caro mio caro nel sonno ti fischieranno le orecchie come fanno le mie quando sono sveglia oh benedetto il riposo della notte scorsa come ho dormito con quel caro e buon dottor Seward a vegliarmi e stanotte non avrò paura di addormentarmi dato che ce l'ho vicino e a portata di voce ringrazio tutti di essere così gentili con me e ringrazio Dio buonanotte Arthur dal diario del dottor Seward 10 settembre ho sentito la mano del professore sulla testa e in un secondo ero completamente sveglio è una delle cose che si imparano in manicomio e come sta la nostra paziente bene quando l'ho lasciata o meglio quando lei ha lasciato me ho risposto andiamo a vedere ha detto e siamo entrati insieme nella stanza le tende erano chiuse e io sono andato ad aprirle piano mentre Van Helsing si avvicinava al letto con il suo passo felpato da felino come ho scostato le tende e il sole del mattino ha riempito la stanza ho udito quel sibilo dell'inspirazione del professore e conoscendone la rarità mi ha stretto il cuore un senso di paura mortale mentre mi dirigevo verso il letto il professore si è scostato e la sua esclamazione Got in Himmel non aveva bisogno di essere rafforzata dall'espressione di angoscia del suo volto ha alzato la mano indicando il letto e il volto d'acciaio era teso e cinereo hanno cominciato a tremarmi le ginocchia la povera Lucy giaceva sul letto apparentemente indeliquio più orribilmente bianca e sfinita che mai erano bianche perfino le labbra e le gengive sembravano essersi ritratte dai denti come a volte si nota nei cadaveri delle persone decedute dopo lunga malattia Van Helsing ha alzato il piede pronto a batterlo rabbiosamente a terra ma l'istinto e i lunghi anni di abitudine l'hanno fermato e l'ha riappoggiato piano al pavimento svelto ha detto portati il brandy sono corso in sala da pranzo e sono tornato con la caraffa con esso ho bagnato le povere labbra bianche e insieme abbiamo massaggiato i palmi delle mani i polsi e il cuore ascoltando il cuore Van Helsing ha detto non è troppo tardi batte anche se è flebile tutto il nostro lavoro è distrutto dobbiamo ricominciare qui non c'è il giovane Arthur devo chiedere a voi questa volta amico John parlando frugava nella borsa e ne ha estratto gli strumenti per la trasfusione io mi ero tolto la giacca e arrotolato la manica non c'era nessun oppiaceo a disposizione né ce n'era bisogno e così senza perdere un attimo abbiamo cominciato l'operazione dopo qualche tempo che mi era parso sufficientemente lungo perché farsi estrarre il sangue per quanto volentieri lo si doni è una sensazione spiacevolissima Van Helsing ha alzato un dito a monitore non muovetevi ha detto ma ho paura che il ritorno della forza la faccia sfigliare e questo sarebbe un pericolo o molto pericolo ma prenderò le mie precauzioni le farò un'iniezione ipodermica di morfina e con l'estezza e maestria ha messo in atto le sue intenzioni l'effetto su Lucy non è stato negativo e il deliquio è scivolato sottilmente nel sonno narcotico è stato con un sentimento di orgoglio personale che ho visto tornarle un lieve accenno di colore sulle guance pallide e sulle labbra esangui finché non lo prova nessun uomo può sapere che cosa significhi sentire la propria linfa vitale scorrere nelle vene della donna amata il professore mi osservava con occhio critico basta così ha detto già finito ho espresso le mie rimostranze ne avrete preso molto di più da Arthur al che ha sorriso un sorriso triste mentre rispondeva lui è il suo innamorato il suo fiancé voi avete lavoro molto lavoro da fare per lei e per gli altri al momento sarà sufficiente quando ha terminato l'operazione si è occupato di Lucy mentre io comprimevo la mia incisione con le dita mi sono coricato aspettando che Van Helsing avesse il tempo di visitarmi perché mi sentivo debole e avevo un po' di nausea di lì a poco ha medicato la ferita e mi ha mandato di sotto a prendere un bicchiere di vino per me mentre stavo lasciando la stanza mi ha seguito e mi ha bisbigliato mi raccomando non bisogna dire nulla di questo se il nostro giovane innamorato arrivasse in attiso come prima non fate parola con lui al tempo stesso lo spaventerebbe e lo ingelosirebbe anche non bisogna quando sono tornato mi ha guardato attentamente e ha detto non state molto peggio di prima andate nella stanza coricatevi sul divano e riposate per un po' poi fate una bella colazione e tornate da me qui ho seguito le sue istruzioni ben sapendo quanto fossero giuste e sagge avevo fatto la mia parte e adesso il mio dovere consisteva nel recuperare le forze mi sentivo molto debole e quella sensazione di debolezza aveva attutito lo stupore per quanto era accaduto tuttavia mi sono addormentato sul divano continuando a chiedermi come fosse possibile che Lucy avesse avuto un tale peggioramento e come avesse potuto perdere tanto sangue senza lasciare segno alcuno di amorragia devo aver continuato a pensarci nei sogni perché nel sonno e nella veglia i pensieri tornavano sempre alle piccole punture sulla gola della paziente e all'aspetto logoro e sfilacciato dei loro margini per quanto minuscole fossero Lucy ha dormito fino a tardi e quando si è svegliata stava abbastanza bene e in forze anche se non quanto il giorno precedente dopo averla visitata Van Helsing è andato a fare una passeggiata affidandola alle mie cure con l'ordine di non lasciarla sola neppure per un attimo ho sentito che nell'ingresso chiedeva indicazioni per raggiungere l'ufficio postale più vicino Lucy chiacchierava liberamente con me e non sembrava essersi resa conto dell'accaduto ho cercato di divertirla e di distrarla quando la madre è venuta a trovarla non ha dato segno di accorgersi di alcun cambiamento ma mi ha detto grata vi dobbiamo tanto dottor Seward per tutto quello che avete fatto ma dovete cercare di non esagerare con il lavoro siete pallido pure voi avete bisogno di una moglie che si prenda cura di voi ecco cosa ci vuole mentre parlava Lucy è arrossita ma solo per un momento le povere vene esangui non potevano sopportare a lungo un tale afflusso la testa per reazione è impallidita mentre rivolgeva uno sguardo implorante ho sorriso e fatto cenno di sì e ho portato le dita alle labbra con un sospiro è ricaduta sui cuscini Van Helsing è tornato dopo un paio d'ore e mi ha subito detto ora andate a casa e mangiate molto e bevete abbastanza rinforzatevi starò qui io stanotte e feglierò io la piccola signorina dobbiamo tenere d'occhio il caso voi e io e non fare sapere niente a nessun altro ho ragioni serie no non chiedetele pensate quello che volete non abbiate paura di pensare anche al più improbabile buonanotte nell'ingresso mi si sono avvicinate due domestiche e mi hanno chiesto se entrambe o anche una sola di loro potevano restare a vegliare Miss Lucy mi hanno implorato di lasciarle fare e quando ho detto loro che era desiderio del dottor Van Helsing che solo lui o io vegliassimo mi hanno pregato di intercedere presso il gentiluomo straniero sono stato molto commosso dalla loro gentilezza forse è perché al momento sono debole e forse è perché si tratta del bene di Lucy che la loro devozione era così manifesta ma più volte ho avuto prova di questa dedizione femminile sono tornato a casa in tempo per la cena ho fatto i miei giri tutto bene e mi sono messo a scrivere in attesa del sonno eccolo che arriva 11 settembre questo pomeriggio sono andato a Hillingham ho trovato Van Helsing di ottimo umore e Lucy più in salute poco dopo il mio arrivo è giunto un grande pacco dall'estero indirizzato al professore l'ha aperto con aria di meraviglia simulata ovviamente e ha mostrato un fiasco di fiori bianchi sono per voi Miss Lucy ha detto per me? oh dottor Van Helsing sì mia cara ma non per farvi piacere sono medicine qui Lucy ha fatto una smorfia no non dovete prenderli in decotto o in forma nauseabonda qui non avete bisogno di arricciare quel bel nasetto altrimenti indicherò al mio amico Arthur che pena dovrà sopportare nel vedere la bellezza che così tanto ama così tanto distorta ah mia bella signorina questo sì che raddrizza il naso così carino questo è un medicinale ma voi non sapete come lo metto alla finestra e faccio una bella ghirlanda che porterete al collo così dormirete bene oh sì come il fiore di loto vi farà dimenticare i cuai profuma come le acque del fiume Lete e della fontana della ciovinezza che i conquistadores l'hanno cercato nella Florida ma l'hanno trovata troppo tardi mentre Van Helsing parlava Lucy esaminava i fiori e li annusava poi li ha lasciati cadere con un'espressione tra il divertito e il disgustato oh professore ho l'impressione che mi stiate prendendo in giro questi fiori sono aglio comune con mia sorpresa Van Helsing si è alzato e ha detto in tutta la sua serietà con la mascella d'acciaio ferma e le sopracciglia grottate con me non ci si burla io non scherzo mai c'è uno scopo determinato in tutto quello che faccio e vi consiglio di non contraddirmi state attenta per il bene degli altri se non per il vostro poi vedendo che la povera Lucy si era comprensibilmente spaventata ha continuato in tono più gentile oh mia piccola signorina mia cara non abbiate paura di me lo faccio solo per il vostro pene ma c'è molta virtù per voi in quei fiori così comuni vedete li sistemo io stesso nella vostra stanza la faccio io stesso la ghirlanda da portare ma non dovete dirlo ad altri che poi fanno troppe domande così indiscrete dobbiamo obbedire e il silenzio è parte dell'obbedienza e l'obbedienza è portarvi forte e sana nelle braccia amorevoli che vi aspettano adesso sedete ancora un po' venite con me amico e mi aiuterete a decorare la camera con il mio aglio che viene da Harlem dove il mio amico Vanderpool cresce le piante tutto l'anno nelle serre ho dovuto telegrafare ieri o non sarebbero arrivati siamo andati nella stanza portando i fiori con noi le azioni del professore sono indubbiamente strane e non si trovano in nessuna farmacopea di cui io abbia mai avuto notizia prima di tutto ha chiuso le finestre e le ha sbarrate con cura poi prendendo una manciata di fiori li ha strofinati su tutte le intelaiature per assicurarsi che ogni spiffero d'aria che poteva entrare fosse carico dell'odore dell'aglio poi con un piccolo fascio di fiori ha sfregato gli stipiti dell'uscio sopra sotto e tutti i lati e anche intorno al caminetto mi pareva tutto grottesco e dopo un poco ho detto professore so che avete sempre una ragione per tutto quello che fate ma questa sicuramente mi lascia perplesso è un bene che non ci sia nessuno scettico qui altrimenti direbbe che state facendo un incantesimo per tenere lontano qualche spirito maligno forse è quello che faccio ha risposto tranquillo mentre cominciava a intrecciare la ghirlanda che Lucy doveva portare intorno al collo quindi abbiamo atteso che Lucy facesse la toletta per la notte e quando si è messa a letto Van Helsing le ha sistemato al collo la ghirlanda le ultime parole che le ha detto sono state state attenta a non toglierla e anche se la stanza sa di chiuso non aprite la finestra o la porta questa notte prometto ha detto Lucy e mille volte grazie a tutti e due per la vostra gentilezza nei miei confronti oh che cosa ho fatto per meritarmi la benedizione di simili amici quando abbiamo lasciato la casa con il calesse che mi attendeva Van Helsing ha detto questa notte posso dormire in pace e di dormire ho bisogno due notti di viaggio molte letture nel giorno di mezzo e molta ansia nel giorno che segue e tutta la notte a vegliare senza poter chiudere occhio finite da me domani mattina presto e verremo a vedere la nostra bella signorina molto più forte per l'incantissimo che ho fatto sembrava così fiducioso che ricordando la mia sicurezza di due notti prima e il tragico risultato ho provato sgomento e un vago terrore deve essere stato per debolezza che ho esitato a dirlo all'amico e perciò l'ho provato ancora più forte come le lacrime trattenute capitolo 11 dal diario di Lucy West Terra 12 settembre come sono tutti buoni con me adoro quel caro dottor Van Helsing mi chiedo come mai ci tenesse tanto a questi fiori mi ha proprio spaventata era così irruente eppure doveva aver ragione perché sento già il loro conforto non so perché ma non ho paura di restare sola questa notte e potrò addormentarmi senza paura non mi preoccuperò dei battiti dalle alla finestra o che lotta orribile ho ingaggiato ultimamente con il sonno la sofferenza dell'insonnia o la sofferenza della paura del sonno con quegli orrori sconosciuti che mi porta benedette quelle persone che vivono senza paure senza terrori quelle per cui il sonno è la benedizione che giunge ogni notte e porta soltanto bei sogni bene eccomi qui stanotte a sperare che il sonno arrivi distesa come ofelia nel dramma con vergini corone e donzelleschi fiori non mi è mai piaciuto l'aglio ma stanotte è delizioso c'è pace nel suo profumo sento che il sonno sta già arrivando buonanotte a tutti dal diario del dottor Seward 13 settembre sono andato al Berkeley e ho trovato Van Helsing come al solito puntuale la carrozza ordinata dall'albergo ci aspettava il professore ha preso la borsa che ora porta sempre con sé vediamo di riferire tutti i fatti con precisione Van Helsing e io siamo arrivati a Hillingham alle 8 era una mattina piacevolissima il sole splendente e quell'aria frizzante del primo autunno facevano pensare che la natura stesse completando l'opera annuale le foglie stavano prendendo bellissimi colori d'ogni sorta ma non avevano ancora cominciato a cadere dagli alberi all'ingresso abbiamo incontrato Mrs. Westerra che usciva dal salotto si alza sempre presto ci ha salutato calorosamente e ha detto sarete lieti di sapere che Lucy sta meglio la mia cara bimba dorme ancora ho guardato un attimo nella stanza ma non sono entrata per paura di disturbarla il professore ha sorriso e sembrava giubilante strofinandosi le mani ha detto ah mi pareva di aver diagnosticato correttamente il caso la mia cura sta funzionando al che Mrs. Westerra ha risposto non spetta a voi tutto il merito dottore lo stato di Lucy questa mattina è in parte merito mio come sarebbe signora ha chiesto il professore insomma ero così in ansia per la cara bimba che sono andata in camera sua dormiva profondamente così profondamente che neanche il mio arrivo l'ha svegliata ma nella stanza c'era un odore di chiuso c'erano dappertutto quei fiori dall'odore terribile fortissimo ne aveva addirittura una ghirlanda intorno al collo ho avuto paura che quell'odore pesante sarebbe stato troppo per la cara bimba in quello stato di debolezza così li ho portati tutti via e ho aperto un po' la finestra per far entrare l'aria fresca sono certa che la troverete benissimo così è passata nel suo salottino dove di solito fa colazione la mattina presto mentre parlava osservavo il viso del professore e l'ho visto farsi grigio cenare era riuscito a trattenersi in presenza della povera signora perché sapeva che in stato si trovava e che colpo terribile sarebbe stato per lei le aveva addirittura sorriso mentre le teneva aperto l'uscio della sua stanza ma appena mrs. Westerra è scomparsa mi ha trascinato con uno strattone nella sala da pranzo e ha chiuso la porta poi per la prima volta nella mia vita ho visto Van Helsing avere un cedimento ha levato le mani oltre la testa in una sorta di disperazione muta e poi le ha battute insieme in un gesto di impotenza infine si è seduto e coprendosi il volto con le mani ha cominciato a singhiozzare erano singhiozzi forti secchi che parevano provenire dal suo cuore straziato quindi ha di nuovo alzato le braccia come se volesse far ricorso a tutto l'universo Dio 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 ha detto che cosa abbiamo fatto cosa ha fatto questa povera creatura che tanto siamo afflitti c'è ancora un fato in mezzo a noi giunto dal mondo pagano di un tempo che devono accadere queste cose e in questo modo questa povera madre del tutto ignara e pensando al meglio fa una cosa che perderà l'anima e il corpo della figlia e non dobbiamo dirglielo non dobbiamo neppure metterla in guardia o morirà e allora moriranno entrambe oh come siamo afflitti tutti i poteri del demonio sono contro di noi è balzato in piedi all'improvviso finite ha detto finite dobbiamo agire demoni o non demoni o anche tutti i demoni in una volta non ha importanza dobbiamo vedere e agire lotteremo ugualmente è andato a prendere la sua borsa alla porta d'ingresso e insieme siamo saliti nella stanza di Lucy ancora una volta ho aperto la tenda mentre Van Helsing si dirigeva verso il letto questa volta non si è sorpreso vedendo il povero volto pallido di quello stesso pallore cereo sul viso del professore c'era un'espressione di profonda tristezza e di infinita pietà come mi aspettavo ha mormorato inspirando con quel suo tipico sibilo tanto espressivo senza una parola ha chiuso a chiave l'uscio e poi ha cominciato a preparare sul tavolino gli strumenti per una nuova trasfusione di sangue da tempo ne avevo riconosciuto la necessità e ho iniziato a togliermi la giacca ma mi ha bloccato con un gesto della mano no ha detto oggi dovrete operare voi io darò il sangue voi siete già intebolito e parlando si è tolto la giacca e ha rotolato la manica della camicia di nuovo l'operazione di nuovo il narcotico di nuovo il ritorno del colorito sulle guance cinere e il respiro regolare di un sonno benefico questa volta io sono stato a controllare mentre Van Helsing si riprendeva e riposava di lì a poco ho colto l'occasione per dire a Mrs. Westerra che non doveva togliere nulla dalla stanza di Lucy senza consultarlo che quei fiori avevano una funzione terapeutica e che il respirarne l'odore era parte della cura poi si è preso in carico il caso personalmente dicendo che avrebbe passato la notte lui e anche quella seguente e che mi avrebbe mandato a chiamare quando era il caso che venissi un'ora dopo Lucy si è svegliato dal sonno fresca e allegra e non sembrava che la terribile prova ne avesse peggiorato molto le condizioni che cosa significava tutto ciò sto cominciando a chiedermi se l'abitudine di vivere con i pazzi non stia iniziando a nuocere al mio cervello dal diario di Lucy West Terra 17 settembre quattro giorni e quattro notti di pace sto tornando così forte che quasi non mi riconosco è come se avesse attraversato un lungo incubo e mi fossi appena svegliata davanti a un bel sole e all'aria fresca del mattino che mi circonda ho un vago ricordo di momenti lunghi e angosciati di attesa e di paura un'oscurità in cui non c'era neppure il dolore della speranza a rendere più acuto il tormento presente e poi lunghi momenti di oblio e il ritorno alla vita come il tuffatore che emerge da quella pressione schiacciante da quando il dottor Van Helsing è rimasto con me i brutti sogni sembrano svaniti i rumori che mi facevano impazzire dal terrore battito d'ali contro la finestra voci lontane che parevano così vicine a me i suoni aspri che venivano da non so dove e che mi ordinavano di fare non so cosa tutto è cessato ora mi corico senza temere il sonno non cerco neppure di restare sveglia l'aglio comincia a piacermi e ogni giorno ne arriva una scatola da Harlem per me oggi il dottor Van Helsing si assenta perché deve andare ad Amsterdam per un giorno ma non ho bisogno di qualcuno che vegli su di me mi sento abbastanza bene da restare sola sia ringraziato Dio per la mamma e il caro Arthur e tutti i nostri amici che sono stati così gentili non mi renderò neanche conto del cambiamento perché la notte scorsa il dottor Van Helsing ha dormito nella sua poltrona per la più parte del tempo due volte svegliandomi l'ho trovato addormentato ma non avevo paura di addormentarmi anche se i rami o i pipistrelli o chissà cos'altro battevano contro i vetri quasi rabbiosamente da The Palmol Gazette 18 settembre il lupo fuggito pericolosa avventura del nostro corrispondente intervista con il guardiano del giardino zoologico dopo molte richieste e quasi altrettanti rifiuti usando continuamente le parole Palmol Gazette come una sorta di formula magica sono riuscito a rintracciare il guardiano della sezione del giardino zoologico in cui si trova la gabbia dei lupi Thomas Builder vive in una delle casette nel recinto dietro la gabbia degli elefanti e stava sedendosi a tavola per la cena quando l'ho scovato Thomas e la moglie sono persone ospitali anziani senza figli e se l'assaggio della loro ospitalità che ho avuto costituisce la norma la loro vita deve essere piuttosto confortevole il guardiano non ha voluto parlare di affari secondo la sua definizione finché la cena non è terminata ed eravamo tutti sazi allora quando il tavolo è stato sparecchiato si è acceso la pipa e ha detto e ora signore potete chiedermi quello che volete scuserete se non ho voluto toccare argomenti professionali prima del pasto do sempre cena ai lupi agli sciacalli alle iene che sono sotto la nostra giurisdizione prima di farci delle domande come sarebbe a dire farci delle domande gli ho chiesto sperando di stimolare la sua loquacità un modo è darci una botta in testa con un palo un altro è grattarci gli orecchi soprattutto quando personaggi che pagano vogliono fare bella figura con le ragazze non è che mi dispiace il primo darci una botta prima di buttarci la cena ma prima di azzeccarci gli orecchi aspetto che abbiano bevuto il caffè e lo sherry per così dire ma datemi ascolto ha aggiunto filosoficamente siamo stati fatti della stessa pasta noi e quelle bestie lì per esempio voi arrivate qui a farmi domande sui miei affari e vi garantisco che se non era per quella mezza corona accidenti a lei potevano andare al diavolo prima che vi rispondevo nemmeno quando mi avete chiesto sarcastico se preferivo che chiedevate il permesso al sovrintendente di farmi le domande senza offesa non vi ho detto di andare all'inferno proprio così e quando avete detto che mi facevate rapporto perché usavo parole oscene era come darmi una botta in testa ma quella mezza corona ha sistemato tutto non mi mettevo certo a litigare e mi sono messo a ululare come i lupi e i leoni e le tigri ma grazie a dio adesso che la vecchia qui mi ha rimpinzato con la sua torta e mi ha risciacquato con quella sua vecchia teiera accidenti a lei e mi sono acceso la pipa adesso mi potete anche grattare gli orecchi se ci avete voglia e non mi metto a ringhiare avanti sputate le domande so dove volete arrivare a quel lupo che è scappato esatto vorrei sentire la vostra opinione ditemi solo come è successo e quando mi avrete raccontato i fatti vi chiederò di dire qual è la causa secondo voi e come pensate che andrà a finire va bene capo ecco tutta la storia c'era quel lupo che noi chiamavamo bersiker era uno dei tre grigi che Jarmark aveva fatto portare dalla Norvegia li avevamo comprati da lui quattro anni fa era un lupo gentile e beneducato che non ci ha mai dato dei fastidi mi ha stupito che di tutti gli animali che abbiamo proprio lui se ne è voluto uscire ma tanto non ti puoi fidare dei lupi come delle donne non dateci retta quello lì si è intromessa la moglie con una risata allegra è da così tanto tempo che sta con gli animali che c'è da ringraziare il cielo che non è diventato un vecchio lupo pure lui ma non fa male a nessuno comunque signore erano passate due ore da quando ci avevo dato da mangiare ieri che ho sentito che c'era qualcosa che non andava stavo preparandoci una cuccia nella gabbia delle scimmie a un cucciolo di puma che è malato quando sento che abbagliano e ululano e allora esco subito c'era bersiker che ci dava come un matto contro le sbarre come che voleva uscire non c'era tanta gente intorno a quel giorno e lì vicino c'era solo un uomo un tipo alto e magro con un naso a uncino e la barba punta con un po' di fili bianchi in mezzo aveva degli occhi duri e freddi rossi e non mi è piaciuto da subito perché sembrava che era lui che li irritava e con i guanti di capretto bianco mi indica gli animali e dice guardiano questi lupi sembrano agitati per qualcosa magari siete voi che li agitate ci dico perché non mi piace le arie che si dà non si è arrabbiato come speravo ma ha fatto un sorriso insolente con una bocca piena di denti bianchi e aguzzi oh no non credo di piacergli dice oh sì che ci piacete lo imito io ci piace sempre avere uno o due ossi per pulirsi i denti dopo cena e voi di ossa ce ne avete un sacco beh sembrava strano ma quando gli animali ci hanno visto parlare si sono acquattati e quando sono andato da Bersiger si è lasciato grattare gli orecchi come sempre allora il tipo si è avvicinato e accidenti a lui se non ha infilato la mano dentro e ci ha carezzato gli orecchi al lupo attento ci ho detto Bersiger è veloce non importa fa sono abituato ai lupi siete anche voi del mestiere ci chiedo e mi tolgo il cappello perché un uomo che commercia in lupi è un buon amico dei guardiani no fa lui non esattamente del mestiere ma ne ho addomesticati tanti e quindi si toglie il cappello educato come un lord e se ne va il vecchio Bersiger ha continuato a guardarlo finché non è scomparso e poi si è messo giù in un angolo e non è venuto fuori per tutta la sera beh ieri notte appena è spuntata la luna tutti i lupi qui si sono messi a ululare non c'era niente da ululare non c'era nessuno vicino a parte qualcuno che stava chiamando un cane da qualche parte dietro nei giardini di Park Road una o due volte sono uscito a vedere se andava tutto bene e andava tutto bene e poi hanno smesso di ululare poco prima di mezzanotte sono uscito a fare un giro prima di andare a dormire e accidenti a me quando arrivo davanti alla gabbia del vecchio Bersiger vedo le sbarre spezzate e contorte e la gabbia vuota e questo è tutto quello che so nessun altro ha visto qualcosa uno dei giardinieri tornava a casa più o meno a quell'ora da una riunione di amici quando ha visto un cagnone grigio spuntare fuori dalla siepe del giardino almeno così dice ma non è che ci credi tanto perché a sua moglie non ha detto niente tornato a casa ed è solo dopo che si è saputo della fuga del lupo e che siamo stati su tutta la notte a cercare Bersiger che si è ricordato di aver visto quella cosa secondo me quella riunione ci ha dato alla testa mister builder avete una vostra idea sulla fuga del lupo beh signore ha detto con una sorta di modestia che mi ha insospettito un'idea ce l'ho ma non so se vi soddisferà la mia teoria sicuro se un uomo come voi che conosce per esperienza gli animali non può azzardare una teoria convincente chi potrà farlo bene allora signore la mia teoria è questa secondo me il lupo è scappato semplicemente perché voleva andarsene dalla risata di cuore in cui sono scoppiati Thomas e la moglie ho capito che la battuta era già stata sfruttata e che tutta la spiegazione non era che un elaborato imbroglio non potendo competere con il nobile Thomas in fatto di spiritosaggini ma conoscendo una via più sicura per arrivare al suo cuore ho detto ora mister builder consideriamo consumata quella mezza sovrana c'è qui sua sorella che aspetta di essere ritirata quando mi avrete detto che cosa pensate che succederà giusto signore ha detto prontamente mi perdonerete se vi ho scherzato un po' ma la mia vecchia qui mi ha fatto l'occhiolino perché voleva che continuassi ma neanche per sogno ha detto l'anziana signora la mia opinione è questa che il lupo si sta nascondendo da qualche parte il giardiniere che non ricordava dice che galloppava verso nord più veloce di un cavallo ma io non ci credo perché vedete signore i lupi non galoppano come non galoppano i cani non sono fatti a quel modo i lupi vanno benissimo nei libri di fiabe e ci dico che quando sono in branco e cacciano qualcosa che ha più paura di loro allora sì che fanno un rumore del diavolo e le affanno anche a fette quella cosa ma che dio vi benedica nella vita vera il lupo è una creatura inferiore non è intelligente e neppure coraggiosa la metà di un buon cane e non ne vale un quarto a combattere questo qui non era abituato a lottare e neanche a procurarsi da mangiare ed è più facile che è nascosto da qualche parte nel parco pieno di brividi e se riesce a pensare si starà chiedendo dove si prende la colazione o magari è finito dentro una cantina col carbone accidenti se qualche cuoca non ci prende un colpo quando vede quegli occhi verdi accesi che la guardano dal buio se non ci danno da mangiare se lo andrà a cercare e magari finirà da un macellaio e se non ci finisce se qualche baglia se ne va a spasso con un soldato lasciando il neonato in carrozzina beh non mi sorprenderei se al censimento risultasse un bambino in meno ecco tutto stavo porgendogli la mezza corona quando qualcosa è venuto a sbattere contro la finestra e la faccia di mister builder si è allungata il doppio dalla sorpresa che dio mi benedica ha detto se quello non è il vecchio bersiker che se ne torna a casa da solo è andato ad aprire l'uscio azione quanto mai fuori luogo mi è parso ho sempre pensato che un animale selvatico stia molto meglio quando è separato da noi da un ostacolo di notevole consistenza l'esperienza personale ha rafforzato quest'idea invece di diminuirla dopo tutto però non c'è niente come l'abitudine perché per builder e per la moglie il lupo non è più pericoloso di quanto lo sia per me un cane quella bestia era pacifica e beneducata come il padre di tutti i lupi delle favole il vecchio amico di cappuccetto rosso quando cercava mascherato di conquistarsi la sua fiducia la scena conteneva un'indescrivibile mescolanza di commedia e di pathos il lupo cattivo che per mezza giornata ha paralizzato Londra facendo tremare tutti i bambini della città era tornato da penitente e veniva ricevuto e coccolato come una sorta di figliol prodigo in veste volpine il vecchio builder il vecchio builder l'ha esaminato con tenera sollecitudine e terminato di controllare lo stato del penitente ha detto ecco lo sapevo che il poveretto sarebbe finito in qualche guaio non l'avevo detto io ho la testa tutta tagliata e piena di schegge di vetro deve essere salito su un muro accidenti a lui o su qualcosa è una vergogna che si permetta alla gente di mettere i cocci di vetro sui muri ecco come va a finire poi andiamo su Bersiker ha preso il lupo e l'ha chiuso in una gabbia con un pezzo di carne che senz'altro in quantità si poteva paragonare al livello grasso della parabola ed è andato a fare il suo rapporto anche io me sono andato a fare il mio rapporto l'unica notizia in esclusiva fornita oggi a proposito della strana fuga dallo zoo dal diario del dottor Seward 17 settembre dopo cena ero occupato nello studio a sistemare i miei libri che per via di un altro lavoro urgente e delle molte visite a Lucy erano rimasti assai inarretrato d'un tratto l'uscio si è spallancato e si è precipitato dentro il mio paziente con la faccia distorta dalla passione sono rimasto impietrito poiché è cosa praticamente sconosciuta che un paziente vada di sua spontanea volontà nello studio del direttore senza un attimo di pausa mi si è avventato contro aveva in mano un coltello da tavola e rendendomi conto della sua pericolosità ho cercato di tenere la scrivania tra noi due tuttavia era troppo veloce e troppo forte per me perché prima che riacquistassi l'equilibrio mi ha colpito facendomi un taglio di una certa gravità al polso prima che colpisse ancora gli ho sferrato un destro mandandolo pancia all'aria sul pavimento il polso sanguinava profusamente e sul tappeto si era formata una piccola pozza di sangue vedendo che il mio amico non aveva intenzione di muoversi mi sono fasciato senza mai perdere di vista la figura prostrata quando sono arrivati di corsa gli inservienti e ci siamo occupati di lui l'attività in cui era impegnato mi ha assolutamente nauseato era prono che leccava come un cane dal pavimento il sangue caduto dal mio polso ferito è stato facile bloccarlo e con mia sorpresa ha seguito di buon grado gli inservienti limitandosi a ripetere il sangue è la vita il sangue è la vita non mi posso permettere al momento di perdere altro sangue ne ho già perso troppo ultimamente per il mio benessere e la tensione prolungata per le orribili fasi della malattia di Lucy comincia a pesarmi sono sovraeccitato e stanco e ho bisogno di riposare 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 per fortuna Van Helsing non mi ha convocato così non ho bisogno di rinunciare al sonno questa notte non riuscirei a farne senza telegramma di Van Helsing Anversa per Seward Carfax inviato a Carfax Sussex senza indicazione della contea e perciò consegnato con 22 ore di ritardo 17 settembre non mancate di andare a Ellingham stanotte se non starete in guardia tutto il tempo fate almeno visite frequenti alla stanza e controllate che siano sistemati i fiori è molto importante sarò da voi appena possibile dopo il mio arrivo dal diario del dottor Seward 18 settembre sto per andare a prendere il treno per Londra il telegramma di Van Helsing mi ha riempito di sgomento un'intera notte perduta e so per esperienza purtroppo che cosa può accadere in una notte naturalmente è possibile che vada tutto bene ma che cosa può essere successo di sicuro ci minaccia una sorte di orribile maledizione che con ogni possibile imprevisto interferisce in tutto quello che cerchiamo di fare porterò questo cilindro da Lucy e completerò la registrazione sul suo fonografo memorandum di Lucy Westenra 17 settembre notte scrivo questo e lo lascio in un luogo visibile affinché nessuno debba per caso finire nei guai per colpa mia questo è il racconto dettagliato di ciò che è accaduto stanotte sento che sto morendo di debolezza e a malapena ho la forza di scrivere ma devo farlo anche a costo di morirne mi sono coricata come al solito facendo attenzione che i fiori fossero sistemati come ha ordinato il dottor Van Helsing e mi sono presto addormentata mi ha svegliato un battito d'ale alla finestra cominciato dopo quell'episodio di sonnambulismo sulla scogliera di Whitby dove Mina mi ha salvato e che ora conosco così bene non avevo paura ma avrei voluto che ci fosse il dottor Seward nella stanza accanto perché Van Helsing mi aveva detto che ci sarebbe stato almeno avrei potuto chiamarlo ho cercato di riaddormentarmi ma non ci sono riuscita allora mi ha salito di nuovo la vecchia paura del sonno e ho deciso di restare sveglia perversamente il sonno cercava di prendermi proprio quando non lo volevo così temendo di stare da sola ho aperto la porta e gridato c'è nessuno non c'è stata risposta avevo paura di svegliare la mamma e così ho richiuso la porta poi fuori tra i cespugli ho sentito ringhiare come il ringhio di un cane ma più feroce e profondo sono andato alla finestra a guardare ma non ho visto nulla a parte un grosso pipistrello evidentemente quello che sbatteva le ali contro il vetro allora sono tornata a letto ma decisa a non dormire di lì a poco si è aperta la porta e la mamma ha dato un'occhiata capendo dal movimento che non dormivo è entrata e si è seduta accanto a me con una dolcezza e una tenerezza perfino maggiori del solito mi ha detto ero preoccupata per te tesoro e così sono venuta a vedere se andava tutto bene ho avuto paura che prendesse freddo seduta lì allora le ho detto di coricarsi a dormire con me così si è distesa accanto a me sotto le coperte ma non si è tolta la vestaglia perché ha detto che si sarebbe fermata solo un po' e poi sarebbe tornata nel suo letto mentre stavamo così abbracciate abbiamo sentito di nuovo quei colpi d'ala alla finestra la mamma ha avuto un sussulto e spaventata ha esclamato che cos'è? ho cercato di tranquillizzarla e alla fine ci sono riuscita era immobile ma sentivo il suo povero cuore battere all'impazzata dopo poco c'è stato di nuovo quel ringhio fondo tra i cespugli e subito dopo uno schianto alla finestra e il pavimento si è riempito di schegge di vetro la tenda è stata risucchiata dal vento che è entrato con forza nella stanza e nello squarcio della finestra è apparsa la testa di un grosso e scarno lupo grigio la mamma ha lanciato un urlo di terrore e ha cercato a fatica di mettersi a sedere aggrappandosi a tutto quello che poteva aiutarla tra le altre cose si è aggrappata la ghirlanda di fiori che il dottor Van Helsing insiste che io porti al collo e l'ha strappata via per un secondo o due è rimasta seduta indicando il lupo e dalla sua gola proveniva uno strano e orribile gorgoglio poi è caduta in avanti come fulminata e ha sbattuto con la testa contro la mia stordendomi qualche momento sembrava che la stanza e tutto quello che conteneva mi girasse intorno ho tenuto lo sguardo fisso sulla finestra ma il lupo ha ritratto la testa e una miriade di puntini sono entrati dalla finestra aperta e volteggiavano girando come la colonna di sabbia descritta dai viaggiatori sorpresi dal simon nel deserto ho cercato di muovermi ma ero come vittima di un incantesimo e il povero corpo della mamma che già cominciava a raffreddarsi perché il suo cuore aveva cessato di battere mi pesava addosso e per un po' non mi ricordo di nulla quando ho ripreso i sensi non mi è parso che fosse passato molto tempo ma sono stati momenti atroci da qualche parte non molto distante si sentivano i rintocchi di una campana tutti i cani del vicinato abbaiavano e tra i nostri cespugli sembrava appena fuori cantava un usignolo ero sconvolta inebetita dal dolore dal terrore e dalla debolezza ma il canto dell'usignolo mi è parso la voce della mia mamma tornata a confortarmi il canto sembrava aver svegliato anche le domestiche perché ho sentito i loro piedi scalzi scalpicciare fuori dalla mia porta le ho chiamate e quando entrando hanno visto cosa era successo e che cosa giaceva sopra di me sul letto hanno lanciato un grido una folata di vento è entrata dalla finestra aperta e ha chiuso sbattendo l'uscio le camariere hanno sollevato il corpo della mia povera mamma morta e quando mi sono alzata l'anno deposta coperta da un lenzuolo sul letto erano così spaventate e nervose che ho detto loro di scendere in sala da pranzo a bere ognuna un bicchiere di vino la porta si è spalancata per un istante e si è richiusa le domestiche hanno gridato e poi sono scese tutti insieme in sala da pranzo e io ho deposto i fiori che avevo sul petto della mia cara mamma quando li ho visti lì ho ricordato quello che mi aveva detto il dottor Van Helsing ma non volevo toglierli e inoltre adesso avrei chiesto a qualcuno della servitù di fermarsi a vegliare con me sorpresa che le cameriere non tornassero le ho chiamate ma non ricevendo risposta sono scesa in sala da pranzo a cercarle ho provato un tuffo al cuore quando ho visto cos'era successo erano tutte e quattro distese a terra e respiravano pesantemente la caraffa dello sherry era sul tavolo mezza piena ma c'era nell'aria uno strano odore acre mi sono insospettita e ho esaminato la caraffa sapeva di Laudano e guardando sulla credenza ho visto che la boccetta che il dottore della mamma usa per la sua usava oh era vuota che cosa devo fare che cosa posso fare sono tornata nella stanza con la mamma non posso lasciarla e sono sola a parte le domestiche addormentate che qualcuno ha drogato sola con la morta non oso uscire perché sento il ringhio fondo del lupo dalla finestra aperta l'aria sembra piena di pulviscolo che aleggia e turbina nella corrente che arriva dalla finestra e ci sono delle luci azzurrine e fioche che cosa devo fare Dio mi protegga dal male questa notte mi nasconderò questo foglio in seno dove lo troverà chi verrà ricompormi la mia cara mamma se n'è andata è tempo che me ne vada anch'io addio caro Arthur se non dovessi sopravvivere a questa notte Dio ti protegga caro e mi aiuti capitolo 12 dal diario del dottor Seward 18 settembre sono andato immediatamente a Ellingham dove sono arrivato presto lasciata la carrozza al cancello ho imboccato da solo il viale ho bussato piano e suonato il campanello più discretamente possibile per paura di disturbare Lucy o la madre sperando di essere sentito solo da una cameriera dopo un po' non avendo risposta ho di nuovo bussato e suonato il campanello ancora nessuna risposta ho imprecato contro la pigrizia delle domestiche che stanno ancora letto a quest'ora ormai erano le 10 e così ho suonato e bussato di nuovo con maggiore impazienza ma anche questa volta senza risposte avevo dato la colpa alla servitù ma ora mi assaliva una terribile paura questa desolazione era forse un altro anello della catena di disgrazie che sembrava stringersi intorno a noi era davvero una casa di morte alla quale ero giunto troppo tardi sapevo che minuti o addirittura secondi di ritardo avrebbero potuto significare ore di pericolo per Lucy se aveva di nuovo avuto una delle sue tremende ricadute ho girato allora intorno alla casa alla ricerca di un altro ingresso non sono riuscito a trovare altro modo di entrarvi ogni porta e ogni finestra era chiusa e sbarrata e sono tornato deluso al portico in quel momento ho udito il rumore degli zoccoli veloci di un cavallo si sono fermati davanti al cancello e alcuni secondi più tardi ho incontrato Van Helsing che correva su per il viale quando mi ha visto mi ha domandato ansimando eravate eravate voi allora e appena arrivato come sta lei siamo arrivati troppo tardi non avete ricevuto il mio telegramma gli ho risposto con la maggiore rapidità e coerenza di cui ero capace che avevo ricevuto il telegramma soltanto questa mattina e che non riuscivo a farmi sentire da nessuno in casa Van Helsing si è fermato levandosi il cappello mentre solennemente diceva allora temo che siamo arrivati troppo tardi sia fatta la volontà di Dio poi con la sua solita capacità di ripresa ha proseguito finite se non ci sono fie aperte per entrare dobbiamo aprircene una il tempo è tutto per noi ora siamo andati sul retro della casa dove c'era la finestra della cucina il professore ha preso un seghetto chirurgico dalla borsa e porgendomelo mi ha indicato le sbarre di ferro che proteggevano la finestra le ho immediatamente aggredite e presto sono riuscito a tagliarne tre poi con un lungo bisturi abbiamo sollevato il chiavistello e aperto la finestra ho aiutato il professore a entrare e l'ho seguito dentro non c'era nessuno in cucina né nelle stanze della servitù che erano lì di fianco abbiamo cercato in ogni stanza e nella sala da pranzo appena illuminata dai raggi che filtravano attraverso gli scuri abbiamo trovato quattro cameriere distese a terra non c'era da temere che fossero morte perché il respiro stertoroso e l'acre odore di laudano nella stanza non lasciava dubbi circa le loro condizioni Van Helsing e io ci siamo scambiati uno sguardo e mentre ci allontanavamo il professore ha detto di loro ci occuperemo dopo poi siamo saliti in camera di Lucy per un secondo o due siamo rimasti fuori ad ascoltare ma non si udiva il minimo suono con volto livido e mano tremante abbiamo aperto piano l'uscio e siamo entrati nella camera come posso descrivere ciò che si presentava alla nostra vista sul letto c'erano due donne Lucy e la madre la seconda era distesa sul lato più lontana coperta da un lenzuolo bianco l'orlo del quale era stato sollevato da una folata d'aria entrata dalla finestra infranta scoprendo il volto bianco teso con un'espressione di terrore impressa nei tratti accanto a lei giaceva Lucy il volto pallido ancora più teso la ghirlanda di fiori che portava il collo si trovava ora sul petto della madre e la gola della ragazza era nuda e mostrava le due piccole ferite già notate in precedenza ma parevano orribilmente bianche e slabbrate senza una parola il professore si è piegato sul letto con il capo che quasi toccava il petto di Lucy poi ha voltato la testa di scatto come chi ascolti e balzando in piedi ha esclamato non è troppo tardi presto presto portate il brandy mi sono precipitato di sotto e sono ritornato con il brandy avendo avuto cura di annusarlo e assaggiarlo per timore che anch'esso fosse drogato come la caraffa di sherry che ho trovato il respiro delle domestiche si era fatto più irrequieto e mi immaginavo che il narcotico stesse esaurendo il suo effetto non mi sono fermato ad assicurarmene ma sono corso da Van Helsing le ha strofinato il brandy come nella precedente occasione sulle labbre e sulle gengive e sui polsi e i palmi delle mani dicendomi posso fare questo che è tutto quello che si può fare adesso voi andate a svegliare quelle cameriere schiaffecciatele in volto con un asciugamano bagnato e fatelo con forza dite che accendano il fuoco e che preparino un bagno caldo questa povera creatura è quasi fretta come l'altra che avvicina avrà bisogno di essere riscaldata prima che possiamo fare qualcosa sono andato subito e non ho avuto quasi difficoltà a svegliare tre delle donne la quarta era appena una ragazzina e la droga aveva avuto su di lei un effetto più forte così l'ho messa sul divano e l'ho lasciata dormire le domestiche dapprima erano confuse poi è tornato loro il ricordo dei fatti accaduti e si sono messe a gridare e a piangere istericamente ma sono stato duro con loro e non le ho lasciate parlare ho detto loro che già era grave perdere una vita e che se avessero tardato avrebbero sacrificato quella di Lucy così singhiozzando e piangendo si sono date da fare e mezze svestite come erano hanno preparato il fuoco e l'acqua fortunatamente il fuoco della cucina e dello scaldabagno erano ancora accesi e l'acqua calda non mancava abbiamo preparato un bagno e abbiamo immerso Lucy vestita come era nella vasca mentre eravamo occupati a massaggiarle le membra qualcuno ha bussato la porta d'ingresso una delle cameriere è corsa a mettersi qualcosa addosso ed è andata ad aprire quando è tornata ci ha bisbigliato che c'era un signore con un messaggio da parte di Mr. Holmwood l'ho pregata di dirgli che doveva attendere perché in quel momento non potevo ricevere nessuno la cameriera ha riferito il messaggio e preso dal lavoro ho scordato del tutto il gentiluomo non avevo mai visto il professore lavorare con tanta gravità sapevo come lo sapeva lui che era una lotta contro la morte e in un attimo di pausa glielo ho detto mi ha dato una risposta che non ho capito ma con lo sguardo più severo che il suo volto potesse albergare se fosse solo quello mi fermirei qui dove ci troviamo ora e la lascerei dissolversi nella pace perché non vedo alcuna luce nella vita all'orizzonte ha proseguito la sua opera con vigore rinnovato e se possibile ancora più intenso di lì a poco ci siamo resi conto che il calore stava cominciando a fare effetto il cuore di Lucy batteva in modo vagamente più udibile allo stetoscopio e i polmoni avevano acquistato un movimento percettibile il viso di Van Helsing era quasi raggiante e quando l'abbiamo sollevata dalla vasca e avvolta in un telo caldo per asciugarla mi ha detto abbiamo vinto la prima partita scacco al re abbiamo portato Lucy in un'altra stanza che era stata intanto preparata l'abbiamo messa a letto costringendola a ingerire alcune gocce di brandy ho notato che Van Helsing le legava un morbido fazzoletto di seta intorno al collo era ancora priva di sensi e in uno stato peggiore di quanto fosse mai stata Van Helsing ha chiamato una delle donne e le ha detto di restare con Lucy e di non toglierle gli occhi di dosso fino al nostro ritorno quindi mi ha fatto segno di seguirlo fuori dalla stanza dobbiamo consultarci sul da farsi ha detto mentre scendevamo le scale nell'ingresso ha aperto l'uscio della sala da pranzo richiudendo solo poi alle spalle gli scuri erano stati aperti ma le tende erano ancora serrate in obbedienza all'etichetta del lutto che le donne inglesi delle classi inferiori rispettano sempre la stanza era dunque in penombra ma sufficientemente chiara per i nostri scopi la severità di Van Helsing aveva lasciato posto un'espressione perplessa si stava evidentemente torturando il cervello alla ricerca di una risposta quindi ho atteso un attimo e lui ha parlato che cosa dobbiamo fare adesso a chi ci possiamo rivolgere per aiuto dobbiamo fare un'altra trasfusione di sangue e presto se no la vita di quella povera ragazza non varrà più di un'ora voi siete già il sausto anch'io sono il sausto ho paura a fidarmi di queste donne anche se avessero il coraggio di sottoporsi all'operazione come possiamo trovare qualcuno disposto ad aprirsi le vene per lei perché io non vado bene la voce veniva dal divano dall'altro capo della sala e l'accento ha rinfrancato e rasserenato il mio cuore perché era quello di Quincy Morris Van Helsing ha avuto dapprima un sussulto irritato ma presto il suo viso si è disteso e negli occhi gli è apparsa una luce grata quando ho esclamato Quincy Morris e sono corso verso l'amico con le braccia aperte qual buon vento vi porta ho esclamato stringendogli la mano credo che la colpa sia di Hart mi apporto un telegramma sono tre giorni che non ho notizie da parte di Seward e sono terribilmente in ansia non posso andarmene papà è sempre nelle stesse condizioni fatemi sapere come sta Lucy non tardate Holmwood mi pare di essere arrivato proprio al momento giusto dovete dirmi soltanto che cosa posso fare Van Helsing gli si è avvicinato gli ha preso la mano e fissandolo negli occhi gli ha detto il sanque di un uomo coraccioso è la cosa migliore del mondo quando una donna è nei guai voi siete un uomo noi non c'è errore beh il demonio potrà giocare contro di noi per quel che vale ma Dio ci manda gli uomini quando ne abbiamo bisogno ancora una volta abbiamo eseguito l'atroce operazione non ho cuore di ripetere i dettagli Lucy aveva subito un trauma terribile che aveva inciso più dei precedenti su di lei perché per quanto sangue le venisse trasfuso nelle vene il corpo non ha risposto al trattamento come le altre volte la sua lotta per tornare alla vita era spaventosa da vedere e da sentire tuttavia l'azione del cuore e dei polmoni è migliorata e Van Helsing le ha fatto un'iniezione sottocutanea di morfina come l'altra volta che ha avuto buoni effetti il deliquio si è mutato in un sonno profondo il professore la teneva sotto osservazione mentre io sono sceso di sotto con Quincy Morris e ho mandato una cameriera a pagare uno dei vetturini in attesa ho lasciato Quincy disteso dopo aver bevuto un bicchiere di vino e ho detto alla cuoca di preparare una bella colazione poi mi ha colpito un pensiero e sono tornato nella stanza in cui si trovava ora Lucy entrando silenziosamente ho trovato Van Helsing con un paio di fogli in mano li aveva evidentemente letti e ora rifletteva con la fronte appoggiata alla mano c'era un'espressione di amara soddisfazione sul suo volto come di chi abbia visto risolversi un tupio mi ha porto il biglietto dicendo solo è caduto dal petto di Lucy quando l'abbiamo portata a fare il bagno dopo averlo letto sono rimasto a fissare il professore e dopo un attimo di esitazione gli ho chiesto il nome di Dio che cosa significa era pazza è pazza o quale sorta di orribile pericolo è mai questo ero così sconcertato che non sapevo che altro dire non preoccupatevi di questo adesso scordatelo per il presente saprete e capirete a tempo debito non sarà più tardi e ora cosa eravate venuto a dirmi sono venuto a parlare del certificato di morte se non agiamo convenientemente e saggiamente potrebbe esserci un'inchiesta e si dovrà consegnare quel biglietto io spero che non si renda necessaria l'inchiesta perché in caso contrario Lucy ne morrebbe se qualcos'altro non l'avrà uccisa prima io voi e l'altro dottore che l'aveva in cura sappiamo che Mrs. Westerna soffriva di cuore e possiamo certificare che è morta di quello compiliamo subito il certificato lo porterò io stesso all'anagrafe e poi andrò all'impresa di pompe funebri bene oh amico John davvero ben pensato davvero Miss Lucy se è sfortunata per i nemici che la tediano e almeno fortunata per gli amici che la amano uno due tre tutti si svenano per lei oltre a un vecchio ah sì lo so amico John non sono cieco vi voglio ancora più bene per quello andate adesso nell'ingresso ho incontrato Quincy Morris con un telegramma per Arthur in cui gli annunciava la morte di Mrs. Westerna diceva che Lucy era stata male ma che ora andava meglio e che Van Helsing e io eravamo con lei gli ho detto dove ero diretto e mi ha sollecitato di uscire subito dicendomi però quando torni indietro Jack possiamo parlare un attimo da soli ho fatto segno di sì e sono uscito all'anagrafe non ho avuto problemi e mi sono messo d'accordo con l'impresa locale perché venissero di sera a prendere le misure per la bara e gli accordi per il funerale al ritorno Quincy Morris mi stava aspettando gli ho detto che sarei stato tutto suo appena controllato come stava Lucy e sono salito di sopra dormiva ancora e il professore sembrava non esserci mosso dalla sedia al suo fianco si è portato un dito alle labbra per farmi capire che secondo lui non mancava molto al risveglio anche se non voleva anticipare la natura così sono sceso da Quincy e l'ho portato nella sala della colazione dove gli scuri non erano chiusi e quindi aveva un aspetto un po' più allegro o meglio meno malinconico delle altre stanze quando siamo stati soli mi ha detto Jack Seward non voglio impicciarmi di cose che non mi riguardano ma questo è un caso fuori dal comune sai che amavo quella ragazza e che volevo sposarla anche se quella ormai è una questione morte e sepolta non posso fare a meno di essere preoccupato per lei ma che cos'ha che non va l'olandese che è un tipo posto si capisce entrando nella stanza ha detto che bisognava fare un'altra trasfusione di sangue e che tu e lui eravate esausti allora so bene che voi medici parlate in camera caritatis e che un profano non deve sapere quello su cui stanno consultandosi in privato ma questa non è una cosa da tutti i giorni e qualsiasi cosa sia io ho fatto la mia parte non è vero è così ho detto e lui ha proseguito credo di capire che tu e Van Helsing avete già fatto quello che ho fatto io oggi non è vero è così e mi sa che anche Arthur ci si è messo vero quando l'ho visto quattro giorni fa a casa sua sembrava strano non avevo mai visto niente che si abbattesse tanto in fretta da quella volta che ero nella pampa e una cavalla cui ero tanto affezionato è stata fatta fuori nello spazio di una notte uno di quei grossi pipistrelli che chiamano vampiri l'aveva presa e vuoi per il sangue che le ha succhiato vuoi per la vena rimasta aperta non è rimasto dentro abbastanza da rimetterla in piedi e ho dovuto ficcare un proiettile distesa sull'erba Jack se me lo puoi dire senza tradire una confidenza Arthur è stato il primo vero mentre parlava il poveretto sembrava così angosciato era torturato dall'incertezza sulla donna che amava e l'ignoranza assoluta del terribile mistero che sembrava circondarla intensificava il suo dolore gli sanguinava il cuore e gli era necessaria tutta la sua verilità e ne aveva una grandose per non crollare ho esitato un attimo prima di rispondere perché mi pareva di non dover tradire nulla che il professore volesse tenere segreto ma sapeva già così tanto e così tanto aveva intuito che non c'era ragione per non rispondergli e così gli ho ripetuto la frase di prima è così e da quanto tempo va avanti? più o meno dieci giorni dieci giorni allora Jack Seward immagino che quella povera e bella creatura che tutti amiamo si sia vista mettere in corpo in questi giorni il sangue di quattro uomini santo cielo il suo corpo non può contenere tutto quel sangue poi facendosi vicino ha detto sottovoce ma febbrile e che cosa gliel'ha sottratto? ho scosso la testa è quello il problema Van Helsing è agitatissimo e io non so più dove sbattere la testa non riesco neanche a immaginare una risposta c'è stato una serie di piccole circostanze che hanno mandato all'aria tutti i nostri calcoli perché Lucy fosse sempre vigilata adeguatamente ma non succederà più ci fermeremo qui finché non starà bene o male Quincy ha teso la mano conta su di me tu e l'olandese mi direte che cosa debbo fare e io lo farò quando Lucy si è svegliata nel tardo pomeriggio il primo movimento è stato quello di frugarsi in seno e con mia sorpresa tirare fuori il biglietto che Van Helsing mi aveva fatto leggere l'attento professore l'aveva rimesso a posto per evitare che svegliandosi si allarmasse i suoi occhi si sono posati su Van Helsing e su di me e si sono rallegrati poi si è guardata intorno e vedendo dove si trovava era brividita ha lanciato un grido e si è coperta il volto pallido con le povere mani scarne abbiamo compreso entrambi cosa significava in quel momento si era resa totalmente conto che la madre era morta così abbiamo cercato di consolarla come potevamo indubbiamente la nostra solidarietà l'ha aiutata un poco ma era molto giù di corda e di spirito e priva di forze ha pianto silenziosamente a lungo le abbiamo detto che uno di noi o entrambi saremo rimasti accanto a lei tutto il tempo e questo è parso confortarla verso il crepuscolo si è assopita e qui è successa una cosa molto strana ancora addormentata ha preso il biglietto che aveva in seno e l'ha strappato in due Van Helsing le si è avvicinato e ha preso i due pezzi ma lei ha continuato nel gesto di strappare il biglietto come se la carta fosse ancora nelle sue mani infine ha alzato le mani e le ha aperte come per spargere tutti i pezzetti Van Helsing sembrava sorpreso e le sopracciglia erano corrucciate come se fosse immerso nei pensieri ma non ha detto nulla 19 settembre ha dormito agitata tutta la notte aveva sempre paura di addormentarsi e quando si svegliava a volte era più debole il professore e io l'abbiamo vegliata a turno e non l'abbiamo lasciata sola nemmeno per un attimo Quincy Morris non ha detto nulla delle sue intenzioni ma so che è stato di guardia intorno alla casa tutta la notte quando si è fatto giorno la luce ha mostrato le devastazioni operate sulla forza della povera Lucy riusciva a malapena a voltare la testa e quel poco nutrimento che ha potuto assumere non sembrava farle alcun bene ogni tanto si addormentava e Van Helsing e io abbiamo notato la differenza che c'era in lei fra il sonno e la veglia quando dormiva sembrava più forte anche se più emaciata e il respiro era più leggero la bocca aperta mostrava le gengive pallide che si erano ritirate sui denti i quali apparivano così più lunghi aguzzi del solito quando si svegliava la dolcezza dei suoi occhi le conferiva tutta un'altra espressione e sembrava tornata se stessa anche se morente il pomeriggio abbiamo mandato un telegramma ad Arthur pregandolo di venire Quinsey è andato ad attenderlo alla stazione quando è arrivato erano quasi le sei e il sole stava tramontando pieno e caldo e la luce rossa che entrava dalla finestra restava un po' di colore alle guance pallide quando l'ha vista Arthur è rimasto soffocato dall'emozione e nessuno di noi riusciva a parlare nelle ore che sono seguite i momenti di sonno o di stato comatoso che si confondeva con il sonno si sono intensificati e le pause dove era possibile conversare si sono fatte più brevi la presenza di Arthur tuttavia sembrava stimolare Lucy che si è ripresa un poco e gli parlava con più vivacità di quanto non avesse fatto da che eravamo arrivati anche lui cercava di farsi forza e parlava con tutta l'allegria possibile per aiutarla in tutti i modi ora è quasi luna e sta vegliando insieme a Van Helsing dovrò dare loro il cambio fra un quarto d'ora e sto dettando tutto questo al fonografo di Lucy loro riposeranno fino alle sei temo che domani le nostre veglie finiranno perché il trauma è stato troppo forte quella povera bimba non ce la farà riprendersi che Dio ci aiuti tutti quanti lettera di Mina Murray a Lucy esterna mai aperta dalla destinataria 17 settembre mia carissima Lucy sembra passato un secolo da quando ho avuto tue notizie o da che ti ho scritto per la verità mi perdonerai sono certa per tutte le manchevolezze quando avrai letto il bilancio delle mie tante notizie bene sono riuscito a riportare indietro mio marito quando siamo arrivati a Exeter c'era una carrozza da attenderci con dentro Mr. Hawkins benché soffrisse di un attacco di gotta ci ha portati a casa sua dove c'erano delle stanze per noi molto carine e confortevoli e abbiamo cenato insieme dopo cena Mr. Hawkins ha detto miei cari voglio brindare alla vostra salute e prosperità e possiate ricevere ogni benedizione vi conosco entrambi da quando eravate bambini e con orgoglio e affetto vi ho visti crescere ora voglio che voi veniate a vivere qui con me non ho figli non mi è rimasto più nessuno sono tutti scomparsi e nel mio testamento vi ho lasciato eredi di tutto mi sono messa a piangere Lucy cara mentre Jonathan e il vecchio signore si stringevano la mano è stata una serata molto molto felice e così eccomi qui sistemata in questa bellissima casa antica sia dalla camera da letto che dal mio salotto vedo i grandi elmi della cattedrale qui vicina con i grandi tronchi neri che si stagliano contro il giallo della pietra della cattedrale e sento le cornacchie gracchiare e chiacchierare e spettegolare tutto il giorno come fanno le cornacchie e gli umani non ho bisogno di dirti quanto io sia indaffarata sistemare le cose e occuparmi della conduzione della casa Jonathan e Mr. Hawkins sono presi tutto il giorno perché ora che Jonathan è socio Mr. Hawkins vuole che sappia tutto dei clienti come sta la tua cara mamma mi piacerebbe poter venire a fare una scappata in città per un giorno o due per vederti mia cara ma non oso ancora spostarmi con tutto quello che ho sulle spalle e Jonathan ha ancora bisogno di assistenza sta cominciando a rimettere un po' di carne sulle ossa ma è stato debilitato dalla lunga malattia ancora adesso a volte sobbalza improvvisamente nel sonno e si sveglia tutto tremante finché non riesco a tranquillizzarlo e a riportarlo alla sua solita calma tuttavia grazie a Dio queste occasioni si stanno facendo meno frequenti con il passare dei giorni e col tempo confido che cesseranno del tutto e ora che ti ho dato le mie notizie lascia che ti chieda delle tue quando ti sposerai e dove e chi ufficerà la cerimonia e che cosa indosserai e sarà un matrimonio pubblico privato Jonathan mi ha detto di mandarti i suoi ossequi ma non credo che questi siano abbastanza da parte di un socio dell'importante ditta Hawkins e Archer e così dato che tu mi sei affezionata e lui mi è affezionato e io ti sono affezionata in tutti i modi e i tempi del verbo essere affezionati ti mando semplicemente i suoi più affezionati saluti arrivederci mia carissima Lucy e tutte le mie benedizioni tua Mina Archer rapporto di Patrick Hennessy dottore in medicina membro del reale collegio dei chirurghi abilitato presso il Kings and Queen College of Physicians di Irlanda eccetera eccetera a John Seward dottore in medicina 20 settembre egregio signore come da voi richiesto allego alla presente il rapporto sulle condizioni di tutto ciò che avete lasciato sotto la mia responsabilità per quanto riguarda il panziente Renfield ci sono novità ha avuto un'altra crisi che avrebbe potuto concludersi tragicamente ma che come è fortunatamente accaduto non ha avuto gravi conseguenze questo pomeriggio un carro con due uomini si è fermato presso la casa vuota il cui terreno confina con la nostra proprietà casa che come ricorderete è stata due volte meta delle fughe del paziente gli uomini si sono fermati al nostro cancello per chiedere al portiere indicazioni sulla strada dato che erano forestieri io stavo fumando dopo cena e guardando fuori dalla finestra dello studio e ho visto uno di loro avvicinarsi al nostro edificio quando è passato sotto la finestra della stanza di Renfield il paziente ha cominciato a inveire e a dargli i peggiori appellativi che gli venivano in mente l'uomo che sembrava una persona per bene si è accontentato di dirgli di chiudere quella lurida boccaccia al che il nostro l'ha accusato di derubarlo e di volerlo uccidere dicendo che gliel'avrebbe impedito anche se avesse poi dovuto finire impiccato ho aperto la finestra e ho fatto segno all'uomo di non badargli così quello dopo aver guardato il posto e aver capito dove si trovava si è accontentato di dire che Dio vi benedica signore non faccio caso a quello che mi dicono in un manicomio che il diavolo se lo porti mi spiace per voi e per il vostro capo che dovete vivere con una bestia selvaggia come quella poi ha chiesto le indicazioni con sufficiente civiltà e gli ho detto dove si trovava il cancello della casa vuota e lui se n'è andato seguito da minacce maledizioni e insulti del nostro sono sceso a vedere se riuscivo a comprendere la causa di tanta collera poiché normalmente si comporta bene e non si era mai verificato nulla del genere tranne durante le sue crisi violente l'ho trovato con mia sorpresa molto compassato e anche di buon umore ho cercato di indurlo a parlare dell'incidente ma mi ha chiesto gentilmente che cosa intendessi dire portandomi a credere che non ricordasse nulla dell'accaduto mi dispiace di dover affermare invece che questo è stato un altro esempio della sua astuzia perché meno di mezz'ora dopo ho sentito di nuovo parlare di lui questa volta era scappato dalla finestra della stanza e correva giù per il viale ho gridato agli inservienti di seguirmi e gli sono corso dietro perché avevo paura che avesse cattive intenzioni la mia paura era giustificata ho visto lo stesso carro che era passato prima per la strada con sopra delle grandi casse gli uomini si stavano asciugando la fronte e avevano le facce paonazze come dopo un grande sforzo prima che riuscissi a fermare Renfield il paziente si è avventato su di loro e tirandone giù uno dal carro ha cominciato a sbattergli la testa contro il selciato se non l'avessi bloccato in quel momento credo che avrebbe ucciso l'uomo seduta stante l'altro è saltato giù dal carro e gli ha dato una botta in testa con l'impugnatura della pesante frusta è stato un colpo terribile ma Renfield non ci ha fatto caso anzi ha afferrato anche il carrettiere e lottava ora con tutti e tre strattonandoci di qua e di là come se fossimo stati dei gattini sapete che non peso poco e gli altri due erano tipi massicci da prima lottava in silenzio ma quando abbiamo cominciato a prendere il sopravvento su di lui e gli inservienti gli stavano infilando la camicia di forza ha cominciato a gridare glielo impedirò non riusciranno a derubarmi non mi uccideranno pezzo per pezzo io lotterò per il mio signore padrone e molte altre frasi incoerenti di questo tipo hanno faticato molto a riportarlo a casa e rinchiuderlo nella cella imbottita uno degli inservienti Hardy ha un dito rotto però glielo ho sistemato ed è a posto i due facchini inizialmente hanno fatto un gran baccano a proposito di azioni legali e ci hanno garantito ogni sorta di punizione prevista dalla legge le minacce tuttavia erano inframmezzate da una sorta di indiretta giustificazione per il fatto che uno dei due si era lasciato sopravvare da un povero pazzo hanno detto che se non fosse stato perché avevano speso tutte le energie a trasportare e mettere quelle casse pesanti sopra il carro l'avrebbero sistemato in 4 e 4 8 hanno anche addotto come scusa lo stato di disidratazione in cui li ha ridotti la natura polverosa del loro lavoro e la disdicevole lontananza del luogo della consegna da qualsiasi locale pubblico ho capito l'antifona e dopo un bel bicchiere di grog anzi più di uno e una sovrana a testa hanno scherzato sull'aggressione e hanno giurato che erano disposti ad affrontare in qualsiasi momento un pazzo peggiore del nostro per il piacere di incontrare un tipo maledettamente in gamba come il sottoscritto ho preso i loro nomi in caso di bisogno eccoli Jack Smollett domiciliato in Dudding's Ranch King George Road Great Walthord e Thomas Snelling Peter Parless Road Guide Court Bethnal Green sono entrambi alle dipendenze della ditta Harris & Sons traslochi e trasporti Orange Master's Yard Soho vi terrò il corrente di qualsiasi fatto interessante dovesse verificarsi e vi manderò un telegramma se ci fosse qualcosa di importante distinti saluti Patrick NSC Lettera di Mina Murray a Lucy Westerna mai aperta dalla destinataria 18 settembre Mia carissima Lucy un tristissimo colpo si è abbattuto su di noi Mr. Hawkins è morto improvvisamente qualcuno potrebbe pensare che per noi non sia così triste ma c'eravamo entrambi molto affezionati a lui e ci sembra di aver perduto un padre io non ho mai conosciuto i miei genitori e dunque la morte di questo caro vecchio per me è stato un duro colpo Jonathan è assai sconvolto non solo per il dolore che prova un profondo dolore per quell'uomo buono e caro che gli è stato vicino tutta la vita e che alla fine lo trattava come un figlio e gli ha lasciato un patrimonio che per delle persone in condizioni modeste come noi è una ricchezza al di là di ogni più roseo sogno ma Jonathan ne soffre anche per un'altra ragione dice che lo innervosisce la responsabilità che questo comporta per lui comincia a dubitare di sé io cerco di rallegrarlo e la mia fiducia in lui lo aiuta ad avere fiducia in sé ma è qui che il profondo trauma che ha subito fa più sentire i suoi effetti oh è così amaro che una natura dolce semplice nobile e forte una natura che gli ha permesso grazie all'aiuto del nostro caro e buon amico di passare da impiegato a titolare in pochi anni debba essere tanto colpita da far sparire l'essenza stessa della sua forza perdonami cara se ti affliggo con le mie pene in questo momento per te di grande felicità ma Lucy cara devo raccontarlo a qualcuno perché la fatica di mostrarmi forte e allegra a Jonathan mi pesa e qui non c'è nessuno con cui possa confidarmi pavento di dover venire a Londra dopo domani perché il povero Mr. Hawkins ha lasciato scritto nel suo testamento che vuole essere sepolto nella tomba con suo padre dato che non c'è nessun parente in vita toccherà a Jonathan il ruolo di familiare più stretto cercherò di fare un salto a trovarti mia cara anche se solo per pochi minuti perdonami se ti ho turbata con ogni benedizione tua affezionata Mina Harker dal diario del dottor Seward 20 settembre solo la volontà e l'abitudine mi permettono di registrare i fatti di questa sera sono troppo infelice troppo giù di spirito troppo stanco del mondo e di tutto quello che contiene compreso la vita stessa tanto che non mi importerebbe se in questo momento sentissi il battito d'ali dell'angelo della morte e si è dato un bel daffare ultimamente con quelle tristi ali la madre di Lucy e il padre di Arthur e adesso devo proseguire con il mio lavoro allora stabilita ho dato il cambio a Van Helsing nel vegliare Lucy volevamo che anche Arthur andasse a riposarsi ma lui dapprima si è rifiutato è stato solo quando gli ho detto che avremmo avuto bisogno del suo aiuto durante il giorno e che non dobbiamo rischiare di crollare tutti per mancanza di riposo onde non danneggiare Lucy che ha accettato di andare Van Helsing è stato molto gentile con lui finite figliolo gli ha detto finite con me state poco bene e siete debole e avete sofferto molto anche nella mente oltre che la perdita delle energie che ben sappiamo non dovete stare da solo perché stare da soli significa essere pieni di paure e di allarmi finite in saluto dove c'è un bel fuoco e ci sono due divani voi vi sdraiate su uno e io sull'altro e la nostra presenza sarà di reciproco conforto anche se non parliamo anche se dormiamo Arthur è andato con lui lanciando uno sguardo accorato al volto di Lucy che sul cuscino appariva quasi più bianco della federa era immobile e io mi sono guardato intorno per controllare che tutto fosse a posto ho visto che il professore aveva messo in atto in questa camera come nella precedente il suo proposito di servirsi dell'aglio tutti gli infissi puzzavano e intorno al collo di Lucy sul fazzoletto di seta che le aveva annodato c'era una sorta di coroncina degli stessi fiori odorosi Lucy aveva un respiro quasi stertoroso e il viso era al suo peggio la bocca aperta scopriva le gengive pallide i denti nella poca luce incerta sembravano più lunghi e più aguzzi che la mattina in particolare per qualche effetto della luce i canini parevano più lunghi appuntiti degli altri mi sono seduto accanto a lei che di lì a poco ha preso ad agitarsi nello stesso momento è giunto un tamburellare o un battito d'ale alla finestra mi sono avvicinato piano e ho sbirciato da dietro la tenda c'era la luna piena e vedevo che il rumore era prodotto da un grande pipistrello che girava in tondo senz'altro attratto dalla luce anche se così tenue e di tanto in tanto batteva le ali contro la finestra quando sono tornato al mio posto ho visto che Lucy si era tolta i fiori d'aglio dal collo li ho risistemati meglio che potevo e mi sono seduto a vegliarla dopo poco si è svegliata e le ho dato da mangiare secondo le indicazioni di Van Helsing ne ha preso solo poco e in modo molto languido non sembrava che ci fosse in lei quella lotta inconsapevole per conquistare la vita e la forza che aveva finora segnato la sua malattia mi è parso curioso che nel momento in cui riacquistava coscienza si premeva contro i fiori ed era invece strano che quando si trovava in stato letargico segnato dalle difficoltà respiratorie allontanava i fiori per poi riavvicinarli quando si svegliava non era possibile sbagliarsi su questo particolare perché nelle ore che sono seguite si sono alterrati numerosi episodi di sonno e veglia e ogni volta ripeteva le medesime azioni alle sei del mattino Van Helsing è venuto a darmi il cambio Arthur si era finalmente assopito e lui l'aveva pietosamente lasciato dormire quando ho visto il volto di Lucy l'ho sentito emettere quel fischio caratteristico e mi ha sussurrato seccamente aprite le tende ho bisogno di luce poi si è chinato e con il volto che quasi toccava quello di Lucy l'ha esaminata attentamente le ha tolto i fiori e il fazzoletto di seta dalla gola e così facendo ha dato un balzo indietro esclamando con voce soffocata Mein Gott! mi sono chinato a guardare anch'io e mi è preso una sorta di brivido strano le ferite sulla gola erano completamente scomparse per cinque minuti buoni Van Helsing è rimasto a guardarla con viso impietrito poi si è rivolto a me e ha detto con voce tranquilla sta morendo non ne avrà ancora per molto farà una grande differenza credetemi se muore cosciente o nel sonno svegliate quel povero ragazzo e ditegli di venire a vederla per l'ultima volta ha fiducia in noi e gliel'abbiamo promesso sono andato in sala da pranzo e l'ho svegliato per un istante è parso intontito ma poi ha visto la luce filtrare dagli scuri e ha pensato che fosse tardi e mi ha espresso la sua paura gli ho assicurato che lui si dormiva ancora ma gli ho detto che nel modo più gentile possibile che Van Helsing e io temevamo che la fine fosse vicina si è coperto il viso con le mani ed è scivolato in ginocchio accanto al divano dove è rimasto forse per un minuto con la testa nascosta a pregare mentre le spalle erano scosse dal dolore l'ho preso per mano e l'ho fatto alzare vieni gli ho detto mio caro amico raccogli tutte le tue forze sarà meglio per lei e più facile quando siamo entrati nella stanza di Lucy ho notato che Van Helsing aveva con la sua solita sollecitudine sistemato le cose affinché l'ambiente sembrasse il più gradevole possibile aveva perfino spazzolato i capelli di Lucy così che erano sparsi sul cuscino nelle solite onde piene di luce quando siamo entrati Lucy ha aperto gli occhi e vedendolo ha sussurrato Arthur amore mio sono così felice che tu sia qui lui si è piegato a baciarla ma Van Helsing gli ha fatto segno di scostarsi no gli ha bisbigliato non ancora tenetele la mano la conforterà di più così Arthur le ha preso la mano e si è inginocchiato vicino a lei e lei era così bella con i tratti che parevano rispecchiare la bellezza angelica dei suoi occhi quindi a poco a poco gli occhi si sono chiusi e si è addormentata per un poco il petto si è alzato dolcemente e il respiro andava e veniva come quello di un bambino stanco ma poi insensibilmente c'è stato quello strano cambiamento che avevo osservato di notte il respiro si è fatto stertoroso la bocca si è aperta e le gengive esangui e ritratte facevano parere i denti più lunghi e aguzzi che mai in una sorta di sonnambulismo in un modo vago e inconsapevole ha aperto gli occhi che ora erano vitrei e duri al tempo stesso e con una voce dolce e voluttuosa che non le avevo mai udito prima ha detto Arthur amore mio sono così felice che tu sia qui baciami Arthur si è chinato prontamente a baciarla ma in quell'istante Van Helsing che era stato sorpreso come me da quella voce gli si è avventato contro e prendendolo per il collo con una forza che non sospettavo potesse avere l'ha letteralmente gettato dall'altra parte della stanza no per la vostra vita ha detto per la vostra anima e quella di lei e si è frapposto come un leone tra di loro Arthur è stato così sorpreso che per un attimo non ha saputo che fare o dire e prima di essere travolto da un impulso violento si è reso conto del luogo e dell'occasione ed è rimasto silenzioso in attesa io tenevo gli occhi fissi su Lucy e così pure Van Helsing ed abbiamo visto uno spasmo di rabbia attraversarle come un'ombra il viso i denti aguzzi si sono stretti poi ha chiuso gli occhi respirando con difficoltà poco dopo li riaperti in tutta la loro dolcezza e allungando la povera mano pallida e scarna ha preso quella grande bruna di Van Helsing la tratta a sé e l'ha baciata mio vero amico gli ha detto con voce flebile ma indescrivibile pathos mio caro amico è suo proteggetelo e datemi la pace lo giuro ha detto gravemente inginocchiandosi accanto a lei con la mano alzata come per un voto solenne poi si è rivolta ad Arthur e gli ha detto finite figliolo prendete la sua mano nella vostra e baciatela sulla fronte e solo una volta invece delle labbra si sono incontrati i loro occhi e così si sono separati gli occhi di Lucy si sono chiusi Evan Helsing che osservava attentamente ha preso Arthur per un braccio e l'ha allontanato e poi il respiro di Lucy si è fatto stertoroso e quindi d'un tratto è cessato è tutto finito ha detto Van Helsing è morta ho preso Arthur per un braccio e l'ho portato in salotto dove si è seduto ha nascosto il viso nelle mani e ha pianto in modo che mi spezzava il cuore sono tornato nella camera e ho trovato Van Helsing che guardava Lucy con espressione severissima era avvenuto un cambiamento nel suo corpo la morte le aveva restituito parte della bellezza perché la fronte e le guance avevano riacquistato i tratti morbidi perfino le labbra avevano perso il pallore mortale era come se il sangue non più necessario per il funzionamento del cuore fosse andato ad addolcire la crudeltà della morte la credevamo morente quando dormiva e dormiente quando moriva mi sono avvicinato a Van Helsing e ho detto ah povera ragazza finalmente ha trovato la pace è giunta la fine si è voltato verso di me e ha detto con tono grave e solenne non è così ahimè non è così questo è solo il principio quando gli ho chiesto che cosa intendesse ha scosso la testa e ha risposto non possiamo fare nulla per ora aspettate e vedrete capitolo 13 dal diario del dottor Seward continuazione le esecue sono state fissate per il giorno successivo di modo che Lucy e la madre possano essere sepolte insieme mi sono occupato di tutte le penose formalità e il cortese impresario di pompe funebri ha dato prova di quanto i suoi dipendenti siano afflitti o dotati per grazia di Dio di un poco della sua ossequiosa affabilità persino la donna che ha composto la defunta uscendo dalla camera mortuaria mi ha detto in tono confidenziale da professionista a professionista è proprio un bel cadavere signore un vero privilegio occuparsene non è esagerato affermare che darà lustro alla nostra ditta ho notato che Van Helsing non si allontanava mai forse era dovuto allo stato di disordine che regnava in casa non c'era alcun parente prossimo e dato che Arthur doveva tornare l'indomani per partecipare al funerale del padre non avevamo modo di avvisare le persone che avrebbero dovuto essere informate date le circostanze Van Helsing e io ci siamo assunti il compito di esaminare le carte eccetera ha insistito per occuparsi personalmente delle carte di Lucy gli ho chiesto il perché temendo che da straniero potesse non essere al corrente delle questioni legali inglesi e a causa di questa ignoranza creare qualche inutile pasticcio mi ha risposto lo so lo so dimenticate che sono avvocato oltre che medico ma questo non è per la legge lo sapevate quanto avete deciso di evitare il coroner io ho ben più del coroner da evitare ci possono essere altre carte come questa e così dicendo ha preso dal taccuino il memorandum che Lucy si era messo in seno e che aveva fatto a pezzi durante il sonno quando trovate il nome dell'avvocato della defunta Mrs. Westenra sigillate tutte le sue carte e scrivetegli stanotte stessa per me resterò di guardia in questa stanza e nella vecchia stanza di Lucy per tutta la notte e cercherò quel che può esserci non è bene che i suoi pensieri finiscano nelle mani di Estranei sono andato avanti con la mia parte del lavoro e nel giro di mezz'ora avevo scoperto nome e indirizzo del legale di Mrs. Westenra e gli avevo scritto tutte le carte della povera signora erano a posto c'erano anche precise indicazioni sul luogo in cui andava effettuata la sepoltura avevo appena sigillato la lettera quando Van Helsing è entrato nella stanza e mi ha sorpreso dicendo posso aiutarvi amico John sono libero e se posso esservi d'aiuto mi metto al vostro servizio avete trovato quello che cercavate ho domandato al che lui ha risposto non cercavo nulla di specifico speravo solo di trovare quello che c'era e trovare l'ho trovato solo qualche lettera e qualche memorandum e un diario cominciato da poco ma li ho qui e per adesso non diremo niente di loro vedrò quel povero ragazzo domani sera e con il suo permesso ne userò qualcuno quando abbiamo terminato il lavoro che restava da fare mi ha detto e ora amico John penso che possiate andare a letto abbiamo bisogno di sonno voi e io e riposo per recuperare domani avremo molto da fare ma per stanote non c'è bisogno di noi ahimè prima di coricarci siamo andati a vedere la povera Lucy le pompe funebri avevano davvero fatto un buon lavoro trasformando la stanza in una piccola chapelle ardente c'era una profusione di bellissimi fiori bianchi e la morte era stata resa il meno repellente possibile il sudario le copriva il volto quando il professore si è chinato sollevarlo un poco siamo rimasti entrambi sorpresi dalla bellezza che ci siamo trovati davanti illuminata sufficienza dagli alti ceri in morte Lucy aveva riconquistato tutta la sua grazia e le ore trascorse invece di lasciare tracce delle dita del disfacimento che tutto dissolve le avevano restituito la bellezza della vita al punto che non riuscivo a convincermi di stare guardando un cadavere il professore aveva un'espressione particolarmente severa non l'aveva amata quanto l'avevo amata io e non ci si poteva attendere che gli si riempissero gli occhi di lacrime mi ha detto restate sinché non torno ed è uscito è tornato con una manciata di aglio dalla scatola che era giunta nell'ingresso ma che non era stata aperta e ha sistemato i fiori insieme agli altri sul letto e tutto intorno poi da sotto il colletto si è tolto il crocifisso d'oro e gliel'ha messo sulla bocca quindi ha rimesso a posto il sudario e siamo venuti via mi stavo spogliando nella mia stanza quando con un colpetto d'avvertimento all'uscio è entrato incominciando immediatamente a parlare ho bisogno che domani mi portiate prima di sera una serie di bisturi per il post mortem dobbiamo fare un'autopsia ho chiesto sì e no voglio operare ma non come pensate voi ora ve lo racconto ma non fate parola con nessuno voglio tagliarle la testa e toglierle il cuore ah siete un chirurgo e vi scandalizzate così voi che ho visto fare operazioni tra la vita e la morte che avrebbero fatto rabbrividire un altro senza tremare di mani o di cuore oh ma non devo dimenticare amico John che l'amavate e non l'ho dimenticato infatti sarò io a operare e voi dovrete soltanto aiutare vorrei già farlo stanotte ma per Arthur non devo sarà libero domani dopo il funerale di suo padre e vorrà vederla o vedere quella cosa poi quando sarà pronta nella bara per il giorno dopo voi e io verremo quanto tutti gli altri ritormono toglieremo le viti del coperchio della bara e faremo la nostra operazione e poi rimettiamo tutto a posto e nessuno lo saprà tranne noi ma perché fare tutto questo la ragazza è morta perché mutilare il suo povero corpo inutilmente e se non c'è bisogno di un'autopsia non c'è nessun vantaggio non per lei per noi per la scienza per la coscienza umana perché farlo senza alcuna utilità è una cosa mostruosa per tutta risposta mi ha posato una mano sulla spalla e ha detto con infinita tenerezza amico John oh pietà del vostro cuore che sanguina e vi voglio ancora più bene perché sanguina così se potessi prenderei su di me il peso che voi portate ma ci sono cose che voi non sapete e che saprete e mi benedirete perché io le so anche se non sono cose piacevoli John figliolo siete stato amico mio per molti anni eppure mi avete mai visto fare qualcosa senza un giusto motivo io posso sbagliare sono soltanto un uomo ma io credo in tutto quello che faccio non è forse per queste ragioni che mi avete mandato a chiamare quando è stato il momento del grande problema sì non eravate sorpreso anzi inorridito quando non ho permesso ad Arthur di baciare il suo amore che stava morendo e l'ho tirato via con tutta la mia forza sì eppure avete visto come lei mi ha ringraziato con quegli occhi così belli di morente la sua voce anche così debole e ha baciato la mia vecchia mano rucosa e mi ha benedetto sì e non mi avete sentito promettere e giurarle così che ha chiuso gli occhi riconoscente sì beh ho buone ragioni per tutto quello che voglio fare per molti anni avete confidato in me mi avete creduto nelle settimane passate quando c'erano cose così strane che avreste potuto ben dubitare credetemi ancora per un poco amico John se non avete fiducia in me allora devo dirvi cosa penso e quello forse non fa bene e se io lavoro e devo farlo che abbiate o meno fiducia senza la fiducia del mio amico lavorerò con cuore pesante e oh molto solo proprio quando ho bisogno di tutto l'aiuto e il coraggio che ci può essere ha esitato un attimo e poi ha continuato solennemente amico John questi sono giorni strani e terribili che ci aspettano noi restiamo due ma uniti in uno così che il lavoro vada a buon fine non riuscirete ad avere fiducia in me gli ho preso la mano e gli ho assicurato la mia fiducia ho tenuto la porta aperta quando usciva e l'ho osservato mentre andava in camera sua e chiudeva la porta mentre lo guardavo immobile ho visto una delle cameriere attraversare silenziosamente il corridoio mi voltava le spalle e dunque non mi ha visto ed entrare nella stanza di Lucy quella scena mi ha commosso la devozione è così rara e siamo così grati a quelli che la dimostrano spontaneamente nei confronti di chi amiamo ecco una povera ragazza che metteva da parte il naturale terrore della morte per andare a vegliare da sola accanto alla bara della padrona che amava così che la povera Creta non fosse sola prima di essere affidata al riposo eterno devo aver dormito a lungo e profondamente perché era giorno fatto quando Van Helsing mi ha svegliato entrando in camera si è avvicinato al mio letto dicendo non è il caso che vi preoccupiate dei bisturi non lo faremo perché no ho chiesto perché la sua solennità la notte precedente mi aveva molto colpito perché ha risposto severo è troppo tardi o troppo presto vedete vedete e qui mi ha mostrato il piccolo crocifisso d'oro questo è stato rubato la notte scorsa e e come rubato se ora l'avete voi ho chiesto meravigliato perché l'ho ripreso all'indegna sciagurata che l'ha rubato dalla donna che ieri notte ha derubato i vivi e i morti gli arriverà indubbiamente una punizione ma non per mano mia non sapeva bene che cosa faceva e non sapendo ha solo rubato ora dobbiamo attendere se ne è andato così lasciandomi con un nuovo mistero a cui pensare un nuovo rompicapo da risolvere la mattinata è stata opprimente ma a mezzogiorno è arrivato l'avvocato mister Morkwand dello studio Wallman figli Morkwand e Liddardale è stato cortesissimo e ha apprezzato molto ciò che abbiamo fatto sollevandoci da ogni responsabilità riguardo ai dettagli a pranzo ci ha detto che Mrs. Westerna da qualche tempo temeva di morire all'improvviso di un attacco di cuore e aveva lasciato i suoi affari in perfetto ordine ci ha informati che con l'eccezione di qualche proprietà del padre di Lucy che per legge in mancanza di eredi diretti tornava a un ramo lontano della famiglia l'intero patrimonio di beni mobili ed immobili era stato lasciato ad Arthur Holwood poi ha proseguito francamente abbiamo fatto del nostro meglio per evitare questa disposizione testamentaria segnalando alcune conseguenze che avrebbero potuto lasciare la figlia o nell'indigenza totale oppure non così libera nello stipulare un'alleanza matrimoniale per la verità ci siamo spinti al punto di entrare quasi in collisione con la cliente che ci ha chiesto se eravamo o meno pronti a eseguire le sue volontà naturalmente non avevamo altra scelta che accettare in linea di principio avevamo ragione e nel 99% dei casi avremmo dimostrato con la logica dei fatti la giustezza del nostro ragionamento francamente tuttavia devo ammettere che in questo caso qualsiasi altra disposizione avrebbe impedito l'esecuzione della volontà della nostra cliente perché avendo la sua morte preceduta quella della figlia la proprietà sarebbe passata a quest'ultima la quale se fosse anche sopravvissuta la madre di soli 5 minuti morendo in assenza di testamento e stilare un testamento sarebbe stato praticamente impossibile in quel caso sarebbe stato un caso di successione intestata pertanto nonostante lord godalming fosse un caro amico non avrebbe potuto accampare alcun diritto e gli eredi proprio perché remoti non avrebbero probabilmente abbandonato ciò che aspettava loro di diritto a favore di un estraneo per ragioni sentimentali vi assicuro miei cari signori che sono davvero soddisfatto del risultato assolutamente soddisfatto era un bravo uomo ma la sua soddisfazione per quel minimo aspetto in cui era ufficialmente interessato di una tragedia così immensa costituiva un'esplicita lezione sui limiti della solidarietà umana non è rimasto molto a lungo ma ha detto che sarebbe tornato in seguito per vedere lord godalming la sua presenza però ci è stata di un certo conforto perché ci ha dato la garanzia che non avremmo dovuto attenderci una critica ostile per nessuna delle nostre azioni Arthur doveva arrivare alle 5 così qualche minuto prima dell'ora prevista siamo andati a controllare la camera mortuaria che tale era nel vero senso del termine perché adesso madre e figlia riposavano insieme l'impresario di pompe funebri aveva davvero esposto al meglio la sua mercanzia e c'era un'atmosfera sepolcrale nella stanza che ha immediatamente depresso il nostro morale Van Helsing ha ordinato che le cose venissero risistemate come prima spiegando che dato che lord godalming sarebbe arrivato da un momento all'altro sarebbe per lui stato meno straziante vedere ciò che restava della sua fiancée l'impresario è parso stupito della propria mancanza da cume e si è dato da fare per riportare il tutto alle condizioni in cui l'avevamo lasciato la sera precedente così quando Arthur è arrivato siamo riusciti a risparmiargli almeno quest'ulteriore trauma poveretto aveva un'aria disperatamente triste e abbattuta persino la sua possente virilità sembrava essersi ridotta sotto il peso di emozioni tanto forti lo sapevo genuinamente e devotamente affezionato al padre e perderlo in un momento così era stato per lui un duro colpo con me era caloroso come sempre e con Van Helsing era garbatamente cortese ma non ho potuto fare a meno di notare che c'era in lui un certo disagio anche il professore l'ha notato e mi ha fatto cenno di portarlo di sopra così ho fatto e l'ho lasciato all'uscio della stanza pensando che avrebbe preferito restare solo con lei ma mi ha preso per il braccio e mi ha portato dentro con lui dicendo con voce roca anche tu l'amavi amico mio mi ha detto tutto e nessun amico era più vicino al suo cuore di te non so come fare a ringraziarti per tutto quello che hai fatto per lei non riesco ancora a pensare qui all'improvviso ha avuto un crollo si è stretto a me e ha posato la testa sul mio petto piangendo oh Jack Jack che cosa farò tutta la vita sembra avermi abbandonato in questo momento e non ho più nulla al mondo per cui valga la pena di vivere l'ho consolato come potevo in questo caso gli uomini non hanno bisogno di tante parole una stretta di mano la mano sulla spalla un singhiozzo all'unisono sono espressioni di simpatia care al cuore dell'uomo sono rimasto immobile in silenzio finché non si sono acquietati i suoi singhiozzi poi gli ho detto piano vieni a vederla insieme ci siamo avvicinati al let e ho alzato il sudario dal suo viso Dio come era bella ogni ora che passava sembrava contribuire alla sua bellezza mi spaventava e sorprendeva quanto ad Arthur ha cominciato a tremare e alla fine è stato assalito da un dubbio che lo scuoteva come una febbre malarica dopo una lunga pausa mi ha detto Jack è davvero morta gli ho assicurato tristemente che era proprio così e ho aggiunto non volendo che un dubbio tanto atroce persistesse per un istante più di quello che potevo evitare che spesso i volti dopo la morte si addolcivano a volte recuperando la bellezza giovanile e che questo era probabilmente vero nel caso che la morte fosse stata preceduta da un'acuta o prolungata sofferenza è sembrato sufficiente a dissipare il dubbio e dopo essersi inginocchiato accanto al letto per un attimo e averla guardata con adorazione a lungo si è spostato gli ho detto che doveva dirle addio perché la bara andava preparata allora è tornato ha preso la mano fra le sue e l'ha baciata poi si è chinato a baciarle la fronte quindi è venuto via la testa voltata a guardarla l'ho lasciato in salotto e ho detto a Van Helsing che le aveva dato l'addio questi allora andato in cucina a dire agli uomini dell'impresa di pompe funebri che potevano procedere con i preparativi e chiudere il coperchio quando è uscito dalla stanza gli ho detto della domanda di Arthur e lui ha replicato non mi sorprende proprio ora l'ho dubitato anch'io per un attimo abbiamo cenato insieme e vedevo che Arthur faceva del suo meglio Van Helsing è stato in silenzio per tutta la cena ma quando abbiamo acceso il sigaro ha detto Lord ma Arthur l'ha interrotto no no non così per l'amor di Dio non ancora comunque perdonatemi signore non intendevo offendervi ma la mia perdita è così recente il professore gli ha parlato con grande dolcezza ho usato quel titolo soltanto perché ero nel dubbio non posso chiamarvi mister e mi sono affezionato a voi sì mio caro ragazzo molto affezionato come Arthur Arthur ha allungato la mano stringendo quella del vecchio chiamatemi come volete ha detto spero di aver sempre il titolo di amico e lasciatemi dire che non ho parole per ringraziarvi per la vostra gentilezza nei confronti della mia povera cara ha esitato per un attimo e poi ha proseguito so che apprezzava la vostra bontà ancor meglio di me e se sono stato sgarbato o se ho sbagliato in qualche modo quando avete agito così ricordate il professore ha sentito dovete perdonarmi gli ha risposto con grande serietà so che era difficile per voi in quel momento fidarvi di me perché bisogna comprendere per fidarsi di tale violenza e io credo che voi non vi fidate voi non potete fidarvi di me in questo momento perché ancora non comprendete e forse ci saranno altre volte quando vi chiederò di fidarvi quando non potrete e non dovrete ancora comprendere ma verrà il momento in cui la vostra fiducia sarà totale e completa in me e quando comprenderete sarà come se il sole stesso illuminasse allora mi benedirete per quello che ho fatto dalla prima all'ultima cosa per amore vostro e per amore degli altri e per quello della cara che ho giurato di proteggere ma certo certo signore ha detto Arthur con calore mi fiderò di voi in ogni modo so e credo che abbiate un cuore molto nobile e siete amico di Jack ed eravate amico di Lucy dovete fare come meglio credete il professore si è schiarito la voce un paio di volte come se fosse stato sul punto di parlare infine ha detto posso chiedervi una cosa ora sicuramente voi sapete che Mrs. Westerna vi ha lasciato tutta la sua proprietà no povera cara non ne avevo propria idea dato che tutto è vostro potete usarne a vostro piacimento voglio che mi diate il permesso di leggere tutte le carte e le lettere di Miss Lucy credetemi non è per curiosità o un motivo che state certo approvereste le ho tutte qui le ho prese prima che sapessimo che era tutto vostro affinché nessuna mano estranea le toccasse nessun occhio estraneo potesse guardare attraverso le parole della sua anima le terrò io se posso perfino voi non dovete ancora vederle adesso ma le terrò al sicuro neanche una parola sarà persa e a tempo debito ve le restituirò è una cosa difficile che chiedo ma la farete vero per amore di Lucy Arthur ha risposto di cuore come un tempo dottor Van Helsing potete fare quello che volete sento che dicendo così faccio quello che la mia cara avrebbe approvato non vi infastidirò con le domande fino a quando non sarà il momento il vecchio professore si è alzato e ha detto solennemente e avete ragione ci sarà dolore per tutti noi ma non sarà tutto dolore né sarà dolore da ultimo noi e anche voi voi più di tutti mio caro ragazzo dovrete attraversare acque a mare prima di raggiungere quelle dolci ma dobbiamo essere coraggiosi di cuore e non egoisti e fare il nostro dovere e tutto andrà bene ho dormito sul divano nella camera di Arthur Van Helsing non si è coricato affatto e non ha mai perso di vista la camera in cui Lucy giaceva nella bara coperta di fiori d'aglio che spandevano insieme al profumo di giglie e di rose un odore greve e persistente nella notte dal diario di Mina Harker 22 settembre in treno per Exeter Jonathan dorme sembra solo ieri che ho scritto l'ultima nota eppure quante cose sono successe da quel momento a Whitby con tutto il mondo davanti a me Jonathan lontano e nessuna notizia sua e ora sposata a Jonathan Jonathan avvocato socio ricco padrone della sua ditta Mr. Hawkins morto e sepolto e Jonathan con un altro attacco che potrebbe nuocergli un giorno o l'altro potrebbe chiedermi questa cosa allora scriverò tutto la mia stenografia è un po' arrugginita ecco gli effetti dell'improvvisa prosperità economica quindi è bene che la rinfreschi con un poco di esercizio la cerimonia è stata molto semplice e molto solenne c'eravamo soltanto noi e i domestici uno o due amici di Exeter la gente di Londra e un signore rappresentanza di Sir John Paxton il presidente della Incorporated Law Society Jonathan e io ci tenevamo per mano e sentivamo che il nostro più caro e migliore amico ci aveva lasciati siamo tornati in città in silenzio abbiamo preso un autobus fino ad Hyde Park Corner Jonathan pensava che mi avrebbe interessato fermarmi un po' al row e ci siamo seduti ma c'era poca gente ed era triste ed esolato vedere tante sedie vuote faceva pensare alle sedie vuote di casa così ci siamo alzati e siamo andati a passeggiare per Piccadilly Jonathan mi ha preso sotto braccio come faceva tanto tempo fa prima che cominciassi a insegnare mi è parso molto sconveniente perché non si può insegnare etichetta e decoro per anni senza venire contagiate dalla pedanteria ma era Jonathan ed era mio marito e nessun nostro conoscente ci ha visti e non ci importava se anche fosse accaduto così abbiamo proseguito la nostra passeggiata stavo guardando una ragazza molto bella con un grande cappello a ruota seduta su una vittoria davanti a Giuliano quando Jonathan mi ha stretto il braccio così forte da farmi male e ha detto a mezza voce mio Dio sono sempre in ansia per lui perché temo che possa prenderlo una nuova crisi di nervi e gli ho chiesto che cosa lo turbasse era pallidissimo con gli occhi strabuzzati un po' per il terrore e un po' per la sorpresa guardava un uomo alto magro con il naso adunco i baffi neri e la barba a punta intento a fissare pure lui la bella ragazza la guardava così assorto da non vederci e dunque ho potuto osservarlo bene il suo viso non era buono era duro e crudele e sensuale e i grossi denti bianchi che sembravano ancora più bianchi per contrasto con le labbra così rosse erano a punta come quelli di un animale Jonathan continuava a fissarlo e ho avuto paura che quello se ne accorgesse temevo che si risentisse dato che sembrava così feroce e cattivo ho chiesto a Jonathan perché fosse così turbato e mi ha risposto evidentemente convinto che ne sapessi quanto lui in merito ma non vedi chi è no caro ho risposto non lo conosco chi è la sua risposta mi ha turbata e preoccupata perché non sembrava che si rendesse conto che era con me con Mina che stava parlando ma è proprio lui povero caro era evidentemente terrorizzato da qualcosa immensamente atterrito credo che se non mi avesse avuto accanto lì a sorreggerlo si sarebbe accasciato continuava a fissarlo dal negozio è uscito un signore con un pacchettino per la signora la quale poi se ne è andata l'uomo fosco ha tenuto gli occhi fissi su di lei e quando la carrozza si è abbiata per Piccadilly ha fermato un carrozzino e l'ha seguita jonathan l'ha accompagnato con lo sguardo dicendo fra sé credo che sia il conte ma ma era ingiovanito mio dio se è davvero così oh mio dio mio dio se potessi esserne certo se potessi esserne certo era in uno stato tale di agitazione che ho temuto di tenere la sua mente fissa sull'argomento facendogli delle domande così sono stata zitta l'ho portato via di lì in silenzio e lui aggrappandosi al mio braccio mi ha seguito docilmente abbiamo camminato ancora un poco e poi ci siamo seduti per qualche tempo al green park era una giornata calda per la stagione e c'era una comoda panchina all'ombra dopo qualche minuto passato a fissare il vuoto jonathan ha chiuso gli occhi e si è addormentato tranquillamente con la testa sulla mia spalla ho pensato che fosse la cosa migliore per lui così non l'ho disturbato dopo circa venti minuti si è svegliato e mi ha detto allegro santo cielo mina mi sono addormentato perdonami la scortesia vieni prendiamo una tazza di tè da qualche parte evidentemente aveva dimenticato lo sconosciuto fosco come nella sua malattia aveva scordato tutto ciò che questo episodio poteva avergli ricordato non mi piace questa sua smemoratezza potrebbe indicare qualche danno cerebrale non voglio fargli domande per paura di nuocerli più che di aiutarlo ma devo scoprire particolari del suo viaggio all'estero ho paura che sia arrivato il momento in cui devo aprire quel pacco e sapere che cosa c'è scritto oh jonathan mi perdonerai vero se commetto un errore ma è solo per il tuo bene più tardi che triste rientro la casa vuota di quella cara anima che è stata tanto buona con noi jonathan ancora pallido e frastornato dalla piccola ricaduta nella malattia e ora un telegramma da un certo van helsing che non conosco sarete addolorata di sapere che mrs westerra è morta cinque giorni fa e che lui si è mancata l'altro ieri sono state entrambe sepolte oggi oh che dovizia di dolore in così poche parole povera mrs westerra povera lucy è scomparsa se n'è andata non tornerà mai più con noi e il povero arthur che ha perso la dolcezza della sua vita che dio ci aiuti a sopportare i nostri dolori dal diario del dottor seward 22 settembre è tutto finito arthur è tornato a ring portando con sé quincy morris che brava persona è quincy nel profondo del mio cuore credo che abbia sofferto quanto tutti noi per la morte di lucy ma si è comportato tutto il tempo con il coraggio morale di un vichingo se l'america continua a generare uomini così diventerà davvero una potenza mondiale van helsing si è coricato per riposare per un poco in previsione del viaggio va ad amsterdam stanotte ma dice che tornerà domani notte che vuole sistemare delle cose e può farlo soltanto di persona allora si fermerà da me se è possibile dice che ha del lavoro da svolgere a londra per il quale potrà essere necessario un po' di tempo povero vecchio ho paura che la tensione della settimana scorsa abbia spezzato persino la sua ferrea tempra per tutta la cerimonia del funerale mi sono reso conto che faceva uno sforzo immane per controllarsi quando è finito eravamo accanto ad arthur il quale poveretto stava parlando dell'operazione in cui il suo sangue era stato trasfuso nelle vene di lucy notavo che sul volto di van helsing si alternavano pallori e rossori arthur stava dicendo che da quel momento aveva avuto la sensazione di essere veramente sposato con lucy e che lei fosse sua moglie davanti a dio nessuno di noi ha fatto parola su altre trasfusioni né mai ne parleremo arthur e quincy si sono diretti verso la stazione evan helsing e io siamo venuti qui nel momento stesso in cui siamo rimasti soli nella carrozza il professore si è abbandonato ad un attacco di isteria anche se lui nega che si sia trattato di ciò e afferma che è soltanto il suo senso dell'umorismo che si faceva sentire in queste terribili condizioni ha riso fino alle lacrime e ho dovuto tirare le tendine per evitare che qualcuno ci vedesse e pensasse male di noi e poi ha pianto fino al punto di riderne di nuovo e rideva e piangeva insieme come fanno le donne ho cercato di essere fermo con lui come si fa con una donna in queste circostanze ma non è servito a nulla gli uomini e le donne sono così diversi nelle manifestazioni di forza o di debolezza nervosa poi quando il suo volto si è ricomposto nella solita serietà e gravità gli ho chiesto il perché di tanta allegria per giunta proprio in quel momento la risposta che mi ha dato in un certo senso era caratteristica per lui perché era logica solida e misteriosa ha detto ah voi non comprenderete amico John non pensiate che non sono triste anche se rido vedete piangevo quando il riso mi soffoca ma non pensiate neanche che sono del tutto triste quando piango perché il riso arriva ugualmente ricordate sempre che la risata che bussa alla porta e chiede posso entrare non è una vera risata no la risata è regina e viene e va come le pare non chiede a nessuno e non sceglie il momento più atato dice sono qui guardate per esempio il mio cuore è addoloratissimo per quella pampina così tolce le do il mio sangue per quanto sono vecchio e sfibrato le do il mio tempo la mia conoscenza il mio sono lascio che ai miei altri sofferenti manchi così che lei possa avere tutto eppure posso ridere sulla sua tomba ridere quando l'argilla della pala del becchino cade sulla sua bara dicendo pum pum al mio cuore togliendomi il sangue dalle guance il mio cuore sanguina per quel povero ragazzo quel caro ragazzo che all'età che avrebbe mio figlio se avesse avuto la fortuna di continuare a vivere con gli stessi capelli e gli stessi occhi ecco adesso sapete perché lo amo tanto eppure quando dice cose che toccano il mio cuore di marito e fanno sì che il mio cuore di padre sia attratto da lui come da nessun altro uomo nemmeno da voi amico John perché l'esperienza ci rende più vicini di età che un padre e un figlio ecco che in quel momento arriva la regina risata e mi grida all'orecchio sono qui sono qui finché il sangue torna ballando e ritorna un po' di sole sulle mie guance oh amico John è un mondo strano un mondo triste un mondo pieno di miserie e dolori e guai eppure quando arriva la regina risata fa ballare tutti alla sua musica cuori sanguinanti e ossa secche nei cimiteri e lacrime che bruciano quel che toccano tutti ballano insieme alla musica della risata con quella bocca senza sorriso e credetemi amico John che è buona avvenire e gentile noi uomini e donne siamo come corde tirate di qua e di là poi vengono le lacrime e come pioggia sulle corte ci tendono finché la tensione diventa troppa e ci spezziamo ma la regina risata arriva come il sole e distende la tensione e così riusciamo ad andare avanti nelle fatiche qualunque esse siano non volevo ferirlo fingendo di non recepire la sua idea ma dato che non comprendevo la causa della risata gliel'ho chiesta rispondendomi il suo volto si è fatto severo e in tono del tutto diverso ha detto oh era tutta l'ironia della cosa quella signorina così bella inghirlandata di fiori che sembrava bella come in vita al punto da domandarsi se fosse morta davvero distesa in quella bella casa di marmo in quel cimitero solitario dove riposano così tanti dei suoi distesa con la madre che l'amava tanto e che la madre amava e la campana sacra che batteva don 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 così triste e lenta e quegli uomini di dio con le vesti bianche degli angeli che fingevano di leggere nei loro libri e invece gli occhi non erano mai sulla pagina e tutti noi con le teste chine e tutto per cosa è morta e allora non è così beh professore ho detto in tutta onestà non vedo che cosa ci sia da ridere la vostra spiegazione rende la cosa ancora più incomprensibile ma anche se la cerimonia di sepoltura fosse stata comica perché ridere di Arthur e dei suoi guai aveva il cuore spezzato appunto non ha detto forse che la trasfusione di sangue nelle sue vene l'ha resa davvero sua moglie sì e quella è un'idea dolce e confortante per lui certo ma c'è una difficoltà amico John se è così che ne facciamo allora degli altri allora questa dolce vergine è poliandra e io con la mia povera moglie morta per me ma non per la legge della chiesa anche se non è più in sé ed è pazza perfino io marito fedele di questa non moglie sono bigamo neppure in questo ci vedo qualcosa di comico e non mi piaceva che dicesse cose simili mi ha posato la mano sul braccio e ha detto amico John perdonatemi se vi addoloro non ho mostrato i miei sentimenti agli altri che avrei potuto ferire ma solo a voi amico mio di cui posso fidarmi se avete potuto leggermi nel cuore mentre volevo ridere se avete potuto farlo quando il riso è arrivato se poteste farlo ora che la regina risata ha ritirato la corona e tutto quanto per andarsene lontano lontano da me e per tanto tanto tempo forse avrete pietà di me più che per tutti gli altri mi ha commosso la tenerezza dei suoi toni e gli ho chiesto perché perché io so e ora siamo tutti divisi e per molti lunghi giorni la solitudine siederà sul nostro letto con ali lugubri Lucy è sepolta nella tomba una cappella sontuosa in un cimitero isolato lontano dall'affollata Londra dove l'aria è fresca e il sole sorge sull'Amstead Hill e dove i fiori selvatici crescono spontaneamente così posso finire questo diario ed io solo sa se ne comincerò un altro se lo farò o se riaprirò questo sarà per parlare di persone diverse e di temi diversi poiché alla fine qui dove ho raccontato la storia d'amore della mia vita prima di tornare al mio lavoro quotidiano qui dico tristemente e senza speranza Finis The Westminster Gazette 25 settembre Mistero ad Amstead Il circondario di Amstead è interessato in questo periodo da una serie di eventi molto simili a quelli noti agli autori di titoli quale L'orrore di Kensington o La donna con il pugnale o ancora La donna in nero durante gli ultimi due o tre giorni sono stati riportati diversi casi di bambini che si sono allontanati da casa o non vi hanno fatto ritorno dopo essere andati a giocare sulla Heath in tutti questi casi i bambini erano troppo piccoli per dare un resoconto intellegibile dell'accaduto ma sono stati concordi nel dire che sono stati insieme a una bella signora la loro assenza ha sempre coinciso con il calare della sera e in due casi i bambini non sono stati ritrovati che il mattino seguente di buon'ora gli abitanti della zona ritengono che il primo bambino scomparso abbia spiegato la sua assenza dicendo che una bella signora gli aveva chiesto di accompagnarla a fare una passeggiata mentre gli altri hanno sentito questa espressione usandola come pretesto ciò è assolutamente comprensibile se si pensa che al momento il gioco preferito dai bambini del luogo consiste nella descarsi a vicenda con delle astuzie un corrispondente ci scrive che è divertentissimo vedere questi marmocchi che si atteggiano a bella signora qualche caricaturista potrebbe a detta del nostro corrispondente prendere lezioni di grottesco paragonando la realtà con la rappresentazione il fatto che la parte della bella signora sia la più ambita in questi spettacoli all'aperto la dice lunga sulla natura umana il nostro corrispondente afferma con un po' di ingenuità che neppure Helen Terry saprebbe essere così irresistibilmente attraente quanto si fingono e si credono questi mocciosetti c'è tuttavia un aspetto potenzialmente serio in questa faccenda perché qualche bambino e per la verità tutti quelli scomparsi di notte sono stati leggermente graffiati o feriti alla gola sembra che la ferita avrebbe potuto essere inferta da un ratto o da un cane di piccola taglia e per quanto prese singolarmente non abbiano rilievo potrebbe potrebbe dimostrare che qualunque sia l'animale che le infligge lo fa con un sistema o un metodo suo particolare la polizia del distretto ha avuto ordine di vigilare attentamente la zona intorno all'Harmstead Heath alla ricerca di bambini sparduti specie se molto piccoli e di cani randagi The Westminster Gazette 25 settembre edizione speciale l'orrore di Hampstead un altro bambino ferito la bella signora abbiamo appena ricevuto notizia che un altro bambino scomparso ieri sera è stato ritrovato soltanto in tarda mattinata sotto un cespuglio di ginestrone nei pressi dello Shooter's Hill una zona meno frequentata dell'Harmstead Heath il bambino presentava le stesse ferite alla gola degli altri casi era estremamente debole e sembrava alquanto emaciato anche lui quando si è in parte ripreso ha raccontato la stessa storia dicendo di essere stato adescato dalla bella signora capitolo 14 dal diario di Mina Archer 23 settembre è stata una notte difficile ma Jonathan sta meglio sono lieta che abbia molto da fare perché questo lo distrae dai suoi terribili pensieri sono inoltre molto sollevata nel constatare che la responsabilità del nuovo incarico non gli è di troppo peso sapevo che si sarebbe mostrato l'altezza e come sono orgogliosa di vedere il mio Jonathan procedere sulla via della sua ascesa personale mostrandosi in ogni senso al passo con le incombenze che questa comporta oggi sarà fuori fino a tardi perché ha detto di non poter rientrare a colazione ho già sbrigato le faccende di casa quindi prenderò il suo diario di viaggio e mi chiuderò in camera a leggerlo 24 settembre ieri sera non ho avuto cuore di scrivere tanto mi avevano sconvolto le parole atroci di Jonathan povero caro quanto deve aver sofferto che si tratti di realtà o di mera immaginazione mi domando se ci sia qualcosa di vero sarà stata la febbre cerebrale a fargli scrivere quelle cose tremende o c'era una ragione immagino che non lo saprò mai giacché non oso parlargliene eppure quell'uomo che abbiamo visto ieri Jonathan sembrava così sicuro di conoscerlo poveretto deve essere stato il funerale a turbarlo riportandolo con la memoria al filo di certi pensieri lui ne è assolutamente convinto ricordo che il giorno del nostro matrimonio disse a meno che un dovere non mi costringa a tornare di nuovo su quelle ore disperate nel sonno o nella veglia in follia o in sanità mentale sembra che esista una continuità logica in tutto questo quel conte spaventoso doveva venire a Londra se così deve essere e se giungesse a Londra con i suoi milioni di abitanti il dovere solenne potrebbe allora presentarsi nel qual caso dovremmo affrontarlo io voglio essere pronta prendo subito la macchina da scrivere e mi metto a copiare il suo resoconto in questo modo sarà a disposizione di altri lettori se necessario e qualora lo fosse se sarò pronta forse risparmierei un po' di pena al povero Jonathan perché potrei parlare invece sua ed evitargli altre angosce e preoccupazioni se solo Jonathan riuscisse a superare le crisi nervose che lo affliggono forse sentirebbe il desiderio di raccontarmi tutto e io potrei fargli domande e dalle sue risposte trovare il modo d'essergli conforto lettera di Van Helsing a Mrs. Harker 24 settembre confidenziale gentile madam la prego di perdonare il mio scritto poiché sono un amico vostro lontano e ho mandato a voi la notizia triste di morte di Miss Lucy Westenra per cortesia di Lord Godalming ho autorizzazione di leggere le sue lettere e documenti poiché sono molto preoccupato di certe questioni importanza vitale tra le sue carte io trovo alcune lettere vostre che mostrano quanto grandi amiche voi e Miss Lucy eravate e quanto grande affetto voi avevate per lei oh matammina per quell'affetto io vi supplico di aiutarmi è per il bene di altri che chiedo per rimediare grandi torti e per lenire molte sofferenze terribili forse più atroci di quel che sapete potrebbe essere che noi ci incontriamo potete fidarvi di me sono amico di dottor John Seward e di Lord Godalming che era l'Arthur di Miss Lucy sono costretto a tenere ogni cosa secreta a tutti per il momento verrei a Exeter a incontrare voi subito se dite che posso avere il privilegio e dite dove e quando imploro il vostro perdono madame ho letto le vostre lettere alla povera Lucy e so quanto voi siete buona e quanto vostro marito ha sofferto perciò vi prego se è possibile di non informarlo perché può fare danno ancora perdonate e scusatemi Van Helsing telegramma di Miss Sarker a Van Helsing 25 settembre venite oggi con treno 10 e 15 se riuscite nostro incontro possibile a qualsiasi ora Wilhelmina Harker dal diario di Mina Harker 25 settembre non posso fare a meno di provare un'emozione fortissima mentre si avvicina l'ora dell'incontro con il dottor Van Helsing perché in qualche modo mi aspetto che possa fare un po' di luce sulla triste vicenda di Jonathan e perché avendo assistito la povera Lucy fino all'ultimo mi saprà dire tutto di lei deve essere questa la ragione della sua visita deve riguardare Lucy e il suo sonnambulismo non Jonathan dunque non saprò mai la verità che sciocca sono quel diario tremendo si è impadronito della mia immaginazione e tinge ogni cosa intorno dei suoi colori foschi ma certo che si tratta di Lucy la povera cara era ricaduta preda della sua abitudine e quella notte in fausta sulla scogliera deve averla fatta ammalare presa dalla mia angoscia avevo quasi scordato quanto abbia sofferto dopo deve avergli raccontato l'avventuroso episodio di sonnambulismo sulla scogliera specificando che io ero il corrente di tutto così ora lui vuole sentire la mia versione dei fatti per poter comprendere spero di non aver sbagliato tacendo ogni cosa a Mrs. Westerna non potrei mai perdonarmi sommio qualsiasi gesto fosse anche un'omissione avesse procurato un danno alla povera Lucy spero anche che il dottor Van Helsing non mi rimproveri di recente ho passato tante sciagure e provato tanta angoscia che non credo di poterne tollerare altre al momento sono convinta che un pianto faccia bene a tutti di quando in quando pulisce l'aria come fa la pioggia forse è stato leggere il diario che mi ha sconvolta ieri e poi questa mattina Jonathan è uscito con il programma di restare lontano da me un giorno intero e una notte è la prima volta che ci separiamo da che siamo sposati spero tanto che il mio caro si riguardi e che non gli accada nulla di inquietante ora sono le due tra poco sarà qui il dottore non farò parola del diario di Jonathan a meno che non mi chieda qualcosa sono lieta di aver trascritto anche il mio diario così che qualora mi chiedesse di Lucy potrei consegnarglielo risparmiandoci molte domande più tardi è venuto e è andato via oh che strano incontro e che sensazione di vertigine mi sento come in un sogno può essere vero tutto questo anche solo in parte se non avessi letto per prima il diario di Jonathan non lo crederei neppure possibile povero povero caro quanto deve aver sofferto voglia il buon dio che non debba mai più patire simili pene cercherò di proteggerlo ma potrebbe essergli di conforto ed aiuto per quanto tremendo il fatto in sé e atroci le conseguenze sapere per certo che occhi orecchie e cervello non l'hanno ingannato e che era tutto vero forse è proprio il dubbio a tormentarlo cosicché una volta rimossa l'incertezza qualunque cosa nel sonno o nella veglia abbia rivelarsi vera si sentirà più soddisfatto e più in grado di tollerare il colpo il dottor Van Helsing deve essere un uomo di buon cuore oltre che intelligente se è amico di Arthur e del dottor Seward e se l'hanno portato fin qui dalla lontana Olanda affinché si prendesse cura di Lucy ora che l'ho incontrato sento che è davvero una brava persona ed animo nobile e gentile domani al suo ritorno voglio chiedergli di Jonathan e poi a Dio piacendo tutto questo dolore e questa pena giungeranno a buon fine una volta ero convinta che mi sarebbe piaciuto dedicarmi alle interviste l'amico di Jonathan all'Exeter News gli ha detto che in questo mestiere la memoria è tutto che occorre essere in grado di mettere per iscritto quasi ogni parola pronunciata anche se in seguito può rendersi necessaria qualche correzione ed ecco il caso di un'intervista davvero rara voglio sforzarmi di restituirla Berbatim erano le 14.30 precise quando ho sentito bussare ho preso il coraggio a piene mani e ho aspettato in capo a pochi istanti Mary ha aperto la porta per annunciare il dottor Van Helsing mi sono alzata e gli ho rivolto un breve inchino mentre lui veniva verso di me un uomo di statura media corporatura robusta le spalle aperte su un bel petto pieno e il collo eretto sul tronco e sovrastato da un capo la cui postura suggerisce subito l'idea d'essere forte e pensieroso un capo nobile di belle proporzioni ampio e spazioso sulla nuca il volto ben rasato mostra un gran mento spigoloso e volitivo bocca mobile risoluta naso ben fatto piuttosto diritto ma dotato di narici sensibilissime che sembrano dilatarsi ogni qual volta le folte sopracciglia si inarcano e le labbra si contraggono la fronte alta e spaziosa sale in un primo tratto pressoché diritta per poi curvare su due specie di bozzi o di crinali ben distanziati insomma una fronte tale che i capelli rossicci non potendo ricoprirla ricadono naturalmente all'indietro e lungo i lati del viso i grandi occhi di un azzurro cupo sono discosti e si fanno vivi e teneri oppure severi a seconda dell'umore mi ha detto Mrs. Hacker dico bene ho annuito in segno di assenso un tempo Miss Mina Murray ho sentito ancora è Mina Murray che sono venuto a trovare amica di quella povera cara pampina Lucy Westenra Madame Mina io vengo in nome della morta signore ho replicato non potreste avere ai miei occhi titoli migliori che quelli di essere stato amico e soccorritore di Lucy Westenra e gli ho teso la mano lui stringendola ha proseguito in tono affettuoso oh Madame Mina io sapevo che l'amica di quel povero Giglio doveva essere buona ma ancora non l'avevo conosciuto ha terminato il discorso chinando cortesemente il cavo gli ho chiesto che cosa l'avesse spinto a volermi incontrare e lui subito ha ripreso a dire ho letto le vostre lettere a Miss Lucy perdonate ma dovevo incominciare l'indagine da qualche parte e non avevo alcuno per domandare so che eravate a Whitby con lei di quando in quando ella teneva un diario no non dovete essere sorpresa Madame Mina questo diario era incominciato dopo la vostra partenza ed eseguito a imitazione del vostro e in esso si trovano accenni a un episodio di sonnambulismo e si deduce che voi avete salvato Lucy in grande perplessità dunque io vengo da voi e chiedo a voi se gentilissima volete dirmi che cosa ora ricordate dottor Van Helsing credo di potervi raccontare tutto ah dunque voi avete buona memoria di fatti di dettagli non è spesso così con le giovani signore no dottore ma ho annotato tutto a suo tempo posso mostrarvelo se desiderate oh madammina io sarò crato mi farete un favore crante non ho saputo resistere alla tentazione di prendermi un po' gioco di lui suppongo sia un avanzo di sapore della mela originale che ancora ci portiamo in bocca così gli ho offerto il mio diario stenografato l'ha preso ringraziandomi con un inchino e ha detto posso leggere se volete ho risposto al massimo della modestia l'ha aperto e per un istante è rimasto ammutolito poi si è alzato con un inchino oh voi che tonna intelligente ha detto io da lungo tempo sapevo che mister jonathan era un uomo molto fortunato ma ora vedo che la sua sposa ha tutte buone qualità e vorrete farvi l'onore di aiutarmi e di leggere per me ahimè io non conosco la stenografia a quel punto la mia breve burla era finita e quasi me ne vergognavo perciò ho estratto il dattillo scritto dal cestino da lavoro e gliel'ho offerto perdonatemi ho detto non ho potuto farne a meno ma avevo pensato che fosse della cara Lucy che intendevate parlarmi e affinché non doveste aspettare non per me ma perché so quanto sia prezioso il vostro tempo l'ho ricopiato a macchina per voi l'ha preso con occhi luccicanti siete così buona ha detto e posso leggere subito forse ho qualche cosa da chiedere dopo che ho letto certamente ho risposto leggetelo tutto mentre mi occupo di ordinare la colazione così potrete rivolgermi le vostre domande a tavola dopo un inchino si è sistemato su una poltrona dando le spalle alla luce ed è sprofondato nella lettura delle carte mentre io provvedevo al pranzo soprattutto allo scopo di non disturbarlo al mio ritorno l'ho trovato in piedi nell'atto di misurare a passi nervosi la stanza il volto acceso dall'emozione mi è corso incontro prendendomi le mani oh madammina ha detto come posso dire la mia gratitudine questo scritto è luce del sole apre per me il cancello sono confuso sono abbagliato da tanta luce eppure le nuvole rincorrono sempre la luce ma questo voi non lo sapete non lo potete sapere oh ma io sono grato a voi donna di grande intelligenza matam queste parole le ha pronunciato in modo molto solenne se mai Abraham Van Helsing può fare una cosa per voi o per i vostri cari confido che mi farete sapere sarà un grande piacere poter esservi utile come amico come amico tutto quello che ho imparato tutto quello che posso fare io farò per voi e per quelli che amate ci sono tenebre nella vita e ci sono luci voi siete una delle luci voi avrete una vita felice e buona e vostro marito sarà un uomo fortunato accanto a voi ma dottore mi lusingate troppo e quasi non mi conoscete non conoscere voi io che sono vecchio e che ho studiato uomini e donne tutta la mia vita io che ho fatto del cervello e di tutto ciò che gli appartiene e che ne deriva la mia specialità e che ho letto il vostro diario che tanto gentilmente voi avete scritto per me e che emana verità a ogni riga non conoscervi io che ho letto la vostra lettera dolcissima alla povera Lucy sul vostro matrimonio e sulla vostra fede oh madammina le donne oneste raccontano tutta la loro vita giorno su giorno ora su ora e minuto su minuto perché dicono cose che angeli possono leggere e noi uomini che desideriamo sapere abbiamo dentro qualcosa degli occhi degli angeli vostro marito è di nobile natura e voi siete nobile perché avete fede e non può avere fede chi ha natura malvagia è vostro marito ditemi di lui sta bene è passata quella sua febbre è tornato forte e sereno ho visto subito l'opportunità di chiedere di Jonathan perciò gli ho detto sì è quasi ristabilito ma la morte di Mr. Hawkins l'ha turbato moltissimo lui mi ha interrotto oh sì so so ho letto le vostre ultime due lettere ho proseguito suppongo che l'abbia molto turbato perché giovedì scorso in città ha avuto una sorta di trauma un trauma e dopo la febbre cerebrale così presto non è bene che tipo di trauma ha creduto di vedere qualcuno che gli rammentava cose terribili le stesse che gli avevano procurato la febbre cerebrale e a questo punto l'intera vicenda mi ha messo in qualche modo sopraffatta la pietà per Jonathan l'orrore per quello che aveva passato tutto il mistero spaventoso del suo diario la paura che incombe su di me da allora ogni cosa mi si è riversata addosso travolgendomi credo di aver avuto un attacco di isteria perché mi sono gettata in ginocchio e ho levato le braccia verso di lui implorando di guarire mio marito il dottore mi ha preso per le mani e mi ha rialzata poi mi ha fatto sedere sul divano e si è seduto accanto a me e tenendomi una mano fra le sue mi ha detto con tale infinita dolcezza la mia vita è sterile e desolata e tanto piena di lavoro che ho avuto poco tempo per le amicizie ma da quando io sono stato chiamato qui dal mio amico John Seward ho conosciuto tante persone buone e visto tanta nobiltà che sento più che mai la solitudine della mia vita che cresce con l'avanzare degli anni credete dunque che sono qui pieno di rispetto per voi e che voi mi avete dato speranza non speranza in quello che io cerco ma speranza che ci sono donne buone ancora che possono fare felice la mia vita donne buone le cui vite e la cui verità possono essere buon insegnamento per i figli di domani sono tanto tanto felice di poter essere qui di qualche aiuto a voi poiché se vostro marito soffre il suo soffrire è dentro i limiti dei miei studi e della mia esperienza prometto che sarò lieto di fare di lui tutto quel che posso ogni cosa per fare la sua vita forte e firile e la vostra felice ora dovete mangiare siete stremata e forse troppo in ansia marito jonathan non vorrebbe fetervi tanto palida e quello che lui non vuole vedere in coloro che ama non gli fa bene perciò fatelo per lui mangiate e sorridete mi avete detto di Lucy così adesso non ne parliamo più perché non fiturbi starò in Exeter questa notte perché voglio pensare molto a quello che mi avete detto e quando avrò pensato vi farò domande se posso e mi racconterete anche delle pene di marito jonathan se potete ma non ancora adesso dovete mangiare dopo mi racconterete tutto dopo pranzo di ritorno in salotto mi ha detto e adesso ditemi di lui quando si è trattato di parlare a quel signore tanto colto e sapiente ho iniziato a temere che potesse considerare me una sciocca insulsa e jonathan un folle quel diario è talmente strano perciò ho esitato a proseguire ma lui si è mostrato così dolce e comprensivo e poi aveva promesso di aiutarmi e mi fidavo così ho detto dottor Van Helsing quello che ho da raccontarvi è talmente bizzarro che non dovrete ridere di me o di mio marito vivo da ieri in uno stato di incertezza febbrile dovete essere gentile con me e non giudicarmi sciocca per aver creduto anche solo la metà di simili stranezze i suoi modi mi hanno rassicurato come le sue parole quando ha detto oh mia cara se voi solo sapeste quanto è strana la ragione del mio essere qui sareste voi a ridere di me ho imparato a non disdegnare le convinzioni di nessuno per quanto strani mi sono sforzato di conservare aperta la mia mente e non saranno i fatti ordinari della vita a chiuderla ma quelli straordinari quelli bizzarri quelli che fanno chiedere a ciascuno se è sano di mente o se non lo è grazie grazie mille volte grazie mi avete levato un gran peso dal cuore se me lo permettete voglio darvi un documento da leggere è piuttosto lungo ma l'ho trascritto a macchina vi troverete narrate le pene mie e di jonathan si tratta di una copia del suo diario tenuto all'estero con il resoconto di quanto è accaduto non oso fare commenti vorrei che lo leggeste e giudicaste voi stesso poi al nostro prossimo incontro sarete forse così gentile da dirmi che cosa ne pensate prometto ha ribattuto mentre gli consegnavo il plico che domani mattina appena posso verrò a fare visita a voi e a vostro marito se mi concedete jonathan sarà qui verso le 11 e mezza e dovete senz'altro venire a pranzo per incontrarlo potreste prendere il rapido delle 15 e 34 con il quale scenderete a paddington entro le 8 lo ha sorpreso che conoscessi l'orario a memoria ma non può sapere che mi sono fatto un elenco di tutti i treni da e per exiter allo scopo di poter essere di aiuto a jonathan in caso di emergenza così lui si è preso le carte e se n'è andato mentre io sono qui seduta a pensare pensare a non so che lettera consegnata a mano di Van Helsing a Mrs. Harker 25 settembre ore 18 cara madammina ho letto il diario meraviglioso di vostro marito potete riposare senza dubbio alcuno per quanto strano e terribile è tutto vero sono pronto a giocarmi la vita potrà essere peggio per altri ma per voi e per lui non c'è timore egli è un uomo nobile e lasciate che io vi dica per l'esperienza che ho degli uomini che chi ha potuto comportarsi come lui scendendo da quel muro ed entrando in quella stanza anzi andando poi una seconda volta non è persona da subire danni permanenti per un trauma il suo cerfello e il suo cuore sono sani posso giurarlo senza averlo mai visto di persona perciò state serena avrò volto di chiedere a lui di altre cose è stata una benedizione vedervi oggi perché ho saputo tante cose in una volta che di nuovo sono stupefato stupefato più che mai e devo pensare vostro fedelissimo Abraham Van Helsing lettera di Mrs. Harker a Van Helsing 25 settembre 18 e 30 mio caro dottor Van Helsing mille volte grazie per la vostra cortese lettera che mi ha sollevato la mente da un gran peso d'altronde se è tutto vero che cose terribili esistono al mondo e che orrore l'idea che quell'uomo quel mostro possa essere a Londra tremo al solo pensiero proprio ora mentre vi scrivevo ho ricevuto un telegramma da Jonathan nel quale egli mi dice che partirà da Lansington con il treno delle 18 e 25 e che sarà qui alle 10 e 18 così questa notte non avrò nulla da temere vorreste dunque per favore anziché pranzare con noi venire a colazione domani mattina alle 8 sempre che non sia troppo di buonora per voi in caso foste di fretta potreste prendere il treno delle 10 e 30 con il quale sarete a Paddington alle 14 e 35 non occorre che rispondiate a questa mia il vostro silenzio significherà che sarete con noi a colazione la vostra sincera e riconoscente amica Mina Harker dal diario di Jonathan Harker 26 settembre pensavo che non avrei mai più aperto questo diario ma è venuto il momento di farlo ieri sera al mio ritorno Mina aveva preparato la cena e dopo mangiato mi ha raccontato della visita del dottor Van Helsing dicendomi di avergli consegnato i due diari trascritti e di essere stata molto in pena per me mi ha anche mostrato nella lettera del dottore il passo in cui si dice come tutto ciò che ho scritto corrisponda a verità questo sembra aver fatto di me un uomo nuovo ad abbattermi era il dubbio circa l'effettiva realtà dell'intera vicenda mi sentivo impotente circondato dal buio sfiduciato ora che invece so non ho paura neppure del conte così gli è riuscito dopo tutto il piano di venire a Londra ed è lui che ho visto ma come ha fatto a ringiovanire se a quanto afferma Mina è vero anche solo in parte Van Helsing è l'uomo giusto per smascherarlo e dargli la caccia siamo rimasti in piedi fino a tardi e ne abbiamo parlato a lungo ora Mina si sta preparando e tra qualche minuto io andrò a prendere il dottore al suo hotel credo sia stato sorpreso nel vedermi quando sono entrato nella stanza e mi sono presentato mi ha preso per una spalla e mi ha voltato in viso in direzione della luce prima di dire scrutandomi attentamente eppure Madame Mina mi ha detto che eravate malato che avevate avuto un trauma ho trovato buffo sentir chiamare mia moglie Madame Mina da quel vecchio signore dal volto gentile risoluto con un sorriso ho detto infatti sono stato malato e ho avuto un trauma ma voi mi avete già guarito e come? con la vostra lettera a Mina ieri sera vivevo nel dubbio e ogni cosa intorno a me assumeva sfumature irreali non sapevo di che cosa fidarmi dubitavo dei miei stessi sensi e non sapendo in che cosa credere non sapevo nemmeno che cosa fare perciò non mi restava altra scelta che procedere in quello che ormai diventato il solco della mia esistenza ma il solco aveva cessato di guidarmi non avevo più fiducia in me stesso dottore voi non potete immaginare che significhi dubitare di tutto persino di sé no di sicuro non con sopracciglia come le vostre è parso compiaciuto e ridendo ha detto vedete che vi intentete di fisiognomica qui imparo cose nuove ogni ora che passa vengo con così grande piacere a pranzo da voi e oh signore voi perdonerete un complimento da un uomo tanto vecchio ma avete una benedizione in vostra moglie sarei rimasto un giorno intero ad ascoltarlo tessere le lodi di mina perciò mi sono limitato ad assentire chinando il capo in silenzio ella è una delle tonne di dio modellate dalla sua mano per mostrare agli uomini e alle altre tonne che esiste un paradiso nel quale noi possiamo entrare e che diffonde la sua luce sulla terra così sincera nobile altruista e questo lasciate che vi dica è davvero molto in un'epoca tanto scetica ed ecoista e voi signore ho letto tutte le sue lettere indirizzate alla povera Miss Lucy e alcune di esse parlano di voi perciò vi conosco da alcuni giorni già attraverso la conoscenza degli altri ma da ieri sera ho visto di persona la vostra vera natura volete darmi la vostra mano volete che siamo amici per il resto della vita ci siamo stretti la mano e tanta autentica cortesia in lui mi ha procurato un nodo in gola e adesso ha proseguito lui posso chiedervi ancora altro aiuto ho un compito difficile da svolgere e in principio mi occorre di sapere voi qui potete aiutarmi mi potete dire che cosa è accaduto prima della vostra partenza per la Transilvania in seguito può darsi che avrò bisogno di domandarvi aiuto di natura diversa ma per adesso può bastare dite signore ho chiesto ciò che dovete fare riguarda forse il conte in effetti ha risposto solenne in tal caso sono con voi anima e cuore giacché ve ne andrete con il treno delle 10.35 non avrete tempo di leggerlo ma voglio darvi comunque un fascio di carte potete portarlo con voi e guardarlo in viaggio dopo mangiato l'ho accompagnato in stazione mentre ci congedavamo mi ha detto forse siete disposto a venire in città se vi mando a chiamare e portare anche madame verremo entrambi quando vorrete ho risposto gli avevo preso i giornali del mattino e il quotidiano di londra della sera avanti e mentre mi parlava dal finestrino in attesa che il treno partisse il dottore li stava sfogliando all'improvviso ho colto con lo sguardo qualcosa su uno di essi the westminster gazette l'ho riconosciuto dal colore della carta ed è sbiancato ha letto un passo con estrema concentrazione mormorando tra sé mein Gott mein Gott così presto così presto non credo che in quel momento si ricordasse della mia presenza proprio allora c'è stato il fischio di partenza e il convoglio si è mosso questo l'ho richiamato alla realtà perciò si è esporto dal finestrino e mi ha salutato con la mano gridando porga i miei omaggia madammina vi scriverò appena è possibile dal diario del dottor Seward 26 settembre davvero non esiste nulla di definitivo non è passata una settimana da quando ho scritto la parola finis ed eccomi qui a ricominciare da capo o meglio a proseguire la stesura dello stesso diario fino oggi pomeriggio non avevo motivo di darmi pensiero per quanto era stato fatto Renfield era tornato tranquillo di mente come non mai sotto ogni aspetto aveva ripreso con buon profitto la caccia alle mosche e aveva ricominciato anche coi ragni perciò non mi dava motivo di preoccupazione ho ricevuto una lettera di Arthur scritta la domenica e mi pare che se la stia cavando decisamente bene Quincy Morris è con lui e questo gli è di grande conforto perché si tratta di una fonte inesauribile di buon umore anche Quincy mi ha spedito due righe dicendo che Arthur incomincia a recuperare parte del suo spirito gioviale per quel che li riguarda dunque mi sento sereno quanto a me mi stavo rimettendo al lavoro con l'entusiasmo di un tempo tanto da poter quasi affermare che la ferita inflittami dalla scomparsa della povera Lucy stesse cominciando a rimarginarsi ora tuttavia si è riaperta e solo il Dio sa come andrà a finire ho idea che creda di saperlo anche Van Helsing ma appare deciso a lasciarsi sfuggire solo quanto basta per esasperare la mia curiosità ieri è stato a Exeter e vi ha pernottato al suo ritorno oggi si è precipitato nella mia stanza intorno alle 5 e mezza gettandomi letteralmente tra le mani The Westminster Gazette che mi dite di questo? ha domandato facendo un passo indietro e incrociando le braccia sul petto ho esaminato il giornale da cima a fondo perché non capivo proprio che intendesse ma lui me l'ha strappato di mano e mi ha indicato un trafiletto nel quale si diceva di certi bambini scomparsi nella zona di Hampstead la notizia non mi ha detto granché fino a quando non sono arrivato al punto in cui erano descritte le esigue ferite rinvenute sulla gola dei piccoli allora mi è balenata in mente un'idea e ho alzato lo sguardo dunque che ne dite di questo? ha detto lui come quelle della povera Lucy e che cosa ne deducete? è semplice che deve esserci una causa comune la stessa entità che ha ferito lei deve aver ferito anche quei bambini la sua risposta non mi è giunta del tutto chiara questo è indirettamente vero ma non direttamente che volete dire professore? ho domandato mi sentivo in pena di accogliere con una certa spensieratezza i suoi modi gravi giacché dopotutto quattro giorni di tregua e di libertà dall'angoscia febbrile e incalzante aiutano a risollevare un po' lo spirito ma quando ho visto la sua espressione mi sono dovuto ricredere mai nemmeno al culmine della nostra disperazione sulle sorte di Lucy era apparso altrettanto severo parlate ho detto non sono in grado di avanzare congetture non so che pensare non possiedo dati a sufficienza per formulare un'ipotesi volete forse dire amico John che non avete un sospetto circa le cause della morte di Lucy neppure dopo tutti i suggerimenti offerti non solo dai fatti ma anche da me di esaurimento nervoso a seguito di un'enorme perdita o impoverimento del sangue perdita o impoverimento del sangue dovuti a cosa ho scosso il capo il dottore è venuto a sedersi accanto a me e ha proseguito voi siete un uomo intelligente amico John ragionate bene e avete idee audaci ma anche troppi pregiudizi non permettete ai vostri occhi di vedere e alle vostre orecchie di sentire e quanto esula dal vostro quotidiano non vi riguarda siete convinto che ci sono cose che voi non comprendete ma che esistono lo stesso che alcune persone fedono fenomeni che altre persone non fedono ma esistono cose vecchie e nuove che lo sguardo dell'uomo non deve contemplare perché la gente conosce o crede di conoscere cose solo perché altri gliele hanno raccontate ah è errore nella nostra scienza questo voler spiegare ogni cosa e quando non può spiegare allora sostiene che non c'è nulla da spiegare eppure vediamo intorno a noi ogni giorno la nascita di cretenze nuove che pretendono di essere nuove quando sono in realtà solo le vecchie che fingono di essere giovani come le signore al teatro dell'opera ora io suppongo che voi non credete alla traslazione corporea no e neppure alla materializzazione no e neppure ai corpi astrali no e neppure alla lettura del pensiero no e neppure all'ipnotismo sì invece ho detto Charcot ce ne fornisce prove convincenti lui ha proseguito con un sorriso e per questo motivo vi ritenete soddisfatto sì e naturalmente dunque voi comprendete come avviene e siete in grado di seguire il pensiero del grande Charcot fin dentro l'anima stessa del paziente ipnotizzato no allora amico John devo forse deturre che voi vi limitate ad accogliere il dato di fatto e ad accettare che tra le premesse e le conclusioni esiste un vuoto no allora ditemi voi già che io sono uno studioso del cervello come potete riconoscere l'ipnotismo e rifiutare la lettura del pensiero lasciate che io vi dica amico mio che al giorno d'oggi con la scienza elettrica si compiono cose che sarebbero state ritenute sacrileghe dagli uomini stessi che inventarono l'elettricità i quali a loro volta sarebbero stati messi al rogo come stregoni non molto tempo prima ci sono sempre misteri nella vita come è accaduto che Matusalemme vivesse 900 anni e il vecchio par 169 e che d'altro canto la povera Lucy con in corpo il sangue di ben 4 uomini non si è riuscita a vivere nemmeno un giorno perché se fosse vissuta un giorno in più noi avremmo potuto salvarla conoscete tutti i misteri della vita e della morte conoscete tutto il sapere di anatomia comparata e potete quindi affermare che i caratteri di bestie brute sono in certi individui e in altri no mi sapete dire come mai se altri ragni muoiono piccoli e giovani quel solo grande ragno è vissuto secoli nel campanile della vecchia chiesa spagnola ed è cresciuto sempre di più finché calandosi dall'alto era in grado di bere l'olio di tutte le lampade della chiesa mi sapete dire come mai nella pampa e in altri luoghi ancora vivono pipistrelli che di note vengono a mordere le vene di bovini e di cavalli e a succhiare il loro sangue come mai in certe isole dei mari occidentali ci sono pipistrelli che stanno appesi ai rami tutto il giorno e coloro che li hanno visti li descrivono come enormi noci o bozzoli e che quando i marinai dormono sul ponte perché fa troppo caldo quelli scendono su di loro e poi l'indomani vengono trovati uomini morti esangui come Miss Lucy buon dio professore ho esclamato sussultando volete dire forse che anche Lucy è stata morsa da uno di quei pipistrelli e che simili fenomeni possono accadere a Londra in pieno diciannovesimo secolo con un cenno della mano mi ha zittito per poi proseguire mi sapete dire come mai la tartaruga vive più a lungo di intere generazioni di uomini come mai l'elefante dura tanto da vedere il succedersi di numerose dinastie e come mai il papagallo non muore se non per il morso di cane o di gatto o per altra ferita mi sapete dire come mai in ogni tempo e luogo gli uomini hanno creduto all'esistenza di alcuni che possono vivere per sempre se glielo permettono che ci sono uomini e donne che non possono morire mai noi tutti sappiamo perché la scienza ce lo ha provato che ci sono rospi rimasti chiusi tra le rocce per migliaia di anni chiusi in spazi tanto angusti da poterli a malapena contenere sin dai tempi della giovinezza del mondo mi sapete dire come fa il fachiro indiano a costringersi a morire essere sepolto il suo sepolcro sigillato e la terra seminata a grano e il grano raccolto e riseminato e poi ancora raccolto e poi altri uomini vengono e tolgono il sigillo ancora intatto del sepolcro e lì giace il fachiro indiano non morto ma pronto ad alzarsi e a camminare tra loro come prima a quel punto l'ho interrotto ero incredulo mi aveva riversato nel cervello una tale folla di stravaganze di natura e di possibili eventualità che mi stava andando a fuoco l'immaginazione avevo l'impressione che mi stesse impartendo un insegnamento come faceva molto tempo prima nel suo studio di Amsterdam allora però mi comunicava l'oggetto della trattazione in modo che potessi tenerlo sempre presente nel pensiero ora invece mi lasciava senza aiuto ma io desideravo seguirlo perciò ho detto professore permettetemi di tornare ad essere il vostro pupillo enunciatemi la tesi di modo che possa avvalermi del vostro sapere a mano a mano che parlate al momento salto nella testa da un punto all'altro a caccia di un'idea come fa il folle non certo il sano di mente mi sento come un novizio che avanzi alla cieca tra le nebbie di una palude saltellando da un arbusto all'altro nel mero sforzo di procedere senza sapere dove sia diretto questa è una buona immagine ha detto lui ebbene vi dirò ecco la mia tesi desidero che voi crediate che io creda cosa cose che non potete credere lasciate che io illustri una volta ho sentito un americano definire la fede così ciò che ci permette di credere cose che sappiamo non fare mi associo al pensiero di quell'uomo voleva dire che dobbiamo mantenere aperta la mente e non permettere che un frammento di verità blocchi il corso della grande verità così come un piccolo sasso può deviare il vagone di un treno prima giungiamo alla piccola verità bene la conserviamo e la valutiamo ma al tempo stesso non dobbiamo permettere a questa piccola verità di pensarsi l'intera verità dell'universo mi state dunque chiedendo di non permettere a certe convinzioni precedenti di ostacolare la ricettività del mio pensiero rispetto ad alcuni fenomeni inconsueti ho afferrato il punto della vostra lezione vedo che voi siete ancora il mio pupilo vale la pena esservi maestro ora che siete disposto a capire avete fatto il primo passo verso la comprensione dunque voi ritenete che i piccoli fori trovati sulla cola dei bambini sono stati opera della stessa entità che ha praticato i fori a Miss Lucy immagino di sì il dottore si è alzato e solennemente ha detto in tal caso vi spagliate o magari fosse così invece no purtroppo è peggio molto peggio in nome di dio professor Van Helsing che volete dire ho esclamato con un gesto affranto si è accasciato su una sedia e poggiando i gomiti sulla tavola si è coperto il viso con le mani e ha concluso sono stati fatti da Miss Lucy capitolo 15 dal diario del dottor Seward continuazione per un momento sono stato dominato dalla rabbia pura era come se Lucy ancora in vita le avesse dato uno schiaffo sulla guancia battendo un pugno sul tavolo mi sono alzato e ho detto siete pazzo dottor Van Helsing ha levato la testa e mi ha guardato e non so come la tenerezza della sua espressione mi ha immediatamente tranquillizzato magari lo fossi ha detto la pazia sarebbe facile da sopportare in confronto di verità come questa oh amico mio perché secondo voi avrei girato tanto in tondo perché impiegare tutto questo tempo per dire una cosa così semplice forse perché vi odio e vi ho sempre odiato forse perché volevo farvi soffrire forse perché volevo con tanto ritardo vendicarmi della volta che mi avete salvato la vita e da una morte terribile oh no perdonatemi gli ho detto lui ha continuato amico mio era perché volevo essere gentile nel darvi la notizia perché so che avete amato quella signorina così dolce e anche ora non mi aspetto che voi mi crediate è così difficile accettare immediatamente qualsiasi verità astrata che dubitiamo della sua possibilità quando abbiamo sempre creduto alla sua impossibilità è ancora più difficile accettare una verità concreta tanto triste soprattutto che riguarda Miss Lucy questa notte ne darò prova ora venite con me osate venire con me questo mi ha sconcertato a nessun uomo piace dimostrare una simile verità con l'eccezione di Byron e per gelosia e provare la verità che maggiormente abborriva ha visto la mia esitazione e ha detto la logica semplice non è la logica del pazzo questa volta che salta di cespuglio in cespuglio nell'acquitrino nebbioso se non è vero allora la prova sarà un sollievo nel paciore dei casi non farà tanni ma se fosse vero ah che terrore ma il terrore potrebbe aiutare la mia causa perché in esso c'è qualche speranza ad essere creduto venite vi dico quello che propongo di fare prima di tutto usciamo e andiamo a vedere quel bambino all'ospedale il dottor Vincent del North Hospital dove i giornali dicono che si trova il bambino è un mio amico e penso che e penso anche vostro siccome studiavate insieme ad Amsterdam permetterà che due studiosi esaminino il suo caso non dovesse permetterlo a due amici non gli diremo nulla solo che desideriamo imparare e poi e poi ha preso una chiave dalla tasca e me l'ha mostrata e poi passiamo la note voi e io nel cimitero in cui è sepolta Lucy questa è la chiave che chiude la sua tomba me la date il becchino perché la dia ad Arthur mi sono sentito mancare il cuore perché sentivo che ci attendeva una prova terribile tuttavia non c'era nulla che io potessi fare così raccogliendo quel po' di cuore che mi era rimasto ho detto che era meglio che ci affrettassimo visto che il pomeriggio volgeva alla fine abbiamo trovato sveglio il bambino aveva dormito e mangiato qualcosa e nel complesso stava bene il dottor Vincent gli ha tolto la benda dalla gola e ci ha mostrato le punture non era possibile non vedere la somiglianza con quelle che si trovavano sulla gola di Lucy erano più piccole e i margini sembravano più freschi ecco tutto abbiamo chiesto a Vincent a che cosa le attribuisse ha risposto che pareva il morso di qualche animale forse un ratto ma per parte sua era incline a credere che si trattasse di uno di quei pipistrelli così numerosi sulle colline nella zona nord di Londra tra tanti innocui ha detto potrebbe esserci qualche esemplare selvatico di una specie più nociva che viene dal sud qualche marinaio potrebbe averlo portato a casa ed è riuscito a fuggire perfino dal giardino zoologico potrebbe essere scappato un piccolo oppure essere nato lì dall'incrocio con un vampiro queste cose succedono sapete solo dieci giorni fa è scappato un lupo e l'hanno avvistato da queste parti la settimana seguente i bambini giocavano soltanto a cappuccetto rosso sull'iz e in ogni vicolo del posto finché non è arrivata la notizia terrorizzante della bella signora e da quel momento per loro è stata una gran festa anche questo piccino appena si è svegliato oggi ha chiesto all'infermiera se poteva andarsene quando gli ha chiesto perché voleva uscire le ha detto che voleva andare a giocare con la bella signora spero ha detto Van Helsing che quando dimetterete il bambino consiglierete ai genitori di tenerlo sotto stretta sorveglianza queste fantasie di vagabondare sono pericolosissime e se il bambino dovesse restare fuori un'altra notte probabilmente sarebbe per lui fatale ma suppongo che non lo manderete via per qualche giorno certamente no almeno non prima di una settimana e anche di più se la ferita non si rimargina la nostra visita all'ospedale è durata più a lungo di quanto non ci fossimo prefissi e il sole era calato prima che uscissimo di lì quando Van Helsing ha visto come era buio ha detto non c'è fretta è più tardi di quel che pensavo finite cerchiamo un posto per mangiare e poi andremo per la nostra strada abbiamo cenato al Jack Strauss Castle insieme a una piccola folla di ciclisti e altri clienti giovialmente rumorosi siamo usciti dalla locanda verso le 10 era molto buio e i rari lampioni rendevano più fonda l'oscurità quando eravamo fuori dal raggio di ognuno il professore evidentemente aveva studiato la strada che dovevamo percorrere poiché procedeva senza esitazioni ma per quanto mi riguarda io non mi raccapezzavo a mano a mano che procedevamo incontravamo sempre meno gente fino a che è stata una sorpresa incontrare la polizia a cavallo nel suo giro di ronda fuori città infine abbiamo raggiunto il muro del cimitero che abbiamo scavalcato con qualche piccola difficoltà abbiamo trovato la tomba dei Westenra il professore ha preso la chiave ha aperto la porta cigolante e con un passo indietro cortese ma del tutto inconsapevole mi ha fatto cenno di precederlo c'era una deliziosa ironia in questa offerta nel garbo con cui cedeva il passo in una circostanza tanto raccapricciante il mio compagno mi ha seguito velocemente e con cautela ha chiuso l'uscio dopo aver attentamente controllato che la serratura non fosse a scatto altrimenti ci saremmo trovati in una situazione assai spiacevole poi ero vistato nella borsa e tirando fuori una scatola di fiammiferi e un pezzo di candela ha acceso la luce alla luce diurna e addobbata di corone e fiori freschi la tomba aveva già un aspetto laido e macabro ma ora dopo qualche giorno con i fiori abbizziti e morti il bianco che volgeva al ruggine e il verde al bruno quando i ragni e gli scarafaggini avevano ripreso possesso quando la pietra scolorita dal tempo e la malta incrostata di polvere e il ferro arrugginito e umido e l'ottone opaco e l'argento annerito hanno riflesso il flebile bagliore della candela l'effetto era più infelice e sordido di quanto si possa immaginare trasmetteva irresistibilmente l'idea che la vita la vita animale non era l'unica cosa destinata a morire Van Helsing procedeva sistematicamente nel suo lavoro tenendo la candela in modo da poter leggere le targhe sui feretri mentre la cera di spermaceti colava in chiazze bianche che si rapprendevano al contatto con il metallo ha trovato la bara di Lucy un'altra ricerca nella borsa ha prodotto il cacciavite che cosa avete intenzione di fare? ho chiesto di aprire la bara presto sarete convinto e subito ha cominciato a togliere le viti e infine ha sollevato il coperchio scoprendo l'involucro di piombo all'interno la vista mi era quasi insopportabile mi pareva essere un tale affronto alla morta come se in vita le avessero tolto i vestiti di dosso mentre dormiva gli ho afferrato la mano per fermarlo ha detto soltanto fetrete e di nuovo frugando nella borsa ha preso un seghetto infilato il cacciavite nel piombo con un colpo secco che mi ha fatto sussultare ha praticato un forellino grande però quanto bastava per infilare la punta della sega mi ero atteso una zaffata di gas dal cadavere vecchio ormai di una settimana noi dottori che abbiamo dovuto studiare i pericoli cui andiamo incontro siamo abituati a simili cose e sono indietreggiato verso la porta ma il professore non si è fermato neppure per un minuto ha segato più o meno 60 centimetri lungo un lato della cassa di piombo e poi ha proseguito di traverso e di nuovo dalla parte opposta afferrando il margine dell'involucro di piombo l'ha quindi ripiegato verso i piedi della bara e tenendo la candela sopra l'apertura mi ha invitato a guardare mi sono avvicinato a vedere la bara era vuota certamente è stata una sorpresa per me e mi ha procurato un profondo turbamento ma Van Helsing era impassibile adesso era più sicuro che mai della sua tesi e incoraggiato a proseguire nel suo compito siete confinto ora amico John ha domandato ho sentito risvegliarsi in me tutta la vena polemica della mia natura mentre gli rispondevo sono convinto che il corpo di Lucy non si trova in quella bara ma ciò prova soltanto una cosa e che cosa amico John che non è lì questa è buona logica ha detto fino a un certo punto ma come fate come potete spiegare il fatto che non è lì forse un ladro di cadaveri ho suggerito qualcuno che lavora alle pompe frunebri potrebbe averlo sottratto sentivo di star dicendo follie eppure era l'unica causa reale che riuscivo a trovare il professore ha sospirato ah bene ha detto dobbiamo trovare altre prove finite con me ha riposto il coperchio della bara raccolto tutte le sue cose che ha messo nella borsa spento la candela e infilato anche la candela nella borsa abbiamo aperto la porta e siamo usciti ha chiuso la porta alle nostre spalle e le ha dato un giro di chiave poi mi ha dato la chiave dicendo volete tenerla è meglio che vi accertiate ho riso ed era una risata non molto allegra devo dire mentre gli facevo segno di tenersela una chiave non è nulla ho detto e potrebbero essercene dei duplicati e comunque non è difficile forzare una serratura come quella non ha detto nulla e si è messo la chiave in tasca poi mi ha detto di sorvegliare un lato del cimitero mentre lui sorvegliava l'altro mi sono appostato dietro a un tasso e ho guardato la sua sagoma scura allontanarsi finché le pietre tombali e gli alberi l'hanno nascosta alla mia vista è stata una veglia solitaria poco dopo essermi appostato ho sentito un orologio lontano battere la mezzanotte e poi sono venute l'una e le due ero infreddolito e nervoso seccato col professore che mi aveva trascinato in quell'avventura e con me stesso che mi ero lasciato coinvolgere avevo troppo freddo e troppo sonno per stare davvero attento ma non abbastanza sonno per tradire il compito affidatomi così ho passato ore monotone e tristi d'un tratto voltandomi mi è perso di vedere qualcosa di bianco muoversi fra due tassi scuri sul lato opposto del cimitero rispetto alla tomba allo stesso tempo una massa scura si è mossa dalla parte del professore correndo incontro la macchia bianca allora mi sono mosso anch'io ma dovevo girare intorno alle pietre sopolcrali e alle tombe recintate e incespicavo sulle lapidi il cielo era coperto e da qualche parte in lontananza un gallo particolarmente mattiniero si è messo a cantare a poca distanza oltre una fila di ginepri irregolari che fiancheggiavano il sentiero della chiesa una figura indistinta e bianca è passata velocemente in direzione della tomba ma la tomba era nascosta dagli alberi e non sono riuscito a vedere dove fosse scomparsa la figura ho sentito il fruscio di un movimento dove prima avevo intravisto la sagoma bianca mi sono avvicinato e ho trovato il professore con in braccio un bambino piccolo quando mi ha visto me lo ha mostrato dicendo siete soddisfatto adesso no ho risposto in modo che sentivo aggressivo non vedete il bambino sì lo vedo che è un bambino ma chi l'ha portato qui ed è ferito ho domandato fitremo ha detto il professore e simultaneamente ci siamo diretti verso l'uscita del cimitero lui con in braccio il bambino addormentato dopo esserci allontanati un poco siamo entrati in una macchia d'alberi e acceso un fiammifero abbiamo controllato la gola del bambino non c'era traccia di graffi né segni di alcun tipo non avevo forse ragione ho chiesto trionfante siamo arrivati appena in tempo ha detto il professore con sollievo dovevamo decidere che cosa fare del bambino e ci siamo consultati in merito se l'avessimo portato a una stazione di polizia avremmo dovuto fornire un resoconto dei nostri movimenti nel corso della notte almeno rilasciare una deposizione su come e dove lo avevamo trovato così alla fine abbiamo deciso di portarlo sull'Eath e quando avessimo sentito arrivare un poliziotto l'avremmo lasciato in un punto in cui gli sarebbe stato impossibile non trovarlo e allora saremmo tornati a casa il più in fretta possibile è andato tutto bene sul margine del Hampstead Heath abbiamo sentito il passo pesante di un poliziotto e lasciando il bambino sul sentiero abbiamo aspettato finché muovendo la lanterna di qua e di là si è accorto della sua presenza abbiamo sentito la sua esclamazione di sorpresa e poi ci siamo allontanati in silenzio per buona sorte abbiamo trovato una carrozza vicino allo Spaniard e siamo tornati in città non riesco a dormire e così registro queste righe ma ho bisogno di qualche ora di sonno perché Van Helsing verrà a prendermi a mezzogiorno insiste perché lo segua in un'altra spedizione 27 settembre si sono fatte le due del pomeriggio prima che si presentasse l'occasione adatta al nostro esperimento il funerale che si era svolto a mezzogiorno era ormai terminato e gli ultimi partecipanti attardatesi fra le tombe si erano lentamente allontanati quando osservando da un folto di ontani abbiamo visto il custode chiudere il cancello dietro di sé sapevamo che volendo nessuno ci avrebbe scoperto fino al mattino seguente ma il professore ha detto che non ci sarebbe voluta più di un'ora al massimo ancora una volta ho provato quell'orribile senso della realtà delle cose in cui ogni sforzo dell'immaginazione sembra fuori luogo e mi sono reso distintamente conto dei pericoli in cui saremmo in corsi sfidando la legge con la nostra opera sacrilega inoltre mi pareva così inutile per quanto oltraggioso fosse aprire una bara di piombo per controllare se una donna morta da quasi una settimana fosse effettivamente morta mi sembrava il culmine della follia riaprire la tomba quando sapevamo per averlo visto con i nostri occhi che la bara era vuota tuttavia ho scrollato le spalle tacendo perché Van Helsing ha un suo modo di tirare dritto incurante delle proteste di chi che sia ha preso la chiave aperto la critta e di nuovo mi ha ceduto cortesemente il passo il posto non era così raccapricciante come la notte precedente ma che aspetto squallido aveva quando vi è entrata la luce del sole Van Helsing si è diretto verso la bara di Lucy e io l'ho seguito si è chinato e di nuovo ha sollevato il lembo di piombo a quel punto sono stato folgorato dalla sorpresa e dallo sgomento Lucy giaceva nella bara proprio come l'avevamo vista la notte prima del funerale se è possibile più raggiante e più bella che mai non riuscivo a credere che fosse morta le labbra erano rosse più rosse di prima e le guance erano di un rosa delicato è un gioco di prestigio questo gli ho detto adesso siete convinto ha detto il professore per tutta risposta e mentre parlava ha steso la mano e con un gesto che mi ha fatto arrabbrividire le ha sollevato le labbra morte mettendo in mostra i denti bianchi vedete ha continuato vedete sono più aguzzi di prima con questo e questo e ha sfiorato i due canini superiore e inferiore si possono morsicare i bambini piccoli siete ora giunto alla convinzione amico John ancora una volta mi si è risvegliata l'ostilità polemica non ero in grado di accettare un'idea così sconvolgente come quella che mi proponeva così nel tentativo di controbattere tentativo di cui mi vergognavo già in quel momento stesso ho detto possono averla rimessa qui dalla notte scorsa davvero e se è così chi può essere stato non so qualcuno eppure è morta da una settimana la maggior parte delle persone non dovrebbe avere questo aspetto dopo tanto tempo non sapevo cosa rispondergli così ho taciuto Van Helsing pareva non far caso al mio silenzio o comunque non mostrava segni di dispiacere né di trionfo esaminava attentamente il volto della morta le ha sollevato le palpebre per guardarle gli occhi e le ha di nuovo aperto le labbra per osservare i denti poi si è rivolto a me dicendo c'è una cosa qui diversa da tutto quanto è stato registrato c'è una duplice vita che non è come il solito è stata morsa dal vampiro quando era in trance sonnambula o vi sorprendete non lo sapevate amico John ma saprete tutto dopo e in trance per lui era più facile venire a succhiarle il sangue in trance è morta e in trance è una non morta è in questo che si distingue da tutti gli altri di solito quando i non morti dormono in casa e parlando con un ampio gesto del braccio ha indicato quella che per il vampiro è la casa la loro faccia mostra quello che sono ma questa che era così dolce quando saranno morta tornerà a nulla dei morti comuni non c'è niente di maligno qui vedete e così mi è più difficile ucciderla nel sonno questo mi ha raggelato il sangue e mi sono reso conto che cominciavo ad accettare le teorie di Van Helsing ma se era davvero morta perché quel terrore ha l'idea di ucciderla il professore mi ha guardato e deve aver notato il cambiamento sul mio viso perché ha detto quasi con gioia ah ora mi credete ho risposto non mettetemi così alle strette sono disposto ad accettare l'idea come intendete compiere quest'opera orribile le taglierò la testa e le riempirò la bocca d'aglio e le conficherò un palo nel suo corpo sono rabbrividito al pensiero di tali mutilazioni sul corpo della donna che avevo amato eppure la sensazione non è stata così forte come mi attendevo incominciavo infatti a inorridire alla presenza di questo essere questa non morta come la chiamava Van Helsing e a detestarla è possibile che l'amore sia tutto soggettivo o tutto oggettivo ho atteso a lungo che Van Helsing cominciasse ma pareva immerso nei suoi pensieri poi ha chiuso di scatto la borsa e ha detto ci ho pensato e ho deciso cosa è meglio fare se seguissi semplicemente la mia inclinazione farei adesso in questo momento quello che va fatto ma ci sono altre cose da seguire e cose che sono mille volte più difficili perché non le conosciamo questo è semplice Lucy non ha ancora preso la vita di nessuno ma è questione di tempo e agire ora la metterebbe fuori pericolo per sempre ma poi potremmo aver bisogno di Arthur e come gli diremo tutto questo se voi che avete visto le ferite sulla gola di Lucy e avete visto simili ferite su quella del bambino all'ospedale se voi che avete visto la bara vuota ieri notte e l'avete vista piena oggi con una donna che non è cambiata se non per aver acquistato più colore e bellezza nella settimana da che è morta se voi che sapete questo e sapete della figura in bianco che la notte scorsa ha portato il bambino nel cimitero non avete creduto ai vostri sensi allora come posso aspettarmi che Arthur che non sa nulla di queste cose creda ha dubitato di me quando l'avevo allontanato dal bacio di Lucy che stava morendo so che mi ha perdonato per aver impedito per qualche mia idea errata di darle l'addio come avrebbe dovuto e potrebbe pensare che per qualche idea sbagliata questa donna sia stata sepolta viva e che al colmo dell'errore l'abbiamo ammazzata e allora potrebbe sostenere che siamo stati noi dalla parte dell'errore ad averla uccisa con le nostre idee e così sarà molto infelice per sempre ma non potrà mai esserne sicuro e quella è la cosa peggiore e a volte penserà che la donna che amava è stata sepolta viva e quello dipingerà nei suoi sogni gli orrori di ciò che deve aver sofferto e di nuovo potrà pensare che avevamo ragione e che la sua amata era dopo tutto una non morta no no gliel'ho detto una volta e da quella volta ho imparato molte cose ora siccome so che tutto questo è vero so centomila volte meglio che deve attraversare le acque amare per giungere alle dolci poveretto dovrà passare un'ora di quelle che fanno sembrare nera anche la faccia del cielo allora potremo fare quel che va fatto e dargli pace ho deciso andiamo per questa sera voi tornate a casa nel vostro manicomio e controllate che vada tutto bene io passerò la notte qui in questo cimitero a modo mio domani notte verrete da me al berkeley hotel alle 10 in punto manderò a dire ad arthur che venga anche lui e anche quel gentile giovanotto americano che ha dato il suo sangue più tardi avremo lavoro da fare vengo con voi fino a piccadilli a cenare perché devo essere di ritorno qui prima del tramonto così abbiamo chiuso la tomba e siamo venuti via scavalcando il muro del cimitero in presa non difficile e siamo tornati a piccadilli nota lasciata da van helsing nel suo baule al berkeley hotel indirizzata al dottor john seward non consegnata 27 settembre amico john vi scrivo questo nel caso dovesse succedere qualcosa vado a fare la guardia in quel cimitero mi piacerebbe che la non morta miss lucy non uscisse questa note così che domani note avesse più voglia perciò metterò delle cose che lei non ama aglio e il crocifisso e sigillerò la porta della tomba è giovane come non morta e rinuncerà inoltre servono soltanto a non farla uscire potrebbero non bastare per non farla entrare perché allora il non morto è disperato e deve trovare la linea di minor resistenza qualunque essa sia sarò a portata di mano tutta la notte dal tramonto all'alba e se c'è qualcosa da imparare la imparerò non ho paura per Miss Lucy né di lei ma per quell'altro che ha fatto di lei una non morta ora lui ha il potere di trovare la sua tomba e prendervi rifugio lui è astuto come so da Mr. Jonathan e dal modo in cui si è preso gioco di noi quando ci contendeva la vita di Miss Lucy e noi abbiamo perso e in molti modi sono vigorosi i non morti nella sua mano ha sempre la forza di 20 uomini anche noi quattro che abbiamo dato la nostra forza a Miss Lucy l'abbiamo data a lui inoltre può chiamare il suo lupo e chissà che altro così se venisse lì questa notte mi troverebbe ma nessun altro mi troverà finché non sarà troppo tardi ma forse non proverà a venire in quel posto non c'è ragione perché venga il suo terreno di caccia è più pieno di selvaggina del cimitero in cui dorme la non morta e un vecchio sta di guardia quindi scrivo questo nel caso prendete le carte che sono con questa nota i diari di Harker e il resto e leggeteli e poi trovate il grande non morto e tagliategli la testa e bruciategli il cuore o trafiggetelo con un paletto così che il mondo abbia riposo da lui se così dovrà essere addio fa Nelsing dal diario del dottor Seward 28 settembre è meraviglioso cosa può fare una bella notte di sonno ieri ero quasi pronto ad accettare le mostruose idee di Van Helsing ma ora mi appaiono orrende un vero e proprio oltraggio al buonsenso non ho dubbi che lui ci creda mi chiedo se la sua mente non stia vacillando ci deve sicuramente essere una spiegazione razionale per tutte queste cose misteriose è possibile che sia stato il professore stesso a fare tutto ha un'intelligenza così straordinaria che se uscisse di senno riuscirebbe a perseguire una sua idea fissa in modo meraviglioso sono restiò a pensarlo e sarebbe davvero altrettanto sorprendente scoprire che Van Helsing è pazzo ma comunque lo osserverò con cura potrei fare un po' di luce sul mistero 29 settembre mattina la notte scorsa poco prima delle 10 Arthur e Quincy sono arrivati nella camera di Van Helsing il professore ci ha detto tutto quello che voleva facessimo rivolgendosi in modo particolare ad Arthur come se tutta la nostra volontà fosse concentrata nella sua ha cominciato a dire che sperava che tutti saremmo stati con lui perché ha detto c'è un compito mortalmente serio da portare a termine sicuramente sarete stato sorpreso della mia lettera questa domanda era diretta espressamente a Lord Godalming sì mi ha turbato per qualche tempo la mia casa è stata colpita da così tanti guai nell'ultimo periodo che ne farei volentieri a meno ero anche incuriosito da quello che volevate dire ne abbiamo parlato insieme Quincy e io ma più ne parlavamo più eravamo perplessi e adesso per quanto mi riguarda posso dire che non sono riuscito a cavare un ragno dal buco da quello che dicevate neanch'io ha aggiunto Quincy laconicamente ha detto il professore allora voi due siete più vicini al principio di quanto non sia l'amico John qui che deve tornare indietro di un bel po' prima di poter finalmente incominciare era evidente che aveva capito il ritorno al mio vecchio scetticismo senza che io dovessi dire neppure una parola poi rivolgendosi agli altri due ha detto con profonda serietà foglio la vostra autorizzazione per fare quello che ritengo bene questa note è molto da chiedere lo so e quando saprete che cosa propongo di fare solo allora saprete quanto vi sto chiedendo per questo vi sto domandando di promettere al buio affinché dopo per quanto possiate essere adirati con me per un poco e non posso nascondermi la possibilità che questo succeda non vi rimproverete di nulla questo si dice parlare chiaro è intervenuto Quincy mi fido del professore non capisco dove stia andando a parare ma giuro che è onesto e questo mi basta vi ringrazio signore ha replicato Van Helsing orgoglioso sono onorato di contare su di voi quale amico fidato e questo sostegno mi è caro gli ha teso la mano che Quincy ha stretto poi ha parlato Arthur dottor Van Helsing non mi piace comprare un maiale nel sacco come si dice in Scozia e se è qualcosa che tocca il mio onore di gentiluomo o la mia fede di cristiano non posso impegnarmi se mi promettete che quello che intendete fare non viola nessuna delle due cose allora posso darvi immediatamente il mio consenso anche se parola mia non capisco proprio che cosa abbiate in mente accetto la vostra limitazione ha detto Van Helsing e vi chiedo soltanto che se riterrete necessario condannare qualsiasi mia azione la considererete prima bene per accettarvi che non violi le vostre riserve d'accordo ha detto Arthur lo trovo giusto e adesso che abbiamo finito con i pur parler posso domandarvi che cosa dobbiamo fare voglio che veniate con me e in segreto al cimitero di Kinstead il volto di Arthur si è trasformato mentre diceva sorpreso dove è sepolta la povera Lucy il professore ha annuito e Arthur ha continuato e una volta lì che entriate nella tumba Arthur si è alzato professore parlate sul serio o si tratta di uno scherzo di cattivo gusto perdonatemi vedo che parlate seriamente si è seduto di nuovo ma ho notato che era rigido e altero come chi si aggrappia la sua dignità dopo un attimo di silenzio Arthur ha chiesto e una volta nella tomba che apriate la para questo è troppo ha detto a dirato scattando in piedi sono disposto a essere paziente per tutto ciò che è ragionevole ma in questa in questa profanazione della tomba di una che l'indignazione lo soffocava il professore l'ha guardato impietosito se solo potessi risparmiarvi una sofferenza mio povero amico Dio sa se non la farei ma questa note i nostri piedi devono percorrere il sentiero spinoso o in futuro e per sempre i piedi che amate dovranno percorrere sentieri di fiamme Arthur ha sollevato il volto bianco e teso dicendo badate bene a quel che dite signore badate soltanto non sarebbe meglio ascoltare quello che ho da dire ha replicato Van Helsing almeno conoscerete i limiti delle mie intenzioni posso continuare è giusto si è intromesso Morris dopo una pausa Van Helsing ha continuato con evidente sforzo Miss Lucy è morta non è vero sì dunque non si può farle del male ma se non fosse morta Arthur si è alzato in piedi santo cielo ha esclamato cosa volete dire è stato fatto qualche errore è stata sepolta viva gemeva di un'angoscia che neppure la speranza poteva alleviare non ho detto non ho detto che fosse viva figliolo non credo che lo sia non andrò oltre nel sostenere che potrebbe essere una non morta una non morta non viva che cosa volete dire è tutto un incubo o che cosa ci sono misteri che gli uomini possono soltanto provare a immaginare che di secolo in secolo possono risolvere solo in parte credetemi siamo sulla soglia di uno di questi misteri ma non l'ho ancora risolto posso tagliare la testa della defunta Miss Lucy santi numi no ha esclamato Arthur in una tempesta di passione per niente al mondo consentirò a mutilare la sua salma dottor Van Helsing mi state sottoponendo una prova eccessiva che cosa vi ho fatto perché mi dobbiate torturare così che cosa ha fatto quella povera ragazza perché vogliate gettare un tale disonore sulla sua tomba siete pazzo a parlare di queste cose o sono io pazzo ad ascoltarvi non osate neppure più pensare una simile profanazione non darò il mio consenso a nulla di quello che fate ho il dovere di proteggere la sua tomba da questo oltraggio e per Dio lo farò Van Helsing si è alzato dal posto dove era stato seduto e ha detto con voce grave e severa Lord Kodalming anch'io ho un dovere da combire un dovere nei confronti degli altri un dovere nei vostri confronti un dovere nei confronti della morta e per Dio lo farò vi sto soltanto chiedendo di venire con me ora che possiate guardare e ascoltare e se la prossima volta che vi farò questa richiesta non sarete più desideroso di me di compierla allora farò il mio dovere il dovere che riterrò sia il mio e poi per seguire i desideri di mi Lord mi metterò a vostra disposizione per rendervene conto quando e come vorrete la sua voce si è incrinata e poi ha proseguito con un tono pieno di compassione ma vi scongiuro non persistete nella vostra ira verso di me in una lunga vita di azioni non sempre piacevoli da compiere e che qualche volta mi hanno spezzato il cuore non ho mai avuto un compito gravoso come questo credetemi che se verrà il momento in cui cambierete idea su di me un vostro sguardo spazzerà via la tristezza di quest'ora perché farei tutto ciò che un uomo può fare per risparmiarvi il dolore pensate solo perché dovrei dare a me stesso tanta fatica e tanta pena vengo qui dalla mia terra per fare quello che posso di buono prima di tutto per fare piacere al mio amico John e poi per aiutare una dolce signorina che anch'io col tempo sono arrivato ad amare per lei mi vergogno ad ammetterlo ma lo dico per gentilezza ho dato quel che voi davate il sangue delle mie vene ho dato io che non ero come voi il suo innamorato ma solo il suo medico e amico gli ho dato le mie notti e i miei giorni prima della morte e dopo la morte e se la mia morte le potesse servire anche ora che lei è la morta non morta potrebbe prenderla liberamente ha detto ciò con una fierezza molto posata e mite e Arthur ne è stato molto colpito ha preso la mano del vecchio e con voce rotta ha detto è difficile pensarci e non riesco a capire ma almeno verrò con voi e aspetterò a capire Grazie.